L'arteria. Se la corrente ti sta portando dove vuoi andare, non discutere. Desnef Senior. Gli occhi di Morrison rimasero fissi per lo più sulla nicchia di fronte, sul computer e sul software che aveva inserito. Il software. L'unico oggetto materiale del suo passato. Il passato. Non erano trascorse nemmeno cento ore da quando si era quasi appisolato durante una scialba relazione l'ultimo giorno del convegno e si era chiesto se esistesse un modo per salvare la propria posizione all'università. E adesso, in quelle cento ore oggettive, erano trascorsi cento anni soggettivi e lui non riusciva più a visualizzare con chiarezza l'università né l'esistenza triste e frustrante che aveva condotto in quel posto negli ultimi tempi. Cento ore fa avrebbe dato parecchio per sottrarsi a quel ciclo snervante di sforzi inutili. Adesso avrebbe dato molto di più per rientrare in quel ciclo, per svegliarsi e scoprire che le ultime cento ore o cento anni non erano mai esistite. Guardò attraverso la parete trasparente della nave, accanto al suo gomito destro, tenendo gli occhi socchiusi quasi fosse restio a vedere qualcosa. Era restio. Non voleva vedere nulla più grande del normale. Voleva sperare fino in fondo che il processo di miniaturizzazione fosse fallito o che si fosse trattato in qualche modo di un'unica enorme illusione. Ma un uomo entrò nel suo campo visivo, alto più di due metri. Però poteva essere quella alla sua altezza reale. Apparvero altre persone. Impossibile che fossero tutti così alti. Si rannicchiò sul sedile e non guardò più. Era stato sufficiente. Sapeva che il processo di miniaturizzazione era iniziato e procedeva inesorabile. Il silenzio all'interno della nave era opprimente. Insopportabile. Morrison doveva sentire una voce, almeno la propria. La Kalinin, alla sua sinistra, era la persona con cui avrebbe potuto parlare più facilmente e forse rappresentava la scelta migliore. Dato che non voleva l'allegria fuori luogo di Deznev, né la concentrazione a senso unico della Boranova, né la serietà tenebrosa di Konev, Morrison optò per la tacita sofferenza della Kalinin. Disse. Com'è che entreremo nel corpo di Shapirov, Sofia? Dapprima sembrò che lei non avesse sentito, poi mosse le labbra pallide e mormorò. Un'iniezione. Un attimo dopo, quasi le costasse uno sforzo enorme, la Kalinin evidentemente decise che doveva mostrarsi socievole e continuò. Quando saremo abbastanza piccoli, verremo messi in un ago ipodermico e iniettati nella carotide sinistra dell'accademico Shapirov. Saremo sballottati come dadi, disse Morrison sgomento. Niente affatto. Non sarà un'operazione semplice, ma i problemi sono stati esaminati e risolti. E chi te lo dice? Questa cosa non è mai stata fatta in precedenza. Mai in una nave, mai in un ago ipodermico, mai penetrando in un corpo umano. È vero, ammise la Kalinin. Ma problemi di questo tipo, molto più semplici e naturalmente, sono oggetto di esame da parecchio tempo. E negli ultimi giorni abbiamo avuto dei lunghi seminari su questa missione. Non penserai che gli annunci di Arcadi prima dell'inizio della miniaturizzazione, quelli a proposito della carta igienica e via dicendo, fossero una novità per noi, eh? Erano tutte cose sentite e strasentite. È stato fatto per te, dal momento che non hai mai partecipato a nessun seminario e anche per Arcadi, dato che gli piace molto essere al centro dell'attenzione. Allora dimmi cosa succederà. Ti spiegherò le cose via via che accadranno. Per ora non faremo nulla. In attesa di essere a livelli millimetrici, occorreranno altri venti minuti, ma non andremo sempre così ad agio. Più diminuiremo, più aumenterà la velocità di miniaturizzazione. Hai avvertito qualche effetto sgradevole? Morrison sottrasse mentalmente il battito accelerato del cuore e l'ansimare dei polmoni e rispose, Nessuno. Poi, giudicandola una risposta troppo ottimistica, aggiunse, Almeno per ora. Beh, allora fece la calinina e chiuse gli occhi, quasi a indicare che era stanca di parlare. Non sembrava un'idea malvagia, riflette Morrison, e chiuse gli occhi anche lui. Forse si era proprio addormentato, o forse si era semplicemente chiuso in uno stato protettivo di semicoscienza, escludendo la realtà, perché aveva l'impressione che non fosse trascorso un solo istante quando fu riportato in sé da una lieve scossa. Spalancò gli occhi e si ritrovò un paio di centimetri sopra il sedile. Aveva la strana sensazione di spostarsi seguendo ogni minima corrente d'aria. La Boranova si avvicinò al suo sedile e da dietro gli appoggiò le mani sulle spalle. Lo spinse in basso, ad agio, e disse Albert, allaccia la cintura. Fagli vedere, Sofia. Mi spiace, Albert. Avremmo dovuto spiegarti bene tutto prima di iniziare, ma avevamo poco tempo e tu eri già abbastanza nervoso. Non volevamo frastornarti del tutto, sommergendoti di informazioni. Con sua grande sorpresa, Morrison non si era sentito frastornato. Anzi, gli era piaciuta la sensazione di sedere a mezz'aria. Nacalinin toccò un punto del bordo del sedile tra le ginocchia e la cintura che le stringeva ai fianchi guizzò via. Quella cintura non c'era quando aveva chiuso gli occhi. Morrison ne era sicuro e adesso era scomparsa di nuovo in una cavità sulla sinistra del sedile. Nacalinin si girò verso Morrison dicendo «Ecco, qui a sinistra c'è il leggettore della tua cintura». Morrison notò che, ora che non c'era nulla a trattenerla, Sofia si era staccata leggermente dal sedile nell'accostarglisi. Sofia premette l'eggettore, un cerchio oscuro su uno sfondo chiaro e una rete flessibile di plastica trasparente schizzò fuori con un sibilo. Si avvolse attorno a Morrison e si incuneò con una punta tripla nel lato opposto del sedile. Morrison si ritrovò bloccato, elasticamente, in una specie di merletto. «Se vuoi liberarti, qui c'è il tasto di sganciamento proprio tra le ginocchia». Nacalinin si chinò ulteriormente per indicargli il punto e Morrison trovò gradevole la pressione di quel corpo femminile sul suo. Sofia parve non accorgersene e, completato il compito, tornò a drezzarsi sul sedile e riallacciò la cintura. Morrison si guardò attorno, alzandosi e sporgendosi nei limiti consentiti dalla cintura e sbirciò a fatica oltre le spalle di Konef. Tutti e cinque avevano la cintura allacciata. Disse, «Siamo talmente ridotti che pesiamo pochissimo, vero?» «Tu adesso pesi circa 25 milligrammi», disse la Boranova. «Quindi in pratica puoi considerarti privo di peso. Inoltre, stanno sollevando la nave». Morrison fissò la Kalinin con aria accusatoria e lei si strense nelle spalle giustificandosi. «Ti ho detto che avrei descritto ogni fase man mano che si svolgeva, ma mi è sembrato che stessi dormendo e ho pensato bene di non disturbarti». «La scossa della pinza ti ha svegliato e ti ha sbalzato dal sedile». «La pinza?» Morrison guardò di lato. Aveva percepito due ombre laterali, ma le pareti in teoria erano opache, così non aveva badato a quella sensazione. Ora, ad un tratto, ricordò che le pareti della nave erano trasparenti e che la luce su ambedue i lati era bloccata. «La Kalinin annui. Una pinza ci sta stringendo e ci tiene fermi per evitarci sballottamenti inutili. Sembra enorme, ma è piccolissima e imbottita. E ci stanno mettendo in un minuscolo contenitore di soluzione salina. Inoltre, siamo trattenuti anche da un flusso d'aria risucchiato verso l'alto in un beccuccio smussato. Il getto ci spinge contro il beccuccio, così, calcolando la pinza, siamo bloccati da tre parti». Morrison guardò ancora fuori. Gli oggetti esterni, che avrebbero potuto essere visibili attraverso i settori di parete non ostruiti dalla pinza o dal beccuccio, non erano comunque visibili. Morrison scorgeva solo un alternarsi di luci e ombre e si rese conto che le cose che si trovavano all'esterno erano troppo grandi perché i suoi occhi microscopici potessero distinguerle chiaramente. Se i fotoni che giungevano alla nave non fossero stati miniaturizzati anch'essi entrando nel campo, si sarebbero comportati come onde radio lunghe e lui non avrebbe visto assolutamente nulla. Sentì che la nave all'improvviso vibrava ancora quando la liberarono dalla stretta della pinza, anche se in realtà non vide il movimento. La pinza era scomparsa istantaneamente. Era stata un'azione troppo rapida per le dimensioni di Morrison. Poi si sentì sollevare leggermente contro la cintura che lo fasciava e lo interpretò come un movimento verso il basso della nave. Subito dopo seguì una lieve sensazione di ballonzolio. Dezenov indicò una linea orizzontale scura che saliva e scendeva ad agio contro la fiancata della nave e disse soddisfatto. Ecco la superficie dell'acqua. Mi aspettavo delle scosse peggiori. A quanto pare qui ci sono degli ingegneri bravi quasi quanto me. La Boranova osservò. A dire il vero l'ingegneria c'entra ben poco. A stabilizzarci è la tensione superficiale. Agirà solo finché saremo sulla superficie di un fluido. Quando saremo nel corpo di Shapirov il suo effetto cesserà. Ma questo ondeggiamento, Natasha, questo movimento su e giù, influisce? La Boranova stava studiando i suoi strumenti. In particolare un piccolo schermo su cui appariva in continuazione una linea orizzontale senza spostarsi dal centro. Morrison, trezzandosi e contorcendosi dolorosamente, riuscì a scorgere la pena. La Boranova disse, saldo come la tua mano quando sei sobrio, Arcadi. Niente di meglio, eh? La risata di Dezeneff echeggiò. Sembrava risollevato, pensò inquieto Morrison e si chiese a cosa si fosse riferito Dezeneff quando aveva accennato a un'eventuale influenza. E ora che succede? Domandò. Conef parlò per la prima volta, dall'inizio della miniaturizzazione a quanto ricordava Morrison. Bisogna spiegarti proprio tutto? Morrison replicò con vigore. Sì, a te hanno spiegato tutto, perché non dovrebbero spiegarlo anche a me? La Boranova intervenne pacata. Albert ha perfettamente ragione, Yuri. Per favore, controllati e sii ragionevole. Tra poco avrai bisogno del suo aiuto e io spero che non sia così sgarbato da risponderti in malo modo. Le spalle di Conef si contrassero, ma dalla sua bocca non uscì una parola. La Boranova disse. Il cilindro di una siringa ipodermica ci raccoglierà Albert. L'operazione è telecomandata. E come se il cilindro aspettasse quelle parole, un'ombra le avvolse alle spalle, inghiottandoli quasi subito. Solo di fronte c'era ancora un cerchio di luce, ma scomparve un attimo dopo. La Boranova spiegò con calma. L'ago è stato fissato. Ora dovremo aspettare un po'. Nell'interno della nave, che era diventato piuttosto buio, da un tratto si diffuse una luce bianca, tenue e riposante. E la Boranova disse. D'ora in poi non avremo più luce dall'esterno fino al termine del viaggio. Dovremo contare sulla nostra illuminazione interna, Albert. Perplesso, Morrison si guardò attorno in circa della sorgente luminosa. Sembrava nelle pareti stesse. La Kalinin, interpretando il suo sguardo, disse Elettroluminescenza. Ma la fonte energetica? Abbiamo tre motori a microfusione, rispose Sofia orgogliosa. Chi migliori del mondo, nel loro genere, del mondo? Morrison non lasciò perdere. Provava l'impulso di parlare dei motori a microfusione americani degli ultimi vascelle spaziali, ma a che sarebbe servito? Un giorno il mondo si sarebbe liberato delle sue manie nazionalistiche, però quel giorno non era ancora arrivato. E purché tali manie non si traducessero in violenza o minacce di violenza, la situazione era tollerabile. Dezenef, appoggiandosi allo schienale con le braccia incrociate dietro al collo e rivolgendosi apparentemente alla parete illuminata di fronte a sé, disse «Un giorno ci basterà espandere una siringa ipodermica, sistemarla attorno a una nave di dimensioni normali e miniaturizzare il tutto. Così non ci saranno queste manovre microscopiche». Morrison chiese. «Ma sapete fare anche il processo inverso? Come lo chiamate? Massimazione? Gigantizzazione?» «Non lo chiamiamo in nessun modo», intervenne Brusco Konef. «Perché è impossibile». «Beh, forse un giorno, però no», ribadì Konef. «Mai! È impossibile fisicamente! Per miniaturizzare occorre parecchia energia, per massimizzare una quantità di energia più che infinita. Anche collegandosi alla relatività? Anche così». Dezenef fece un suono poco elegante con le labbra. «Questo per il tuo fisicamente è impossibile! Un giorno vedrai!» Konef si chiuse in un silenzio indignato. Morrison domandò. «Cosa stiamo aspettando? Che finiscano di preparare Shapirov, poi che avvicini Nolago e lo inseriscano nella carotide», rispose la Boranova. Mentre parlava, la nave fu scossa in avanti. «Ci siamo?» chiese Morrison. «Non ancora. Stavano solo togliendo le bolle d'aria. Non preoccuparti, Albert. Lo sapremo». «Come?» «Perbacco, ce lo diranno. Arcadi è in contatto con loro. Non è difficile. I fotoni delle onde radio si miniaturizzano passando dalla acqua e si deminiaturizzano andando nella direzione opposta. L'energia assorbita è pochissima, addirittura minore di quella dell'illuminazione». Dezenev annunciò «È ora di portarci alla base del lago!» «Procedi allora», fece la Boranova. Tanto vale collaudare la forza motrice in miniaturizzazione. Ci fu un brontolio iniziale che crebbe di intensità e poi si abbassò, stabilizzandosi in un ronzio sommesso. Morrison girò la testa all'indietro il più possibile per guardare, premendo contro la cintura. L'acqua alle loro spalle ribolliva come se ad agitarla ci fossero delle ruote a pale. In assenza di punti di riferimento esterni, era impossibile stabilire a che velocità si stessero muovendo, ma Morrison sembrò che stessero avanzando lentamente. «Stiamo andando forte?» chiese. «No, ma non è necessario», rispose la Boranova. «Inutile sprecare energia per cercare di andare più rapidi. Dopotutto stiamo vincendo la resistenza di molecole di dimensioni normali. Il che significa un'alta viscosità per noi. Coi motori a microfusione? Abbiamo molte esigenze energetiche per questioni diverse dalla propulsione. Mi chiedevo quanto impiegheremo per raggiungere i punti chiave del cervello. Né quel che mi chiedo anch'io, credimi», disse la Boranova Arcigna. «Comunque avremo una corrente arteriosa che ci porterà il più vicino possibile. Dezenev, strello, ci siamo, vedete!» Di fronte, nel raggio luminoso anteriore della nave, si scorgeva un cerchio. Morrison non ebbe difficoltà a tradurlo nella base del lago. All'altro capo di quel lago avrebbero trovato il flusso sanguigno di Piotr Shapirov. Sarebbero penetrati in un corpo umano. Morrison disse, «Siamo troppo grandi per passare nel lago, Natalia!» Prova uno strano amalgama di emozioni a quel pensiero. Soprattutto un senso di speranza. Forse l'intero esperimento era fallito. Forse non potevano rimpicciolirsi di più e non erano ancora abbastanza piccoli. Sarebbero dovuti entrare in deminaturizzazione e tutto sarebbe finito. Sotto quella considerazione, nascosta in profondità, c'era una traccia di delusione. Arrivato a quel punto, non valeva la pena di entrare nel corpo e vivere l'esperienza di trovarsi in una cellula nervosa. Normalmente, dato che non era né un temerario né un intrepido, Morrison si sarebbe ritratto inorridito di fronte a quel pensiero. Morrison si ritrasse inorridito, ma visto che era stato miniaturizzato, che era arrivato a quel punto, che finora era sopravvissuto alla paura, non poteva darsi che in fondo desiderasse spingersi oltre. Ma dopo quegli impulsi contraddittori affiorò un po' di realismo. Sicuramente quelle persone non erano così sciocche da usare una nave che non poteva essere ridotta alle dimensioni adatte per passare nel lago in cui doveva passare. Da persone tanto intelligenti, era assurdo aspettarsi un'idiozia del genere. E la Boranova, quasi fosse sintonizzata sui suoi pensieri, disse con aria indifferente. Sì, siamo troppo grandi adesso, ma provvederemo a diminuire. Il mio compito a bordo è proprio questo. Il tuo compito? Ripete Morrison perplesso. Certo, finora siamo stati miniaturizzati dal nostro apparato di miniaturizzazione centrale. Ora le regolazioni finali di precisione le faccio io. La Kalini mormorò. Ecco uno dei motivi per cui dobbiamo risparmiare il più possibile la nostra energia di microfusione. Morrison spostò lo sguardo dall'una all'altra donna. Abbiamo abbastanza energia a bordo per un'ulteriore miniaturizzazione. Credevo che occorresse una grande quantità di energia per... Albert, l'interruppe la Boranova. Se la gravitazione fosse quantizzata, occorrerebbe la stessa enorme quantità di energia per ridurre una massa a metà, indipendentemente dal valore originale di tale massa. Per dimezzare la massa di un topo, sarebbe necessaria la stessa energia richiesta per dimezzare la massa di un elefante. Ma l'interazione gravitazionale non è quantizzata e quindi non lo è nemmeno la perdita di massa. Questo significa che l'energia necessaria per la perdita di massa decresce con la perdita, e non del tutto proporzionalmente, ma abbastanza. Ora abbiamo una massa talmente ridotta che occorre molto meno energia per continuare la miniaturizzazione. Morrison disse Ma dal momento che non avete mai miniaturizzato a simili livelli un oggetto grande come questa nave, vi basate sui dati ricavati da un livello dimensionale molto diverso. Eh, non stanno parlando con un poppante. Pensò indignato. Sono un loro pari. Sì, rispose la Boranova, è un rischio che corriamo. Ci auguriamo che la nostra estrapolazione regga e non capiti qualcosa di nuovo ed imprevisto. Del resto, viviamo in un universo che di tanto in tanto ci pone di fronte a delle incertezze. È inevitabile. Ma se qualcosa va storto, abbiamo di fronte la morte. Non lo sapevi? Replicò calma la Boranova. La tua inquietudine per questo viaggio fantastico era fine a se stessa. Lo facevi semplicemente per il gusto di essere inquieto. Ma non siamo i suoli a rischiare. Se le cose andranno storte e l'energia di miniaturizzazione si scaricherà, oltre a distruggere noi, potrà danneggiare in parte anche la grotta. Sicuramente molte persone normali là fuori hanno il fiato sospeso e si chiedono se sopravvivranno a un'eventuale esplosione. Vedi, Albert, perfino quelli che non corrono i rischi diretti della miniaturizzazione non sono completamente al sicuro. Dezenev si voltò con un ampio sorriso. Morrison notò che un suo molare superiore era incapsulato e spiccava tra gli altri denti piuttosto ingialliti. Dezenev disse Amico mio, concentrati su questo pensiero. Se qualcosa va storto, non lo saprai mai. Mio padre diceva Dato che tutti dobbiamo morire, cosa possiamo chiedere di meglio se non una morte rapida e improvvisa? Morrison osservò Giulio Cesare ha detto la stessa cosa. Dezenev ribatte Sì, però noi non avremo nemmeno il tempo di dire È tutto brutto! Non morirà nessuno, intervenne Brusco Conef Ed è sciocco parlarne. Le equazioni sono esatte Ma, fece Dezenev C'era un'epoca di superstizione in cui la gente contava sulla protezione di Dio Grazie alle equazioni adesso possiamo contare sulle equazioni Non sei spiritoso disse Conef E infatti non stavo facendo lo spiritoso Yuri e Natasha là fuori sono pronti Bene, allora non ci sarà più bisogno di perdersi in congetture disse la baraba Si va Morrison si aggrappò sedile preparandosi ma non accadde nulla Di fronte, però, il cerchio che aveva scorto si espanse e arretrò lentamente diventando sempre più sfocato poi non fu più possibile distinguerlo Ci stiamo muovendo chiese automaticamente Morrison Era il tipo di domanda che non si poteva fare a meno di formulare anche se la risposta era ovvia Si, disse la Kalinin E non stiamo consumando energia Non stiamo lottando contro le molecole d'acqua Ci trasporta il flusso d'acqua nel lago mentre il cilindro preme lentamente Morrison stava contando tra sé Era più efficace tenere occupata la mente così che osservando la seconda lancetta dell'orologio Quando arrivò a cento, disse Quanto ci vorrà? Quanto ci vorrà per cosa? Domandò la Kalinin Quando è che raggiungeremo il flusso sanguigno? Dezenef disse Tra qualche minuto Stanno procedendo con estrema lentezza nel caso ci fosse qualche microturbolenza Come disse mio padre una volta È più lento ma più sicuro strisciare lungo la discesa che saltare dal dirupo Morrison sbuffò Ci stiamo ancora riducendo? Laboranova gli rispose da dietro No, siamo a livello cellulare ed è più che sufficiente per le nostre esigenze immediate Morrison stupito si accorse che stava tremando In fin dei conti stavano accadendo tante cose e c'erano tante cose nuove a cui pensare che lui aveva accantonato in qualche angolo il senso di terrore Ma lui non era terrorizzato almeno non a uno stadio acuto eppure chissà perché continuava a tremare Cercò di rilassarsi con uno sforzo di volontà Provò ad abbandonarsi ma per farlo non era sufficiente la forza di volontà Occorreva anche la trazione gravitazionale che lì era inesistente Chiuse gli occhi mi rallentò il ritmo respiratorio Provò addirittura a canticchiare tra sé il coro della nona sinfonia di Beethoven Infine si sentì costretto a far notare il problema Scusate ma a quanto pare sto tremando Desnev soffocò una risatina Mi chiedevo proprio chi sarebbe stato il primo porlorne La Boranova disse Non sei tu Albert Tutti stiamo tremando leggermente E la nave? Subito Morrison si lasciò prendere dalla paura Ha qualcosa che non va? No Semplice questione di dimensioni E' abbastanza piccola da sentire l'effetto del moto browniano Sai cos'è no? Era una pura domanda retorica La Boranova sapeva sicuramente che anche uno studente liceale conosceva il significato dell'espressione moto browniano Tuttavia Morrison si ritrovò a spiegarselo mentalmente non in parole ma in un guizzo concettuale Ogni oggetto in sospensione in un liquido è bombardato da ogni parte dagli atomi del liquido Queste particelle colpiscono a caso quindi in modo irregolare ma l'irregolarità è talmente piccola paragonata al totale da risultare inosservabile e da non avere effetti misurabili Via via che un oggetto diventa più piccolo però l'irregolarità aumenta tra il numero sempre minore di particelle che colpiscono l'oggetto in un dato tempo Adesso la nave era abbastanza piccola da reagire ai lievi eccessi delle collisioni prima in una direzione poi in un'altra in modo casuale di conseguenza si muoveva leggermente scossa da un tremito irregolare Morrison disse si avrei dovuto pensarci peggiorerà se continueremo a rimpicciolire per la verità no replicò la paranova ci saranno altri effetti compensatori non ne conosco nessuno Morrison corrugò la fronte comunque ci saranno affidati alle equazioni disse Deznev ostentando un tono pio le equazioni sono tutto Morrison disse questo movimento potrebbe causarci il mal di mare eh certo riconobbe la baranova ma c'è una terapia chimica antinausea abbiamo ingerito la stessa sostanza chimica che i cosmonauti usano per il mal di spazio io no sbottò Morrison indignato non solo non ho preso quella sostanza non sono stato nemmeno avvisato ti abbiamo parlato il meno possibile dei disagi e dei pericoli per non allarmarti troppo Albert e per quanto riguarda la terapia hai ingerito la tua dose a colazione come ti senti Morrison che aveva cominciato ad avvertire un certo fastidio allo stomaco sentendo parlare di nausea decise che stava benissimo sorprendente la tirannia esercitata dalla mente sul corpo riflette sottovoce rispose in condizioni discrete bene disse la Boranova perché adesso siamo nel flusso sanguigno dell'accademico Shapirov Morrison guardò attraverso la parete trasparente della nave sangue il suo primo impulso fu quello di aspettarsi qualcosa di rosso che altro aguzzò lo sguardo stringendo leggermente gli occhi ma non riuscì a vedere nulla nemmeno nella luce scintillante della nave sembrava quasi di trovarsi su una barca e di andare alla deriva sulla superficie calma di uno stagno in una notte buia e nuvolosa i pensieri di Morrison cambiarono direzione di colpo in senso assoluto la luce all'interno della nave aveva la lunghezza d'onda dei raggi gamma e raggi gamma molto duri eppure le lunghezze d'onda erano il risultato della miniaturizzazione di normali raggi luminosi visibili e per le retine e i lobby ottici miniaturizzati degli occupanti della nave erano ancora raggi luminosi e avevano le proprietà dei raggi luminosi fuori appena oltre lo scafo dove il campo di miniaturizzazione cessava i fotoni miniaturizzati si ingrandivano diventando normali fotoni e quelli che venivano riflessi verso la nave si miniaturizzavano di nuovo superando i limiti del campo gli altri forse erano abituati a quella situazione irta di paradossi ma per Morrison il tentativo di afferrare l'effetto di una bolla miniaturizzata in un mare di normalità era frastornante il limite che separava il miniaturizzato dal normale era visibile c'era una discontinuità da qualche parte seguendo il corso di quei pensieri mormorò alla Kalinin Kina sulle sue strumentazioni Sofia quando la nostra luce lascia il campo miniaturizzante e si espande deve sprigionare energia termica e quando è riflessa di nuovo nella nave deve assorbire energia per essere miniaturizzata e l'energia deve provenire da noi giusto esatto Albert rispose la Kalinin senza alzare lo sguardo il fatto che usiamo la luce provoca una perdita di energia piccola ma costante comunque i nostri motori sono in grado di fornirla non è una perdita significativa siamo davvero nel flusso sanguigno non temere ci siamo tra poco probabilmente Natalia attenuerà le luci interne così vedrai l'esterno con maggiore chiarezza quasi si fosse trattato di un segnale la Boranova annunciò ecco ora possiamo rilassarci un po' e le luci si abbassarono immediatamente gli oggetti all'esterno della nave risultarono visibili Morrison non li distingueva ancora bene comunque loro erano immersi in qualcosa di eterogeneo qualcosa che conteneva degli oggetti che galleggiavano come era lecito attendersi trattandosi di sangue Morrison si agitò a disagio lottando contro la cintura che lo bloccava ma se siamo nel flusso sanguigno che è a una temperatura di 37 gradi finiremo la nostra aria è condizionata staremo benissimo disse la Kalinin davvero Albert abbiamo pensato a queste cose può darsi invece Morrison un po' offeso però io non sono stato messo al corrente vero come potete controllare la temperatura se non avete uno scarico di raffreddamento è vero però c'è lo spazio esterno no? i motori a microfusione emettono una lieve pioggia di particelle subatomiche che in stato miniaturizzato hanno una massa vicinissima a zero le particelle quindi viaggiano in pratica alla velocità della luce attraversando la materia con la stessa facilità dei neutrini e portando con sé energia in meno di un secondo sono nello spazio esterno per cui hanno la proprietà di trasferire il calore della nave allo spazio esterno e la nostra temperatura rimane fresca capito? sì borbotto Morrison è ingegnoso ma forse ovvio dopo tutto per gente abituata a pensare in termini di miniaturizzazione Morrison notò che i comandi della nave sotto le mani di Dezeneff erano luminosi come pure gli strumenti di fronte alla Kalinin si drizzò a fatica sul sedile e riuscì a vedere un angolo dello schermo del computer di Konef conteniva quella che a Morrison sembrò una mappa del sistema circolatorio del collo per un attimo prima che il suo corpo cessasse di lottare contro la rete della cintura e tornasse ad abbandonarsi sul sedile Morrison vide un puntino rosso sullo schermo e dedosse che si trattava di un dispositivo per segnare la posizione della nave nella carotida sinistra anzi ma va un po' per lo sforzo e dovette attendere qualche secondo per riacquistare il controllo del proprio respiro il comparto in cui era inserito il suo computer era illuminato e Morrison schermò il reflesso alzando la sinistra poi guardò fuori in lontananza vide qualcosa che assomigliava a una parete a una specie di barriera che si ritirava si avvicinava si allontanava di nuovo in continuazione ritmicamente Morrison guardò l'orologio per alcuni secondi era senza dubbio la pulsazione della parete dell'arteria sottovoce disse alla Kalinin è evidente che la miniaturizzazione non influisce sul passare del tempo almeno il battito cardiaco è come dovrebbe essere anche se lo vedo con occhi miniaturizzati e lo cronometro con un orologio miniaturizzato Foucault ne fa rispondere il tempo non è quantizzato a quanto pare o almeno non è influenzato dal campo di miniaturizzazione il che forse è la stessa cosa meglio così se dovessimo tenere conto di un flusso temporale mutevole le cose potrebbero complicarsi troppo Morrison ne convenne in silenzio e rivolse il pensiero altrove se erano in un'arteria e la nave veniva semplicemente spinta in avanti dalla corrente lo spostamento doveva venire a scatti uno scatto per ogni contrazione del cuore un cuore lontanissimo considerate le loro dimensioni e in tal caso lui avrebbe dovuto avvertire quegli scatti chiuse gli occhi e cercò di rimanere immobile di non muoversi affatto a parte il tremito del moto browniano che non poteva controllare in nessun modo adesso sentiva una spinta all'indietro lieve ma netta quando lo scatto iniziava una lieve spinta in avanti quando terminava ma come mai gli scatti non erano più forti come mai non veniva sballottolato violentemente avanti e indietro ma allora pensò alla massa che non possedeva più o la massa microscopica che gli restava anche la sua inerzia era minima la viscosità del fluido normale del flusso sanguigno esercitava un effetto ammortizzante enorme e gli scatti si perdevano quasi nel moto browniano e impercettibilmente Morrison si rilassò sentì che qualcosa dentro di lui si allentava un poco l'ambiente miniaturizzato era inaspettatamente benigno tornò a guardare attraverso lo scafo trasparente concentrandosi sullo spazio tra la nave e la parete dell'arteria vide delle bolle dai contorni sfocati no non erano bolle erano oggetti consistenti e numerosi alcuni ruotavano lentamente e ruotando cambiavano forma quindi non erano sfere erano dischi si rese conto Morrison intuendo di colpo la verità si vergognò perché era stato così lento nell'identificarli dato che sapeva di trovarsi in un flusso sanguigno ma anche questo interrogativo aveva una risposta facile non riusciva ancora a concepire del tutto di essere in un flusso sanguigno era fin troppo semplice immaginare di trovarsi in un sommergibile che avanzava in un oceano era normale aspettarsi di vedere le immagini familiari di un oceano e avere delle stupite perplessità di fronte alle cose che non appartenevano all'ambiente in cui pensava di viaggiare era normale vedere i globuli rossi del sangue gli eritrociti e non riconoscerli naturalmente non erano rossi ma giallognoli ognuno assorbiva qualche onda luminosa corta per produrre quel colore prendendole in gran numero però a milioni e miliardi avrebbero assorbito una quantità sufficiente di quella luce da apparire rossi nel sangue arterioso almeno e adesso erano in un'arteria quando le cellule prelevavano l'ossigeno trasportato dai globuli rossi ogni globulo diventava di una colorazione bluastra e una grande massa di globuli una colorazione purpurea osservò gli eritrociti con interesse e li distinse benissimo ora che li aveva riconosciuti erano dischi biconcavi con una depressione centrale su ogni lato per Morrison erano enormi considerando che in condizioni normali erano microscopici avevano un diametro di circa 7 micron e mezzo e uno spessore di poco superiore a 2 micron e adesso eccoli davanti a lui grandi quanto una sua mano e ce n'erano molti all'esterno e tendevano ad ammassarsi come pile di monete le formazioni però non erano statiche alcuni globuli si staccavano dal mucchio altri si univano e c'era sempre qualche globulo isolato in vista i globuli visibili sembravano fermi non si muovevano rispetto alla nave se non sbaglio stiamo semplicemente avanzando trasportati dal flusso disse Morrison esatto confermò la Kalinin si risparmia energia però i globuli rossi non erano del tutto stazionari rispetto alla nave Morrison notò che un globulo scivolava lentamente verso la nave trasportato forse da una microturbolenza o da una spinta casuale del moto browniano il globulo si appiettì leggermente per un attimo contro lo scafo di plastica poi rimbalzò via Morrison si rivolse alla Kalinin hai visto Sofia il globulo rosso che ci ha fatto il solletico sì perché non si è miniaturizzato sicuramente è entrato nel campo e non proprio Albert è rimbalzato sul campo che si estende per una breve distanza oltre un soggetto miniaturizzato in ogni direzione c'è una certa repulsione tra la materia normale e la materia miniaturizzata e più aumenta il livello di miniaturizzazione più aumenta la repulsione ecco perché gli oggetti piccolissimi come le particelle subatomiche o gli atomi miniaturizzati passano attraverso la materia senza interagire con essa ed è anche il motivo per cui lo stato miniaturizzato è metastabile in che senso un oggetto miniaturizzato è sempre circondato da materia normale a meno che non sia nello spazio profondo se non ci fosse nulla a tenere la materia normale fuori dal campo questa materia si miniaturizzerebbe in continuazione e per farlo assorbirebbe energia dall'oggetto miniaturizzato la perdita sarebbe rilevante e l'oggetto miniaturizzato si deminiaturizzerebbe rapidamente in pratica sarebbe impossibile ottenere la miniaturizzazione dato che l'energia era chiusa nell'oggetto in fase miniaturizzante si disperderebbe subito ci ritroveremmo a cercare di miniaturizzare l'universo in questo modo e naturalmente date le nostre dimensioni la repulsione non è particolarmente forte se un globulo rosso ci urtasse con forza sufficiente la superficie di collisione potrebbe subire in parte un processo di miniaturizzazione Morrison guardò di nuovo il panorama esterno e un attimo dopo scorse qualcosa che aveva tutto l'aspetto di un globulo rosso lacerato ah fece per caso quello è un esempio di globulo entrato in collisione con noi troppo violentemente ma Kalinin si chinò verso Morrison per guardare meglio nella direzione indicata e scosse la testa non credo Albert i globuli rossi hanno una vita limitata circa 120 giorni poi mi spiace per loro si logorano e muoiono nel volume di sangue che vediamo ne muoiono decine decine al minuto quindi i globuli rossi esauriti e lacerati sono uno spettacolo comunissimo ed è un fatto positivo perché significa che se dovessimo usare la nostra propulsione e lanciarci nel flusso sanguigno rompendo qualche globulo rosso o addirittura qualche milione di globuli per Shapirov non cambierebbe nulla tanto non potremmo mai eguagliare il loro ritmo di decadimento naturale Morrison chiese e le piastrine? perché questa domanda? perché quella dovrebbe essere una piastrina rispose Morrison indicando è a forma di lenticchia e come dimensioni è la metà di un globulo rosso una breve pausa poi Sofia Kalinin a noi ah sì adesso la vedo è una piastrina la percentuale dovrebbe essere di una piastrina ogni 20 globuli rossi è all'incirca riflette Morrison se fosse stato su una giostra cercando di prendere gli anelli di ferro mentre girava e ogni globulo rosso fosse stato un normale anello di ferro la piastrina incontrata più raramente avrebbe rappresentato l'ambito anello di ottone quello che voglio dire Sofia è che le piastrine sono più fragili dei globuli rossi e quando si rompono avviano il processo di coagulazione rompendo delle piastrine provocheremo la formazione di un grumo nell'arteria Shapirov avrà un altro ictus e morirà sicuramente la Boranova che aveva ascoltato la conversazione tra Morrison e la Kalinin intervenne innanzitutto le piastrine non sono poi così fragili possono urtarci leggermente e rimbalzare senza danni il pericolo di un altro ictus sussiste a livello della parete dell'arteria le piastrine si muovono molto più velocemente rispetto alla parete della carotide che non rispetto a noi e lungo la parete possono esserci depositi di colesterolo e placche lipidiche di ogni genere dunque si tratta di una superficie molto più scabra e irregolare dello scafo di plastica i grumi possono formarsi lungo la parete non qui e in ogni caso il pericolo è relativo la rottura di una piastrina o addirittura di alcune centinaia di piastrine non è sufficiente ad avviare un processo di coagulazione dannoso e irreversibile per farlo occorrono moltissime piastrine Morrison osservò una piastrina che di tanto in tanto scompariva dietro i numerosi globuli rossi voleva vedere se sarebbe entrata in contatto con la nave e se lo avesse fatto cosa sarebbe successo ma la piastrina non lo accontentò e rimase a distanza dallo scafo fu allora che Morrison si accorse che la piastrina sembrava grande quanto la sua mano come era possibile se una piastrina era la metà di un globulo rosso e se i globuli rossi erano grandi come la sua mano cercò con lo sguardo un globulo rosso e sì in effetti adesso sembrava molto più grande di prima preoccupato disse gli oggetti all'esterno si stanno ingrandendo ci stiamo ancora riducendo ovvio osservò Konev palesemente seccato nel constatare che Morrison sembrava incapace di trarre le conclusioni logiche dai fatti osservati la Boranova disse esatto Albert l'arteria si sta restringendo via via che avanziamo e noi dobbiamo adeguarci non vogliamo rimanere bloccati per la nostra grassezza fece allegro Desnef e colpito da un altro pensiero giunse sai Natasha in vita mia non sono mai stato così magro sei grasso come sempre Arcadi in base alla costante di Planck replicò la Boranova insensibile Morrison non era dell'umore giusto per simili facezie ma fino a che livello ci miniaturizziamo Natalia a livello molecolare Albert la prensione di Morrison riaffiorò prepotentemente Morrison si sentì uno sciocco perché non si era reso conto subito che stavano ancora miniaturizzandosi e nel medesimo tempo provò un acuto risentimento nei confronti di Konev che glielo aveva fatto notare senza troppa delicatezza il guaio era che gli altri avevano dimestichezza con la miniaturizzazione da diversi anni mentre per lui si trattava di un concetto nuovo di un concetto che stentava a entrare nel suo cervello riluttante possibile che non comprendessero le difficoltà che incontrava Morrison studiò i globuli rossi imbronciato erano nettamente più grandi avevano un diametro superiore all'ampiezza del suo torace e i loro margini non erano ben delineati come prima la loro superficie tremava sembravano sacchi pieni di materiale sciropposo sottovoce disse alla Kalinin a livello molecolare la Kalinin gli lanciò un'occhiata poi si girò e confermò sì forse non dovrei preoccuparmi se consideriamo le dimensioni che abbiamo già raggiunto ma l'idea di essere piccoli come una molecola ha qualcosa che spaventa piccoli come quale molecola la Kalinin si strinse nelle spalle ma non so questo dipende da Natalia come la molecola di un virus forse ma è una cosa mai sperimentata precedentemente la Kalinin scossa la testa ci stiamo avventurando nell'ignoto Morrison attese un attimo quindi chiese inquieto non hai paura lei lo fissò infuriata ma continuò a parlare a bassa voce certo che ho paura perché mi prendi è anormale non avere paura quando si hanno tutte le ragioni per averne avevo paura quando sono stata violentata avevo paura quando sono rimasta incinta e mi hanno abbandonata ho passato metà della mia vita con la paura addosso e così per tutti ecco perché la gente beve tanto per cancellare la paura che l'attanaglia stava parlando a denti stretti la sua voce era un similo vuoi che mi affligga per te perché hai paura no mormorò Morrison sorpreso avere paura è una cosa normalissima continuò Sofia l'importante è non lasciarsi condizionare dalla paura non cedere alla paura non lasciarsi prendere da una crisi isterica per la paura non si interruppe in un sussurro amaro di colpevolezza io ho ceduto all'isteria una volta il suo sguardo si spostò verso Conoff che si deve immobile rigido con la schiena eretta ma adesso riprese Sofia intendo fare la mia parte anche se sono semi paralizzata dalla paura nessuno capirà dalle mie azioni che ho paura e ti conviene fare la stessa cosa signor americano Morrison deglutì sì certo disse ma il suo tono non convinceva nemmeno lui guardò dietro poi in avanti inutile parlare sottovoce in quell'ambiente ristretto lì dentro si sentiva anche il minimo sussurro la Boranova alle spalle di Sofia era concentrata sul suo apparato di miniaturizzazione però sul suo volto si notava un lieve sorriso approvazione disprezzo Morrison non era in grado di dirlo Dezenev si voltò e disse Natasha continua a restringersi non dovresti accelerare la miniaturizzazione farò quel che è necessario Arcadi Dezenev incontrò lo sguardo di Morrison e gli strizzò l'occhio sogginiando non credere alla piccola Sofia disse fingendo di sussurrare non ha paura non ha mai paura lei è solo che non vuole lasciarti suolo nella tua inquietudine ha un cuore molto tenero la nostra Sofia tenero come stazzito Arcadi l'interruppe l'interessata tuo padre ti avrà sicuramente detto che è meglio non percuotere la zucca vuota che chiami testa col cucchiaio arrugginito che chiami lingua oh esclamò Dezenev alzando gli occhi al soffitto pungente questa e mio padre infatti diceva che anche il coltello più affilato non è mai tagliente come la lingua di una donna comunque parlando seriamente Albert scendere a livello molecolare non è nulla aspettò che abbiamo imparato a collegare la relatività alla teoria dei quanti e allora sì con un pizzico di energia ci ridurremo a livello subatomico e vedrai vedrò cosa l'accelerazione istantanea decolleremo così Dezenev sta con le mani dai comandi per compiere un gesto guizzante accompagnato da un fischio acuto Laboranova disse calma mani sui comandi Arcadi eh certo mia cara Natasha un attimo di teatralità scusabile Dezenev si rivolse quindi a Morrison istantaneamente fileremo quasi alla velocità della luce una velocità della luce molto più grande in quelle condizioni in dieci minuti potremo attraversare la galassia in tre ore raggiungeremo quella di Andromeda in due anni la quasar più vicina e se non saremo abbastanza veloci potremo ridurci ancora di più avremo i viaggi ultraluce l'antigravità e tutto l'unione sovietica aprirà la strada verso queste conquiste Morrison disse come controllerai la traiettoria Arcadi cosa come controllerai la traiettoria ripetesse ario Morrison non appena avrà raggiunto dimensioni e massa infinitesimali adeguate in pratica la nave si irradierà verso l'esterno a centinaia di anni luce al secondo questo significa che se ci fossero miliardi e miliardi di navi schizzerebbero in ogni direzione con simmetria sferica come la luce solare ma trattandosi di una sola nave si muoverebbe verso l'esterno in una direzione particolare ma assolutamente imprevedibile né un problema di competenze dei brillanti teorici come i giuri fino a quel momento Konef non aveva mostrato alcun interesse per quella conversazione ma adesso sbuffò forte Morrison osservò secondo me non è molto prudente sviluppare il movimento e dare per scontata la manovrabilità scommetto che tuo padre direbbe un uomo saggio non costruisce una casa partendo dal tetto ma può dorsi replicò Arcadi comunque quel che è certo è che una volta ha detto se trovi una chiove d'oro senza serratura non gettarla via anche loro può bastare la Boranova si agitò sul sedile alle spalle di Morrison e intervenne basta coi detti e i proverbi amici dove siamo iuri stiamo facendo progressi Konef rispose a mio giudizio sì ma gradirei che l'americano confermasse o mi corregisse come posso farlo scattò Morrison sono bloccato dalla cintura sblocca l'allora disse Konef anche se galleggi un po' nell'aria non andrai molto lontano per un attimo Morrison armeggiò con la cintura avendo dimenticato la posizione del contatto d'apertura la mano della Kalinin si mosse svelta e lo liberò grazie Sofia imparerai gli disse lei indifferente alzati in modo da riuscire a vedere oltre la mia spalla disse Konef Morrison lo fece e inevitabilmente spinse troppo forte contro lo schienale del sedile di fronte data la sua inerzia insignificante si alzò velocissimo e ortò con la testa del soffitto della nave se fosse successo alla stessa velocità in condizioni normali probabilmente Morrison avrebbe riportato un trauma dolorosissimo ma la mancanza di massa ed inerzia che lo aveva fatto schizzare verso l'alto lo aveva fatto rimbalzare all'ingiù quasi subito senza alcuna sensazione di dolore e in pratica nemmeno di pressione al cranio fermarsi era facile come partire Konef schioccò la lingua adagio alza la mano di taglio girala lentamente poi spingila giù piatta lentamente capito? capito rispose Morrison seguì i suggerimenti di Konef si sollevò lentamente e per fermarsi strinse la spalla dell'altro Konef disse ora guarda la cerebrografia vedi dove siamo in questo momento? Morrison si ritrovò a guardare una rete di una complessità enorme con un chiaro effetto tridimensionale era formata da rigagnoli sinuosi che si diramavano verso l'esterno in maniera tale da creare un albero intricatissimo in uno dei rami principali c'era un puntino rosso che si muoveva lentamente in modo regolare Morrison chiese puoi darmi un'immagine più ampia così potrò identificare questa sezione con un altro schiocco della lingua che forse esprimeva impazienza espansa l'immagine va bene così? sì siamo ai margini del cervello Morrison riconobbe le singole circonvoluzioni e le fenditure dove ha intenzione di andare l'immagine si ingrandì leggermente Konef spiegò qui curveremo penetrando all'interno dello strato neuronico la materia grigia e seguendo questo percorso pronunciò rapido in russo i nomi delle zone e Morrison a fatica li tradusse mentalmente in inglese vorrei dirigermi in quest'area che se ho letto bene i tuoi studi dovrebbe essere un nodo cruciale nella rete neuronica non esistono cervelli perfettamente identici disse Morrison non posso definire nulla con certezza soprattutto se il cervello in questione è un cervello che non ho mai studiato comunque direi che l'area verso cui ti stai dirigendo sembra promettente bene e se arriveremo alla destinazione che ho scelto sarai in grado di dirmi con maggiore precisione se siamo a un incrocio dove si incontrano parecchie diramazioni della rete o in caso contrario in che direzione e a quale distanza potrebbe essere questo incrocio posso provare rispose cauto Morrison per favore tieni presente che non ho garantito nulla non vi ho fatto nessuna promessa non mi sono offerto lo sappiamo albert disse la baranova ti chiediamo solo di fare il possibile in ogni caso rispose coneff quello è il primo punto che raggiungeremo per studiare la situazione e ci arriveremo presto anche se la corrente sta rallentando e dopo tutto siamo quasi a livello capillare agganciati al sedile albert se avrò bisogno di te te lo farò sapere Morrison riuscì a sistemare la cintura senza alcun aiuto verificando che anche i piccoli trionfi avevano un gusto dolce quasi a livello capillare pensò e guardò all'esterno la parete del vaso sanguigno era ancora a una distanza non allarmante però il suo aspetto era cambiato prima le pareti pulsanti erano in formi senza tratti caratteristici ora invece Morrison non notava più alcuna pulsazione e sulle pareti cominciava ad apparire una specie di rivestimento geometrico specie di mattonelle erano le cellule che formavano le pareti sempre più sottili si rese conto Morrison comunque era impossibile vederle bene perché i globuli rossi impedivano la visuale adesso erano sacchi flosci grandi grandi quasi quanto la nave di tanto in tanto uno galleggiava oltre la nave era sentando lo scafo e nel punto di contatto veniva spinto elasticamente all'interno senza subire danni visibili una volta rimase una piccola chiazza forse il contatto era stato leggermente troppo forte e una linea di molecole miniaturizzate si era formata contro lo scafo riflette Morrison la macchia comunque si staccò in fretta dissolvendosi nel fluido circostante per le piastrine il discorso era diverso dato che erano molto più fragili dei globuli rossi una entrò in collisione frontale con la nave o forse l'aveva fatta rallentare una collisione con un globulo e la nave l'aveva raggiunta la prua penetrò in profondità e la pelle della piastrina si forò il contenuto trasudò lentamente mischiandosi con il plasma e formando poi due o tre lunghi filamenti che si aggrovigliarono e rimasero attaccati allo scafo per parecchio tempo Morrison osservò la scena per vedere se si sarebbe formato un coagulo non accade nulla alcuni minuti dopo Morrison vide di fronte una nebbia lattiginosa che sembrava occupare il vaso sanguigno da una parte all'altra e pulsava ondeggiava all'interno c'erano dei granuli scuri che si muovevano di continuo da un'estremità a quella opposta sembrava un mostro maligno e Morrison non poteva fare a meno di lanciare un grido cedendo per un attimo al terrore il capillare se vuoi sapere se l'acqua bolle non sentirla con la mano Desnev senior Desnev si voltò trasalendo e disse è un globulo bianco Albert un leococita non c'è da preoccuparsi Morrison deglutisse cato lo so che è un globulo bianco solo che sono rimasto sorpreso è più grande di quel che immaginavo non è nulla disse Desnev è buono come il pane e non è più grande di quel che dovrebbe siamo solo più piccoli noi e anche se fosse grande come mosca sta soltanto galleggiando nel flusso sanguigno come noi a dire il vero intervenne la Kalinin non sa nemmeno che siamo qui o meglio che siamo qualcosa di speciale pensa che siamo un globulo rosso Konef sembrò rivolgersi all'aria di fronte a sé assente disse i globuli bianchi non pensano un guizzo di risentimento attraversò il viso della Kalinin che arrossì leggermente ma la sua voce non si alterò dicendo pensa Albert stavo semplicemente usando una figura retorica quel che intendo dire è che il comportamento del globulo bianco nei nostri confronti è lo stesso che mostrerebbe nei confronti di un globulo rosso Morrison lanciò un'altra occhiata all'enorme corpuscolo fluttuante e decise che innocuo o meno aveva un aspetto disgustoso guardò con notevole apprezzamento il contrasto rappresentato dal volto grazioso della Kalinin e si chiese come mai non si fosse fatta togliere quel piccolo neo sotto l'angolo sinistro del labbro del resto poteva darsi che aggiungesse invece un pizzico di vivacità a un viso che altrimenti avrebbe potuto essere considerato troppo grazioso per possedere carattere quell'attimo di riflessioni non pertinenti ebbe il potere di scacciare l'inquietudine provocata dalla comparsa del globulo bianco e Morrison tornò con la mente a quanto aveva detto la Kalinin si comporta come se fossimo un globulo rosso perché abbiamo le stesse dimensioni forse anche questo serve rispose lei ma non è il vero motivo tu sai che un globulo rosso è un globulo rosso perché lo vedi il globulo bianco lo riconosce perché percepisce lo schema caratteristico della struttura elettromagnetica della sua superficie i globuli bianchi sono addestrati è solo un'altra figura retorica diciamo sono predisposti in maniera tale da ignorarlo ma la nave non ha la struttura elettromagnetica superficiale di un globulo rosso ma questo hai provveduto tu immagino la Kalinin sorrise compiaciuta sì ho provveduto è la mia specialità Daznev disse proprio Albert la nostra piccola Sofia qui nella testa si batte sulla tempia l'esatto schema elettromagnetico di ogni cellula di ogni batterio di ogni virus di ogni molecola proteica di ogni non esageriamo l'interruppe la Kalinin comunque quelli che non ricordo può fornirmeli il mio computer e qui ho un congegno che sfruttando l'energia dei motori a microfusione è in grado di creare cariche elettriche positive e negative sullo scafo secondo lo schema che voglio la nave ha lo schema di carica di un globulo rosso il più preciso che possa imitare e lo schema è abbastanza fedele da far sì che il globulo bianco reagisca o meglio non reagisca di conseguenze quando l'hai fatto Sofia? chiese Morrison interessato quando siamo scesi a dimensioni tali da diventare una preda potenziale per un globulo bianco o per il sistema immunitario in genere non vogliamo nemmeno essere sommersi dagli anticorpi a Morrison venne in mente una cosa a proposito di dimensioni ridotte perché il moto browniano non è peggiorato dovrebbe sballottarci di più via via che rimpiccioliamo la Boranova intervenne da dietro lo farebbe se fossimo oggetti non miniaturizzati di queste dimensioni dato che siamo miniaturizzati ci sono ragioni teoriche che impediscono al moto browniano di diventare molto più violento niente di cui preoccuparsi Morrison riflette un attimo poi si strense nelle spalle non gli avrebbero detto nulla che a loro giudizio potesse fornirgli troppi dati sulla miniaturizzazione ma che importava il moto browniano non era peggiorato anzi era meno fastidioso o era lui che si stava abituando e a Morrison andava benissimo così niente di cui preoccuparsi come aveva detto la Boranova la sua attenzione si spostò di nuovo sulla Kalinin da quanto tempo ti dedichi a questo settore Sofia da quando mi sono laureata anche senza l'incidente di Shapirov sapevamo che un giorno sarebbe stato necessario compiere un viaggio nel flusso sanguigno era da parecchio che avevamo in programma qualcosa del genere e sapevamo che avremmo avuto bisogno di questa mia specializzazione ma avreste potuto progettare una nave automatizzata senza equipaggio forse un giorno lo faremo disse la Boranova ma per ora no non siamo ancora in grado di dare all'automazione la versatilità e l'ingegnosità di un cervello umano n'è vero disse la Kalinin uno strutturatore automatizzato ci darebbe la struttura elettromagnetica di un globulo rosso seguendo il principio della linea di minor resistenza e il suo lavoro in pratica finirebbe lì sarebbe una spesa inutile forse un esercizio sterile cercare di instillare in uno strutturatore automatico la capacità di adeguarsi a situazioni improbabili di ogni tipo io invece posso fare quasi tutto posso modificare lo schema superficiale di fronte a una emergenza improvvisa verificare il valore di qualcosa di inaspettato o semplicemente seguire un capriccio per esempio potrei dare alla nave lo schema di un batterio ecoli e il globulo bianco ci attaccherebbe subito non ne dubito disse Morrison però non farlo per favore non temere non lo farò ma la voce della Boranova risuonò all'improvviso con un tono insolito di eccitazione al contrario Sofia fallo ma Natalia non scherzo Sofia fallo sai non abbiamo provato il tuo strumento con un test diretto proviamolo Konef borbottò è una perdita di tempo arriviamo prima dove dobbiamo arrivare la Boranova insiste non servirà a nulla arrivare là se non riusciremo a entrare in una cellula ecco un'occasione immediata per vedere se Sofia è in grado di controllare il comportamento di una cellula sono d'accordo annuicchia assoso Dezenev finora è stato un viaggio decisamente monotono sono i viaggi migliori mi avviso osservò Morrison ma Dezenev alzò una mano in segno di disapprovazione il mio vecchio padre diceva sempre volere la pace e la quiete sopra ogni altra cosa e augurarsi la morte procedi Sofia ordinò la Boranova stiamo perdendo tempo Nakalinin esitò un attimo forse il tempo necessario per ricordare che Natalia era il comandante della nave poi le sue mani si mossero svelte sui controlli della sua parecchiatura e le configurazioni sullo schermo cambiarono in modo nettissimo Morrison malgrado l'apprensione ammirò la rapidità di intervento della Kalinin Morrison alzò lo sguardo verso il globulo bianco di fronte e per un istante non notò alcuna reazione poi il mostro parve scosso da un fremito e Dezenev murmurò ah riconosce la presenza della vreda all'estremità frontale la sostanza del globulo si gonfiò e si allungò a formare attorno allo scafo un cerchio irregolare nel medesimo tempo la sostanza al centro si ritrasse quasi fosse risucchiata Morrison si figurò le narici di un mostro che si preparava al pasto Conoff disse funziona Natalia quella creatura si accinge ad avvolgerci e a inghiottirci esatto fece la Baranova molto bene Sofia riportaci allo schema del globulo rosso le dita della Kalinin si mossero di nuovo veloci e sullo schermo tornarono le configurazioni di prima almeno per quel che poteva giudicare la memoria di Morrison questa volta però il globulo bianco non reagì il suo margine esterno stava guizzando oltre la nave lo scafo adesso stava entrando nella profonda cavità centrale Morrison non restò sgomento la nave era racchiusa da qualcosa che rassomigliava a una nebbia bianca una nebbia granulosa dentro cui un oggetto multilobato leggermente più denso del resto si contorceva muovendosi attorno allo scafo Morrison capì che doveva essere il nucleo del globulo bianco Conef sbottò rabbioso a quanto pare quando il globulo bianco avvia il processo di inghiottimento il resto avviene automaticamente ed è impossibile arrestarlo adesso che si fa Natalia? la Boranova rispose tranquilla ammetto che non me lo aspettavo la colpa è mia che differenza ci è? fece Desnef corrugando la fronte poco male cosa può farci questa bolla? non può certo stritularci non è un boaco strictor Conef replicò può cercare di digerirci siamo in un vacuolo alimentare adesso e gli enzimi digestivi ci stanno piovendo addosso facciano pure che si divertano disse Desnef un globulo bianco non ha nulla che possa digerire questo scafo tra poco ci espellerà come residuo indigeribile come farà a saperlo? chiese la Kalinin vuoi sapere cosa? fece brusco Desnef che siamo un residuo indigeribile è stato spinto a reagire dal nostro schema di carica batterico che tu hai tolto? sì ma come ha osservato qualcuno a quanto pare una volta stimolato il globulo bianco deve completare il suo intero ciclo di attività non è una macchina pensante è una struttura automatica la Kalinin aveva un'espressione accigliata ma stava guardando gli altri secondo me il globulo bianco insisterà nel tentativo di digerirci finché non riceverà uno stimolo adeguato che invertirà il processo di inghiottimento e gli consentirà di espellerci la Boranova intervenne ma adesso abbiamo di nuovo la struttura di carica di un globulo rosso non dovrebbe essere sufficiente a stimolare l'espulsione i globuli bianchi non mangiano globuli rossi credo che sia troppo tardi per questo disse la Kalinin con una certa titubanza quasi l'innervosisse l'idea di affrontare la Boranova grazie al suo schema di carica un globulo rosso non viene inghiottito però se viene inghiottito in qualche modo pare che il suo schema elettromagnetico da solo non basti a provocare l'espulsione infatti siamo ancora qui dentro il globulo bianco non ci sta espellendo i suoi occhi o meglio cinque paia di occhi fissavano inquieti la parete della nave erano intrappolati in quella nube cellulare a mio avviso riprese la Kalinin c'è uno schema di carica relativo ai residui indigeribili lasciati dai batteri che il globulo bianco fagocita e solo quello schema può innescare l'espulsione in tal caso disse Desnev dagli lo schema che vuole Sofia pulcino mio volentieri rispose lei basta che tu mi dica qual è perché io non lo so non posso provare degli schemi a caso il numero degli schemi possibili è astronomico e poi siamo sicuri che il globulo bianco abbia un meccanismo di espulsione disse Konev forse i residui indigeribili restano nella sua materia granulosa e vengono poi tolti e disgregati nella milza la Boranova disse in modo brusco oppressa forse dal fatto di essere responsabile della situazione attuale pensò Morrison le chiacchiere non servono non c'è qualche suggerimento costruttivo Desnev rispose posso accendere i motori a microfusione e aprire un varco nel globulo bianco no fece seccamente la Boranova sai quale sia la nostra direzione in questo momento può darsi che in questo vacuolo alimentare noi stiamo girando lentamente o che il vacuolo stesso si sposti nella sostanza cellulare aprendo un varco con la forza potresti danneggiare la parete del vaso sanguigno e magari anche il cervello Konev disse se per questo i globuli bianchi possono uscire da un capillare sgusciando tra le cellule che compongono alla parete del capillare dato che la nostra rotta ci ha portato in un'arteriola che si è ristretta quasi a livello capillare non abbiamo nessuna certezza di trovarci ancora nel flusso sanguigno certo che l'abbiamo intervenne di colpo Morrison il globulo bianco può schiacciarsi e rimpicciolire però non può schiacciare noi contraendosi per uscire dalla parete del vaso sanguigno sarebbe costretto a lasciarci indietro il che sarebbe una bella cosa solo che non l'ha fatto ecco esclamò Desnev ne avrei dovuto pensarci prima Natasha ingrandisci la nave e spacca il globulo provocagli un'indigestione senza precedenti di nuovo una secca risposta negativa da parte della Boranova col rischio di spaccare anche il vaso sanguigno no il vaso sanguigno è piccolissimo ormai non molto più ampio del globulo bianco Pakalinin suggerì se Arkady si mettesse in contatto con la grotta forse là qualcuno potrebbe avere un'idea ci fu un attimo di silenzio poi con voce un poco strozzata la Boranova disse non ancora abbiamo commesso una sciocchezza cioè io l'ho commessa e sapete benissimo che sarebbe meglio per tutti se non chiedessimo aiuto non possiamo aspettare non possiamo aspettare in eterno protestò Kone per agitato il fatto è che ormai non so più dove siamo non posso sperare che il globulo bianco si lasci trasportare dal flusso sanguigno o che mantenga una data velocità una volta persi potrebbe volerci parecchio tempo per localizzare la nostra posizione e forse avremo bisogno dell'aiuto della grotta in quel caso come giustificheremo il fatto di esserci smarriti Morrison disse e se sfruttassimo il condizionamento dell'aria una pausa quindi la Boranova disse che cosa intendi dire Albert beh dalla nave stiamo inviando delle particelle subatomiche miniaturizzate nello spazio interplanetario queste particelle sottraggono calore alla nave mi è stato detto permettendoci di mantenere una temperatura fresca malgrado il calore circostante del corpo umano in cui ci troviamo questa temperatura inferiore deve essere qualcosa che il globulo bianco non è abituato a sopportare alzando il condizionamento e raffreddandoci ulteriormente può darsi che a un certo punto il globulo bianco avverta un fastidio tale da espellerci la Boranova riflette sul suggerimento penso che può darsi che funzioni Dezner disse non scomodarti a pensare ho messo il condizionamento al massimo vediamo se succede qualcosa oltre al nostro congelamento Morrison osservò la specie di nebbia esterna era teso come gli altri e se ne rendeva conto non era angosciato per una decisione sfortunata per un esperimento sconsiderato né stava in ansia per la sorte di Shapirov tuttavia analizzando i propri sentimenti si accorse che arrivato a quel punto ora che era stato miniaturizzato e si trovava in una piccola arteriola cerebrale provava un desiderio improvviso di verificare le sue teorie aveva fatto tanta strada solo per tornare sui propri passi e trascorrere il resto della vita ad alzare metaforicamente il pollice e l'indice e a farsi quasi toccare ripetendo fra sé hai mancato l'obiettivo di tanto benissimo dunque se prima non voleva assolutamente partecipare al progetto adesso l'idea che fallisse non gli andava proprio la voce di Desnef interruppe le sue riflessioni non credo che a questo animaletto piaccia quello che sta succedendo Morrison avvertì un freddo pungente e ora brevitì rendendosi conto che la sottile uniforme di cotone era del tutto inadeguata a ripararlo da quell'improvvisa ondata invernale e forse il globulo bianco pensò la stessa cosa perché la nebbia si diradò e in essa apparve uno squarcio un paio di secondi dopo l'ambiente circostante era libero mentre il globulo bianco era ormai una chiazza lattiginosa alle loro spalle che si allontanava galleggiando o forse strisciando come una meba da una spiacevole esperienza la Boranova esclavò un po' confusa beh se n'è andato Dezenef agitò le mani nell'aria un brindisi al nostro eroe americano e se avessimo un goccetto di vodka con noi ottimo suggerimento la Kalinin andò in rivolta a Morrison è stata una buona idea buona quanto è stata cattiva la mia disse la Boranova ma almeno sappiamo che la tua tecnica è efficace Sofia a patto che sappiamo cosa aspettarci e tu Arkady abbassi il livello di condizionamento prima che ci buschiamo la polmonite visto Albert è già stato vantaggioso portarti con noi non può dorsi fece cone farcigno ma intanto temo che il globulo bianco ci abbia portati a spasso non siamo più dove eravamo prima e io non so di preciso dove siamo la Boranova serrò le labbra e chiese con una certa difficoltà com'è possibile che tu non sappi dove siamo siamo stati all'interno del globulo solo pochi minuti non può averci portato nel fegato no? Konef sembrava sconvolto quanto lei no non siamo nel fegato signora però il sospetto che il globulo bianco trascinandoci con sé si sia immesso in una ramificazione capillare così adesso non siamo più nel flusso dell'arteriola che stavamo seguendo attentamente arteriola che non era ancora un capillare vero e proprio e in che capillare si è immesso? chiese la Boranova è questo che non so sono una dozzina i capillari in cui può essersi immesso il globulo ma il tuo indicatore rosso non iniziò Morrison il mio indicatore rosso funziona in base al punto stimato rispose subito Konef se so dove siamo e a che velocità procediamo l'indicatore si muove con noi e gira quando gli dico di girare vorresti dire? fece Morrison incredulo che segna la nostra posizione solo se conosciamo la nostra posizione nient'altro? non è un segnale magico no rispose gelido Konef indica la nostra posizione e la segue per evitare che la perdiamo nella complessità tridimensionale del flusso sanguigno e delle reti neuroniche però dobbiamo guidarlo in caso di emergenza possiamo essere localizzati dall'esterno ma è una procedura lunga era giunto il momento della classica domanda stupida e fu Desnef a formularla perché il globulo bianco avrebbe dovuto deviare in un capillare Konef diventò russo parlando così in fretta che Morrison distinse astento le parole in russo rispose che ne so sono forse la corrente dei processi di pensiero di un globulo bianco? basta intervenne deciso Morrison non siamo qui per litigare notò la breve occhiata lanciatagli dalla Boranova e gli parve di interpretarla come un'espressione di gratitudine in effetti continuò la soluzione è semplice siamo in un capillare benissimo nei capillari la corrente sanguigna è lentissima quindi non vedo perché non dovremmo usare i famosi motori a microfusione inserite la retrospinta così risaliremo il capillare e in breve tempo raggiungeremo la ramificazione e saremo di nuovo nell'arteriola poi proseguiremo fino alla diramazione giusta e imboccheremo il capillare giusto avremo perso pochissimo tempo e consumato pochissima energia chiuso le parole di Morrison furono accolte da sguardi estremamente seri perfino Konef che di solito parlava con la faccia fissa in avanti si voltò e fissò Morrison accicliato sentendosi a disagio Morrison domandò perché mi guardate così è una prassi normalissima se foste in auto e svoltaste in un vicolo sbagliando la strada non fareste retromarcia scuotendo la testa la Boranova disse mi dispiace Albert non abbiamo retrospinta cosa? Morrison la fissò al libido non abbiamo retrospinta abbiamo solo una spinta in avanti nient'altro Morrison disse ma come è possibile? niente retromarcia no Morrison guardò le quattro facce poi esplose che razza di situazione stupida pazzesca da incompetenti solo in unione si interruppe finisce la frase fece la Boranova stavi per dire che solo in unione sovietica poteva crearsi una situazione del genere Morrison deglutì poi disse irritato sì esatto sarà un'affermazione antipatica ma sono arrabbiato e può anche darsi che ci sia del vero nelle mie parole e credi che noi non siamo arrabbiati Albert? disse la Boranova fissandolo negli occhi sai da quanto tempo stiamo lavorando a una nave come questa? sono anni molti anni da quando la miniaturizzazione si è tramutata in una possibilità concreta abbiamo pensato di entrare un giorno in un apparato circolatorio ed esplorare dall'interno il corpo di un mammifero se non il corpo umano ma più progettavamo e più lavoravamo più il progetto diventava costoso e più aumentava l'ostinazione degli amministratori di Mosca non posso abiasimarli dovevamo far quadrare le spese di questo progetto con altre spese in settori molto meno problematici della miniaturizzazione quindi di conseguenza la nave è diventata sempre più semplice come concezione via via che eliminavamo questo e quello e quell'altro ancora ricordi quando voi americani stavate costruendo le vostre prime navette spaziali ricordi quali erano i progetti e che cosa avete ottenuto invece in ogni caso ci siamo ritrovati con una nave senza propulsione adatta solo all'osservazione intendevamo entrare nel flusso sanguigno e lasciarci trasportare dalla corrente raccolte tutte le informazioni possibili ci saremmo deminiaturizzati lentamente in questo modo avremmo ucciso l'animale studiato e si sarebbe trattato solo di un animale naturalmente ma anche così alcuni di noi si tormentavano di fronte a quella prospettiva ecco per cosa era stata costruita questa nave non potevamo sapere che all'improvviso ci saremmo ritrovati in una situazione tale da dover penetrare in un corpo umano raggiungere un punto particolare del cervello e uscire senza uccidere la persona dovevamo farlo e non avevamo che questa nave nata per uno scopo completamente diverso le labbra e il disprezzo sul volto di Morrison erano scomparsi trasformandosi in un'espressione accigliata e preoccupata cosa avete fatto ci siamo messi al lavoro il più in fretta possibile abbiamo perfezionato i motori a microfusione e alcune altre cose temendo che Shapirov potesse morire da un istante all'altro e temendo forse ancora di più che la nostra fretta potesse farci commettere qualche errore fatale beh non credo che abbiamo commesso errori fatali tuttavia i motori a microfusione a nostra disposizione avremmo dovuto impiegarli come propulsori solo in caso di assoluta necessità dato che erano nati per fornire l'illuminazione l'aria condizionata e per altri impieghi a basso consumo energetico e naturalmente ci è mancato il tempo di fare un lavoro completo quindi niente retromarcia e nessuno ha fatto notare che vi sareste potuti trovare in una situazione tale da avere bisogno della retropropulsione avrebbe comportato altre spese ed era impossibile ottenere altri stanziamenti e dopo tutto dovevamo competere con lo spazio che è un'impresa avviata con le esigenze realistiche dell'agricoltura del commercio dell'industria del controllo della criminalità e con altre decine di settori governativi tutti attaccati al tesoro dello stato è naturale che i fondi non fossero mai sufficienti Dezenev sospirò ed eccoci qua come diceva il mio buon padre solo i babbei vanno dagli indovini che fretta c'è di sentire le brutte notizie tuo padre non mi dice nulla di nuovo Arcadi almeno con questa massima mi spaventa chiederlo ma non possiamo semplicemente girare la nave domandò Morrison Dezenev disse saggia paura la tua e innanzitutto il capillare è troppo stretto non c'è spazio per girare Morrison scosse il capo spazzentito non è necessario farlo mantenendo le dimensioni attuali restringete un po' la nave miniaturizzatela tanto dovrete miniaturizzarla prima di entrare in una cellula fatelo ora e giratela Dezenev disse tranquillo né in un secondo luogo non possiamo girarla proprio come non possiamo andare indietro abbiamo la spinta in avanti e basta incredibile mormorò Morrison tra si poi ad alta voce come avete potuto accettare di iniziare questo progetto con una nave così carente Connev rispose non avevamo scelta e non erano previsti giochi con i globuli bianchi la Boranova il volto inespersivo la voce in colore disse se il progetto fallerà mi assumerò ogni responsabilità la Kalinin alza lo sguardo Natalia parlare di colpe non serve adesso non abbiamo scelta dobbiamo andare avanti proseguiamo miniaturizziamoci se necessario e troviamo qualche cellula promettente in cui penetrare qualche cellula sbotto Connev riprimendo uno scatto di rabbia senza rivolgersi a nessuno in particolare qualche cellula e a che scopo potremmo trovare qualcosa di utile in qualsiasi punto Natalia disse la Kalinin visto che Connev taceva la Boranova disse qualche obiezione alla proposta Iuri obiezioni eh certo Connev non si voltò ma la sua schiena era irrigidita per la collera ci sono dieci miliardi di neuroni nel cervello e qualcuno vorrebbe che vagassimo in mezzo ai neuroni alla cieca e ne scegliessimo uno a caso sarebbe più facile girare in auto per le strade della terra e scegliere a caso un essere umano ai margini della strada nella speranza di ritrovare un parente con cui si è perso ogni contatto da anni e anni sarebbe molto più facile il numero degli esseri umani presenti sulla terra è poco più della metà del numero dei neuroni del cervello è un'analogia sbagliata disse la Kalinin rivolgendosi volutamente alla Boranova la nostra non è una ricerca condotta alla cieca stiamo cercando i pensieri di Piotr Shapirov quando li capteremo basterà che ci muoviamo nella direzione in cui i pensieri diventano più forti se l'unica marcia di cui disponete vi porterà nella direzione in cui i pensieri diventano più deboli cosa farete? appunto disse Konev io avevo tracciato una rutta che ci avrebbe portato direttamente a un nodo importante nella particolare rete neuronica collegata al pensiero astratto stando alle ricerche di Albert il flusso sanguigno ci avrebbe portati a destinazione e la nave lo avrebbe seguito senza problemi anche nei punti più tortuosi del percorso adesso invece alzò le braccia e le agitò chiamando in causa in vano l'universo tuttavia disse la Boranova in tono teso mi sembra che non abbiamo scelta dobbiamo seguire il suggerimento di Sofia se sarà un tentativo infruttuoso dovremo cercare di uscire dal corpo e magari rientrare un altro giorno aspetta Natalia disse Morrison forse c'è un altro sistema per raddrizzare la situazione è possibile uscire dalla nave ed entrare nel flusso sanguigno Morrison non si aspettava una risposta affermativa la nave che prima gli sembrava uno splendido esempio di alta tecnologia adesso gli appariva come una chiatta in disarmo da cui non era lecito attendersi nulla da ogni punto di vista pratico gli sembrava che l'idea migliore fosse quella suggerita dalla Kalinin cercare di raggiungere una cellula cerebrale e provare ma se avessero fallito avrebbero dovuto abbandonare il corpo e ritentare come aveva detto la Boranova e Morrison sentiva che non sarebbe stato fisicamente capace di ripetere quell'avventura avrebbe fatto di tutto per evitarlo è possibile uscire dalla nave Natalia ripete mentre lei lo fissava stordita gli altri erano frastornati quanto la Boranova allora non capisci se voleste raccogliere dei campioni avete una draga una pala una rete o qualcuno può uscire in immersione con un autorespiratore finalmente la Boranova superò la propria sorpresa a quella domanda e inarcò le folte sopracciglia in un'espressione di meraviglia sai l'abbiamo proprio una tuta subacquea per ricognizione esterne dicono i piani e dovrebbe essere sotto la fila posteriore di sedili proprio qui sotto sganciò la cintura galleggiando lentamente poi riuscì a mettersi in posizione orizzontale mentre la sua uniforme di cotone leggero svolazzava è qui Albert annunciò immagino che sia stata controllata eh sì non dovrebbero esserci difetti gravi niente perdite niente grosse imperfezioni non mi risulta che sia stata collaudata in condizioni di impiego reale sarebbe stato impossibile osservò Morrison se non sbaglio è la prima volta che la nave o qualsiasi altra cosa si trova in un flusso sanguigno devono averla controllata immergendola in acqua calda della giusta viscosità mi rincresce di non essermene occupata di persone ma l'idea che qualcuno potesse uscire dalla nave non ha mai sfiorato nessuno mi ero perfino dimenticata che la tuta esistesse almeno sai se la tuta ha un respiratore è certo che lo ha rispose la baranova con una certa sprezza e ha un alimentatore che le consente di avere una luce indipendente non devi considerarci dei perfetti incompetenti anche se hai qualche motivo per crederlo dopo quello che abbiamo o almeno che io ho fatto aggiunse stringendosi nelle spalle mesta la tuta è dotata di pinne sì sia per le mani sia per i piedi è fatta apposta per gli spostamenti in un fluido allora forse una soluzione c'è disse Morrison cos'è in mente albert domandò la kalinin Morrison spiegò possiamo miniaturizzarci ancora un po' in modo che la nave possa girare senza scalfire le pareti del capillare poi qualcuno si infilerà la tuta uscirà dalla nave sempre che abbiate un comparto stagno e spingendosi con le pinne la farà girare quando la nave sarà girata nella direzione corretta la persona rientrerà a bordo accenderemo i motori e risaliremo la debole corrente contraria del capillare fino all'arteriola tornando sulla nostra rotta iniziale la Boranova commentò pensierosa è un rimedio disperato dell'arresto anche la nostra situazione è disperata hai mai fatto immersioni subacquee albert è qualcuna ecco perché ci ho pensato è noi no ecco perché non ci abbiamo pensato in tal caso albert sgancia la cintura e metti della tuta io gracchio morrison certo l'idea è stata tua e sei tu quello che ha esperienza in fatto di immersioni e non nel flusso sanguigno nessuno ha esperienza di immersioni nel flusso sanguigno ma noi altri non ci siamo mai immersi nemmeno nell'acqua no protestor rabbioso morrison questa storia è un pallino vostro di voi quattro io ho trovato il sistema di tirarvi fuori dal globulo bianco e ho appena trovato il sistema di farvi uscire forse da questo pasticcio la mia parte finisce qui pensateci voi all'arresto ci pensi uno di voi albert disse la Boranova siamo tutti sulla stessa barca qui non siamo né sovietici né americani siamo esseri umani che cercano di sopravvivere e di realizzare una grande impresa i compiti di ognuno dipendono dalle capacità di ognuno nient'altro se uno sa fare una cosa meglio degli altri tocca a lui farla morrison incrociò lo sguardo della kalinin gli stava sorridendo e in quel sorriso appena accennato a morrison ebbe l'impressione di cogliere dell'ammirazione brontolando tra sé perché era una follia lasciarsi influenzare in modo così infantile dalla voglia di ammirazione morrison capì che avrebbe accettato l'assurdità del suo stesso suggerimento la Boranova prese la tuta era trasparente come la nave e a parte l'estremità superiore era spiegazzata e piatta per morrison assomigliava in maniera sgradevole a un disegno gigante di un essere umano fatto da un bambino ma toccò e disse di cosa è fatta di cellophane la Boranova rispose no albert è sottile ma molto robusta e inerte non si attaccherà nessuna sostanza estranea e dovrebbe avere una tenuta perfetta dovrebbe avere ripetesse Ardonico Morrison Desnef intervenne ha una tenuta perfetta ti sembra di ricordare che un po' di tempo fa l'hanno collaudata ti sembra di ricordare mi rammarico di non averla controllata di persona nell'ispezionare la nave ma anch'io mi ero dimenticato che esistesse e nessuno pensava Morrison sbottò il caustico tuo padre sicuramente ti avrà detto che il rammarico è una punizione troppo lieve per l'incompetenza Arcadi Desnef ribatte stridulo non sono un incompetente albert la Boranova li interruppe litigheremo quando tutto sarà finito albert non c'è motivo di preoccuparsi anche se ci fosse una falla microscopica le molecole d'acqua sono molto più grandi di quel che sarebbero in condizioni normali rispetto alla tuta una falla in una tuta normale potrebbe lasciar filtrare delle molecole d'acqua normali ma la stessa falla in una tuta miniaturizzata non lascerà filtrare quelle molecole perché rispetto a prima saranno molecole giganti è un ragionamento fila Borbotton Morrison bisognoso di conforto certo disse la Boranova inseriremo la bombola d'ossigeno qui piccola d'accordo ma non rimarrai fuori a lungo un serbatoio per l'assorbimento dell'anidride carbonica qui e una batteria per la luce quindi come vedi sarai attrezzato coneff si voltò e guardò Morrison spassionatamente comunque è meglio che ti sbrighi fa caldo là fuori ci sono 37 gradi e non credo che la tuta abbia un impianto di raffreddamento niente impianto di raffreddamento Morrison fissò la Boranova con aria interrogativa la Boranova si strinse nelle spalle e non è facile raffreddare un oggetto in un ambiente isotermico tutto il corpo di Shapirov che è grande come una montagna per noi a una temperatura costante di 37 gradi per raffreddare la nave bisogna ricorrere ai motori a microfusione era impossibile dotare la tuta di un impianto equivalente e del resto come ti ripeto non rimarrai fuori a lungo ma faresti meglio allevarti gli indumenti che hai addosso Albert Morrison esitò non sono pesanti è solo uno strato sottile di cotone se suderai insistè la Boranova quando tornerai a bordo dovrai tenere addosso dei panni bagnati non abbiamo indumenti di riserva beh se insisti disse Morrison pudico poi si tolse le babbucce e cominciò a spogliarsi operazione che si rivelò estremamente complicata dato il suo stato di assenza di peso quasi totale la Boranova notando che era in difficoltà disse per favore Arcadi aiuta Albert a indossare la tuta Dezenov superò a fatica lo schienale del proprio sidile e raggiunse Morrison che galleggiava a mezz'aria contro lo scafo della nave in una posizione tutt'altro che comoda aiutò Morrison a infilare le gambe nella tuta una alla volta anche se i due unendo i loro sforzi combinarono più o meno quello che era riuscito a combinare Morrison da solo tutto quello che ci circonda è fatto per funzionare in presenza di gravità riflette Morrison mentre si muovevano impacciati Dezenov non smise un istante di parlare il materiale di questa tuta è lo stesso della nave disse segretissimo naturalmente ma per quel che ne so io avrete un materiale simile negli Stati Uniti segreto anche quello senza dubbio e concluse la frase con una sfumatura interrogativa non saprei borbotto Morrison infilando la gamba nuda in una guaina di plastica sottile non aderì alla pelle scivolò verso l'alto eppure gli diede l'impressione di essere fredda e bagnata senza essere in realtà né l'una né l'altra cosa Morrison non aveva mai incontrato una superficie del genere e non sapeva come interpretare la sensazione Dezenov spiegò quando le giunture si chiudono diventa praticamente un unico pezzo di materiale e come si fa a riaprirle non appena sarai tornato a bordo si neutralizzano le cariche elettrostatiche adesso gran parte dell'esterno della tuta ha una lieve carica negativa bilanciata da una positiva sulla superficie interna qualsiasi parte della tuta si attaccherà a qualsiasi area a carica positiva dello scafo ma non così forte da impedirti di staccarti Morrison chiese è il retro della nave dove ci sono i motori non preoccuparti per i motori funzionano al minimo per fornirci l'illuminazione e il condizionamento e le particelle che emettono ti attraverseranno senza accorgersi che ci sei la bombola di ossigeno e l'assorbitore sono automatici non produrrai nessuna bollicina devi solo respirare normalmente grazie al cielo qualche dono della tecnologia Dezenev disse accigliato risaputo che le tute spaziali sovietiche sono le migliori del mondo e che quelle giapponesi sono al secondo posto ma questa non è una tuta spaziale è copiata da una tuta spaziale sotto molti aspetti Dezenev si accinse a calare il casco aspetta disse Morrison non c'è una radio Dezenev si fermò perché dovresti aver bisogno di una radio per comunicare ci vedrai e noi ti vedremo è tutto trasparente puoi farci dei segnali Morrison inspirò a fondo in parole povere niente radio la Boranova disse mi dispiace Albert è solo una tuta molto semplice per impieghi di poco conto Morrison disse acido comunque se si fa una cosa tanto vale farla bene e non per i burocrati spiegò Dezenev per loro se si fa una cosa l'importante è che sia economica l'urritazione aveva un lato positivo perché Morrison tendeva a cancellare la paura chiese com'è che intendete farmi uscire dalla nave Dezenev rispose lì dove sei lo scofo è doppio Morrison si girò di scatto a guardare e naturalmente decollò e cominciò a dimenarsi sembrava proprio che non riuscisse a ricordare per qualche secondo consecutivo di essere essenzialmente senza peso Dezenev lo aiutò a stabilizzarsi non fu facile nemmeno per lui scommettò che sembriamo una coppia di pagliacci pensò Morrison finalmente Morrison si ritrovò a fissare la parte di scafo indicata e ora che la osservava con maggiore attenzione gli pareva un po' meno trasparente degli altri settori ma forse dipendeva solo dalla sua immaginazione Dezenev disse stai fermo Albert mio padre diceva solo quando ha imparato a stai fermo un bambino può essere considerato una creatura intelligente tuo padre non teneva conto delle condizioni di gravità zero il comparto sogno spiegò Dezenev ignorando il commento di Morrison è copiato da quelle che abbiamo nelle nostre strutture lunari di superficie lo strato del comparto si aprirà poi ti avvolgerà e si sigillerà gran parte dell'aria tra gli strati verrà aspirata sai non possiamo permetterci sprechi d'aria perché ti provocherà una strana sensazione senza dubbio poi lo strato esterno si aprirà e tu sarai fuori semplice ora lascia che ti chiude il casco aspetta com'è che rientro stesso sistema al contrario adesso Morrison era completamente ingabbiato e una sensazione netta di claustrofobia complicava ancora di più la sua situazione mentre il gelo della paura cominciava a spassare via l'effetto benefico della collera Dezenev lo stava spingendo contro lo scafo e Conef giratosi di spalle lo stava aiutando le due donne si devono calme ai loro posti osservavano la scena a sorte Morrison sapeva che non stavano fissando il suo corpo magari lo avessero fatto e sarebbe stata un'azione relativamente innocua e no sicuramente stavano osservando per vedere se il comparto stagno avrebbe funzionato se la sua tuta avrebbe funzionato se lui sarebbe sopravvissuto per più di qualche minuto una volta all'esterno voleva gridare e annullare tutto ma l'impulso rimase solo un impulso sentì alle spalle un movimento viscido poi lo scatto di una lamina trasparente di fronte a sé era come la cintura del sedile che gli si avvolgeva attorno alla vita e al petto solo che adesso era fasciato dalla testa ai piedi la lamina aderì al suo corpo sempre più forte via via che l'aria del comparto veniva risucchiata il materiale della tuta sembrò tendersi mentre l'aria interna premeva contro il vuoto che la stava circondando poi lo strato esterno dello scafo si aprì e Morrison avvertì una lieve spinta che lo fece ruzzolare in avanti nel plasma sanguigno del capillare era fuori ed era solo destinazione andare in un posto può essere la parte più divertente ma solo se alla fine ci si arriva in quel posto Deznef Senior Morrison sentì subito il calore circostante e soffocò un gemito come aveva detto Konef la temperatura era di 37 gradi la calura di una giornata estiva opprimente a cui era impossibile sottrarsi niente ombra niente vento si guardò attorno orientandosi naturalmente la Boranova aveva miniaturizzato ancora la nave mentre lui aveva indossato e impacciato la tuta la parete del capillare era più lontana ne vedeva solo un pezzo perché tra lui e la parete c'era un enorme oggetto opaco un globulo russo naturalmente poi una piastrina scivolò tra il globulo russo e la parete ma con lentezza estrema tutto quanto il globulo russo la piastrina Morrison la nave si spostava trasportato dalla debole corrente del capillare a giudicare dallo scorrere lento delle cellule della parete Morrison si chiese come mai avvertisse così poco il moto browniano la sensazione di movimento c'era e gli altri oggetti in vista sembravano tremare perfino i contorni cellulari delle pareti del capillare vibravano leggermente in modo alquanto strano ma non c'era tempo per essere troppo analitici doveva sbrigarsi a tornare a tornare a bordo era a circa un metro dalla nave un metro puramente soggettivo quanti micron quanti milionesimi di metro lo separavano dalla nave in misure reali e non si soffermò a cercare di dare una risposta all'interrogativo agitò le pinne per accostarsi alla nave il plasma era molto più viscoso dell'acqua marina sgradivolmente più viscoso il calore ovvio era sempre presente non sarebbe cessato un attimo finché il corpo in cui si trovava fosse rimasto in vita la sua fronte era ormai umida forza doveva iniziare tese la mano verso il punto da cui era uscito ma non toccò nulla era come se stesse spingendo un cuscino d'aria morbido e gommoso anche se gli occhi gli dicevano che non c'era nulla tra quella parete di scafo e la sua mano a parte forse un velo di liquido una brevissima riflessione e capì cosa stesse accadendo la superficie esterna della tuta aveva una carica negativa e anche la parte di scafo che stava toccando l'aveva e lo respingeva ma c'erano altre parti di scafo Morrison fece scivolare le mani finché non fu sicuro di toccare la plastica non era sufficiente però perché le sue mani scivolavano come se quell'aria fosse incredibilmente viscida quasi con un rumore secco la sinistra gli si bloccò scorrendo su una zona a carica positiva vi era rimasta Morrison provò a liberarsi prima con un lieve strattone quindi con maggiore vigore era come se fosse inchiodato tastò più in là con la destra fissando quella forse sarebbe riuscito a staccare la sinistra clic ora che la destra era ancorata allo scafo tirò la sinistra non accade nulla era appiccicato alla nave con rocifisso il sudore gli rigava la fronte ristagnando sotto le ascelle urlò inutilmente sbattendo le gambe in uno sforzo parossistico lo stavano guardando ma che gesti poteva fare con le mani bloccate il globulo rosso che aveva accompagnato la nave da quando lui era uscito lo urtò spingendolo contro lo scafo il torace di Morrison però non rimase incollato per fortuna non aveva toccato una zona a carica positiva la Kalinin lo stava fissando muoveva la bocca ma Morrison non sapeva leggere il movimento delle labbra non in russo comunque poi la Kalinin fece qualcosa col computer e il braccio sinistro di Morrison si liberò doveva avere diminuito l'intensità della carica Morrison annui sperando che venisse interpretato come un cenno di ringraziamento e ora bastava spostarsi di zona positiva in zona positiva fino a raggiungere il retro della nave cominciò a farlo e si ritrovò più o meno bloccato non tanto dall'attrazione elettromagnetica adesso quanto dalla massa morbida ed elastica del globulo rosso vai indietro urlò Morrison ma il globulo non sapeva cosa fossero le urla il suo ruolo era puramente passivo Morrison lo spinse con le mani e si aiutò anche con le pinne inferiori la membrana superficiale elastica del globulo rosso cedette e si contraste all'interno ma più si ritraeva più opponeva resistenza e alla fine Morrison si ritrovò a spingere senza esito e ormai stanco rimbalzò di nuovo contro lo scafo si fermò a riprendere fiato il che non era facile accaldato e sudato com'era chissà se lo avrebbe messo fuori combattimento per prima la disidratazione o la febbre che sicuramente lo avrebbe assalito se non fosse riuscito a liberarsi del calore che stava producendo il suo corpo calore aumentato dopo lo sforzo che stava facendo per scacciare il globulo rosso alzò il braccio e lo calò tenendo la pinna di taglio la lama di plastica tagliò la membrana del corpuscolo forandola come un palloncino la tensione superficiale della membrana allargò sempre più lo squarcio fuoriuscì della materia una nube di granuli e il globulo rosso cominciò a restringersi Morrison aveva l'impressione di avere ucciso un essere vivente inoffensivo e provò una fitta di rimorso poi riflette che c'erano miliardi e miliardi di altri globuli rossi nel sistema circolatorio e che un globulo rosso in ogni caso viveva solo 120 giorni ora poteva portarsi sul retro dello scafo sulla superficie interna della tuta non c'era traccia di appannamento è comprensibile la superficie era calda quanto il suo corpo e comunque quella plastica avrebbe respinto qualsiasi sostanza il vapore probabilmente stava condensandosi sotto forma di piccole pozze di sudore negli angoli della tuta seguendo i suoi movimenti raggiunse il retro dello scafo dove la linea aerodinamica della nave veniva interrotta dagli ugelli dei tre motori a microfusione lì si trovava il più lontano possibile dal baricentro della nave con un po' di fortuna i quattro passeggeri si sarebbero spostati il più possibile verso l'estremità anteriore dell'abitacolo peccato che Morrison non avesse pensato di mettere bene in chiaro quel particolare prima di infilare la tuta ora doveva trovare delle aree a carica positiva che gli bloccassero le mani e poi spingere gli girava un po' la testa un malessere fisico psicologico beh l'effetto era lo stesso respirò ancora a fondo e batte le palpebre per allontanare il sudore che gli colava negli occhi era impossibile asciugarseli e Morrison rivolse un'altra imprecazione rabbiosa agli stupidi che avevano progettato quella tuta a conti fatti offriva dei vantaggi microscopici era quasi come non averla addosso trovò gli appigli sullo scafo e agitò le pinne ci sarebbe riuscito la massa che stava cercando di girarle aveva un valore quantitativo misurabile in microgrammi però lui disponeva di cosa microerg di forza sapeva che con la miniaturizzazione in proporzione i suoi muscoli avevano acquistato una forza tremenda rispetto alla massa di un corpo ma fino a che punto sarebbe riuscito a sfruttare tutta quella forza fortunatamente la nave si mosse lo capì dai movimenti delle cellule che componevano la parete del capillare adesso arrivava la parete coi piedi quindi la nave doveva essere di traverso nel capillare l'aveva girata di 90 gradi quando i suoi piedi toccarono la parete del vaso sanguigno Morrison spinse forse troppo brutalmente se avesse perforato la parete le conseguenze avrebbero potuto essere gravissime ma non aveva tempo da perdere ed era questa la sua unica preoccupazione per fortuna i suoi piedi rimbalzarono quasi si fossero posati su una superficie spugnosa e la nave ruotò un po' più in fretta poi si bloccò al solo sguardo intontito sbattendo le palpebre sforzandosi di vedere respirava stento nel calore umido che lo soffocava all'interno della tuta un altro globulo rosso prevedibile nei capillari quei corpuscoli erano fitti come come auto in una via cittadina congestionata dal traffico questa volta non esitò la pinna della sua mano destra calò all'istante aprendo un ampio squarcio e Morrison non spese neppure un microsecondo a rammaricarsi per l'assassinio di un essere innocente agitò ancora le gambe e la nave si mosse sperava di spostarla nella stessa direzione di prima e si aggredendo come un forsennato il globulo rosso si fosse capovolto senza accorgersene non era escluso che adesso stesse spingendo indietro lo scafo nella direzione sbagliata ormai non gli importava quasi più di niente la nave adesso era parallela all'asse principale del capillare anzi mando Morrison cercò di studiare le scagge cellulari della parete si scorrevano in avanti verso la proa della nave e allora la nave stava andando all'indietro trascinata dalla corrente dunque era rivolta verso la ramificazione dell'arteriola decise che doveva essere così no se ne infischiava giusta o sbagliata che fosse la direzione lui doveva tornare a bordo non era disposto a sacrificare la vita per riuscire nell'impresa dove dove le sue mani scivolavano lungo lo scafo attaccandosi qui attaccandosi là in modo vago vide delle figure sull'altro lato della parete gli facevano dei cenni cercò di seguirli le immagini stavano svanendo su gli facevano cenno di salire e come poteva spostarsi all'insù non aveva più forza il suo ultimo pensiero lucido per un po' fu che non gli occorreva la forza per un corpo privo di peso e di massa l'alto e il basso si equivalevano si contorse verso l'alto dimenticando perché lo stesse facendo e una nebbia oscura calò su di lui la prima cosa che Morrison percepì fu una sensazione di freddo un'ondata di freddo poi una carezza fredda poi luce stava fissando una faccia per un po' non capì che era una faccia all'inizio era solo un insieme di chiazze di luce e d'ombra poi diventò una faccia poi la faccia di Sofia Kalinin gli sorrise sottovoce mi riconosci lentamente affatica Morrison a noi di come mi chiamo Sofia cracchio Morrison e a sinistra chi c'è? Morrison girò gli occhi mise a fuoco l'immagine con uno sforzo quindi voltò la testa Natalia come ti senti? mamma di testa la sua voce sembrava debole e lontana passerà Morrison chiuse gli occhi e si abbandonò alla pace dell'inattività non fare nulla il piacere supremo non provare nulla poi sentì qualcosa di fresco che gli toccava l'inguine e a riaprire gli occhi si accorse che gli avevano tolto la tuta e che era nudo delle braccia lo tenero fermo e una voce disse non preoccuparti non possiamo farti una doccia non c'è acqua per una doccia però possiamo usare una salvietta umida per rinfrescarti e pulirti non è dignitoso riuscì a balbettare Morrison sciocchezze adesso ti asciughiamo poi un po' di deodorante poi dentro la tua uniforme Morrison cercò di rilassarsi e solo quando sentì il cotone sulla pelle riprese a parlare chiese ho girato la nave nella direzione giusta sì rispose la calina innannuendo vigorosamente e hai scacciato due globuli rossi con grande ferocia sei stato un eroe aiutami ad alzarmi disse Raoko Morrison si puntalò con i gomiti sul sedile e naturalmente galleggiò nell'aria venne tirato giù mi era dimenticato borbotto e agganciami la cintura lascia che stia un po' seduto a riprendermi represse il senso di vertigine poi disse quella tuta di plastica non vale niente una tuta da usare nel flusso sanguigno di un animale a sangue caldo deve essere dotata di raffreddamento lo sappiamo disse Dezenev seduto ai comandi la prossima volta lo avrà giù la prossima similò caustico Morrison almeno grazie alla tuta hai potuto fare quello che dovevi fare osservò Dezenev spese mie disse Morrison parlando in inglese per esprimere meglio quello che provava ho capito disse Conev sai ho vissuto negli Stati Uniti se ci tieni ti insegnerò a dire queste cose in russo grazie ma hanno un gusto migliore in inglese Morrison si passò la lingua a riarsa sulle labbra secche l'acqua avrebbe un gusto ancora più buono o sete certo la Kalinin gli accostò una bottiglia alle labbra succhia ad agio non si versa non ammassa piano piano e non affogarti Morrison ritrasse la testa dalla bottiglia abbiamo abbastanza acqua devi sostituire quella che hai perso basterà Morrison bevi ancora poi sospirò ma molto meglio c'è una cosa che ho pensato quando ero fuori nel capillare è stato un lampo di pensiero non ero sufficientemente lucido per capirlo piegò la testa e si coprì gli occhi con le mani e adesso non sono sufficientemente lucido per ricordarlo lasciami pensare nella nave scese il silenzio poi Morrison sospirò e schierendosi la voce disse sì d'accordo anche la Boranova sospirò bene allora non hai perso la memoria certo che non l'ho persa fece Morrison stizzito cosa pensavate Konef rispose gelido una perdita di memoria avrebbe potuto rappresentare un primo sintomo di lesioni cerebrali Morrison serrò la bocca di scatto battendo forte i piedi poi con una sensazione di gelo alla bocca dello stomaco disse è questo che avete pensato non era possibile disse Konef come nel caso di Shapirov lascia perdere intervenne la Kalinin non è successo qual era quel pensiero Albert lo ricordi ancora era un'affermazione fiduciosa e nel medesimo tempo una domanda speranzosa eh sì mi ricordo stiamo risalendo alla corrente stiamo avanzando contro corrente per così dire vero sì rispose Dezenev sto usando i motori consumando energia e arrivati all'arteriola saremo ancora rivolti contro corrente e non potremo girare torneremo al punto di partenza bisognerà girare ancora la nave dall'esterno e non posso farlo io capito non posso farlo io la Kalinin gli circondò le spalle con un braccio è tutto a posto non lo farai tu non lo farà nessuno Albert amico mio disse Dezenev allegramente guarda di frutti a te stiamo arrivando all'arteriola Morrison alza lo sguardo e sentì una fitta dolorosa doveva aver fatto una smorfia perché la Kalinin gli mise una mano fresca sulla fronte e gli chiese come va il tuo mal di testa è meglio rispose Morrison scuotendo via la mano come gli desse particolarmente fastidio guardando avanti notò con sollievo che la sua vista sembrava normale il tunnel cilindrico di fronte stava allargandosi e al di là di un bordo ellittico si scorgeva una parete lontana in cui il contorno delle cellule era molto meno pronunciato Morrison disse il capillare si stacca dall'arteriola come il ramo di un albero formando un angolo obliquo attraverseremo quell'apertura e saremo rivolti controcorrente per tre quarti e quando toccheremo la parete dell'arteriola rimbalzeremo e ci gireremo del tutto nella direzione sbagliata Dezenev ridacchiò mio padre diceva avere mezza immaginazione è peggio che non averla osserva Albert caro aspetterò che siamo quasi all'apertura e ridurrò la spinta del motore così risaliremo la corrente molto lentamente bene adesso la nave mette il muso fuori dal capillare piano ancora un po' ancora un po' e il flusso dell'arteriola ci investe spinge il muso e ci fa girare io faccio avanzare ancora un po' la nave e la corrente ci fa girare un altro po' e quando usciamo completamente dal capillare miracolo ho girato la nave nella direzione giusta e spengo i motori sorrisse trionfante ben fatto eh ben fatto disse la baranova ma è impossibile senza l'intervento precedente di Albert e è vero ammise Dezenev agitando la mano gli concedo tutto il merito e l'ordine di Lenin se lo accetta Morrison provò un sollievo enorme non sarebbe dovuto uscire di nuovo grazie Arcadi disse poi timidamente aggiunse sai Sofia ho ancora sete lei gli porse subito la bottiglia ma Morrison esitò sicura che non stia bevendo più della mia parte Sofia certo che stai bevendo più della tua parte Albert disse la Kalinin ma ti spetta più della tua parte tanto l'acqua si ricicla facilmente e inoltre abbiamo una piccola scorta extra non ti sei inserito bene nel comparto stagno avevi un gomito che sporgeva all'esterno e abbiamo dovuto forzare lo strato interno per tirarlo dentro quindi è entrato un po' di plasma non molto grazie alla sua viscosità e naturalmente si è miniaturizzato e adesso lo stiamo riciclando e dopo la miniaturizzazione sarà sia no una goccia infatti sorrise la Kalinin ma una goccia è pur sempre una scorta extra e dato che l'hai portata dentro tu spetta te la logica è logica Morrison rise e succhiò l'acqua avidamente spremendola dal contenitore flessibile come gli astronauti cominciava a sentirsi abbastanza normale anzi più che normale provava la contentezza quasi irreale di chi è appena uscito da una situazione insopportabile cerco di concentrarsi di tornare alla realtà era ancora sulla nave aveva ancora le dimensioni di un batterio grosso modo era ancora nel flusso sanguigno di un uomo in coma le sue probabilità di sopravvivenza per le prossime ore erano ancora problematiche eppure anche pensando a tutte quelle cose non riusciva a scrollarsi di dosso la convinzione che la semplice assenza di calore insopportabile il semplice fatto di essere insieme ad altre persone la semplice presenza delle premure di una donna fossero di per sé sensazioni paradisiache disse non ringrazio solo Arcadi vi ringrazio tutti per avermi tirato dentro ed esservi occupati di me figurati disse Conoff indifferente abbiamo bisogno di te e del tuo programma se ti avessimo lasciato là fuori il progetto sarebbe fallito anche se avessimo trovato la cellula giusta può darsi Yuri disse indignata la Boranova ma quando stavamo recuperando Albert non ho pensato a queste cose ma solo a salvargli la vita pur conoscendoti stento a credere che tu sia stato tanto insensibile da non provare la minima prensione per un essere umano che stava rischiando la vita per aiutarci e che tu ti sia preoccupato solo del fatto che quell'essere umano ci serviva è ovvio che la ragione pura e semplice e indesiderata Borbotto Koneff la ragione era sicuramente la cosa che Morrison invece desiderava da quando aveva sentito parlare di lesioni cerebrali si era esaminato pensando cercando di raggiungere delle conclusioni disse Arkady quando i motori a microfusione sono in funzione trasformiamo idrogeno miniaturizzato in elio miniaturizzato e una parte dell'elio si disperde con il vapore acqueo miniaturizzato o altre sostanze impegnate per la propulsione si disse Arkady circospetto e allora le particelle miniaturizzate atomi e subparticelle attraversano il corpo di Shapirov la grotta la terra e finiscono nello spazio esterno come hai detto tu va bene e allora sicuramente non rimangono miniaturizzate non stiamo avviando un processo in cui l'universo si riempirà gradualmente di particelle miniaturizzate man mano che l'umanità utilizzerà la miniaturizzazione in modo sempre più massiccio vero? anche se fosse che male ci sarebbe miliardi di anni di attività umana non potrebbero disseminare nell'universo una quantità significativa di particelle miniaturizzate comunque non accade la miniaturizzazione è uno stato metastabile il che significa che c'è sempre la possibilità che una particella miniaturizzata riacquisti spontaneamente la vera stabilità cioè torni allo stato non miniaturizzato con la coda dell'occhio Morrison vide che la Boranova alzava una mano in segno di avvertimento ma quando Desnev cominciava a parlare a brigia sciolta non era facile fermarlo naturalmente continuò Desnev non si può prevedere quando una particolare particella miniaturizzata si espanderà ma si può stare sicuri che quasi tutte saranno già oltre la luna quando accadrà per quanto riguarda le poche particelle che escono quasi subito dalla miniaturizzazione e sì qualcuna c'è sempre il corpo di Shapirov è in grado di assorbirla fu a quel punto che parve accorgersi del gesto della Boranova fattosi nel frattempo parentorio ma ti sto annoiando disse come disse mio padre in punto di morte i miei proverbi vi avranno annoiato però adesso finalmente non li sentirete più così mi piangerete meno e quindi soffrirete meno il vecchio genitore sarebbe rimasto sorpreso e magari deluso se avesse saputo quanto abbiamo pianto noi bambini malgrado tutto ma io preferisco non approfittare del buon cuore dei miei compagni di viaggio appunto scattò Conoff quindi smettila per favore soprattutto dal momento che ci stiamo avvicinando al capillare in cui dobbiamo entrare Albert sporgiti e studia la cerebroografia d'accordo ma Kalinin rivolgendosi come sempre alla Boranova disse nelle sue condizioni Albert non può essere tormentato con delle cerebroografie lasciami provare disse Morrison armeggiando con la cintura no d'accordo fece riso gli increspo gli increspo la faccia felice applaudite e dite bravo Arcadi Morrison lo accontentò e disse bravo Arcadi e la nave entrò nel capillare Morrison si era ripreso a sufficienza ed era stanco del suo ruolo di invalido oltre lo scafo trasparente la parete del capillare era suddivisa in tante mattonelle cellulari molto evidenti e sembrava piuttosto vicina su ogni lato era molto simile all'altro capillare quello in cui lui aveva girato la nave voglio vedere la cerebroografia disse sganciò la cintura del sedile il primo gesto risoluto da quando era tornato a bordo e mentre lo faceva fissò con espressioni ribelle la Kalinin che lo fissava all'armata si spinse ad agio verso l'alto e si mise in posizione per guardare oltre le spalle di Konef con ripetute correzioni prima in su poi in giù come sai che siamo in quello giusto Yuri chiese Konef alza lo sguardo con i calcoli e col punto stimato guarda se riduciamo la scala della cerebroografia questa è l'arteriola che abbiamo seguito dalla carotide abbiamo preso questa dinamazione e questa poi si tratta solo di contare i capillari che si ramificano sulla destra qui abbiamo abbisticciato con il globulo bianco e nel tempo che ha avuto a sua disposizione il globulo può avere raggiunto solo questo capillare dopo l'inversione di direzione siamo tornati all'arteriola abbiamo seguito la sua struttura che andava restringendosi confrontandola con la cerebroografia la serie di diramazioni incontrate corrispondeva quasi alla perfezione con lo schema della cerebroografia e solo questo fatto mi garantisce che stiamo seguendo la rutta giusta adesso siamo entrati in questo capillare la sinistra di Morrison scivolò sulla superficie liscia dello schienale del sedile di Conef e nel tentativo di rimediare Morrison finì in una comica verticale sulle dita tese della mano destra mentre si dava da fare per raddrizzarsi pensò furibondo che le versioni successive della nave avrebbero dovuto essere dotate tra l'altro di sostegni sui sedili e in altri punti strategici anzi mando disse dove ci porterà questo capillare Conef rispose in uno dei centri che a tuo avviso rappresentano un crocevia dei processi di pensiero astratto riduciamo ancora la scala della cerebroografia ecco qui Morrison a noi e ricorda che li ho localizzati negli esseri umani solo indirettamente basandomi sui miei studi del cervello degli animali comunque se ho ragione quello dovrebbe essere il nodo scettico esterno superiore stando a conto fermi i nodi di questo tipo dovrebbero essere otto quattro per lato questo comunque è il più grande e il più intricato del lato sinistro quindi è più probabile che possa fornirci i dati che ci occorrono dico bene? credo di sì rispose Cauto Morrison ma per favore ricorda che le mie teorie non sono state accettate dalla comunità scientifica e adesso cominci a dubitarne anche tu Albert la prudenza è un atteggiamento scientifico ragionevole Yuri il mio concetto del nodo scettico ha senso correlato alle mie osservazioni però non ho mai potuto verificare la questione direttamente ecco tutto e non vorrei che dopo diceste che vi ho tratto in inganno Tesnef soffocò una risatina nodo scettico non c'è da meravigliarsi se i tuoi compatrioti sono scettici riguardo questa teoria Albert e mio padre diceva la gente è già fin troppo pronta a ridere di te non incoraggiarla con delle smorfie perché non l'hai chiamato nodo del pensiero in chiaro e semplice russo ma avrebbe avuto un suono molto migliore o nodo del pensiero in inglese disse Morrison paziente ma la scienza è internazionale e si usa il greco e il latino se è possibile pensiero in greco si dice skeptis da cui deriva scettico sia in inglese che in russo per indicare un atteggiamento abituale di dubbio proprio perché il dubbio implica pensiero sicuramente saprete tutti che il modo più efficace di accettare gli stupidi dogmi che ci propina l'ortodossia sociale è quello di astenersi dal pensare ma quelle parole ci fu un silenzio imbarazzato al che Morrison dopo aver rilasciato che il significato della frase alleggiasse nell'aria per un periodo sufficiente con una punta di cattiveria soggiunse come sanno gli esseri umani in tutte le nazioni la tensione si allentò subito e percettibilmente Dezenf disse in tal caso vedremo quanto dobbiamo essere scettici riguardo il nodo scettico quando ci arriveremo spero che non la consideri una cosa su cui scherzare buffone borbottò Conef rabuiandosi quel nodo è il punto che forse ci permetterà di captare i pensieri di Shapirov in caso contrario questa impresa sarà stata inutile Dezenf disse faccia sconnesso compito io ti porterò là manovrando abilmente la nave una volta arrivati tu capterai i pensieri o lo farà Albert se tu non ci riuscirai e se sarai in gamba con i pensieri come io lo sono con la nave non avrai motivo di rattristarti mio padre diceva tuo padre sta meglio dov'è disse Conef non riesumarlo ancora Iuri intervenne Bruce Calaboranova hai detto una cosa molto offensiva devi chiedere scusa ma non importa disse Dezenf mio padre diceva il momento di offendersi arriva quando un uomo dopo essersi calmato ripete un insulto lanciato in preda alla collera non sono sicuro di poter seguire sempre quel consiglio ma in onore di mio padre questa volta sorvolerò sulle stupide parole di Iuri che no sui comandi l'espressione truce Morrison aveva seguito l'alterco una semplice sgarberia di Conef evidentemente perché era sottoposto a una tensione notevole solo in modo distratto la sua mente tornò a qualcos'altro alle chiacchiere disinvolte di Dezenf e alla mano ammonitrice della Boranova agganciò la cintura per stabilizzarsi e si girò verso la Boranova Natalia una domanda sì Albert quelle particelle miniaturizzate sprigionate nell'universo normale sì Albert e alla fine si deminiaturizzano la Boranova esitò come ti ha detto Arcadisi quando lei si strinse nelle spalle è imprevedibile come il decadimento radioattivo di un singolo atomo e come lo sapete perché è così voglio dire che esperimenti avete fatto nulla è mai stato ridotto al nostro livello attuale di miniaturizzazione quindi non potete sapere cosa accade a particelle tanto miniaturizzate per osservazione diretta abbiamo studiato i livelli di miniaturizzazione che abbiamo raggiunto e in questo modo abbiamo individuato quelle che dovrebbero essere le leggi del comportamento degli oggetti miniaturizzati le nostre estrapolazioni le estrapolazioni non sono sempre affidabili quando escono troppo dal campo dello studio diretto è vero hai paragonato la deminiaturizzazione spontanea al decadimento radioattivo la deminiaturizzazione ha un semiperiodo anche se non siete in grado di dire quando una particolare particella miniaturizzata si deminiaturizzerà siete in grado di dire quando si deminiaturizzerà la metà di un numero piuttosto grande di tali particelle abbiamo dei dati semiperiodici e pensiamo che siano espressioni di reazioni cinetiche di prim'ordine come i semiperiodi radioattivi Morrison chiese potete generalizzare da un tipo di particella a un altro la Boranova arricciò le labbra e per un attimo parve immersa nei propri pensieri infine rispose sembra che il semiperiodo di un oggetto miniaturizzato sia inversamente proporzionale all'intensità di miniaturizzazione e anche alla massa normale dell'oggetto dunque più ci miniaturizziamo minore la durata probabile della miniaturizzazione e più piccoli siamo in partenza minore la durata probabile della miniaturizzazione esatto confermò asciutta la Boranova Morrison l'ha fisso serio ammiro la tua integrità Natalia non sei ansiosa di rivelarmi le cose non dai informazioni spontaneamente però non arrivi al punto di darmi informazioni false sono un essere umano e a volte dico bugie per necessità o perché la mia personalità e le mie emozioni non sono perfette ma sono anche una scienziata e non traviserei mai dei dati di fatto scientifici se non per motivi più che impellenti dunque in conclusione anche questa nave per quanto molto più massiccia di un nucleo di elio ha un semiperiodo o periodo di dimezzamento molto lungo si è affretto a precisare la Boranova ma il fatto che siamo miniaturizzati a un livello così intenso ha ridotto questo semiperiodo molto lungo che resta comunque lungo e i componenti individuali della nave le molecole dell'acqua che beviamo le molecole d'aria che respiriamo i singoli atomi che compongono il nostro corpo potrebbero avere devono avere un semiperiodo cortissimo esclamò la Boranova sembrando risollevata ora che poteva negare qualcosa il campo di miniaturizzazione si sovrappone quando si tratta di particelle sufficientemente unite e reciprocamente immobili o quasi immobili come questa nave e tutto ciò che contiene equivale a una particella grande ma singola e a un semiperiodo di deminiaturizzazione conforme qui la miniaturizzazione è diversa dalla radioattività ha fece Morrison però quando sono uscito non ero più in contatto con la nave forse era una particella separata con una massa molto più piccola rispetto alla nave e al suo contenuto con un semiperiodo molto più piccolo di quello che abbiamo ora no? non so di preciso se la distanza tra te e la nave sia stata sufficiente a renderti un corpo separato può darsi nel periodo di tempo in cui non eri in contatto dunque allora avevo un semiperiodo più corto molto più corto può darsi dell'arresto ha interrotto il contatto solo per qualche minuto beh qual è il semiperiodo di questa nave a livello attuale di miniaturizzazione? eh non si può parlare di semiperiodo di un singolo oggetto eh già perché i semiperiodi sono statici per qualsiasi particella la deminiaturizzazione può avvenire spontaneamente in qualsiasi momento anche dopo pochissimo tempo anche se il semiperiodo di un grande numero di particelle identiche è piuttosto lungo se il semiperiodo statistico è lungo è improbabile che la deminiaturizzazione spontanea si verifichi entro pochissimo tempo improbabile ma non impossibile vero? no rispose la Boranova non è impossibile quindi potremmo deminiaturizzarci di colpo tra 5 minuti o addirittura tra un minuto o tra un secondo in teoria lo sapevate tutti Morrison si guardò attorno certo che lo sapevate tutti perché non mi è stato detto la Boranova rispose siamo volontari Albert lavoriamo per la scienza e per la nostra nazione conosciamo tutti i pericoli e li accettiamo tu sei stato costretto a partecipare a questa impresa e non hai le nostre motivazioni se fossi stato al corrente di tutti i pericoli forse ti saresti rifiutato di salire a bordo volontariamente e anche se ti avessimo trascinato a bordo con la forza forse non ci saresti stato di alcun aiuto essendo bloccato dal si interruppe dalla paura stavi per dire concluse Morrison mi pare di avere il diritto di avere paura ne ho ben donde la Kalinin intervenne la voce leggermente alterata è ora di smetterla di insistere sulla paura di Albert Natalia è lui che è uscito dalla nave con una tuta inadeguata è lui che ha girato la nave rischiando la vita dov'era la sua paura allora se ne aveva l'ha soffocata dentro di sé e non ha permesso che gli impedisse di fare quello che bisognava fare Dezenov disse eppure proprio tu in passato non esitavi a dire che gli americani erano tutti dei vigiacchi mi sbagliavo parlavo in modo ingiusto e chiedo scusa ad Albert fu allora che Morrison colse lo sguardo di Konef Konef si era girato sul sedile e gli lanciava occhiate minacciose Morrison non pretendeva di essere un genio nel decifrare le espressioni del volto però in questo caso non ebbe dubbi e intuì subito da cosa fosse tormentato Konef quell'uomo era geloso la sua era una gelosia rabbiosa e impressionante la nave continuò la sua lenta avanzata lungo il capillare verso la destinazione indicata da Konef il nodo scettico non si affidava alla corrente che adesso era lentissima i motori erano in funzione come Morrison poteva dedurre da due particolari innanzitutto la nave era più stabile procedendo in modo attivo che non andando alla deriva e questo attenuava ulteriormente l'effetto già quasi impercettibile del moto browniano in secondo luogo la nave sorpassava un globulo rosso dopo l'altro nella maggior parte dei casi i globuli rossi venivano sospinti di lato e arrotolavano tra lo scafo e la parete rimanendo indietro di tanto in tanto però qualche globulo rosso veniva centrato in pieno dalla prua e spinto in avanti fino a scoppiare i resti galleggiavano in direzione opposta senza macchiare lo scafo con almeno 5 milioni di globuli rossi per millimetro cubo di sangue il numero delle vittime era trascurabile e Morrison si era abituato a quella carneficina era meglio pensare ai globuli rossi che ha la possibilità di deminiaturizzarsi spontaneamente Morrison sapeva che erano scarse le probabilità di un'espansione esplosiva entro brevissimo termine e anche se fosse successo sarebbe stato soltanto un blackout improvviso la morte per surriscaldamento del cervello sarebbe stata così rapida da risultare inavvertibile poco tempo prima Morrison si era surriscaldato molto più lentamente del flusso sanguigno si era sentito morire dopo quell'esperienza la morte istantanea non lo terrorizzava più comunque preferiva pensare ad altro lo sguardo di Conef cos'era che ribolliva in lui e lo lacerava aveva abbandonato Sofia con incredibile crudeltà pensava davvero che la bambina non fosse sua alla gente la ragione non serviva per giungere a una conclusione emotiva e il sospetto di sbagliarsi originava un atteggiamento di difesa che portava a rafforzare definitivamente alla conclusione raggiunta una situazione patologica bastava pensare alle onte del racconto d'inverno Shakespeare inquadrava sempre alla perfezione certe situazioni Conef respingeva Sofia e la odiava per il torto che le aveva fatto la spingeva tra le braccia di un altro uomo e la odiava per questo ed era anche geloso poi e lei era al corrente di quella gelosia e ne approfittava che intendesse servirsi di Morrison un americano per distruggere Conef strofinando teneramente l'americano con la salvietta umida difendendolo in continuazione con Conef sempre presente naturalmente Morrison si arrò le labbra non gli piaceva fare la pallina da tennis essere sballottato tra i due contendenti per produrre la massima sofferenza non erano a fare i suoi in fin dei conti e non doveva prendere partito ma come poteva evitarlo Sofia Kalinin era una donna attraente mossa da un tacito dolore Yuri Conef era un individuo cattivo e corrucciato mosso da una rabbia soffocata Morrison non poteva fare a meno di apprezzare Sofia e detestare Conef notò allora che la Boranova lo fissava con aria grave e si chiese se stesse malinterpretando il suo silenzio assorto pensava che stesse rimuginando sulla possibilità di morire a causa della miniaturizzazione mentre lui invece si sforzava coraggiosamente di non farlo evidentemente la Boranova lo pensava proprio perché ad un tratto disse Albert nessuno di noi è uno sconsiderato io ho un marito ho un figlio voglio tornare da loro viva e intendo riportare a casa vivi tutti quanti voglio che tu lo capisca le tue intenzioni sono buone non ne dubito disse Morrison ma cosa puoi fare in caso di una deminiaturizzazione trattandosi di qualcosa di spontaneo imprevedibile inarrestabile spontaneo imprevedibile d'accordo ma chi ha detto che il fenomeno sia inarrestabile puoi arrestarlo allora posso provare ognuno ha un compito qui Arcadi manovrà la nave Yuri la guida a destinazione Sofia provvede alla struttura elettrica dello scafo tu studierai le onde cerebrali per quanto riguardi me io me ne sto seduta qua dietro a decidere e finora la mia decisione più importante è stata sbagiata lo ammetto a decidere e a controllare il flusso termico il flusso termico sì prima che si verifichi la deminiaturizzazione c'è una piccola emanazione di calore che presenta caratteristiche precise e questa emissione ad avere un effetto destabilizzante sposta il delicato equilibrio e dopo un breve intervallo avvia il processo di deminiaturizzazione quando accade se sono abbastanza rapida posso intensificare il campo miniaturizzante in maniera tale da riassorbire il calore e a ristabilire la metastabilità Morrison osservò dubbioso questo è mai stato fatto fatto in condizioni di impiego reale o è solo teoria? è stato fatto a livelli di miniaturizzazione molto minori naturalmente tuttavia mi sono allenata e ho i riflessi pronti spero di non lasciarmi cogliere alla sprovvista è stata la deminiaturizzazione spontanea a mandare in coma a Shapirov Natalia la Boranova esitò in realtà non sappiamo se sia stato un incontro sfortunato con le leggi della natura o un errore umano o entrambe le cose forse si è trattato solo di un'oscillazione lievemente più grande del solito dal punto di equilibrio metastabile non posso analizzare dettagliatamente la cosa con te perché ti mancano le basi necessarie di fisica e matematica della miniaturizzazione basi che io non ho il permesso di rivelarti capisco materiale riservato naturalmente Dezenev l'interruppe Natasha abbiamo raggiunto il nodo scettico almeno così dice Yuri allora fermati ordina la Boranova ci vuole un po' per fermarsi Morrison piuttosto sorpreso notò che Dezenev si comportava come se la cosa non lo riguardasse stava controllando i suoi strumenti però non muoveva un dito per controllare i movimenti della nave era la Kalinin ad essere impegnata adesso Morrison si girò studiandola mentre era a China sul suo strumento coi capelli che le ricadevano in avanti ma non erano abbastanza lunghi da intralciarla lo sguardo assorto le dita sottili che accarezzavano i tasti del computer i grafici sullo schermo che stavo osservando non avevano alcun senso per Morrison naturalmente Arcadi disse Sofia vai avanti ancora un po' la debole corrente dei capillari agitava appena la nave Dezenev inserì la propulsione per un attimo Morrison sentì che il suo corpo quasi privo di massa arretrava leggermente dato che non c'era abbastanza inerzia da imprimergli un vero scossone il globulo rosso più vicino tra lo scafo e la parete del capillare scivolò indietro ferma ferma disse la Kalinin basta non posso fermarmi spiegò Dezenev posso solo spegnere i motori e l'ho fatto va bene l'ho trovato e quasi a titolo cautelativo aggiunse penso poi sì ci siamo proprio Morrison si sentì ondeggiare impercettibilmente in avanti poi notò che i globuli rossi vicini e l'occasionale piastrina scorrevano pigramente oltre la prua inoltre si rese conto che era cessato del tutto il moto browniano quel tremolio a cui ero ormai abituato tanto da riuscire a ignorarlo adesso era scomparso e la sua assenza produsse in Morrison lo stesso effetto della cessazione di un ronzio basso e continuo si agitò inquieto era come se il suo cuore avesse smesso di battere anche se Morrison sapeva che batteva ancora chiese che fine ha fatto il moto browniano Sofia siamo attaccati alla parete del capillare Albert Morrison annui se la nave formava un tutt'uno col capillare per così dire le molecole d'acqua che con il loro bombardamento producevano il moto browniano perdevano il loro effetto a subire la miriade di impatti era un intero settore di parete relativamente inerte non una navicella grande quanto una piastrina logico che il tremito cessasse come hai fatto ad attaccare la nave Sofia chiese Morrison le solite forze elettriche la parete del capillare è in parte proteica e in parte fosfolipidica ci sono gruppi a carica positiva e negativa qui e là ho dovuto individuare una struttura sufficientemente compatta quindi produrre uno schema complementare per lo scafo negativo dove la parete è positiva e viceversa il guaio è che la nave avanza con la corrente così bisogna individuare il punto in anticipo e produrre lo schema complementare prima di oltrepassarlo ho fallito tre volte poi abbiamo incontrato una zona dove non c'era una sola struttura elettromagnetica adatta così ho detto ad Arkady di andare avanti un po' in cerca di una zona migliore ma alla fine ce l'ho fatta se la nave avesse una retromarcia non ci sarebbe stato nessun problema vero osservò Morrison vero a noi la Kalinin e la prossima nave l'avrà ma intanto dobbiamo accontentarci di quel che abbiamo esatto intervenne Deznev come diceva mio padre quel banchetto di domani oggi si può morire di fame d'altro canto continuò la Kalinin se avessimo un motore in grado di fare tutto saremmo tentati di usarlo in modo eccessivo il che potrebbe essere dannoso per il povero Shapirov e poi sarebbe dispendioso adesso invece abbiamo usato un campo elettrico che consuma meno energia di un motore ed è bastato solo un po' di lavoro da parte mia quindi poca cosa no? Morrison era certo che non stesse parlando per lui sei sempre così filosofa disse per un attimo Sofia spalancò gli occhi e tese le narici ma solo per un attimo poi si rilassò e abbozzando un sorrisetto rispose no sarebbe impossibile per chiunque però ci provo la Boranova intervenne spazientita basta chiacchiere Sofia Arcadi è chiaro che sei in contatto con la grotta qual è il motivo di questi induci? Arcadi alza una mano girandosi a metà per rivolgere il palmo alla Boranova pazienza comandante vogliono che rimaniamo esattamente dove siamo per due ragioni primo sto inviando un'onda portante in tre direzioni stanno captando i segnali e li usano per localizzarci e vedere se la posizione calcolata da loro quadra con il punto stimato da Yuri quanto ci varrà? eh chi può dirlo qualche minuto senz'altro ma i miei segnali non sono molto forti e la posizione deve essere precisa quindi può darsi che debbano ripetere i rilevamenti parecchie volte fare una media e calcolare i limiti di errore sai non devono sbagliare perché come diceva mio padre quasi giusto equivale a sbagliato sì sì Arcadi ma questo dipende dalla natura del problema qual è il secondo motivo per cui stiamo aspettando stanno eseguendo dei controlli su Piotr e Shapirov il suo battito cardiaco è diventato leggermente irregulare Conniff alza lo sguardo aprendo la bocca e le sue guance sembravano scarne scavate sotto gli zigomi sporgenti cosa? dicono che dipende da noi no disse Detsnev non farei il tragico non hanno detto niente del genere cosa possiamo fare noi a Shapirov siamo solo un globulo rosso tra i miliardi di globuli rossi del suo flusso sanguigno beh allora cosa c'è che non va e che ne so fece Detsnev invitato lo vengono a dire a me sono un medico io manovro solo questa nave e per loro sono solo un paio di mani di comandi la Kalinin disse con una sfumatura di tristezza e in ogni caso l'accademico Shapirov è attaccato la vita da un filo sottile è un miracolo che le sue condizioni siano rimaste stabili così a lungo la Boranova a noi hai ragione Sofia Konev disse rabbiosamente ma deve continuare a rimanere stabile non può mollare adesso non adesso non abbiamo ancora ottenuto i nostri dati li avremo disse la Boranova un battito irregolare non è la fine del mondo nemmeno per un uomo in coma Konev pestò il pugno sul bracciolo del sedile non voglio perdere un solo istante Albert cominciamo Morrison sussultò e cosa si può fare qui nel flusso sanguigno si può avvertire un effetto neurale immediatamente all'esterno della cellula nervosa assolutamente perché i neuroni avrebbero gli assoni e i dendriti per incanalare l'impulso se questo dovesse poi disperdersi e indebolirsi nello spazio esterno alla cellula le locomotive si spostano lungo i binari i messaggi telefonici lungo i cavi gli impulsi neurali non discutere Albert non arrendiamoci basandoci solo su qualche processo di ragionamento verifichiamo vedi se riesci a captare delle onde cerebrali e se puoi analizzarle nella maniera dovuta ci proverò disse Morrison ma non darmi ordini usando quel tono prepotente mi dispiace disse Konev che non sembrava affatto dispiaciuto voglio osservare quello che fai sganciò la cintura si girò sul sedile e si tene aggrappato borbottando dobbiamo avere spazio la prossima volta un transatlantico certo commentò Desnev la prossima volta innanzitutto spiegò Morrison dobbiamo scoprire se riusciamo a captare qualcosa il guaio è che siamo circondati da campi elettromagnetici i muscoli sono ricchi di campi elettromagnetici e quasi ogni molecola è il punto d'origine di salta pure tutto quanto è risaputo sto soltanto ingannando l'attesa mentre eseguo alcune regolazioni necessarie il campo neurale presenta parecchie caratteristiche e regolando il computer in modo tale da eliminare i campi senza quelle caratteristiche lascio solo quelle che i neuroni producono sopprimiamo tutti i micro campi così e deviamo i campi muscolari in questa maniera in che maniera disse Konev è descritto nei miei studi ma non ho visto cosa hai fatto in silenzio Morrison ripete l'operazione lentamente fece Konev e a questo punto dovremmo captare solo le onde neurali ammesso che ci siano e non ci sono Konev serrò il pugno sei sicuro? lo schermo mostra una linea orizzontale nient'altro vibra rumore probabilmente proviene dal campo elettrico della nave che è complesso leggermente diverso dai campi naturali del corpo non ho mai dovuto regolare un computer per filtrare un campo artificiale beh allora dobbiamo proseguire Arkady di a quelli della grotta che non possiamo aspettare oltre non posso farlo Yuri a meno che non sia Natasha a dirmelo e lei è il comandante o te l'eri dimenticato grazie Arkady disse Gelida la Boranova tu almeno non l'hai dimenticato perdoneremo questo sbaglio di Konef attribuendolo a un eccesso di zelo nello svolgimento del suo compito i miei ordini sono di non muoversi finché non avremo il benestare della grotta se questa missione fallerà a causa di qualche inconveniente fisico di Shapirov nessuno deve poter dire che è successo perché noi non abbiamo eseguito gli ordini e se succederà qualche disgrazia proprio perché avremo eseguito gli ordini può accadere anche questo il tono di Konef era quasi isterico la Boranova rispose la colpa sarà di chi ha impartito gli ordini la distribuzione della colpa mi lascia completamente indifferente a me o a qualsiasi altro non mi importa il risultato che conta sono d'accordo disse la Boranova a livello di teoria astratta ma se vuoi continuare a lavorare a questo progetto al di là di una possibile catastrofe scoprirai che la ripartizione delle colpe è estremamente importante beh allora disse Konef balbettando un po' nella foga digli che si sbrighino e ci lasciano proseguire il più presto possibile così noi noi sì invece la Boranova così noi entreremo nella cellula dobbiamo intercellulare nella vita a differenza che negli scacchi il gioco continua anche dopo lo scacco matto Dezenev Senior un silenzio greve scese sui cinque compagni di viaggio il silenzio di Konef era il più inquieto Konef fremeva ad agitazione e non riusciva a tenere le mani ferme Morrison provò una vaga compassione per lui arrivare alla meta secondo i piani attraverso tante difficoltà immaginarsi sul punto di afferrare il successo e dover temere di vederselo sfuggire dalle dita tesi avvitamente proprio ora era una sensazione che Morrison conosceva forse non era più viva come un tempo adesso che era stato schiacciato e obnubilato dalla frustrazione però ricordava le prime volte esperimenti che alimentavano la speranza ma in qualche modo non erano mai decisivi colleghi che sorridevano e annuivano ma non erano mai convinti si sporse in avanti e disse Yuri guarda i globuli rossi continuano a scorrere uno dopo l'altro regolarmente il che significa che il cuore batte e lo fa in modo abbastanza regolare finché i globuli rossi si muovono costantemente in avanti siamo al sicuro Dezenev aggiunse e c'è anche la temperatura del sangue la controllo sempre e dovrà cominciare a scendere in modo lento ma deciso se Shapirov cede invece si mantiene sui valori massimi della norma Conoff sbuffò quasi disprezzasse le consolazioni e le mettesse da parte però Morrison sembrò nettamente più tranquillo dopo quelle parole Morrison si abbandonò sul sedile e chiuse gli occhi aveva fame? no avvertiva un senso di pressione alla vescica? no non lo avvertiva però era un sollievo relativo il pasto si poteva rimandare per un periodo di tempo considerevole ma quando si trattava di urinare non c'era la stessa flessibilità di scelta di colpo si accorse che la Kalinin gli si era rivolta e lui non aveva ascoltato scusa cosa hai detto? fece voltandosi a Kalinin parva sorpresa disse sottovoce scusa ho interrotto i tuoi pensieri valeva la pena di interromperle Sofia sono io a chiederti scusa per la mia disattenzione se è così ti ho chiesto che cos'è che fai nella tua analisi delle onde cerebrali mi spiego meglio che cos'è che fai di diverso dagli altri perché abbiamo dovuto Sofia si interruppe indecisa su come proseguire maurison non ebbe difficoltà a terminare la frase perché avete dovuto prelevarmi con la forza dal mio paese ti ho fatto arrabbiare no immagino che non sia stata tu a suggerire quest'azione è certo che no non ne sapevo nulla è appunto per questo che ti sto facendo questa domanda non so nulla della tua materia so solo che esistono delle onde elettroneurali e che l'elettroencellografia è diventata uno studio complesso importante se vuoi sapere cosa abbiano di speciale le mie teorie allora temo di non potertelo dire un segreto eh lo sospettavo no non è un segreto fece morrison aggrottando le ciglia non ci sono segreti nella scienza o non dovrebbero esserci solo che ci sono lotte per la priorità così a volte gli scienziati sono circospetti e stanno attenti a quel che dicono e anche io certe volte sono colpevole di questo ma prima parlavo in senso letterale non posso dirtelo perché ti mancano le basi per capire Nakalinin riflettì stringendo le labbra quasi quel gesto favorisse la concentrazione non puoi spiegarmi qualcosa posso provare ma se sei disposto a sentire delle affermazioni semplici non posso certo illustrarti l'intera materia quelle che chiamiamo onde cerebrali sono un insieme di attività neuroniche di ogni genere percezioni sensoriali stimoli muscolari e ghiandolari meccanismi di eccitazione coordinazioni e così via confuse in mezzo a tutte queste onde ci sono quelle che controllano il pensiero costruttivo e creativo o ne derivano isolare da tutto il resto queste onde scettiche come le chiamo io è un problema enorme il corpo lo fa senza difficoltà ma noi poveri scienziati per lo più siamo in imbarazzo non sto facendo fatica a capire sorrise la Kalinin soddisfatta è molto graziosa quando riesce a sbarazzarsi della sua aria malinconica riflette Morrison non sono ancora arrivato alla parte difficile disse fallo allora per favore circa vent'anni fa è stato dimostrato che nelle onde c'era apparentemente una componente casuale che nessuno aveva mai rilevato perché gli strumenti usati fino ad allora non registravano quello che adesso chiamiamo lo sfavillio è un'oscillazione rapidissima di ampiezza e intensità irregolari non l'ho fatta io questa scoperta chiaro la Kalinin sorrise ancora immagino che vent'anni fa fossi troppo giovane per fare questa scoperta era uno studente universitario e stavo scoprendo che le ragazze non erano del tutto inavvicinabili il che non è una scoperta da poco infatti a mio avviso può darsi che ognuno debba riscoprirlo di tanto in tanto ma lasciamo perdere alcuni ipotizzano che lo sfavillio potesse rappresentare i processi di pensiero mentali ma nessuno riuscì a isolarlo bene andava e veniva a volte era percepibile altre no e l'opinione generale era che si trattasse di un fenomeno spurio cioè che si stesse lavorando con strumenti troppo delicati per quello che stavano misurando e che quindi si finisse col captare fondamentalmente del rumore io ero di avviso contrario col tempo ho messo a punto un programma per computer che mi ha permesso di isolare lo sfavillio e dimostrare che era sempre presente nel cervello umano ho ottenuto qualche riconoscimento per questo anche se erano pochi quelli capaci di ripetere i miei risultati ho usato degli animali per tipi di sperimentazione troppo pericolosi per gli esseri umani e con i risultati ottenuti ho perfezionato ulteriormente il mio programma di analisi ma più l'analisi era perfezionata più credevo di avere conseguito risultati significativi minori erano le conferme che gli altri erano in grado di dare e i miei colleghi erano sempre più convinti che mi stessi lasciando ingannare dai miei esperimenti con gli animali perfino dopo aver isolato lo sfavillio ero ben lungi dall'aver dimostrato che si trattava di una rappresentazione del pensiero astratto l'ho semplificato l'ho intensificato ho modificato il mio programma in continuazione e mi sono convinto di trovarmi di fronte al pensiero alle onde scettiche eppure nessuno riesce a confermare i punti cruciali del mio lavoro in più di un'occasione ho lasciato che qualcuno usasse il mio programma e il mio computer la stessa apparecchiatura che sto usando adesso ma immancabilmente è stato un fiasco la Kalinin stava ascoltando serissima hai idea del perché nessuno riesca a confermare i risultati ottenuti da te la spiegazione più facile è che c'è qualcosa che non va in me che devo essere un po' strambo per non dire pazzo secondo me certi miei colleghi lo pensano e tu pensi di essere pazzo? no Sofia però anch'io tentenno a volte vedi dopo aver isolato e amplificato le onde scettiche il cervello umano stesso potrebbe diventare uno strumento ricevente può darsi che le onde trasferiscano i pensieri del soggetto che stai studiando direttamente a te il cervello sarebbe un ricevitore di incredibile sensibilità però sarebbe anche incredibilmente individuale se ho perfezionato il mio programma per riuscire a percepire meglio i pensieri di conseguenza devo averlo adattato al mio cervello dunque gli altri cervelli dovrebbero essere meno sensibili al mio programma è come un quadro più un quadro è fatto a mia immagine e somiglianza meno assomiglia agli altri più riesco a ottenere dal programma risultati compatibili e coerenti meno ci riescono gli altri hai davvero percepito il pensiero? non ne sono sicuro a volte ho pensato di averlo percepito ma ho sempre il dubbio che si tratti della mia immaginazione quel che è certo è che nessun altro l'ha percepito con o senza il mio programma ho usato lo sfavillio per individuare i nodi scettici del cervello degli scimpanze e da lì ho dedotto la posizione corrispondente nel cervello umano ma nemmeno questo è stato accettato lo considerano il frutto dell'entusiasmo eccessivo di uno scienziato troppo attaccato alle sue inverosimili teorie e anche allacciando dei fili ai nodi scettici di animali naturalmente anche così non ho potuto avere riscontri sicuri difficili difficile trattandosi di animali hai divulgato ufficialmente queste queste tue sensazioni non ho osato rispose morrison scuotendo la testa nessuno accetterebbe dei risultati così soggettivi ne ho parlato incidentalmente con parecchie persone che sciocco che sono stato si è sparsa la voce e i miei colleghi si sono convinti ancora di più che devo essere diciamo instabile solo lo scorso sabato ho saputo da Natalia che Shapiroff mi prendeva sul serio ma anche Shapiroff è considerato almeno nel mio paese un tipo instabile non lo è fece decisa la Kalinin o almeno non lo era beh certo sarebbe bello che fosse come dici tu Conoff senza voltarsi esordì all'improvviso sono state le tue sensazioni di pensiero colpire Shapiroff lo so ne ha discusso con me diverse volte ha detto che il tuo programma era un ritrasmettitore e che gli sarebbe piaciuto provarlo di persona all'interno di un neurone un neurone chiave del nodo scettico le cose sarebbero cambiate diceva si sarebbero percepiti i pensieri inequivocabilmente lo pensava Shapiroff e lo penso anch'io anzi secondo Shapiroff poteva darsi che tu avessi percepito i pensieri in modo lampante ma che esitassi a comunicare la notizia è così come insistevano sulla segretezza tutti quanti riflette Morrison poi colse l'espressione della Kalinin aveva la bocca socchiusa le sopracciglia aggrottate un dito vicino alle labbra sembrava quasi che fosse allarmata che volesse dirgli di stare zitto e non osasse farlo apertamente ma Morrison fu distratto dalla voce allegra e rumorosa di Desnef basta chiacchiere ragazzi miei dalla grotta ci hanno individuati e con loro grande sorpresa siamo esattamente dove diciamo di essere Konef alzò di scatto le mani e con voce quasi puerile disse era esattamente dove io dico che siamo Desnef replicò siamo per la responsabilità di gruppo dove noi diciamo di essere no intervenne la Boranova ho ordinato a Konef di decidere assumendosi la responsabilità e il merito è suo dunque Konef non si calmò non saresti stato così svelto a parlare di responsabilità di gruppo se ci fossimo trovati nel capillare sbagliato Arkady Vissarionovich disse usando il patronimico che oramai era in disuso da tempo in Unione Sovietica tranne che tra i contadini quasi a sottolineare che Desnef era figlio di un contadino il sorriso di Desnef sincrino e i suoi incisivi ingialliti morsero il labbro inferiore reprimendo eventuali repliche di Desnef la voce da contralto della Boranova chiese in tono autoritario e Shapirov che notizie ci sono qua è stato tutto rispose Desnef gli hanno stabilizzato le pulsazioni con una iniezione bene allora siamo pronti a muoverci fece Konef sì rispose la Boranova in tal caso lasciamo il flusso sanguigno finalmente la Boranova e Kalinin erano chine sui loro strumenti ma Orison le osservò alcuni istanti ma naturalmente non sapeva cosa stesse accadendo si rivolse a Desnef che sedeva rilassato a differenza di Konef teso in ogni suo muscolo e domandò cosa facciamo Arcadi non possiamo certo uscire sfondando un vaso sanguigno del cervello sgusciremo fuori non appena saremo abbastanza piccoli ci stiamo ancora miniaturizzando guardati attorno sorpreso Morrison guardò ogni volta che il mondo esterno sembrava stabilizzarsi lui finiva col dare per scontato che sarebbe rimasto così e lo ignorava la corrente aveva acquistato velocità o meglio no la nave era rimpicciolita per l'ennesima volta e gli oggetti che scorrevano accanto allo scafo impiegavano meno tempo a passare e la mente insistendo sulle dimensioni immutate della nave interpretava le immagini come una corrente più rapida un globulo rosso passò muovendosi apparentemente come nella carotide ma nonostante la velocità ondeggiò in lontananza a lungo come una balena tremolante che superasse una barca era quasi trasparente adesso e il suo bordo era sfocato per le vibrazioni del moto browniano era una sagoma grigiastra offuscata simile a un nembo minaccioso che solcasse il cielo ormai aveva perso gran parte del suo ossigeno cedendolo alle avide cellule cerebrali che senza muoversi o dare alcun segno di vita visibile consumavano un quarto dell'ossigeno portato dal sangue ai vari organi del corpo malgrado sembrasse che il cervello stesse semplicemente seduto al suo posto le attività sensoriali reattive e intellettive coordinate con una complessità di cui nessun computer umano avrebbe mai potuto eguagliare nemmeno la miliardesima parte a dir poco erano dispendiose per compensare l'espandersi dei globuli rossi delle piastrine e dei rari globuli bianchi che erano diventati mostri troppo grandi per riuscire a distinguerli il plasma sanguigno stava diventando molto meno liquido e informe aveva cominciato ad apparire granuloso e adesso i grani si stavano espandendo lentamente mentre sfrecciavano a velocità sempre più elevata Morrison sapeva che stava guardando delle molecole proteiche e che dopo un po' gli parve di scorgere in modo vago attraverso il loro turbinio le disposizioni elicoidali dei loro atomi alcune erano rivestite parzialmente da una foresta in miniatura di molecole lipidiche Morrison adesso avvertiva anche un movimento non il tremolio del moto browniano bensì un rullio sempre più marcato si voltò verso la parete del capillare alla quale erano attaccati le specie di mattonelle cellulari erano scomparse o almeno una mattonella tanto voleva chiamarla cellula a questo punto si era ingigantita ed era l'unica visibile alle loro spalle c'era il rigonfiamento del nucleo grosso e spesso sempre più grosso e più spesso la nave ondeggiò si staccò in parte dalla parete e ondeggiò di nuovo riaccostandosi alla parete che sta succedendo? chiese Morrison la Kalinin scosse il capo totalmente immersa nel proprio lavoro Deznev spiegò Sofia sta cercando di neutralizzare la carica elettrica della nave in vari punti in modo che lo scafo si stacchi prima che la tensione danneggi la parete e deve trovare nuove aree di contatto per evitare che ci stacchiamo completamente e non è facile miniaturizzarsi e nel medesimo tempo rimanere attaccati Morrison disse allarmato a che livello scenderemo? le sue parole furono soffocate dal comando stridolo della Kalinin Arcadi spostala avanti piano solo una lieve spinta si Sofia però dimmi quando devo fermarmi rispose Deznev e rivolta a Morrison e mio padre diceva tra non abbastanza e troppo ci corre un pelo di più di più disse la Kalinin bene adesso proviamo la nave parve bloccarsi poi in un tratto scivolò in avanti e Morrison si sentì proiettato ad agio contro lo schienale del sedile bene disse la Kalinin un po' meno adesso la cellula terminò più in là c'era un'altra cellula cellule sottili un velo di cellule unite assieme che formavano un tubicino con la nave e i cinque membri dell'equipaggio attaccati alla superficie interna dalle minuscole attrazioni di cariche elettriche lo spazio tra le cellule sembrava filamentoso c'erano dei cavi che si estendevano dall'interno di una cellula a quella vicina non erano tutti intatti si vedevano dei tronconi simili ai resti di una foresta abbattuta a Morrison sembrò che ci fossero delle strette aperture in quella foresta abbattuta ma dal suo punto d'osservazione non aveva una visuale chiara chiese ancora a che livello di miniaturizzazione scenderemo Arcadi scenderemo alle dimensioni di una piccola molecola organica ma a quel livello quante sono le probabilità di deminiaturizzazione spontanea e apprezzabili molto superiori rispetto a quando eravamo di dimensioni di un globulo roso o di una piastrina comunque non abbastanza da dovercene preoccupare te lo assicuro precisò la Boranova appunto confermò Dezenev e incrociando le dita alzò leggermente la mano perché Morrison potesse vedere appena ma non la Boranova che era più indietro era ormai un gesto universale e Morrison conoscendone benissimo il significato provò una sensazione di freddo interiore Dezenev aveva lo sguardo fisso di fronte a sé ma forse intuì la smorfe di Morrison o sentì il suo lieve brontolio non preoccuparti mio giovane Albert è sempre consigliabile una preoccupazione alla volta quindi adesso pensiamo a sgusciar fuori dal vaso sanguigno Sofia mia diletta sì Arcadi attenua il campo di coda e quando mi muovo cercane uno di fronte d'accordo Arcadi per caso tuo padre non ha detto una volta è inutile cercare di insegnare a rubare a un ladro eh sì l'ha detto ruba dunque ladruncola ruba Morrison si chiese se Dezenev e la Kalinin avessero assunto volontariamente quell'atteggiamento scherzoso di fronte alla possibilità di una morte improvvisa proprio per risollevargli il morale o se volessero mostrare il loro disprezzo per la sua vigiaccheria scelse la prima ipotesi quando un'azione si prestava sia a un'interpretazione amichevole che a una ostile eh tanto valeva propendere per quella amichevole forse il padre di Dezenev sarebbe stato d'accordo dopo questa conclusione si sentì meglio il retro dello scafo era a parecchi centimetri eh picometri in unità reale dalla parete del capillare Morrison la studiò attentamente e vide le linee serrate di molecole lipidiche e proteiche che la formavano e cosa stiamo facendo? ignoriamo una cosa del genere? penso abbiamo l'opportunità di studiare i tessuti con una precisione superiore a quella del miglior microscopio elettronico l'opportunità di studiarli vivi di vedere non solo la condizione statica ma il cambiamento di movimento della vita abbiamo attraversato il flusso sanguigno e siamo arrivati in un capillare senza soffermarci a guardare nulla da un punto di vista veramente scientifico siamo solo di passaggio abbiamo lo stesso interesse che avremmo se fossimo in un tunnel della metropolitana e tutto per studiare delle oscillazioni che potrebbero essere prodotte dal pensiero e forse no la nave stava avanzando pianissimo quasi stesse procedendo a tastoni forse era proprio quello che stava facendo quei motori di Dezenev e i guizzanti campi elettrici della Kalinin ci stiamo avvicinando alla giuntura Sofia disse Dezenev la voce insolitamente tesa vedi di trovare un appiglio saldo di fronte mentre avanzo ancora un paio di metri a giudicare dall'aspetto e dal comportamento elettrico dovremmo avere un gruppo di arginine verso la giuntura disse la Kalinin è una zona a forte carica positiva e posso occuparmene occhi chiusi ma la Boranova ammonisse Vera niente eccessi di confidenza Sofia occhi aperti se sbaglia e la nave si stacca dovremo rifare tutto va bene Natalia ma con rispetto parlando non era necessario questo avvertimento Dezenev disse Sofia fai esattamente come dico io tieni attaccata solo la prua della nave forte però stacca tutto il resto fatto annunciò Sofia sottovoce Morrison trattenne il respiro il retro dello scafo si allontanò bruscamente dalla parete il flusso sanguigno investendolo spinse la nave in posizione perpendicolare rispetto alla corrente mentre la parete del capillare nel punto dove era attaccata la nave sporse in fuori come un foruncolo attenzione gracchiò Morrison strapperemo un pezzo di parete zitti zitti sbottò Dezenev poi abbassando il tono Sofia aumenterò leggermente la spinta preparati a eliminare la trazione rimasta la nave deve essere libera ma solo quando lo dico io Sofia lanciò un'occhiata alla Boranova che disse col solito tono pacato fai esattamente come ti è stato detto Sofia in questo momento è Arcadi che comanda Morrison ebbe l'impressione di sentire la nave muoversi in avanti il tratto di parete del capillare a cui era attaccata era sempre più teso Sofia disse apprensiva Arcadi o cederà il campo o sarà la parete a cedere ma ancora un attimo cara ancora ancora un attimo adesso la parete si ritrasse di scatto e la nave balzò in avanti spingendo Morrison contro lo schienale e conficcando la prua nella sostanza connettiva tra le due cellule della parete del capillare per la prima volta Morrison avvertì lo sforzo dei motori a microfusione c'era un pulsare subliminale mentre la nave attraversava la giuntura con difficoltà sempre maggiore davanti non c'era nulla da vedere lo spessore del capillare per quanto esiguo in termini normali superava abbondantemente la lunghezza della nave lo scafo era penetrato totalmente nello spazio di congiunzione tra le due cellule ora ed Esnev la fronte imperlata di sudore si girò rivolgendosi alla Boranova consumiamo energia più in fretta di quel che dovremmo allora ferma la nave e riflettiamo se mi fermo è possibile che l'elasticità naturale di questa sostanza ci spinga di nuovo nel flusso sanguigno rallenta i motori allora scegli una potenza sufficiente a tenerci in posizione il pulsare cessò Desnev disse la giuntura esercita una pressione notevole sulla nave sufficiente a schiacciarci Arcadi per ora no ma se la pressione continua col tempo potrebbe doarsi Morrison sbottò assurdo qualcuno non ha detto che abbiamo le dimensioni di una piccola molecola organica di una molecola di glucosio precisò la Boranova che è composta da 24 atomi grazie fece Morrison sarcastico lo so quanti atomi ci sono in una molecola di glucosio combinazione le piccole molecole si spostano costantemente attraverso le pareti dei capillari per diffusione diffusione è così che funziona il corpo perché non passiamo per diffusione la Boranova disse la diffusione è un fenomeno statico in ogni momento ci sono 24 miliardi di trilioni di molecole di glucosio nel flusso sanguigno si muovono a caso e alcune riescono a colpire certi punti in modo tale da penetrare in una giuntura o nella membrana di una cellula della parete di un capillare e uscire dalla parte opposta una percentuale molto piccola ci riesce ogni secondo ma è sufficiente a garantire il funzionamento corretto dei tessuti però per caso una particolare molecola di glucosio può anche rimanere nel flusso sanguigno per un mese senza diffondersi , possiamo affidarci al caso e aspettare un mese? che discorso Natalia fece Morrison spazientito perché non facciamo deliberatamente quello che una vera molecola di glucosio farebbe affidandosi al caso soprattutto adesso che abbiamo già attraversato in parte la giuntura perché siamo bloccati? Conoff disse sono d'accordo con Albert probabilmente la diffusione non è una dispersione passiva c'è qualche interazione tra l'oggetto che si diffonde e la barriera attraverso cui avviene la diffusione solo che nessuno sa quale potrebbe essere di preciso questa interazione specialmente qui di fronte alla barriera sangue cervello siamo siamo di fronte alla barriera disse desnev sei tu l'esperto del cervello non puoi guardarti attorno e dirci come funziona questa diffusione no non posso ma il glucosio è una molecola che supera facilmente la barriera sangue cervello per forza trattandosi dell'unica sostanza che fornisce energia al cervello il guaio è che questa nave pur essendo piccola come una molecola di glucosio non è una molecola di glucosio stai venendo al dunque Yuri o è solo una conferenza domandò la Boranova sto venendo al dunque abbiamo tolto la carica elettrica alla nave per tuffarci nella giuntura ma perché la lasciamo priva di carica adesso non si può dare lo scafo alla struttura di carica di una molecola di glucosio in questo modo sarà una molecola di glucosio per il corpo di Shapirov ti suggerisco di ordinare che venga fatto Natalia la Kalinin non attese l'ordine annunciò fatto Natalia entrambi si rivolgevano sempre alla Boranova notò Morrison ognuno continuava a fingere che l'altro non esistesse Dezeneff disse e la pressione della giuntura diminuisce subito riconosce un amico così si inchina educatamente e si fa da parte è la madre di mio padre possa conservare a lungo il suo ricordo avrebbe gridato magia niera e sarebbe corsa a nascondersi sotto il letto Narkadi disse la Boranova aumenta la potenza dei motori e attraversiamo prima che la giuntura si accorga che sotto la struttura del glucosio c'è qualcosa che il glucosio non è sì Natalia Morrison disse onore al merito Yuri la tua idea è stata perfetta col senno di poi capisco che avrei dovuto pensarci anch'io ma rimane il fatto che non ci ho pensato Konef borbottò burbero come se non sapesse che farsene delle lodi non è sotto nulla dato che il cervello vive di glucosio siamo scesi al livello di una molecola di glucosio prima o poi avremmo dovuto anche avere la struttura di carica del glucosio e non appena hai chiesto come mai non ci stessimo diffondendo mi sono reso conto che quella struttura ci serviva già Dezenef annunciò membri della spedizione abbiamo superato la giuntura abbiamo lasciato il flusso sanguigno siamo nel cervello nel cervello pensò Morrison ma non in una cellula cerebrale finora erano solo passati dallo spazio intercellulare tra le cellule del capillare agli spazi intercellulari del cervello dove c'erano le strutture di sostegno che conservavano la forma e le interrelazioni delle cellule nervose o neuroni togliendo tali strutture le cellule si sarebbero ammucchiate in masse amorfe schiacciate dalla forza di gravità e incapaci di svolgere qualsiasi funzione coerente era una giungla composta di spessi tralci di collagene era la proteina connettiva animale quasi universale che svolgeva la funzione della cellulosa nelle piante in modo più dispendioso trattandosi di proteina e non carboidrato ma assai più flessibile all'occhio ultraminiaturizzato quei fili di collagene invisibili senza l'ausilio di un microscopio elettronico sembravano tronchi d'albero in un modo in cui la gravità contava poco c'erano fili più sottili e altri ancora più sottili Morrison sapeva che alcuni potevano essere di elastina e che esistevano vari tipi di collagene se avesse potuto osservare la scena da una prospettiva più ampia meno miniaturizzata sarebbe stato in grado di cogliere ordine e struttura a quel livello invece era tutto caotico non si riusciva nemmeno a vedere lontano in alcuna direzione le fibre sovrapponendosi ostruivano la visuale Morrison si accorse che la nave procedeva con estrema lentezza gli altri quattro si guardavano attorno meravigliati o non si aspettavano quello spettacolo e Morrison non se l'era aspettato perché si era interessato troppo alle proprietà elettriche del cervello per pensare alla sua microanatomia o pur aspettandoselo non avevano immaginato che potesse essere così Morrison disse qualcuno sa come fare per raggiungere un neurone Desnef rispose per primo la nave può solo avanzare in linea retta quindi andremo avanti dritti finché non troveremo una cellula andremo avanti dritti in questa giungla se non possiamo curvare come li aggiriamo gli ostacoli Desnef si strofinò il mento pensieroso non li aggiriamo ci appoggiamo la nave supererà uno di quegli oggetti e ci sarà più attrito sul lato di contatto che sull'altro così curveremo come una cometa che gira attorno al sole sorrise lo fanno anche i cosmonauti quando sfruttano la gravità per aggirare un satellite o un pianeta noi useremo lo stesso sistema per aggirare quei cosi Conoff disse imbracciato quei cosi sono fibre di collagene e alcune sono piuttosto spesse osservò Morrison non riuscirai sempre a passare ne centrerai uno in pieno e ci bloccheremo dal momento che possiamo spostarci solo in avanti cosa faremo questa nave è stata costruita solo per il flusso sanguigno fuori dal flusso sanguigno siamo impotenti la Boranova intervenne Arcadi hai tre motori a microfusione e gli ugelli se non sbaglio sono disposti posteriormente ai vertici di un triangolo equilatero non puoi accenderne uno solo no è un unico contatto per tutti e tre d'accordo Arcadi però la nave l'hai progettata tu e conosci dettagliatamente i comandi non c'è nulla che tu possa fare per modificarli in maniera tale da poter azionare un ugello alla volta Teznev trasse un respiro profondo tutti mi hanno detto e ripetuto che dovevo badare all'indispensabile che dovevo risparmiare che non dovevo irritare i burocrati a parte questo Arcadi non puoi fare nulla lasciami pensare dovrei mettere in piedi un collegamento di fortuna il che significa trovare qualcosa per fare degli interruttori del cavo e non è detto che funzioni e se funziona non si sa quanto durerà e c'è il rischio di ritrovarci in una situazione peggiore di questa comunque ho capito la tua idea usando un solo motore avremo una spinta sbilanciata e riuscirai a curvare allora a seconda del motore che accenderai ci provo Natalia Morrison disse arrabbioso perché non ci avete pensato quando eravamo nel capillare sbagliato mi sarei risparmiato la piccola seccatura di rischiare la vita per girare la nave manualmente Dezenev rispose se non fossi stato così pronto a suggerire di girare la nave manualmente forse ci avremmo pensato ma non sarebbe stata una buona idea perché eravamo nella corrente sanguigna la nave ha una precisa linea aerodinamica per sfruttarla e la sua superficie è fatta in maniera tale da permettere all'acqua di scorrere senza turbolenze il che complica parecchio le cose se si vuole girare nella corrente sarebbe accorso molto più tempo che girandolo a mano e moltissima energia e poi non dimentichiamo lo spazio ristretto del capillare qui non c'è nessuna corrente e a questo livello di miniaturizzazione c'è un sacco di spazio basta intervenne la Boranova al lavoro Arcadi Dezenev obbedì frugando in una cassetta di attrezzi togliendo una piastra di chiusura e studiando i particolari dei comandi all'interno il tutto accompagnato da un borbottio incomprensibile Konef le mani allacciate dietro il collo disse senza voltarsi Albert parlaci di quelle sensazioni che ricevi sensazioni ce ne stavi parlando appena prima che la grotta ci comunicasse che eravamo nel capillare giusto mi riferisco alle sensazioni che hai provato quando stavi cercando di analizzare le onde del pensiero ah fece Morrison e notò lo sguardo della Kalinin Sofia scosse leggermente la testa e accostò un dito alle labbra in un gesto di avvertimento appena accennato Morrison rispose non c'è niente da dire erano sensazioni vaghe che non potevo descrivere in modo oggettivo poteva darsi benissimo che fosse la mia immaginazione quelli con cui ho provato a parlarne erano convinti che si trattasse appunto della mia immaginazione e non hai mai pubblicato nulla in proposito eh mai ho solo fatto qualche accenno di sfuggita dei convegni e mi è già andata fin troppo male così se tu e Shapirov ne avete sentito parlare è solo perché si è sparsa la voce se avessi pubblicato in pratica sarebbe stato il mio suicidio scientifico peccato Morrison lanciò una breve occhiata alla Kalinin lei annuì ma non disse nulla non poteva o l'avrebbe sentita tutta la nave Morrison si guardò attorno distrattamente Desnev era preso dal lavoro e borbottava tra sé Konev aveva lo sguardo fisso di fronte immerso in chissà quali tortuosi pensieri la Boranova stava studiando concentrata lo schermo del proprio computer prendendo appunti Morrison non provò a leggerli riusciva a leggere in inglese capovolto ma col russo non aveva una simile dimestichezza solo la Kalinin alla sua sinistra lo stava osservando Morrison serrò le labbra e commutò il computer sull'elaborazione verbale non era predisposto per la scrittura in cirillico ma Morrison scrisse le parole russe in caratteri romani fonetici che succede? Sofia esitò probabilmente un po' a disagio con l'altro alfabeto poi le sue dita si mostrero velocissime e sullo schermo apparve in cirillico non fidarti di lui non dire nulla il messaggio venne cancellato subito Morrison scrisse perché? Sofia rispose non per malvagità ma per priorità merito farebbe di tutto 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 le parole scomparvero e la Kalinin distolse immediatamente lo sguardo Morrison la osservò era solo il desiderio di vendetta di una donna tradita in ogni caso poco importava perché lui non aveva intenzione di rivelare nulla che non avesse già rivelato o su qualche pubblicazione o a voce nemmeno Morrison era malvagio però quando c'erano in gioco la priorità e il merito forse non avrebbe fatto di tutto ma avrebbe fatto parecchio tuttavia adesso non c'era nulla da fare a parte una cosa forse che non c'entrava affatto col problema ma che cominciava a farsi spazio con una certa insistenza nella sua mente si girò verso la Boranova che continuava a fissare il proprio strumento con la massima concentrazione tamburellando con le dita sul bracciolo del sedile Natalia si Albert fece lei senza alzare gli occhi mi spiace introdurre una nota di sgradevole realismo ma Morrison abbassò la voce il più possibile sto pensando di urinare la Boranova lo guardò incurvando leggermente un angolo della bocca ma evitando di sorridere poi senza abbassare la voce disse perché ci pensi Albert fallo Morrison si sentì come un ragazzino che alzasse la mano per chiedere il permesso di uscire dall'aula anche se si rendeva conto che era assurdo non mi piace essere il primo la Boranova aggrottò le ciglia quasi interpretasse il ruolo dell'insegnante che sciocchezza in ogni caso non sei il primo ho già provveduto a questo bisogno personale si strense nelle spalle ho notato spesso che la tensione tende a renderlo più urgente anche Morrison l'aveva notato mormorò non hai problemi tu sei sull'ultimo sedile da sola e con un cenno della testa indicò Sofia e con ciò la Boranova scossa la testa non vorrai che improvvisi una tenda per te o devo mettere una mano sugli occhi la Kalinin si voltò sorpresa sono sicuro che lei ti ignorerà e per decenza e perché può darsi che tra poco sarà lei a volere che tu la ignori Morrison era imbarazzatissimo la Kalinin lo fissava ed era ovvio che aveva capito gli disse vai Albert prima ti ho sorretto mentre eri nudo a questo punto mi pare che un simile pudore sia fuori luogo Morrison abbozzò un sorriso e le rivolse un piccolo gesto di ringraziamento cercò di ricordare come si apriva il coperchio del sedile e quando ricordò scoprì che si apriva con uno scatto non forte ma perfettamente udibile quei sovietici indisponenti sempre arretrati per un verso o per l'altro avrebbero potuto progettare facilmente un sedile che si aprisse senza far rumore riuscì anche ad allentare la chiusura elettrostatica inguinale e si chiese preoccupato se sarebbe stato capace di richiuderla senza dare troppo nell'occhio non appena il coperchio scorse via sentì il freddo sgradevole della corrente d'aria sulla pelle quando ebbe finito sospirò provando un sollievo enorme riuscì a sistemare la chiusura all'inguine e si rilassò sul sedile ansimando doveva avere trattenuto il respiro si rese conto ecco fece brusca la boranova Morrison fissò un istante la cosa che gli porgeva e vide che era una salviettina sigillata l'aprì era umida e profumata e la doperò per strofinarsi le mani i sovietici stavano imparando le piccole finezze evidentemente o decadenze bisognava vedere se avvincere la battaglia interiore era la schizzinosità o l'impazienza di un tratto dopo tanti borbottii la voce gutturale di Desnef risuonò fatto fatto cosa chiese seccato Morrison credendo che si trattasse di un riferimento alle sue funzioni corporali l'accensione individuale dei motori rispose Desnef indicando con le mani i comandi della nave posso accenderne uno o qualsiasi o due o tutti assolutamente sicuro e penso allora Arcadi disse la boranova irritata siamo sicuri o è una questione di opinioni e tutte e due le cose secondo la mia opinione sono assolutamente sicuro il guaio è che non sempre la mia opinione è giusta mio padre diceva secondo me dovremmo provare disse Konov tagliando fuori il padre di Desnef forse volutamente certo fece Desnef è ovvio ma come diceva mio padre e alza la voce quasi a scongiurare una nuova interruzione può star certo che quando una cosa è ovvia qualcuno che la dice c'è sempre e tanto vale che sappiate si interruppe la boranova lo sollecitò che sappiamo cosa è parecchie cose Natasha primo virare assorbirà un sacco di energia un fatto il possibile ma questa nave è nata per un impiego diverso inoltre beh penso che non posso comunicare con la grotta non puoi comunicare strillò la Kalinin la voce stridula per lo stupore o l'indignazione il tono della boranova era chiaramente indignato cosa vorresti dire via Natasha non potevo collegare i motori separatamente senza fili no neppure il migliore ingegnere del mondo può creare dal nulla cavi e chip di silicio bisognava smontare qualcosa e l'unica cosa che potevo smontare senza compromettere l'efficienza della nave era l'impianto di comunicazione l'ho detto a quelli della grotta e hanno gridato essi sono lamentati un sacco ma come potevano impedirmi di farlo così adesso possiamo virare penso e non possiamo comunicare ah questo è certo c'era silenzio quando la nave cominciò a muoversi l'ambiente esterno era completamente diverso adesso nel flusso sanguigno era presente una varietà di corpi ondeggianti alcuni scivolavano oltre la nave altri andavano lentamente alla deriva nella direzione opposta a seconda della loro forma e dei mulinelli che incontravano immaginava Morrison c'era la sensazione del movimento se non altro perché i segni sulle pareti lacche grasse nelle arterie ragnatele cellulari nei capillari scorrevano costantemente all'indietro lì nello spazio intercellulare invece c'era stasi niente movimento nessun segno di vita il groviglio di fibre di collagene sembrava una foresta primordiale fatta solo di tronchi niente foglie niente colori niente suoni niente movimento non appena la nave si spinse attraverso il viscoso liquido intercellulare ovunque ogni cosa cominciò a spostarsi lo scafo superò un intreccio di fibre a V e mentre passavano Morrison ebbe l'impressione di scorgere una spirale allentata che si arrampicava lungo ognuna delle due fibre di collagene con una spirale più pronunciata su quella più sottile di fronte loro si stagliava una fibra enorme un gigante di quella giungla devi curvare Arcadi disse Konev è arrivato il momento di provare i comandi d'accordo e dovrò chinarmi non ho i comandi proprio a portata di mano c'è un limite all'improvvisazione Dezenev si piegò tastando all'altezza dei polpalci non mi va l'idea di doverlo fare di continuo è dura per un uomo di costituzione robusta per un uomo grasso vorrei dire osservò maligno Konev sei diventato flaccido Arcadi dovresti dimagrire Dezenev si riadrezzò benissimo adesso mi fermo vado a casa e comincio a dimagrire ti pare il momento di farmi delle prediche Yuri non è nemmeno il momento di prendersi l'Arcadi disse la Boranova vira Dezenev sì che no soffocando un grugnito lentamente la nave è volto a destra descrivendo un arco dolce o stando più precisamente alle apparenze la spessa fibra di collagene avvicinandosi scivolò a sinistra come è tutto il resto la colpirai disse Konev vira più stretto la nave non vira più di così rispose Dezenev l'eccentricità dei motori è quella che io non posso farci niente allora la colpiremo disse Konev la voce sfumata di apprensione e colpiamola sboltò rabbiosa la Boranova Yuri non farti prendere dal panico inutilmente la nave è di plastica resistentissima e quella fibra è senza dubbio elastica mentre parlava la prua cominciò a superare la fibra di collagene con scarso margine guardando a sinistra era chiaro che la fiancata dello scafo avrebbe toccato quando la fibra era quasi all'altezza del sedile della Kalinin ci fu l'urto non si udì alcuno stridore solo un sibilo debolissimo come aveva detto la Boranova la fibra era elastica si era compressa leggermente sotto l'impatto e si era riespansa respingendo la nave inoltre il fluido intercellulare con la sua viscosità agiva da ammortizzatore e riduceva l'attrito la nave continuò a muoversi e girò a sinistra in direzione della fibra Dessner disse ho spento il motore non appena ho visto che stavamo per urtare questa curva a sinistra che stiamo compiendo è una curva per attrito già fece Konef ma se avessi voluto curvare nell'altra direzione avrei usato il motore o con buon anticipo avrei impostato una traiettoria di sfioramento per strusciare contro la fibra a destra e la fibra ci avrebbe fatto curvare a destra l'importante in ogni caso è usare i motori il meno possibile e le fibre il più possibile innanzitutto non dobbiamo esaurire troppo in fretta le nostre scorte energetiche in secondo luogo l'emissione rapida di energia incrementa la probabilità di deminiaturizzazione spontanea cosa? strilla Morrison si volsa alla Boranova è vero? non è un effetto importante però è vero le probabilità aumentano un po' direi comunque che dobbiamo preoccuparci soprattutto del risparmio energetico Morrison non riusci a frenare la propria collera non vi rendete conto che tutta questa situazione è assurda anzi criminale siamo su una nave che semplicemente non è all'altezza del compito che deve svolgere e ogni nostra azione non fa che peggiorare le cose la Boranova scossa la testa Albert per favore lo sai che non abbiamo scelta e poi soghignò Desnev se porteremo a termine la missione con questo mezzo inadatto pensa i nostri meriti saranno molto più grandi saremo eroi autentici eroi riceveremo di sicuro l'ordine di Lenin tutti quanti è scontato e se faremo fiasco è consolante pensare che potremo giustificarci dando la colpa alla nave già comunque vada diventerete eroi sovietici voi commentò Morrison e io la Boranova rispose ricorda Albert se riusciremo nell'impresa non ci dimenticheremo di te varie volte l'ordine di Lenin è stato conferito a degli stranieri compresi parecchi americani e se per qualche motivo dovessi rifiutare le onorificenze la validità delle tue teorie verrà dimostrata e potresti ricevere il premio Nobel prima di uno di noi nella nostra posizione non è il momento di vendere la pelle dell'orso replicò Morrison mi asterrò dal preparare il mio discorso d'accettazione per il Nobel ancora per un po' grazie a proposito di posizione fece la Kalinin riusciremo a raggiungere un neurone qual è il problema disse Desnev possiamo spostarci virare abbiamo lasciato il capillare e siamo nel cervello qua fuori ci sono tutti i neuroni che vogliamo miliardi di neuroni qua fuori dove? chiese la Kalinin non ne vedo vedo solo fibre di collagene Desnev disse secondo voi quanto fluido intercellulare c'è? uno strato microscopico se avessimo dimensioni normali rispose la Kalinin ma abbiamo le dimensioni di una molecola di glucosio quindi potrebbe esserci un chilometro o più da qui al neurone più vicino beh avanzeremo di un chilometro disse Desnev magari ci vorrà un po' di tempo ma si può fare sì se potessimo seguire una rotta rettilinea ma siamo in mezzo a una giungla fitta dovremo aggirare chissà quante fibre e potremmo percorrere 50 chilometri e ritrovarci al punto di partenza vagheremo in un labirinto e se raggiungeremo un neurone sarà solo per caso Yuri ha una mappa osservò Desnev piuttosto sconcertato con la cerebro eccetera di Yuri Konef aggrottò le ciglia e scossa la testa la mia cerebrografia mostra la rete circolatoria del cervello e la struttura cellulare però non posso espanderla a un livello tale da riuscire a rilevare la nostra posizione nel fluido intercellulare sono dettagli che non conosciamo e la cerebrografia può darci soltanto i dati che noi inseriamo Harrison guardò attraverso la parete della nave in tutte le direzioni fibre di collagene che si sovrapponevano e li intrappolavano era impossibile vedere a una certa distanza in mezzo a quel groviglio e lì attorno non c'erano altro che fibre niente cellule nervose niente neuroni cellula un muro che dica benvenuto straniero non è mai stato costruito Desnev Senior le narici della Boranova si dilatarono leggermente le sue sopracciglia scure si aggrottarono ma la voce rimase calma Arcadi procederai per quanto possibile in linea retta curverai solo se indispensabile possibilmente alternando una virata a sinistra e una a destra e dal momento che siamo in una condizione di tridimensionalità alternerai anche salite e discese sarà una bella confusione natasha certo forse però non ci confonderemo del tutto magari non riusciremo ad andare dritto ma può darsi che evitiamo di girare in tondo o a spirale e prima o poi dovremmo raggiungere una cellula forse se deminiaturizzassi un po' la nave tentò Desnev no rispose la Boranova aspetta natasha pensaci deminiaturizzandoci la distanza da percorrere diminuirà lo spazio tra il vaso sanguigno e il neurone diminuirà Desnev accompagnò la spiegazione con gesti eloquenti capito capito ma più ci ingrandiamo Arcadi più faticheremo a passare tra le fibre i neuroni del cervello sono ben protetti il cervello è l'unico organo ad essere completamente racchiuso da una struttura ossea e i neuroni stessi che sono i più irregolari del corpo hanno una buona imbottitura di sostanza intercellulare come puoi vedere solo mantenendo le dimensioni di una molecola di glucosio possiamo muoverci tra il collagene senza provocare danni apprezzabili al cervello a questo punto fatto insolito Conniff si girò sul sedile sorvolando con lo sguardo la Kalinin prima di guardare in faccia la Boranova non penso che dobbiamo muoverci completamente alla cieca che altro possiamo fare Yuri? chiese la Boranova sicuramente i neuroni rivelano la loro presenza ognuno è percorso periodicamente a intervalli brevissimi da impulsi nervosi si potrebbero captare Morrison corrugò la fronte i neuroni sono isolati gli assoni non nel corpo cellulare vero e proprio ma è negli assoni che l'impulso nervoso è più forte no nelle sinapsi può raggiungere la massima intensità e nemmeno quelle sono isolate dovrebbero essere uno sfolgorio continuo di impulsi e tu dovresti essere in grado di captarli nel capillare non è stato possibile osservò Morrison allora eravamo sul lato sbagliato della parete del capillare senti Albert perché stai a discutere ti sto chiedendo di provare a captare le onde cerebrali sei qui per questo no sono stato rapito sbottò con vehemenza Morrison ecco perché sono qui la Boranova si sporse in avanti Albert indipendentemente dai motivi ora sei qui e il suggerimento di Yuri mi pare sensato e tu Yuri devi sempre essere così polemico Morrison si ritrovò a fremere di rabbia e per un attimo non capì perché il suggerimento di Yuri in effetti era sensato poi si rese conto che gli stavano chiedendo di verificare le sue teorie in condizioni che non gli avrebbero concesso alcuna scappatoia era nei pressi di una cellula cerebrale che adesso rispetto a lui era grande quanto una montagna tra poco forse gli avrebbero chiesto di ripetere la prova all'interno proprio dentro quella cellula e se l'avesse fatto e avesse fallito che scuse avrebbe potuto trovare per negare che le sue teorie erano sbagliate ed erano sempre state sbagliate sì era arrabbiato non con Konef in particolare era arrabbiato perché le circostanze lo avevano sbattuto in quell'angolo tutt'altro che comodo la Boranova stava aspettando che dicesse qualcosa mentre Konef continuava a lanciargli occhiate incandescenti Morrison disse se capiterò dei segnali li capiterò da tutte le direzioni a parte il capillare che abbiamo appena lasciato siamo circondati da un numero incredibile di neuroni ma alcuni sono più vicini degli altri disse Konef e un paio dovrebbero essere vicinissimi non puoi individuare la direzione da cui provengono i segnali più forti ci dirigeremo verso quei segnali il mio ricevitore non è direzionale anche gli americani usano apparecchiature destinate a scopi specifici e non considerano gli impieghi d'emergenza non sono suoi sovietici ignoranti a Yuri intervenne severa la Boranova Konef declutì adesso mi accuserai ancora di essere polemico beh Natalia allora diglielo tu di escogitare qualcosa che gli permetta di stabilire da che direzione arrivano i segnali più forti per favore Albert prova disse la Boranova se non ci riuscirai pazienza dovremo avanzare alla cieca in questa giungla di collagene sperando di trovare qualcosa entro breve tempo stiamo avanzando anche adesso osservò Desnef il tono quasi allegro ma io continuo a non vedere niente ancora arrabbiato Morrison attivò il computer inserendo la ricezione lo schermo tremolò ma era solo rumore indistinto anche se più intenso di quanto non fosse stato nel capillare finora Morrison aveva sempre usato dei cavi da microposizionare all'interno dei nervi dove poteva inserirli adesso non aveva nervi in cui inserirli o meglio era all'interno di un cervello il che rendeva anomala l'intera procedura di posizionamento forse però si avesse lasciato che i cavi irrigiditi il più possibile galleggiassero nell'aria separati come antenne e beh sì forse a qualcosa sarebbero serviti malgrado la loro apertura minuscola date le dimensioni attuali piegò e ripiegò i cavi che rimasero ritti come le antenne di un insetto la parola antenna aveva proprio quell'origine poi nei limiti del possibile regolò la ricezione e all'improvviso il tremolio sullo schermo si trasformò in onde profonde e stritte ma solo per un attimo involontariamente Morrison si lasciò sfuggire un grido cosa è successo chiese all'armata la Boranova ho capitato qualcosa solo uno sprazzo già sparito prova ancora Morrison alzò lo sguardo ascoltate tutti quanti state zitti non è facile usare questa apparecchiatura e ci riesco meglio se dispongo della massima concentrazione capito niente rumori niente cosa è capitato domandò sottovoce Conoff cosa lo sprazzo lo sprazzo che hai ricevuto possiamo sapere cos'era no non lo so voglio ancora ascoltare Morrison si girò Natalia io non posso dare ordini tu sì non devo essere disturbato da nessuno soprattutto da Yuri staremo tutti in silenzio Albert procedi pure Yuri non una parola Morrison guardò alla propria sinistra perché si era sentito toccare la mano Sofia lo stava fissando con un lieve sorriso sul volto e accentuando il movimento delle labbra perché lui capisse quel mormorio impercettibile disse non badare a lui fagli vedere dagli una dimostrazione gli occhi le scintillavano Morrison non poteva fare a meno di rispondere con un sorriso caloroso forse il comportamento di Sofia era totalmente condizionato dal suo desiderio di vendetta nei confronti dell'uomo che l'aveva abbandonata ma a Morrison piaceva la sua espressione rassicurante e fiduciosa da quanto tempo una donna non lo guardava orgogliosa e fiduciosa delle sue capacità da quanti anni Brenda aveva perso orgoglio e fiducia fu scosso da uno spasmo di autocommiserazione e dovette aspettare un istante tornò a concentrarsi sulla propria apparecchiatura cercò di escludere il mondo esterno di dimenticare la sua situazione di pensare solo al computer alle lieve fluttuazioni del campo elettromagnetico prodotte dallo scambio di ioni di sodio e potassio attraverso la membrana neuronica lo schermo guizzò ancora si stabilizzò mostrò una serie di picchi e di avvallamenti con estrema cautela non usando quasi toccare i tasti Morrison inserì un comando di espansione gli picchi e gli avvallamenti si ingigantirono uscirono dallo schermo sull'unico picco e sull'unico avvallamento che rimasero c'era una vibrazione sfocata di ampiezza minore sta registrando le onde pensò Morrison non voleva dirlo aveva paura non voleva nemmeno pensarlo con troppa intensità per temore che il minimo effetto fisico o mentale bastasse a cancellare tutto la minuscola vibrazione le onde scettiche come le chiamava lui andava e veniva non appareva mai stabile e nitida niente di sorprendente forse stava captando i campi di diverse cellule che non corrispondevano esattamente c'era anche l'effetto isolante dello scafo di plastica della nave c'era la scossa continua del moto browniano forse c'era anche un'interferenza causata dalla carica dei gruppi di atomi all'esterno del campo di miniaturizzazione era sorprendente che avesse captato delle onde semmai lentamente toccò l'antenna fece scivolare le dita su e giù prima una mano poi l'altra poi contemporaneamente poi in direzioni opposte quindi piegò ad agio l'antenna da una parte dall'altra le onde scettiche apparivano più intense poi sfocate ma Morrison non sapeva di preciso cosa stesse facendo perché si intensificassero a un certo punto le minuscole oscillazioni si intensificarono in modo netto un lieve spostamento in un paio di direzioni creava dei disturbi ma in una particolare direzione erano chiare Morrison fece uno sforzo per impedire che le sue mani tremassero Arcadi si mio mago americano disse Delzenev curva a sinistra e sale un poco verso l'alto non voglio parlare troppo dovrò curvare attorno alle fibre curva ad agio se vai troppo veloce perderò la sintonia Morrison represse l'impulso di spostare lo sguardo a sinistra verso la Kalinin una sola occhiata a quel viso e avrebbe pensato inevitabilmente alla sua bellezza una distrazione sufficiente a offuscare lo schermo perfino il pensiero della distrazione creò un disturbo abbastanza forte da far tremolare l'onda Delzenev stava virando descrivendo il solito arco ampio consentitogli dall'eccentricità dei motori e Morrison seguì il movimento della nave spostando piano l'antenna di tanto in tanto mormorava una breve istruzione in alto un po' a sinistra infine disse con voce soffocata avanti dritto dovrebbe diventare più facile man mano che ci avviciniamo riflette ma non poteva rilassarsi finché non avessero visto effettivamente un neurone e in quella macchia folta di collagene probabilmente lo avrebbero visto soltanto quando si fossero trovati in pratica addosso al neurone concentrarsi su un'unica cosa era faticoso come contrarre un muscolo e tenerlo contratto Morrison doveva introdurre una lieve variazione almeno doveva pensare a qualcos'altro ma a qualcosa di neutro che gli permettesse di rilassare la mente per un po' così pensò alla famiglia distrutta perché aveva pensato ai familiari così spesso che ormai si trattava di un'immagine sbiadita che non suscitava più alcuna sensazione in lui era una fotografia sempre più grigia e lugura e Morrison poteva escluderla in una frazione di secondo e tornare a contemplare unicamente le onde scettiche poi senza preavviso di prepotenza un altro pensiero invase la sua mente era una nitida immagine mentale di Sofia Kalinin più giovane più bella e più felice di quanto non gli fosse sembrata nel breve periodo successivo al loro incontro e l'immagine era accompagnata da un vortice caotico d'amore di frustrazione e di gelosia che lo frastornò erano sentimenti che Morrison non aveva percepito a livello conscio ma chissà quali pensieri e sentimenti inconsci potevano celarsi nelle sue cellule cerebrali la Kalinin provava quell'insieme di cose per lei dopo così poco tempo o era stata la tensione abnorme di quel fantastico viaggio nel cervello a provocare reazioni abnormi fu solo allora che notò che il segnale sullo schermo era completamente sfocato stava per lanciare un grido di avvertimento a Desnev per tentare di captare di nuovo le onde quando la voce di Desnev risuonò eccola Albert ci hai guidato dritti e la cellula come un segugio complimenti complimenti anche a Yuri disse la Baranova osservando l'espressione cupa di Konev che ha avuto questa idea e ha convinto Albert a provare il volto di Konev si rilassò e Desnev disse ma adesso come facciamo a entrare Morrison osservò interessato il panorama che aveva di fronte vide una parete corrugata che si estendeva in tutte le direzioni fin dove arrivava il fascio di luce della nave i crinali i crinali erano spezzettati in tante cupole e osservando attentamente la parete sembrava quasi una scacchiera con le caselle in rilievo tra i rigonfiamenti spuntavano delle appendici sfilacciate specie di funi corte e spesse che conferivano alla parete un'area lacera Morrison con un certo sforzo tenne conto della propria miniaturizzazione e capì che i rigonfiamenti erano le estremità delle molecole fosfolipidi che immaginò che formavano la membrana della cellula capì anche con sgomento cosa significasse avere le dimensioni di una molecola di glucosio la cellula era un corpo enorme rispetto alle dimensioni attuali della nave doveva avere un'estensione di parecchi chilometri pure Conef stava fissando la membrana cellulare ma interruppe la contemplazione prima di Morrison disse non sono sicuro che questa sia una cellula cerebrale o almeno un neurone che altro può essere fece Desnev siamo nel cervello e questa è una cellula Conef non si curò minimamente di reprimere il disgusto che gli si leggeva in faccia non c'è un solo tipo di cellula cerebrale il neurone è la cellula importante l'agente principale della mente nel cervello umano ci sono 10 miliardi di neuroni ci sono anche circa 100 miliardi di cellule gliali di diversi generi che svolgono funzioni ausiliarie e di supporto sono molto più piccole dei neuroni dunque ci sono 10 probabilità contro una che questa sia una glia le onde cerebrali sono nei neuroni la Boranova disse non possiamo fidarci soltanto al caso Yuri non puoi stabilire con precisione se siamo di fronte a una glia o a un neurone lasciando perdere la statistica guardando e basta da queste dimensioni vedo solo una piccola parte di membrana cellulare e a questo livello tutte le cellule sembrano uguali dovremo ingrandirci per avere una panoramica più ampia immagino che adesso possiamo espanderci Natalia in fin dei conti abbiamo superato la giungla di collagene come è stata chiamata possiamo deminaturizzarci se necessario disse la Boranova ma l'espansione è più noiosa e rischiosa della riduzione l'espansione genera calore e va fatta lentamente non c'è altra soluzione Conef rispose acido potremmo provare ancora con lo strumento di Albert Albert sai dirci se le onde scettiche che ricevi provengono da qui di fronte o da una direzione leggermente diversa Morrison esitò prima di perdere il contatto l'attimo precedente all'avvistamento della cellula c'era stata quella visione della Kalinin lui non voleva che tornasse era troppo imbarazzante troppo sconvolgente se la sua mente sopprimeva e nascondeva dei sentimenti significava che era meglio relegarli nell'inconscio disse incerto non sono sicuro di prova insiste Konev i quattro sovietici lo stavano guardando intensamente stringendosi nelle spalle Morrison mise in funzione il computer dopo aver eseguito qualche controllo disse ricevo le onde Yuri ma non sono forti come durante la fase di avvicinamento aumentano di intensità in un'altra direzione è un po' da un'angolazione più alta ma torno a ripetervi che la direzionalità del mio impianto è molto rudimentale ah già come la nave di cui ti lamenti ecco cos'è successo secondo me Natalia venendo qui siamo riusciti a captare un neurone direttamente sopra la sommità di una glia posta proprio davanti al neurone vedendo la glia ovvio Arcadi si è diretto da questa parte e adesso la massa della cellula nasconde il neurone e le onde che riceviamo sono più deboli in tal caso disse la Boranova dobbiamo superare la glia e raggiungeremo il neurone e in tal caso fece Konef sostengo ancora che dobbiamo deminaturizzarci alle nostre dimensioni attuali la distanza da percorrere per scavalcare la glia potrebbe essere di 100 o 150 km decuplicandoci portandoci diciamo alle dimensioni di una piccola molecola proteica ridurremo quella distanza soli 10 o 15 km in tono assente come se dovesse dire qualcosa che non aveva alcun legame con quanto era appena stato detto la Kalini ne commentò dovremmo avere le dimensioni che abbiamo ora per entrare nel neurone Natalia dopo una breve pausa quasi a evitare che potesse sembrare una risposta diretta all'osservazione di Konoff disse certo una volta raggiunto il neurone modificheremo le nostre dimensioni nel modo che riterremo più opportuno la Boranova sospirò apparentemente immersa nei suoi pensieri con insolita gentilezza Konoff disse Natalia dovremmo espanderci prima o poi non possiamo rimanere grandi quanto una molecola di glucosio ineterno detesto l'idea di deminaturizzarci più spesso del dovuto fece la Boranova ma in questo caso dobbiamo Natalia non possiamo perdere ore intere a viaggiare lungo una membrana cellulare e a questo stadio una deminaturizzazione d'ecupla comporta una variazione energetica bassissima morrison morrison intervenne non è che avviato il processo potrebbe innescarsi una deminaturizzazione continua incontrollata ed esplosiva un'intuizione corretta la tua albert osservò la Boranova senza conoscere alcun aspetto teorico della minaturizzazione riesci a cogliere i punti essenziali una volta iniziata la deminaturizzazione è più prudente lasciare che il processo continui interromperlo comporta qualche rischio si rischia anche conservando le dimensioni di una molecola di glucosio per più ore del necessario commentò a konev è vero a noi la Boranova desnev propose dobbiamo fare una votazione e decidere democraticamente al che la Boranova adrezzò il capo di scatto e i suoi occhi scuri parvero sprezzare lampi sporgendo il mento in una posa risoluta disse no arcadi la responsabilità della decisione spetta a me e aumenterò le dimensioni della nave poi abbandonando l'atteggiamento autoritario soggiunse naturalmente potete augurarmi buona fortuna perché no fece desnev e come augurare buona fortuna a tutti quanti la Boranova si chinò sulle sue apparecchiature Morrison provò a osservarla ma si stancò presto tanto non vedeva bene cosa stesse facendo e anche se avesse visto bene non avrebbe capito e poi il collo cominciava a fargli male per lo sforzo di rimanere girato guardò di fronte a sé allora e scoprì che Conniff si era parzialmente voltato e sbirciava nella sua direzione a proposito delle onde scettiche captate disse Conniff sì fece Morrison quando stavamo raggiungendo questa cellula attraversando la giungla di collagene sì sì allora hai percepito delle delle immagini morrison ricordò la visione sconvolgente di Sofia Kalinin adesso nella sua mente non c'era più niente del genere anche se ci pensava la visione non suscitava alcuna reazione in lui chissà cos'era quella cosa che si celava nella sua mente Morrison sapeva solo che stando alle apparenze era emersa soltanto in seguito alla massiccia stimolazione da parte delle onde scettiche concentrate e fosse quel che fosse Morrison non intendiva raccontare l'accaduto a Conef né a nessun altro tempo reggiò perché avrei dovuto percepire delle immagini perché a volte le hai percepite analizzando le onde scettiche a intensità normale dunque secondo te l'analisi durante la miniaturizzazione dovrebbe produrre un'intensità maggiore o essere più efficace per quanto riguarda la creazione di immagini è un'ipotesi ragionevole ma le hai percepite o no la mia non è una domanda teorica la mia domanda riguarda un'osservazione diretta hai percepito delle immagini Morrison con un sospiro interiore rispose no Conef continuò a fissarlo e Morrison cominciò a sentirsi un po' a disagio e abbastanza arrabbiato quindi disse sottovoce io sì davvero Morrison spalancò gli occhi sorpreso cosa hai percepito chiese poi circospetto non molto però tu avresti dovuto percepire tutto con maggior chiarezza secondo me vicino alla tua apparecchiatura c'eri tu la manovravi tu e probabilmente è più in sintonia col tuo cervello insomma cosa hai percepito puoi descriverlo una specie di guizzo qualcosa che oscillava tra il conscio e l'inconscio mi è sembrato di vedere tre figure umane una più grande delle altre e cosa hai dedotto beh Shapiro fa una figlia che adora e la figlia ha due bambini che Shapiro fa adora immagino che nel suo stato comatoso possa avere pensato a loro o abbia creduto di vederli chi può dire che cosa avviene quando uno è in coma conosci sua figlia e i bambini li hai riconosciuti vedevo tutto come attraverso un vetro semitrasparente in una luce crepuscolare sono riuscito solo a distinguere tre figure coneff sembrava deluso speravo che tu avessi visto l'immagine in modo più nitido non ho visto né percepito niente del genere disse morrison certo all'interno di un neurone le cose dovrebbero essere più chiare fece coneff comunque non dobbiamo percepire delle immagini a noi interessa sentire le parole mai sentito parole morrison scossa la testa naturale disse coneff hai studiato degli animali che non usano le parole è vero ammise morrison ma una volta sono riuscito a fare qualche esperimento con un essere umano anche se non ho mai rivelato la cosa non ho percepito né parole né immagini coneff si strinse nelle spalle morrison disse sai date le circostanze forse è naturale che la mente di sciapiroff si sia rivolta alla famiglia se accettiamo la tua interpretazione di quel che credi di aver percepito mi pare poco probabile che possa pensare a qualche ampliamento esoterico degli aspetti matematici della miniaturizzazione sciapiroff era un fisico perfino la sua famiglia passava in secondo piano rispetto a questo se da quelle onde scetti che riusciremo a ricevere delle parole saranno parole riguardanti la fisica lo pensi proprio ne sono certissimo i due stettero zitti e per alcuni minuti a bordo della nave regnò il silenzio poi la Boranova annunciò ho diminiaturizzato la nave portandola a livello proteico e ho interrotto il processo un attimo dopo la voce stranamente tesa Tesnev chiese tutto a posto Natasha il semplice fatto che tu possa rivolgermi questa domanda Arcadi è una risposta affermativa la deminiaturizzazione si è interrotta senza incidenti la Boranova sorrise ma sulla sua fronte si notava benissimo il luccichio di un velo di sudore la superficie della cellula gliale si estendeva ancora a perdita d'occhio nell'oscurità oltre la luce della nave ma era cambiata le cubole e i crinali erano quasi scomparsi e formavano una trama fine le funi tra le cupole erano diventate fili che era quasi impossibile vedere mentre la nave avanzava spedita lungo la superficie Morrison teneva d'occhio per lo più il computer per controllare che l'intensità delle onde scettiche non diminuisse ma ogni tanto non poteva fare a meno di distrarsi e guardare il panorama esterno occasionalmente dalla superficie della cellula emergevano le tipiche appendici dendridiche di una cellula nervosa perfino se si trattava di una glia con funzioni puramente sussidiarie affioravano dalla membrana e si ramificavano e le ramificazioni si ramificavano a loro volta come un albero spoglio malgrado le nuove dimensioni della nave i dendriti erano grossi quando emergevano dalla cellula erano come tronchi d'albero che comunque si restringevano rapidamente ed erano flessibili non possedendo la rigidità delle fibre cartilaginee ondeggiavano nei mulinelli provocati dallo spostamento della nave nel fluido extracellulare ondeggiavano parecchio all'avvicinarsi della nave ed era raro che Desnev dovesse fare qualcosa per evitarli si ritraevano piegandosi e lo scafo li superava senza danni le fibre di collagene erano meno numerose nelle immediate vicinanze della cellula e grazie alle maggiori dimensioni della nave erano molto più sottili e fragili una volta Desnev non vide la fibra che si profilava di fronte allo scafo o non se ne curò lo scafo strisciò contro la fibra all'altezza del sedile di Morrison e Morrison sussultò nell'attimo stridente della collisione la nave però non subì alcun danno fu la fibra di collagene a piegarsi a spezzarsi e a penzolare recisa Morrison si girò e seguì con lo sguardo la fibra spezzata per il brevissimo tempo in cui rimase visibile anche la Boranova doveva aver visto la scena e osservato la reazione di Morrison perché disse non c'è motivo di preoccuparsi ci sono trilioni di fibre simili sparse nel cervello quindi una in più o una in meno non fa una gran differenza e poi si rimarginano anche in un cervello leso come quello del povero Shapirov sarà disse Morrison tuttavia non posso fare a meno di pensare che stiamo irrompendo senza alcun diritto in un meccanismo infinitamente delicato non destinato all'invasione tecnologica apprezzo i tuoi sentimenti disse la Boranova ma al mondo a quanto pare quasi nulla è stato creato dai processi geologici e biologici in previsione dell'interferenza umana l'umanità fa parecchi torti alla terra e alla vita in parte consapevolmente e tra parentesi io siete tu altro che rispose Morrison troverai una tazza nel piccolo scomparto sotto il bracciolo destro passamela la Boranova distribuì l'acqua a tutti dicendo spiccia l'acqua non scarseggia quindi se ne volete ancora ditelo Dezenev guardò la propria tazza disgustato tenendo una mano sui comandi l'annusò poi disse mio padre diceva sempre l'acqua pura è una bevanda senza uguali a patto che sia stata depurata con l'alcol sì Arcadi fece la Boranova sicuramente tuo padre depurava spesso la sua acqua ma qui a bordo dato che hai le mani sui comandi dovrai accontentarti di acqua non depurata dobbiamo tutti privarci di qualcosa di tanto in tanto Dezenev mandò giù la sua acqua e fece una smorfia forse era colpa dell'acqua fatto sta che la Kalinin cominciò ad armeggiare tra le gambe Morrison si rese conto che era arrivato anche per lei il momento di urinare e si girò a guardare fuori per vedere se avrebbero spezzato qualche altra fibra di collagene la Boranova osservò a rigor di logica sarebbe ora di pranzo ma possiamo farne a meno tuttavia tuttavia cosa chiese Dezenev c'è un bel piatto caldo di bors con panna acida no in barba ai regolamenti ho portato a bordo del cioccolato ipercalorico e niente fibre residue la Kalinin che aveva gettato la salviettina umida e stava scuotendo le mani per asciugarle disse ci carriera i denti e non subito disse la Boranova e poi sciacquarti la bocca con un po' d'acqua per eliminare in parte lo zucchero chi ne vuole quattro mani si alzarono e quella della Kalinin non fu l'ultima Morrison gradì il suo pezzetto il cioccolato gli piaceva e lo succhiò per farlo adorare il più possibile quel gusto gli ricordava in maniera acuta la sua fanciullezza il cioccolato si era ormai sciolto quando Konef gli disse sottovoce non hai percepito nulla mentre costeggiavamo la cellula gliale no Morrison rispose era vero e tu mi è sembrato di sì l'espressione campi verdi mi ha attraversato la mente mmm non potei fare meno di dire Morrison e per un po' si immerse nei propri pensieri beh fece Konef Morrison si strinse nelle spalle la nostra mente è attraversata di continuo da espressioni verbali senti qualcosa con la coda dell'orecchio per così dire e a volte dopo un po' affiora il livello di coscienza o una serie di pensieri e associazioni ti invade la mente e qualcosa resta o puoi avere un'allucinazione uditiva mi ha attraversato la mente quando stavo guardando il tuo strumento e mi stavo concentrando volevi percepire qualcosa immagino e qualcosa ti ha accontentato subito guizzandoti nella mente come reazione succede lo stesso con i sogni no era reale non un sogno e come puoi dirlo Yuri io non ho avvertito niente del genere qualcun altro ha avuto questa percezione secondo te impossibile nessun altro stava concentrandosi sulla tua apparecchiatura forse nessun altro a bordo ha un cervello abbastanza uguale al tuo da percepire sulla tua lunghezza d'onda per così dire sono solo supposizioni e poi cosa significano quelle parole campi verdi Shapirov aveva una casa in montagna normale che ricordi i campi verdi può darsi che lui ti abbia fornito soltanto l'immagine e che le parole le abbia aggiunte tu Konev corrugò la fronte esitò un attimo quindi con chiara ostilità disse perché sei così contrario alla possibilità di ricevere un messaggio con pari ostilità Morrison rispose perché parlando di percezioni del genere mi sono rovinato sono stato ridicolizzato abbastanza e sono diventato prudente l'immagine di una donna e due bambini non ci dice nulla e neppure un'espressione come campi verdi dovresti essere in grado di stabilire di preciso se si tratta o meno di immagini o espressioni prodotte da te ascolta Yuri un'indicazione per essere utile deve ricollegarsi anche se in modo vago e indiretto al rapporto teoria quantistica relatività in tal caso potremo riferire qualsiasi altra cosa non sarà abbastanza convincente non verrà creduta ci danneggerai basta parlo per esperienza Conoff disse e se tu riuscissi a sentire qualcosa di importantissimo qualcosa collegato al nostro progetto lo terresti per te magari perché dovrei se percepissi dei dati di fisica riguardanti la miniaturizzazione mi mancherebbero le basi per capirli e tenendoli per me non concluderei nulla se metteremo in comune eventuali risultati utili ricorda che questo computer rimane sempre la mia macchina e funziona in base alle mie teorie la parte di merito maggiore toccherà a me no non terrò nulla per me il mio interesse personale e il mio onore di scienziato non me lo consentono tu piuttosto è naturale che dividerò con gli altri quel che percepisco l'ho appena fatto non parlo di campi verdi quelle sono sciocchezze se tu percepissi qualcosa di importante e io non la percepissi non potresti considerarlo un segreto di stato proprio come la miniaturizzazione mi metteresti al corrente rischiando di attirare su di te l'ira del comitato centrale di coordinamento politica signori chiese glaciale la comandante conef disse stiamo discutendo degli usi possibili dell'apparecchiatura di albert natalia albert pensa che se dovessi scoprire dati importanti grazie alle onde scettiche di sciapirov non glieli ribellerei adducendo come scusa il segreto di stato la boranova osservò potrebbero benissimo essere un segreto di stato la collaborazione di albert ci serve osservò pacato conef l'apparecchiatura e il programma sono suoi e sicuramente sa come non sfruttarne al massimo l'efficienza se noi gli garantiamo la nostra onestà e la nostra buona fede può darsi che faccia in modo di non lasciarci percepire nulla io sono pronto a dividere tutto quello che percepisco se lui farà altrettanto il comitato potrebbe disapprovare come ha osservato albert stesso disse la boranova disapprovi pure non mi interessa replicò konev ti dimostrerò che ti voglio bene giuri intervenne deznev ridacchiando non citerò questa tua fruase natalia disse la kalinin sono d'accordo che dovremmo essere onesti con albert dato che dobbiamo chiedergli di essere onesto con noi usando la sua apparecchiatura con cui ha esperienza è molto più probabile che sia lui a ottenere qualcosa di utile una politica di scambio sarà indubbiamente più vantaggiosa per noi che per lui vero albert morison a noi è proprio quello che stavo pensando e lo avrei accennato se mi aveste detto che la politica governativa non prevedeva un atteggiamento onesto nei miei confronti la boranova disse beh aspettiamo il corso degli eventi la tensione si spense morison rimase assorto nei propri pensieri guardando il computer solo distrattamente poi Daznev annunciò c'è un'altra cellula di fronte a circa un paio di chilometri sembra più grande di quella che abbiamo superato è un neurone Yuri? Konev che aveva assunto un atteggiamento meditabondo si fece subito attentissimo albert che cosa dice il tuo computer è un neurone? morison stava già controllando col computer deve essere proprio un neurone rispose non ho mai visto le onde scettiche così marcate bene esclamò Daznev e adesso? la Kalinin osservò pensierosa la superficie della cellula sottostante Natalia dovremmo miniaturizzarci di nuovo alle dimensioni di una molecola di glucosio Arcadi passa tra i dendriti e scendi sulla superficie del corpo cellulare anche morison osservò la superficie i dendriti erano molto più elaborati di quelli della glia il più vicino si ramificava in continuazione fino a trasformarsi in una specie di fronda sfocata che si perdeva al di là della luce della nave altri più in là erano più sfocati e più piccoli Morrison sospettava che la sfocatura fosse almeno in parte una conseguenza del moto browniano anche se in effetti non poteva essere tanto forte probabilmente ogni filo finale delle ramificazioni ogni rametto incontrava un rametto simile o qualche neurone limitrofo formando quel quasi contatto intimo chiamato sinapsi l'ondeggiamento del rametto dunque non poteva essere abbastanza forte da interrompere il contatto o il cervello non avrebbe potuto svolgere il proprio compito Tesnev guidò la nave verso la superficie del corpo cellulare scivolando lentamente oltre il dendrite più vicino stava imparando ad adoperare la spinta sbilanciata dei motori individuali con una flette Morrison e man mano che lo scafo si avvicinava a Morrison sembrò che la superficie del neurone stesse cambiando configurazione beh doveva essere per forza così dal momento che la nave si stava ancora miniaturizzando i corrugamenti sulla superficie cellulare stavano diventando più pronunciati e si stavano dividendo in tante cupole tra le cupole fosfolipidiche i filamenti stavano ispassendosi recettori penso Morrison ognuno di essi era destinato a unirsi a una particolare molecola utile al neurone e certamente il glucosio era la più utile di tali molecole la riduzione era molto più rapida dell'espansione assorbire l'energia era semplice mentre lo sprigionamento energetico della deminaturizzazione era pericoloso oramai questo Morrison lo capiva bene aggrottando le ciglia preoccupata la Kalini ne disse non so quali siano i recettori del glucosio ma buona parte di questi dovrebbero esserlo sfiorali lentamente Arcadi molto lentamente se ci catturano non voglio che ci stacchiamo e non voglio nemmeno che li strappiamo nessun problema piccola Sofia rispose Vesnev se spengo i motori la nave si ferma subito non è facile avanzare tra gli atomi giganti che ci circondano troppa viscosità quindi alla nave do solo un pizzico di energia sufficiente a farci largo tra le molecole d'acqua e vedrai che passeremo tra i recettori in punta di piedi tra i tulipani disse Morrison guardando Konef cosa? fece Konef l'espressione seccata e perplessa è una frase che mi ha attraversato la mente c'è un vecchio motivo intitolato vieni in punta di piedi tra i tulipani con me le parole in inglese sono che sciocchezza stai dicendo scattò Konef sto cercando di spiegare che ogni volta che qualcuno mi dice in punta di piedi io automaticamente sento nella testa le parole tra i tulipani se mi stessi concentrando sul computer e qualcuno mi dicesse in punta di piedi mentalmente sentirei ugualmente quelle parole ma non proverrebbero dalle onde scettiche del computer capisci cosa intendo dire stai parlando a vuoto disse Konef lasciami in pace però sembrava scosso aveva capito pensò Morrison adesso procedevano paralleli alla superficie del neurone i recettori si muovevano ad agio e Morrison si rese conto di non riuscire a distinguere quali fossero vuoti e quali si fossero fissati ad alcune delle molecole che scorrevano nel fluido extracellulare provò a concentrarsi su quelle molecole sembrava che ci fossero dei luccichi nel fluido forse erano le molecole che riflettevano il fascio luminoso della nave però non ce n'era nemmeno una che risaltasse bene perfino la superficie della membrana cellulare non era proprio chiara se la si osservava attentamente più che una vera superficie era l'impressione surreale di una superficie i fotoni riflessi erano troppo pochi e a loro ne arrivavano pochissimi date le loro dimensioni ultra ridotte tuttavia nell'ucichio Morrison scorse una specie di granulosità nel fluido che stavano attraversando molecole d'acqua certamente e tra le molecole di tanto in tanto c'era qualcosa di vermicolare che si contorceva girava si chiudeva e poi si riapriva le immediate vicinanze della nave naturalmente erano all'interno del campo di miniaturizzazione così gli atomi e le molecole del mondo normale si riducevano di continuo entrando nel campo e si espandevano di nuovo uscendone il numero di atomi coinvolti nel processo doveva essere enorme ma la variazione energetica conseguente anche moltiplicata per quel numero era abbastanza limitata da non consumare in modo percettibile le riserve della nave e da non provocare la deminaturizzazione spontanea o altri danni almeno sembrava che non provocasse alcun danno Morrison cercò di non pensarci la Boranova disse non intendo mettere in dubbio le tue capacità Sofia ma per favore controlla che la nave abbia la struttura elettrica del glucosio ti assicuro che ce l'ha rispose la Kalinin e quasi a confermare la veridicità dell'affermazione la nave parve rovesciarsi mentre procedeva nel fluido a giudicare dal cambiamento improvviso del panorama attraverso le pareti in condizioni normali una torsione del genere avrebbe proiettato con violenza tutte le persone a bordo contro la parete o i braccioli dei sedili massa e inerzia però erano in pratica inesistenti e ci fu solo un lieve ondeggiamento quasi identico all'oscillazione che ormai collegavano con il moto browniano la Kalinin annunciò ci siamo fissati a un recettore del glucosio viene disse Desnev ho spinto il motore adesso che facciamo nulla rispose la Kalinin lasceremo che la cellula faccia il suo lavoro e aspetteremo il recettore non entrò in contatto vero e proprio con la nave era meglio così perché se si fosse avvicinato ulteriormente sarebbe entrato nel campo di miniaturizzazione e la sua estremità si sarebbe spezzata invece ci fu solo un incontro ravvicinato di campi elettrici negativo positivo e positivo negativo non era un'attrazione forte di tipo ionico bensì una che assomigliava al legame di idrogeno era sufficiente a trattenere ma abbastanza debole da consentire alla nave di rimanere un po' staccata come se fosse collegata al recettore mediante degli elastici e non con dei grappini il recettore si estendeva per tutta la lunghezza della nave e il suo contorno era irregolare come se sullo scafo di plastica che stava inglobando ci fosse una serie di protuberanze lo scafo appariva perfettamente liscio certo ma Morrison era sicurissimo che ci fosse un campo elettrico sporgente proprio nei punti dei gruppi ossidrilici della struttura glucopiranosica che le protuberanze avessero proprio la forma che avrebbero avuto nella molecola naturale guardò ancora fuori il recettore ostruiva in pratica la visuale sul lato della nave lungo il quale si era posato oltre il recettore però Morrison riuscì a scorgere un tratto ulteriore della superficie del neurone apparentemente sconfinato perché si perdiva in lontananza al di là della luce della nave sembrava che la superficie neuronica ondeggiasse lentamente e Morrison pote cogliere maggiori dettagli tra le cupole regolari della schiera di molecole fosfolipidiche di tanto in tanto si intravedeva una massa iorregolare che a giudizio di Morrison doveva essere una molecola proteica che attraversava lo spessore della membrana cellulare i recettori erano attaccati a quelle molecole il che non sorprese Morrison sapeva che i recettori dovevano essere peptidi catene di amminoacidi facevano parte di una statura proteica sporgevano e ogni recettore era composto di amminoacidi differenti in un ordine preciso così da possedere una struttura di campo elettrico che si adattasse come forma fisica e polarità opposte a quella della molecola che doveva catturare e mentre osservava ebbe l'impressione che i recettori stessero muovendosi verso di lui ora riusciva a vederne un numero maggiore e il numero aumentava sempre più sembrava che i recettori e le molecole proteiche a cui erano attaccati stessero nuotando tra le molecole fosfolipidiche con un sottile strato di molecole di colesterolo al di sotto riflette Morrison che si aprivano e si richiudevano sta accadendo qualcosa disse Morrison e sentì il movimento della nave nella lievissima spinta dell'inerzia che rimaneva ai loro corpi di massa ormai insignificante Connef disse la superficie ci sta raccogliendo Desnef annui pare proprio che stia facendo così e alza una mano grossa e callosa chiudendo la coppa esatto disse Connef si invaginerà formerà una sacca sempre più profonda l'imboccatura si restringerà e alla fine si chiuderà e saremo all'interno della cellula sembrava calmissimo l'idea e anche Morrison volevano entrare nella cellula e per entrare si faceva così i recettori continuarono a unirsi lungo ognuno di loro c'era qualche molecola qualche molecola vera e in mezzo a quelle c'era la finta molecola della nave la superficie della cellula come la mano a coppa di Desnef si chiuse interamente e le attirò all'interno e adesso chiese Desnef siamo in una vescicola dentro la cellula disse la Kalinin l'acidità aumenterà e il recettore si staccherà da noi ritornando con tutti gli altri recettori alla membrana cellulare e noi insiste Desnef dal momento che in base al nostro campo elettrico riconosce in noi una molecola di glucosio spiegò la Kalinin la cellula cercherà di metabolizzarci di romperci in frammenti più piccoli e di estrarre da noi dell'energia mentre parlava il recettore peptidico si staccò svolgendosi è una buona idea farci metabolizzare domandò Desnef non ci metabolizzerà disse Morrison ci uniremo a una molecola enzimatica appropriata che scoprirà che non reagiamo nel modo previsto non prenderemo un gruppo fosfatico quindi la molecola non saprà che fare e probabilmente ci lascerà andare non siamo una molecola di glucosio in realtà ma se la molecola enzimatica ci lascerà andare non si attaccherà a noi un'altra molecola dello stesso tipo per provare di nuovo e così all'infinito beh ora che lo dici può darsi che la prima molecola non ci lascia andare se non ci comporteremo nel modo previsto fece Morrison sfregandosi il mento e prendendo atto di sfuggita della peluria ispida cresciuta dopo la rasatura mattutina bella situazione commentò Desnef indignato passando al suo vernacolo russo un dialetto che adottava sempre quando si scaldava e che Morrison seguiva sempre con una certa difficoltà il meglio che possiamo aspettarci è che una molecola enzimatica ci tenga stretti in eterno da sola o che cominci una staffetta passandoci a un'altra molecola che poi ci passerà un'altra ancora e avanti avanti all'infinito ah mio padre diceva quando a salvarti dalle fauci di un lupo e un orso affamato non hai motivo di essere tanto riconoscente vi faccio notare che nessuna molecola enzimatica sia attaccata a noi intervenne la calinina perché mai chiese Morrison che in effetti se n'era accorto per via di un lieve cambiamento della struttura di carica elettrica dovevamo imitare una molecola di glucosio per entrare nella cellula ma una volta dentro non è più necessario mantenere il travestimento infatti dobbiamo imitare qualcos'altro ma Boranova si sporse in avanti ma qualsiasi molecola imitiamo non sarà soggetta al cambiamento metabolico Sofia per la verità no Natalia il glucosio o qualunque altro zucchero semplice presente nel corpo appartiene a una precisa configurazione molecolare che noi chiamiamo D-glucosio io ho semplicemente alterato la struttura trasformandolo nella sua immagine speculare siamo diventati L-glucosio e adesso nessun enzima ci toccherà proprio come noi non infileremmo mai apposta il piede sinistro nella scarpa destra possiamo muoverci liberamente ora la vescicola formata sia all'ora ingresso nell'interno della cellula si era disgregata e Morrison giudico vano ogni tentativo di seguire quel che stava accadendo attorno allo scafo c'erano dei frammenti che venivano catturati da molecole enzimatiche molto più grandi che si stringevano e poi sembravano rilassarsi presumibilmente le vittime alterate della stretta enzimatica venivano liberate per essere catturate di nuovo da altri enzimi tutto avveniva contemporaneamente e Morrison sapeva che quella era solo la parte anaerobica del processo in cui non veniva impiegato l'ossigeno molecolare il processo sarebbe terminato con la frammentazione della molecola di glucosio con i suoi sei atomi di carbonio in due frammenti di tre atomi in questo modo si sarebbe prodotto un po' di energia e i frammenti sarebbero stati inviati ai mitocondri per il completamento del processo con l'impiego dell'ossigeno un processo in cui la molecola universale addetta al trasferimento energetico l'adenosintrifosfato o ATP sarebbe stata investita per avviare il fenomeno e alla fine sarebbe stata prodotta di nuovo in quantità nettamente superiori all'investimento Morrison provò l'impulso di mollare tutto e di cercare di entrare in un mitocondrio la piccola fabbrica di energia della cellula e in fin dei conti i particolari dei processi relativi ai mitocondri non erano ancora noti poi però scacciò quell'idea quasi con rabbia le onde scettiche avevano la precedenza lo gridò a se stesso come se volesse imporre delle priorità a un cervello troppo curioso che minacciava di disperdere i propri interessi apparentemente Conef pensò la stessa cosa poiché disse siamo nel neurone finalmente non facciamo i turisti come sono le onde scettiche adesso Assune quelli che dicono un penny per i tuoi pensieri di solito esagerano con la generosità Dezenev Senior Morrison fremette all'ordine di Conef perché in pratica si era trattato di un ordine espresse il proprio risentimento rifiutandosi di rispondere per un po' continuò a osservare l'interno del neurone senza riuscire a distinguere nulla che riconoscesse vedeva delle fibre delle lamine a spirale degli ammassi di dimensioni incerte e di forma confusa soprattutto aveva la netta sensazione che nella cellula ci fosse una presenza scheletrica che tenesse a posto i corpi maggiori gli organoli ma che la nave stesse superando tutto troppo velocemente quasi si trovasse in un fiume ma filasse a valle lungo la corrente la sensazione di movimento era molto più forte che nel flusso sanguigno perché anche se c'erano dei piccoli oggetti frammenti avanzi che si muovevano assieme a loro c'erano oggetti più grandi che apparentemente restavano fermi e venivano oltrepassati dalla nave a velocità normale infine Morrison disse senti Yuri andiamo così veloci che è probabile che il movimento provochi delle distorsioni nelle onde scettiche sei pazzo sbottò rabbioso Konef non andiamo affatto veloci stiamo solo scorrendo nel flusso intercellulare che serve a far sì che le piccole molecole possano raggiungere tutta la struttura di organoli della cellula è un movimento lentissimo su scala normale sembra veloce solo perché siamo miniaturizzati devo insegnarti fisiologia cellulare Morrison si morse le labbra naturalmente si era di nuovo dimenticato quanto fossero distorte le sue percezioni con la miniaturizzazione e Konef aveva di nuovo ragione forse però sarebbe meglio tornare alla struttura del diglucosio e lasciarci catturare da un enzima disse Morrison insistendo per una questione di amor proprio l'aumento di massa ci frenerebbe e sarebbe più facile captare le onde non è necessario che rallentiamo l'impulso nervoso viaggia a un minimo di due metri al secondo in velocità reale e in velocità apparente alle nostre dimensioni questo equivale a circa settanta volte la velocità reale della luce dunque la nostra velocità per quanto possa sembrare grande e irrisoria anche se abbiamo la velocità apparente di un razzo per l'impulso nervoso è come se fossimo praticamente fermi Morrison alzò un braccio in segno di resa e si sentì furioso nei confronti di Konef d'accordo avere ragione ma si poteva esagerare anche in quello lanciò una breve occhiata alla Kalinin aveva la spiacevole sensazione che lei gli avrebbe mostrato il suo disprezzo invece Sofia lo guardò composta senza accennare affatto un sogginio di scherno e alzò leggermente le spalle quasi volesse dire immagino Morrison cosa ti aspetti da un selvaggio la Boranova Morrison si voltò a sinistra sembrava ignara di quella discussione era impegnata con le sue strumentazioni e Morrison si domandò a cosa stesse dedicando tanta concentrazione dal momento che i motori erano spenti e che stavano semplicemente lasciandosi trasportare dalla corrente per quanto riguardava Desnef con i motori spenti lui era l'unico membro dell'equipaggio a non avere nulla da fare per il momento doveva solo dare un'occhiata di tanto in tanto alla materia di fronte allo scafo nel caso fosse capitata un'emergenza imprevista Desnef disse su Albert studia le onde scettiche e dacci qualche risposta poi potremo lasciare questo posto è molto eccitante trovarsi dentro una cellula se a uno piace ma io sono sicurissimo di avere già visto abbastanza mio padre diceva la parte più eccitante di un viaggio è l'arrivo a casa Arcadi fece la baranova si Natasha risparmia qualche parola per domani Morrison scorse l'ombra di un sorriso sulle labbra della baranova certo Natasha mi è perso di cogliere del sarcasmo nelle tue parole comunque farò come dici e chiudendo la bocca con un clic esagerato dei denti cominciò a canticchiare tra sé una melodia in tonalità minore Morrison si sentiva un po' sorpreso erano a bordo da quasi cinque ore ma sembravano cinque giorni forse cinque anni eppure a differenza di Arcadi e malgrado il terrore iniziale non aveva nessuna fretta di lasciare il corpo di Shavirov provava un desiderio intenso di esplorare la cellula e quell'idea continuava ad occupargli la mente probabilmente la Kalinin stava pensando la stessa cosa perché in tono sommesso e introspettivo disse che peccato siamo le prime persone all'interno della più complessa di tutte le cellule viventi e non possiamo fare nulla per studiarla come meriterebbe esattamente quello iniziò Morrison poi preferì non terminare la frase Conniff agitò le braccia come se stesse scacciando torme di insetti non capisco siamo nella cellula e siamo qui per uno scopo ben preciso Albert sintonizzati sulle onde scettiche lo sto facendo rispose brusco Morrison anzi l'ho fatto guarda Conniff girò la testa poi sganciò la cintura per voltarsi meglio a guardare oltre lo schienale del sedile fissando il piccolo schermo di Morrison disse le onde sembrano più nitide sono più nitide non le ho mai viste così forti e con delle oscillazioni così fini ora che ci penso chissà che grado di precisione possono raggiungere prima o poi se abbastanza fine un'oscillazione dovrebbe rappresentare il tremolio di un singolo elettrone e in tal caso bisognerà tener conto del principio di indeterminazione dimentichi che siamo miniaturizzati e che la costante di Planck rispetto alle condizioni normali è di nove ordini di grandezza più piccola per noi sei tu a dimenticare che le onde prima di raggiungerci subiscono appunto la riduzione di cui hai parlato protestò Morrison ansioso di cogliere Conniff in fallo quelle onde dunque sono esattamente dove dovrebbero essere rispetto al principio di indeterminazione Conniff ebbe solo un attimo di esituzione non importa quello che stiamo vedendo adesso non ha nulla di indeterminato cosa significa? avvalora la mia teoria rispose Morrison se la mia interpretazione dell'attività delle onde scettiche è corretta questo è esattamente quello che dovrei vedere all'interno di una cellula non mi riferivo a questo noi siamo partiti dal presupposto che la tua teoria fosse esatta adesso non è più un'ipotesi è un fatto dimostrato e mi congratulo con te ma qual è il significato stando a queste onde scettiche cos'è che sta pensando Shapiroff? Morrison scossa la testa non ho nessun dato proprio nessuno circa la correlazione tra queste onde e i pensieri specifici ci vorrebbero anni per comprendere una correlazione del genere ammesso che sia possibile farlo forse però le onde scettiche producono un effetto induttivo sul tuo cervello non ricevi nessuna delle tue famose immagini Morrison riflette un attimo poi scossa la testa nessuna da dietro giunse una voce sommessa sto ricevendo qualcosa Albert Morrison si voltò tu Natalia si si è strano è proprio così cosa stai ricevendo Natalia domandò Konef la Boranova esitò incerta curiosità beh non è esattamente un'immagine solo un'impressione provo curiosità e che c'è di strano disse Morrison date le circostanze non c'è bisogno di influenza esterne per provare una sensazione del genere no no li conosco i miei pensieri e le mie impressioni questa è una cosa imposta dall'esterno la senti adesso? chiese Morrison si va e viene un po' comunque la sento d'accordo e adesso? la Boranova parve sorpresa si è interrotta di colpo hai spento la tua apparecchiatura l'ho abbassata ora dimmi quando avverti la sensazione e quando non l'avverti Morrison si voltò verso la Kalinin per raccomandarle di non dire e non fare nulla che potesse rivelare le variazioni di intensità di ricezione ma Sofia stava guardando il panorama cellulare immersa nelle immagini stupefacenti dell'interno di un neurone Morrison si chiese se sentisse o se le interessasse quel che stava accadendo tornando a girarsi disse Natalia chiudi gli occhi e concentrati di solo sì quando ricevi la sensazione e no quando non la ricevi per parecchi minuti la Boranova si attenne alle sue istruzioni Morrison disse a Konef quando alzo a basso la macchina fa qualche rumore senti qualcosa Konef scossa la testa io non sento nulla allora non ci sono dubbi Natalia riceve la sensazione solo quando la macchina è in funzione Dezenev che a differenza della Kalinin aveva seguito tutto socchiudendo gli occhi chiese perché le onde celebrali ci sono lo stesso sia che la tua macchina le capti sia che non le capti Natalia dovrebbe avvertirla sempre la sensazione di curiosità no no fece Morrison la mia apparecchiatura agisce da filtro ed elimina tutti i segnali a parte le onde scettiche vere e proprie senza l'apparecchiatura Natalia riceve solo una massa confusa di sensazioni reazioni correlazioni e intrecci di ogni genere con la macchina riceve soltanto le onde scettiche il che è un'ulteriore dimostrazione dell'utilità della mia teoria io non ricevo niente osservò Desneva grottando le sopracciglia questo non demolisce la tua teoria Morrison si strinse nelle spalle i cervelli sono meccanismi complessi Natalia sente tu no se è per questo nemmeno io sento nulla forse questa particolare componente dell'onda scettica coincide con qualcosa presente nel cervello di Natalia ma non dei nostri non credo di essere in grado di spiegare tutto subito tu ricevi niente Konev no rispose Yuri deluso quanto Desnev ma re sono scossa la testa e non disse nulla Konev sbottò con fuga non riesce a sentire altro che una vaga sensazione di curiosità Natalia no Yuri nient'altro non in questo momento rispose la Boranova tu però ricordi come era Piotr Shapirov era curioso di tutto ricordo ma serve a poco Albert in che direzione stiamo andando Albert rispose a valle lungo la corrente è l'unica direzione in cui possiamo muoverci no no è una battuta esplose rabbiuso Konev vorresti fare lo spiritoso assolutamente mi hai chiesto in che direzione stiamo andando no quale altra risposta avrei potuto darti mi pare che i punti cardinali non abbiano alcun senso qui d'accordo scusa fece Konev qui la corrente va in questa direzione sull'altro lato della cellula va nella direzione opposta è una circolazione ma l'impulso nervoso va in un'unica direzione dai dendriti all'assone siamo sul lato della cellula che ci porta nella stessa direzione dell'impulso nervoso è importante chiese Morrison penso di sì la tua apparecchiatura è in grado di dirti in quale direzione sta viaggiando l'impulso certo dovrebbe esserci un lieve sfasamento nella forma delle onde a seconda che provengano frontalmente o da dietro e ci muoviamo nella direzione dell'impulso bene un colpo di fortuna siamo diretti verso l'assone allora parrebbe di sì e se siamo diretti verso l'assone fece la Boranova Natalia pensa fece Konev le onde scettiche viaggiano lungo la superficie della cellula la cellula qui è ampia e relativamente grande le onde scettiche si diffondono su una grande superficie e la loro intensità si indebolisce avvicinandosi all'assone la cellula si restringe l'assone stesso è lungo un tubo molto lungo rispetto alla cellula lungo e strettissimo le onde devono concentrarsi enormemente percorrendo quel tubo e devono diventare più intense inoltre l'assone è isolato da una spessa guaina mielinica per cui l'energia delle onde non si disperderà all'esterno e rimarrà concentrata nell'assone dunque pensi che nell'assone avremo una ricezione più efficace disse la baranova molto più efficace la curiosità che senti adesso dovrebbe diventare travolgente nell'assone e può darsi che tu riesca a cogliere riguardo cosa Shapirov è curioso può darsi che si riveli una cosa senza la minima importanza osservò Morrison meditabondo e se fosse curioso di sapere come mai è steso qui immobile no fece Konef brusco a lui una cosa del genere non interesserebbe mai io conoscevo bene Shapirov tu no Morrison a noi vero dedicava ogni sua ora di veglia al processo di miniaturizzazione spiegò Konef e ci pensava anche in sogno secondo me e verso la fine nelle ultime settimane prima dell'incidente sognava lavorava pensava al collegamento tra la quantistica e la relatività per rendere stabili e poco dispendiose in quanto a energia la miniaturizzazione e la deminiaturizzazione in tal caso osservò Morrison avrà sicuramente fatto qualche accenno al contenuto dei suoi pensieri no era un bambino per certi versi sapevamo a cosa stesse pensando ma non se stesse facendo progressi e in che direzione a lui piaceva presentare le cose finite e complete ricordi Natalia come piaceva anche a noi lo ha fatto anche con la miniaturizzazione quando infine ha pubblicato i suoi studi era un libro abbozzato Morrison fece distrattamente pubblicati dove? Konef soghignò lo sai che non sono stati divulgati era una pubblicazione a diffusione limitata riservata a chi doveva sapere stai tranquillo tu nulla vedrai mai la Baranova intervenne Yuri non essere inutilmente offensivo Albert è un membro dell'equipaggio e un ospite non deve essere trattato come una spia se lo dici tu Natalia comunque se Shapiroff è curioso talmente curioso che Natalia percepisce il messaggio la sua curiosità può riguardare soltanto il collegamento quantistica relatività se riusciremo a ottenere qualche particolare su questo collegamento avremo un punto di partenza da cui continuare e pensi che troveremo questi particolari nell'assone sì sono sicuro Conoff serrò i pugni quasi si accingesse a bloccare con forza tale certezza Morrison distolse lo sguardo lui non era sicuro aveva l'impressione sempre più netta che le cose stessero prendendo una piega completamente diversa e che fosse molto meglio così cercò di non darlo a vedere ma era eccitato quanto Conef dei corpi indistinti si profilavano di fronte su ambedue i lati scivolavano a destra o a sinistra e rimanevano indietro ribosomi apparato di golgi fibrille di chissà che tipo Morrison non era in grado di distinguere dalle dimensioni di una piccola molecola nulla nemmeno il corpo intracellulare più familiare nitido risultava lontanamente riconoscibile stavano attraversando un territorio straniero indefinito e Morrison per quanto si sforzasse non riusciva a immaginare che quell'ambiente fosse lo stesso che conosceva così bene grazie alla microscopia elettronica si chiese se oltre il fascio di luce della nave ci fosse la massa sterminata del nucleo della cellula incredibile trovarsi a distanza submicroscopica da quel nucleo e non poterlo mai vedere si concentrò sull'ambiente immediatamente circostante ancora una volta gli sembrò che avrebbe dovuto scorgere le molecole d'acqua che costituivano il 98% delle molecole della cellula quella percentuale enorme era la conseguenza diretta del fatto che si trattava in pratica delle più piccole molecole presenti lì non era sicuro malgrado aguzzasse gli occhi il più possibile vedeva solo un debole luccichio un fotone forse che rimbalzava su una delle molecole e guizzava verso i suoi occhi nella migliore delle ipotesi ne avrebbe visti solo un paio per ogni molecola d'acqua tutto a un tratto si accorse che la Kalinin si stava chinando verso di lui i suoi capelli che sfiorarono la faccia e Morrison notò come gli era già capitato un paio di volte il profumo fresco del suo shampoo Sofia disse è terribile Albert aveva l'alito un po' cattivo e Morrison non riuscì a reprimere un sussulto lei se ne accorse e si affrettò a coprirsi la bocca con le dita murmurando mi spiace Morrison scosse leggermente la testa anche il mio alito non è proprio profumato la tensione è poco da mangiare un sorso d'acqua non guasterebbe Natalia un sorso d'acqua naturalmente provocò per tutti una reazione a catena la Kalinin porse a Morrison una pilloletta bianca mentina Morrison tese la mano e sorrisse si può la Kalinin lanciò un'occhiata alla Boranova e scrollò le spalle passò la mentina a Morrison ne mise in bocca una quindi ripete terribile Albert cosa Sofia come possiamo attraversare questa cellula senza esaminarla a fondo e abbiamo una missione ben precisa si però può darsi che nessuno torni in una cellula cerebrale per molti anni forse nessuno ci tornerà mai più quando in futuro qualcuno leggerà che questa nave e il suo equipaggio sono semplicemente passati di qui senza neanche guardarsi attorno penserà che siamo stati dei barbari parlava a voce bassissima e le loro teste erano vicine Morrison scoprì che la cosa gli piaceva parecchio era diventato così insensibile ai pericoli della situazione il fatto che rasentassero di continuo l'urlo della voragine della deminaturizzazione spontanea la possibilità di una morte istantanea che poteva giungere in qualsiasi momento da apprezzare una cosa futile come la vicinanza delle sue labbra a un grazioso volto femminile beh perché avrebbe dovuto farsi dei problemi meglio approfittare dell'effetto anestetico di quella vicinanza e dimenticare ancora per un attimo Morrison ricordò l'immagine vivida apparsagli così poco tempo prima di una bella ragazza felice e sorridente era un pensiero sbucato dal nulla all'improvviso che lui non aveva riconosciuto come proprio e non era più tornato nemmeno adesso però lo ricordava con chiarezza e il ricordo gli trasmetteva una sensazione di calore al cuore per un istante provò l'impulso di baciarla di sfiorarle le guancia con le labbra lo represse se Sofia si fosse offesa si sarebbe sentito un perfetto sciocco le disse con dolcezza la gente del futuro saprà che abbiamo una missione capirà chissà fece Sofia poi guardò per un attimo quasi intimorita in direzione di konef che come sempre si deve rigido e ignorava qualsiasi parola e qualsiasi gesto della kalinin girandosi verso il computer inserì l'elaborazione verbale e scrisse rapida in russo Yuri è un fanatico che ha sacrificato tutto alla sua mania è impossibile leggere il pensiero ma lui persuade tutti Sofia cancellò battè noi siamo le sue vittime e cancellò subito e noi va letto io riflette Mesto Morrison guardò la propria apparecchiatura esitante gli sembrava che le onde scettiche che aveva ottenuto abbassando la ricezione stessero diventando più forti guardò fuori quasi potesse stabilire la loro distanza attuale dall'assone ma naturalmente non c'era modo di saperlo cancellò le oscillazioni dallo schermo inserì l'elaborazione verbale e usando i caratteri romani scrisse in russo anche lui è vittima di se stesso la Kalinin batte subito rabbiosa no non credo che le persone siano vittime di se stesse Morrison pensò con tristezza alla ex moglie alle figlie alla propria incapacità di presentare le sue teorie in modo convincente e di lasciarle perdere quindi scrisse secondo me ognuno di noi è vittima di se stesso più che degli altri e tornò a inserire la ricezione trattenne subito il respiro le onde sullo schermo avevano un'intensità maggiore e malgrado il ricevitore avesse ancora una regolazione bassa Morrison aprì la bocca per dirlo ma a Desnev rese superfluo ogni commento Yuri disse la membrana della cellula sta curvando all'interno e noi pure ecco la spiegazione pensò Morrison la cellula si stava restringendo verso l'assone e le onde scettiche erano enormemente concentrate la sua apparecchiatura filtrato tutto il resto che non c'entrava irradiava il segnale delle onde scettiche dentro la nave e con quali risultati Konef disse diriziato ora vedremo che succede Albert tieni in funzione la tua macchina al massimo la Boranova osservò qualunque cosa succeda spero che ci dia la nostra risposta o almeno un inizio di risposta sono stanca di aspettare ti capisco fece Desnev come diceva mio padre più tempo ci vuole per venire al suodo più salta fuori poi che il suodo è molle a Morrison sembrava che ogni centimetro del corpo rigido di Konef rivelasse ora eccitazione e aspettative di trionfo Morrison però si mantenne distaccato da tutto ciò Morrison guardò all'esterno erano nell'assone ormai trasportati dalla corrente interna della cellula nel mondo reale l'assone era una fibra incredibilmente sottile ma nel mondo microminiaturizzato della nave l'ampiezza dell'assone equivaleva forse a un centinaio di chilometri in quanto a lunghezza l'assone era molto più lungo della cellula stessa percorrerlo da un'estremità all'altra era come compiere una ventina di volte il viaggio di andata e ritorno dalla terra alla luna d'altro canto per loro in virtù del livello di miniaturizzazione la velocità apparente della nave equivaleva a una frazione discreta della velocità della luce non ci si accorgeva di quella velocità così alta comunque la nave avanzava con la corrente e rispetto al corpo cellulare dell'assone c'erano molte meno macromolecole o organoli se c'erano delle fibre strutturali che resistevano alla corrente e rimanevano immobili rispetto alla membrana cellulare la corrente le superava troppo rapida perché risultassero visibili dalla nave anche se avessero riflesso un numero apprezzabile di fotoni cosa che naturalmente non accadeva così Morrison rinunciò non c'era nulla da guardare là fuori in ogni caso doveva guardare lo schermo le onde scettiche stavano diventando ancora più intense non era facile adesso filtrare le componenti non scettiche erano talmente forti da saturare il ricevitore inoltre la vibrazione stretta ed elaborata delle onde scettiche si era trasformata in una serie di picchi irregolari anche usando la massima espansione Morrison si rese conto di non poter captare tutti i dettagli esistenti e intravide chiaramente la necessità di un tabulato laser abbastanza preciso da consentire un esame al microscopio Koneff aveva sganciato la cintura e si era raddrizzato oltre lo schienale per osservare lo schermo non le ho mai viste così prima d'ora disse Morrison replicò eh nemmeno io e sono quasi vent'anni che studio le onde scettiche mai visto niente del genere allora avevo ragione a proposito dell'assone assolutamente Yuri le onde si sono concentrate a meraviglia e il significato allora Morrison allargò le mani e qui mi cogli in fallo dal momento che non ho mai visto niente del genere è evidente che non sono in grado di interpretarlo no no sbottò Koneff impaziente tu continui a concentrarti sullo schermo e io continuo a pensare all'induzione le nostre menti sono i veri ricettori grazie alle scettiche grazie alla tua macchina cosa ricevi immagini parole nulla è impossibile tu ricevi qualcosa è la tua macchina regolata su misura per te tu prima hai percepito delle immagini Yuri la voce di Deznaf si intromise nella discussione mio padre diceva se vuoi sentire devi cominciare ad ascoltare Deznaf senior ha ragione convenne la Baranova non riceveremo nulla con la mente piena di dispute e di grida Koneff respirò a fondo e in tono insolitamente sommesso disse benissimo allora concentriamoci un silenzio innaturale scese sull'equipaggio poi timidamente la Kalinin disse non c'è tempo non c'è tempo perché cosa Sofia chiese la Baranova voglio dire che questa è la frase che ho sentito non c'è tempo l'avresti ricevuta dalle onde scettiche di Shapirov domandò Morrison non lo so è possibile la Baranova disse è un attimo prima ho pensato alla stessa cosa mi è venuto in mente che per affrontare il problema in modo migliore forse avremmo dovuto studiare le onde scettiche sullo schermo e aspettare dei cambiamenti improvvisi può darsi che a produrre le immagini non sia tanto la configurazione quanto il cambiamento di configurazione mi sono detta e poi però ho pensato che l'attesa forse sarebbe stata lunghissima e che ci mancava il tempo in altre parole disse Morrison hai pensato non c'è tempo sì rispose la Baranova ma era un pensiero mio come fai a saperlo Natalia chiese Morrison li conosco i miei pensieri conosci anche i tuoi sogni però a volte i sogni nascono da stimoli esterni immaginiamo che tu ricevi il pensiero non c'è tempo dato che non sei abituata a ricevere dei pensieri ecco che subito costruisci una serie di associazioni mentali che ti danno l'impressione che quel pensiero sia stato pensato proprio da te può darsi ma come si fa a stabilirlo Albert non ne sono sicuro ma a quanto pare Sofia ha percepito la stessa frase e potremmo chiederci se stesse pensando indipendentemente qualcosa qualcosa che poi ha originato quel pensiero no non pensavo a nulla disse la Kalinin cercavo di tenere la mente vuota quella frase mi è entrata in testa così io non ho percepito nulla fece Morrison tu Yuri Conniff scossa la testa l'espressione corrucciata e rabbiosa per l'insuccesso no nulla in ogni caso osservò Morrison assorto non deve avere per forza un significato particolare a Natalia è perso un pensiero marginale derivato in modo naturale da una serie di pensieri precedenti e privo di qualsiasi significato che non fosse superficiale anche provenendo dalla mente di Shapirov il pensiero potrebbe essere comunque qualcosa di superficiale forse ma non è detto fece Conniff la vita e la mente di Shapirov erano rivolte solo ai problemi della miniaturizzazione non può pensare che a questo continui a dirlo osservò Morrison ma in realtà è una sciocchezza nessuno pensa a una cosa sola nemmeno il Romeo più innamorato potrebbe pensare in continuazione a Giulietta basterebbe una lieve ecolica un rumore lontano e anche lui si distrarrebbe subito comunque dobbiamo considerare che tutto quello che dice Shapirov forse è importante forse disse Morrison magari stava cercando di perfezionare la teoria della miniaturizzazione e ha deciso di lamentarsi che non aveva il tempo di farlo che non c'era tempo sufficiente per completare il suo lavoro Conniff scossa la testa più per respingere le distrazioni sembrava che in segno di diniego sentite questa ipotesi invece Shapirov può aver pensato che con un aumento della velocità della luce proporzionale alla diminuzione della costante di Planck la miniaturizzazione comporterà un cambiamento istantaneo e naturalmente con l'aumento enorme della velocità della luce aumenterà per forza anche la velocità di un oggetto privo di massa o quasi privo di massa in tal modo Shapirov avrebbe abolito il tempo e potrebbe dire a se stesso con orgoglio non c'è tempo un'ipotesi molto assiracchiata commentò la Boranova ah certo disse Konev ma degna di essere presa in considerazione dobbiamo registrare ogni impressione che riceviamo per quanto vaga per quanto apparentemente insignificante è quello che intendo fare Yuri spiegò la Boranova vediamo se riusciamo a sentire qualcos'altro disse Konev Morrison si concentrò allo spasimo aggrottando le ciglia e tenendo lo sguardo fisso su Konev a un certo punto Konev sospirò e mormorò continuo a ricevere una cosa nu per c uguale m sotto s la ricevo anch'io disse Morrison ma pensavo che fosse m per c al quadrato no disse Konev teso prova ancora Morrison si concentrò poi piuttosto imbarazzato confermò hai ragione lo ricevo anch'io nu per c uguale m sotto s cosa significa chi può dirlo così a prima vista comunque se questa è la mente di Shapirov significa qualcosa possiamo supporre che nu sia la frequenza di radiazione c la velocità della luce e m sotto s la massa standard cioè la massa in stato di quiete in condizioni normali alla luce di la Boranova alza il braccio e tese l'indice in un gesto a monitorio Konev si interruppe e disse a disagio questo non c'entra Morrison soghignò materiale riservato eh Yuri poi la voce di Dezenef risuonò con un tono di petulanza insolita com'è che voi sentite tutte queste cose a proposito di tempo e massa standard eccetera eccetera mentre io non sento nulla e perché non sono uno scienziato Morrison rispose dubito che questo c'entri i cervelli sono diversi forse si suddividono in gruppi come il sangue il sangue è sangue però non sempre è possibile adoperare il sangue di una persona per fare una trasfusione a un'altra persona forse il tuo cervello è abbastanza diverso da quello di Shapirov da impedire un contatto sensoriale solo il mio non solo il tuo forse ci sono miliardi di menti che non sono in grado di ricevere nulla da Shapirov avrai notato che Sofia e Natalia riescono a percepire le stesse cose che Yuri e io non percepiamo e viceversa due uomini due donne borbottò Desenev e io cosa sono Conoff disse spazientito sei uno che ci fa perdere tempo Arcadi non perdiamoci su discussioni interminabili su ogni piccolo particolare che riceviamo abbiamo altre cose da sentire e il tempo a disposizione è scarso prova a concentrarti di più Arcadi e può darsi che anche tu senta qualcosa silenzio a romperlo di tanto in tanto era il mormorio di qualche membro dell'equipaggio che riferiva di aver percepito un'immagine o delle parole l'unico contributo di Desenev fu avverti una sensazione di fame ma potrebbe essere la mia senza dubbio feci asciutta la boranova Arcadi consolati pensando che quando usciremo di qui avrai diritto a una tripla porzione di ogni piatto e tutta la vodka che vorrai Deseneva l'idea sogginò con aria quasi lasciva Morrison disse a quanto pare non percepiamo niente di matematico e nemmeno di fuori dal comune insisto che pur trattandosi di Shapirov la maggioranza dei pensieri riguarda cose banali tuttavia ascoltiamo Borbo toccone fa voce bassissima per quanto tempo ancora Iuri fino al termine dell'assone fino alla fine Morrison chiese poi intendi passare nelle sinapsi e torneremo indietro ci avvicineremo il più possibile alle sinapsi questo ci porterà nelle immediate vicinanze della cellula nervosa adiacente e può darsi che in quel punto cruciale di transizione le onde scettiche siano ancora più facilmente percepibili che in qualsiasi altra parte Desenev disse si Yuri ma non sei tu il comandante Natasha Fiorellino anche tu intendi fare così la Boranova rispose perché no Yuri ha ragione la sinapsi è un punto unico riguardo il quale noi non sappiamo nulla ti lo chiedo semplicemente perché ormai abbiamo consumato metà della nostra energia quanto tempo ancora intendiamo rimanere nel corpo abbastanza da raggiungere la sinapsi questo è certo disse la Boranova e tornò in silenzio la nave continuò a percorrere la distesa smisurata dell'assuone e Konef dettò legge sempre più spesso qualsiasi cosa riceviate comunicatemela non importa se ha senso o no se è una parola o un paragrafo se è un'immagine descrivetela anche se credete che possa essere un pensiero vostro riferitelo se avete il minimo dubbio avrai un mucchio di chiacchiere senza senso fece Desenev che in apparenza era tuttora seccato per la sordità del proprio cervello certo però due o tre indicazioni significative saranno già un ottimo risultato e per sapere cos'è significativo dobbiamo prima esaminare tutto Desenev chiese se sento qualcosa che secondo me non è mio devo dirlo certo soprattutto tu rispose Conev se sei insensibile come credi di essere qualunque cosa tu riceva potrebbe essere particolarmente importante adesso per favore basta chiacchiere ogni attimo di conversazione può significare la perdita di qualche dato e iniziò un periodo di frasi slegate da cui a giudizio di Morrison era impossibile ricavare un senso ci fu una certa sorpresa quando la Kalinin esclamò all'improvviso premio nope Conev alzò lo sguardo e parve sul punto di replicare poi rendendosi evidentemente conto che era stata lei a parlare rinunciò cercando di non usare un tono beffardo Morrison chiese l'hai sentito anche tu Yuri? Conev annui quasi contemporaneamente è la prima ricezione multipla di un uomo e una donna osservò Morrison immagino che Shapirov stesse pensando al premio per via del suo ampliamento della teoria della miniaturizzazione senza dubbio ma poteva contare sul nobella per quello che aveva già fatto nel campo della miniaturizzazione che è materiale segreto e quindi sconosciuto sì però quando avremo perfezionato il processo non sarà più sconosciuto speriamo fece Morrison sardonico Conev sbotto brusco non siamo più riservati di voi americani d'accordo non voglio fare discussioni ma Morrison rivolse un ampio sorriso a Conev che si era girato a guardarlo e quel sorriso sembrò irritare ulteriormente il giovane russo a un certo punto Desnev disse Hawking che c'è Arcadi disse la Boranova contrariata ho detto Hawking fece Desnev sulla difensiva mi è entrato in testa all'improvviso non devo dire tutto è una parola inglese che significa sputare disse la Boranova o vendere aggiunse Morrison allegro Desnev disse col mio inglese non potevo saperlo pensavo che fosse il nome di qualcuno infatti intervenne Conev a disagio Stephen Hawking era un grande fisico teorico inglese di oltre un secolo fa anch'io pensavo a lui però credevo che fosse un pensiero mio Morrison disse bravo Arcadi potrebbe essere utile Desnev sorrisse allora anch'io servo a qualcosa come diceva mio padre se le parole di un saggio sono poche vale comunque la pena di ascoltarle dopo una mezz'ora interminabile Morrison disse stiamo concludendo qualcosa mi pare che la maggior parte delle frasi e delle immagini non ci diano nulla premio Nobel logicamente ci fa capire che Shapirov pensava di vincerlo ma è una cosa scontata Hawking ci dice che il lavoro di quel fisico forse era importante per il perfezionamento della miniaturizzazione però non ci dice il perché non fu Conev a intervenire in difesa di quel che stavano facendo contrariamente a quanto si sarebbe aspettato Morrison bensì la Boranova Conev che forse si accingeva a ribattere in questa circostanza parve disposto a lasciare quell'incombenza al comandante la Boranova disse siamo di fronte a un enorme crittogramma Albert Shapirov è in coma e il suo cervello non pensa in modo ordinato e disciplinato le parti rimaste integre emettono scariche sconnesse forse a casaccio noi ora raccogliamo tutto senza distinzione e poi i dati verranno studiati da chi di noi possiede una conoscenza approfondita della teoria della miniaturizzazione queste persone potrebbero cogliere un significato là dove tu non ne vedi alcuno e uno sparazzo di significato in un angolo del settore potrebbe espandersi progressivamente e illuminare poi tutto quanto quello che stiamo facendo è giusto e logico Conoff aggiunse e poi Albert possiamo fare un altro tentativo ci stiamo avvicinando a una sinapsi questo assone terminerà e si dividerà in molte fibre ognuna delle quali si avvicinerà ma non si unirà al dendrite di un neurone adiacente lo so rispose Morrison impaziente l'impulso nervoso comprese le onde scettiche dovrà attraversare la minuscola spaccatura della sinapsi e nel farlo i pensieri dominanti saranno meno attenuati degli altri in breve se anche noi attraverseremo la sinapsi raggiungeremo una regione dove almeno per un po' forse potremo captare quello che ci interessa con minore interferenza e disturbi di fondo davvero? chiese Morrison l'espressione furbesca questa teoria dell'attenuazione differenziale mi è nuova nello risultato di accurati studi sovietici in questo settore ah ah Konef si inalberò subito che significa? intendi sminuire la validità degli studi? no no certo se sono studi sovietici non contano intendevo semplicemente dire che non ho mai sentito niente e non ho mai letto niente a questo proposito sono studi della Nastia Spenskaya avrei sentito parlare di lei immagino sì ma non leggi quel che pubblica vero? Yuri non riesco nemmeno a seguire tutte le pubblicazioni scientifiche in lingua inglese figuriamoci se beh quando avremo finito ti farò avere una raccolta delle sue pubblicazioni così potrai istruirti grazie però posso almeno dire che così a prima vista mi sembra una conclusione inverosimile se alcuni tipi di attività mentale superano il passaggio di una sinapsi meglio degli altri considerando che nel cervello ci sono centinaia di miliardi di sinapsi continuamente in funzione come risultato finale avremo che solo una piccola parte dei pensieri sopravviverà a questa azione di filtraggio non è così semplice disse Konev i pensieri secondari non vengono cancellati continuano a esistere a un livello di intensità minore e non si indeboliscono illimitatamente è solo che nei pressi di una sinapsi i pensieri importanti per un certo periodo subiscono un rafforzamento relativo un giorno con gli esperimenti di miniaturizzazione queste prove verranno consolidate ne sono sicuro in certe persone questo effetto sinaptico è molto più intenso rispetto alla media infatti gli individui creativi riescono a concentrarsi a fondo e a lungo pur essendo disturbati come gli altri da pensieri secondari no? e i brillanti studiosi sono tipi tradizionalmente distratti no? benissimo se troveremo qualcosa non avrò nulla da eccepire sui fondamenti teorici Dezenov disse ma che succede quando arriviamo alla fine dell'assone la corrente che stiamo sfruttando farà un'inversione a u in quel punto e ci riporterà indietro lungo la parete opposta dell'assone devo aprirmi un varco nella membrana no assolutamente rispose Konev danneggeremo la cellula dovremo assumere la struttura di carica elettrica dell'acetilcolina nella sostanza che trasporta l'impulso nervoso oltre le sinapsi la Boranova chiese Sofia puoi dare alla nave una struttura acetilcolinica vero? certo ma le molecole di acetilcolina non sono attive all'esterno della cellula fece la Kalinin però può darsi che la cellula abbia un meccanismo per espellerle proveremo e il viaggio lungo l'assone interminabile continuò all'improvviso apparve il termine dell'assone senza alcun segno premonitore Konev fu il primo ad accorgersene stava guardando e sapeva cosa stava cercando con lo sguardo ma Morrison riconobbe che era statuabile anche Morrison stava guardando e sapeva cosa cercare con lo sguardo eppure non lo vide quando arrivò certo Konev era sul sedile anteriore e con la testa ostruiva un po' la visuale di Morrison ma come scusa non era granché nel fascio di luce stranamente inefficace della nave si notava una cavità di fronte eppure la corrente iniziava a deviare allontanandosi dalla cavità l'assone cominciava a dividersi in tanti rami in tanti dendriti simili a quelli dell'estremità opposta del neurone dove si trovava il corpo nucleato della cellula a questa estremità i dendriti erano meno numerosi e più sottili ma erano sempre presenti indubbiamente una parte della corrente cellulare si riversava in quella direzione ma la nave si trovava nella corrente principale che si allontanava curvando e loro non potevano correre rischi dovevano immettersi nel primo dendrite incontrato se fosse stato possibile la arcadi la strillò coneff indicando e solo allora gli altri si resero conto di avere raggiunto il termine dell'assone usa i motori arcadi e buttati in la morrison sentì il pulsare sommesso della propulsione che spingeva la nave verso il margine della corrente il dendrite verso cui stavano puntando era un condotto che si diramava lateralmente un condotto enorme date le loro dimensioni talmente grande che si riusciva solo a vedere un arco della sua circonferenza continuarono ad avvicinarsi e morrison si accorse che stava piegandosi nella direzione del dendrite come se sperassi di migliorare la situazione aggiungendo la spinta del proprio corpo ma non si trattava di raggiungere il condotto stesso muovendosi semplicemente su un tratto di fluido turbinoso un flusso di molecole d'acqua che si calmavano in lenti mulinelli e poi scivolavano in una nuova corrente che si ramificava in un'altra direzione la nave effettuò il passaggio e tutta un tratto si tuffò nell'apertura spegni i motori arcadi disse konaf eccitato non ancora borbottò desenev potremmo essere troppo vicini alla controcorrente che esce da questo affare lascia che mi accosti ancora un po' alla parete e non fu un'operazione lunga adesso si muovevano con la corrente a favore e desenev finalmente spense i motori si scostò dalla fronte ai capelli sudati venati di grigio e con un respiro profondo disse continuiamo a consumare tonnellate di energia c'è un limite Yuri c'è un limite di questo ci occuperemo più tardi replicò impaziente konef davvero mio padre diceva sempre di solito più tardi è troppo tardi natalia non lasciare le redini in mano a Yuri non mi piace l'atteggiamento che ha verso le nostre riserve di energia calmati Arcadi se sarà necessario provvederò io a frenare Yuri Yuri il dendrite non è molto lungo vero ne arriveremo in fondo fra poco natalia in tal caso Sofia stai pronta a inserire la struttura dell'acetilcolina da un istante all'altro mi darai un segnale disse la Kalinin non ce ne sarà bisogno Sofia scommetto che Yuri schiamazzerà come un cosacco quando avvisteremo la fine del dendrite inserisci la struttura dell'acetilcolina in quel preciso istante continuarono a scivolare lungo l'ultima appendice turbolare del neurone in cui erano entrati parecchio tempo prima via via che il dendrite si restringeva Morrison aveva l'impressione di riuscire a vedere l'arco di parete sovrastante ma era un'illusione il buon senso gli diceva che anche nel punto più stretto rispetto alle loro dimensioni quel condotto doveva avere un diametro di parecchi chilometri poi come aveva previsto la Boranova Konef alzò la voce in un grido probabilmente senza rendersi conto di ciò che faceva la fine del dendrite è là di fronte presto l'acetilcolina prima che veniamo spinti all'indietro le dita della Kalinin guizzarono sulla tastiera all'interno della nave sembrava che nulla fosse cambiato ma in qualche punto davanti a loro c'era un recettore dell'acetilcolina o più probabilmente centinaia di recettori che le strutture elettriche si combinarono positivo-negativo e negativo-positivo e la trazione tra la nave e il recettore scattò forte e precisa vennero strappati dalla corrente e penetrarono nella parete del dendrite per alcuni minuti continuarono ad essere trascinati attraverso la sostanza intercellulare tra il dendrite del neurone che avevano appena lasciato e il dendrite del neurone vicino Morrison non vide quasi nulla sentiva che la nave stava scivolando lungo o attraverso una molecola proteica complessa poi notò la formazione di una concavità come quando la nave era entrata nel primo neurone Konev aveva sganciato la cintura per potersi alzare evidentemente era troppo eccitato per rimanere seduto a questo punto incespicando quasi nelle parole disse ora stando all'ipotesi della Nastya Spenskaya il filtraggio dei pensieri importanti è più evidente subito dopo la sinapsi avvicinandosi al corpo cellulare la differenza scompare quindi non appena saremo nelle dendrite adiacente aprite bene le vostre menti dovete essere preparati a qualsiasi cosa dite ad alta voce tutto quello che sentite descrivete le immagini se ne percepite registrerò tutto anche tu Arcadi e tu Albert siamo dentro adesso cominciate solo la buona compagnia priva perfino la morte di alcuni suoi lati terrificanti Desnev Senior Morrison osservò quel che seguì con un certo distacco non intendeva partecipare attivamente se qualcosa gli fosse penetrato nella mente avrebbe reagito e avrebbe riferito tutto era uno scienziato e doveva farlo la Kalinin alla sua sinistra aveva un'aria turva e le dita enoperose Morrison si chienò e moromorò hai ripristinato la struttura dell'L-glucosio lei è noi sei al corrente di questa ipotesi dell'Anastia Spenskaya non è la mia materia non ne ho mai sentito parlare ci credi ma Sofia non abboccò non sono qualificata né per credere né per non credere ma lui ci crede perché vuole crederci senti qualcosa né più nemmeno quello che sentivo prima Desnev naturalmente era silenzioso la Boranova di tanto in tanto pronunciava rapida un paio di parole che però alle orecchie di Morrison sembravano prive di convinzione solo Koneff dimostrava ancora tutto il suo entusiasmo a un certo punto gridò qualcuno ha sentito ritmo circolare ritmo circolare non ci fu alcuna risposta diretta e poco dopo Morrison chiese cosa significa Yuri Koneff non apri bocca e poco più tardi anche lui si calmò e rimase con lo sguardo spento fisso di fronte a sé mentre la nave avanzava nella corrente la Boranova fece beh Yuri la voce era auca Koneff disse proprio non capisco Yuri figliuolo intervenne Desnev può darsi che questo sia un neurone scadente che non pensa molto dovremmo provarne un altro e magari un altro ancora forse col primo abbiamo solo avuto fortuna Koneff lo guardò rabbioso non abbiamo a che fare con delle singole cellule siamo in un gruppo di cellule un milione di cellule o più che sono un centro del pensiero creativo secondo la teoria di Albert quello che pensa una di queste cellule lo pensano tutte con variazioni minori e quanto credo di aver dimostrato disse Morrison allora non passiamo di cellula in cellula a cercare chiese Desnev ma sarebbe inutile rispose Morrison bene disse Desnev deciso perché ci mancano il tempo e l'energia dunque che si fa adesso nel silenzio che seguì Koneff ripete proprio non capisco la Nastian Spenskaya non può essersi sbagliata al che la Kalinin con grande determinazione sganciò la cintura e si alzò voglio dire qualcosa e non voglio essere interrotta Natalia ascoltami abbiamo fatto abbastanza questo è un esperimento che bisognava tentare anche se a mio giudizio era destinato a fallire beh è fallito punto il dito per un attimo in direzione di Koneff senza guardarlo certe persone vogliono modificare l'universo a proprio piacimento se una cosa non è in un certo modo queste persone vorrebbero cambiarla con la sola forza di volontà solo che l'universo è oltre la portata della volontà di qualsiasi persona per quanto questa possa sforzarsi non so se la Nastian Spenskaya abbia ragione non so se le teorie di Albert siano esatte o no però so una cosa le loro teorie le teorie di ogni neuroscienziato riguardo il cervello in generale si riferiscono senza dubbio a un cervello in condizioni più o meno normali il cervello dell'accademico Shapirov non è in condizioni normali il 20% del suo cervello non funziona è morto il resto di conseguenza deve avere subito delle distorsioni funzionali e il fatto che Shapirov sia in coma da settimane lo dimostra un essere umano ragionevole capirebbe che Shapirov non può pensare in modo normale il suo cervello è un esercito allo sbando è una fabbrica in cui tutti gli impianti sono stati diverti e mette scintille a caso pensieri spezzati frammenti di ricordi certi uomini e indicò ancora Konev non vogliono ammetterlo perché credono che insistendo abbastanza l'ovvio scomparirà e l'impossibile chissà come si realizzerà anche Konev adesso aveva sganciato la cintura e si era alzato si girò lentamente e guardò la Kalinin Morrison rimase stupito Konev stava proprio guardando Sofia e sulla sua faccia non c'era alcuna traccia visibile di rabbia o di odio o di disprezzo la sua era un'espressione da cane bastonato con una sfumatura di disprezzo per se stesso Morrison ne era sicuro tuttavia quando Konev distolse lo sguardo da Sofia e si rivolse alla Boranova la sua voce era ferma e dura Natalia questo punto di vista era stato espresso prima che iniziassimo il viaggio cioè Yuri vuoi sapere se Sofia aveva già detto queste cose a me in precedenza no non capisco perché dobbiamo essere oppressi dalla presenza di membri dell'equipaggio che non credono nel nostro lavoro perché questa persona ha accettato di partecipare all'impresa perché sono una scienziata replicò la Kalinin rivolgendosi anch'essa alla Boranova perché volevo verificare l'effetto delle strutture elettriche artificiali sulle interazioni biochimiche l'ho fatto quindi per me il viaggio è stato un successo e lo è stato per Arcadi dato che la nave si è comportata come doveva e per Albert dato che adesso ha trovato le prove a sostegno delle sue teorie e anche per te è stato un successo Natalia dal momento che ci hai guidati fin qui senza incidenti e che presumibilmente ci riporterai indietro sani e salvi ma per una persona indicò Konef è stato un fallimento e all'equilibrio mentale di chi ha fallito gioverebbe una franca ammissione di fallimento stava rivalendosi su di lui senza pietà riflette Morrison ma Konef non crollò sotto l'attacco feroce della Kalinin rimase sorprendentemente calmo e sempre rivolgendosi alla Boranova disse non è vero era chiaro fin dall'inizio che non potevamo aspettarci che Shapirov pensasse come pensava quando era in perfetta salute era probabile che avremmo ottenuto frammenti di pensiero significativi misti a cose insignificanti e secondarie infatti le abbiamo ottenuti io speravo di trovare una percentuale maggiore di dati utili in questo nuovo neurone immediatamente dopo la sinapsi è qui che abbiamo fallito questo rende il nostro compito più difficile ma non impossibile abbiamo oltre cento frasi e immagini recuperate dal pensiero di Shapirov non dimenticate nu per c uguale m sotto s che deve essere importante non c'è motivo di considerare questa espressione qualcosa di puramente marginale la Boranova disse può darsi che quel frammento di espressione matematica rappresenti qualcosa che Shapirov ha provato e poi scartato hai pensato a questo Yuri ci ho pensato ma in tal caso perché gli sarebbe rimasto in mente vale senz'altro la pena di andare a fondo e chissà quanti dati che sembrano banali o privi di significato potrebbero diventare rilevanti se una sola frase o una sola immagine ci fornisse lo spunto necessario via via che procediamo altre cose forse si inseriranno nel punto giusto più facilmente eh no finora non c'è motivo di dichiarare questo viaggio un fallimento in nessuna sua fase la Boranova annui leggermente beh speriamo che tu abbi ragione Yuri ma come ha già domandato Arkady adesso cosa facciamo secondo te quale dovrebbe essere la nostra prossima mossa con ponderatezza Conoff rispose c'è una cosa che non abbiamo ancora provato abbiamo provato a captare i pensieri all'esterno del neurone dentro il neurone dentro l'assone dentro i dendriti oltre la sinapsi ma ogni volta lo abbiamo fatto stando a bordo della nave ma all'interno delle sue pareti presumibilmente isolanti cioè secondo te dovremmo tentare all'esterno della nave nel fluido cellulare direttamente disse la Boranova ricorda l'osservatore si troverebbe sempre in una tuta di plastica una tuta non è spessa come uno scafo quindi l'effetto isolante dovrebbe essere senz'altro minore e poi il computer non ha bisogno di una tuta protettiva Morrison sempre più allarmato chiese che avresti in mente per questo incarico Konef lo guardò con freddezza non c'è che una sola possibilità albert il programma del computer è opera tua e si adatta perfettamente al tuo cervello dunque sei la persona più sensibile ai pensieri di Shapirov sarebbe molto sciocco mandare fuori qualcun altro ho in mente te per questo incarico albert lo stomaco di Morrison si serrò in uno spasmo no non potevano chiedergli di farlo ancora cercò di dirlo ma a tutta un tratto la sua bocca sembrava completamente secca e gli uscì solo un sibilo strozzato aveva cominciato a piacergli l'idea di non essere un vigliacco di girare con la nave nella cellula cerebrale impavido ma in fin dei conti lui era un vigliacco questo no strellò ma non era la sua voce era più alta di un'ottava era la voce della Kalinin si era voltata verso la Boranova tenendosi aggrappata al sedile con le nocche che spiccavano bianche questo non Natalia gridò ancora con foga ansimando è una proposta da vigliacchi il povero albert è già stato fuori una volta per poco non è morto e se non fosse stato per lui forse saremmo ancora bloccati nel capillare sbagliato e non avremmo mai raggiunto questo gruppo di cellule perché dovrebbe farlo di nuovo mi pare che adesso tocchi a qualcun altro e dal momento che lui vuole che si esca era inutile chiedere chi fosse quel lui lo faccia di persona non dovrebbe chiederlo a un altro Morrison pur oppresso dalla paura si domandò in modo vago se la reazione della Kalinin dipendesse da un affetto crescente nei suoi confronti o dal desiderio di contrastare il più possibile le iniziative di Conef un angolo delle menti di Morrison era abbastanza pragmatico da propendere per la seconda ipotesi mentre Sofia parlava lentamente la faccia di Conef era arrossita non si tratta di vigliaccheria Conef pronunciò rabbioso la parola facendo capire che era quella la cosa che lo aveva offeso maggiormente è l'unica proposta possibile se uscissi io e sono dispostissimo a farlo dovrei sempre usare l'apparecchiatura di Albert che con me non avrebbe la stessa efficienza che con Albert non possiamo scegliere questo o quello così seguendo qualche capriccio dobbiamo scegliere la persona in grado di ottenere i risultati migliori e in tal caso la scelta è scontata vero disse Morrison ritrovando finalmente la voce ma non c'è motivo di pensare che la ricezione all'esterno sia migliore che a bordo Conef ribatté non c'è neppure alcun motivo di pensare il contrario e come ti dirà Dezenev le nostre riserve energetiche e quindi anche il tempo disponibile stanno diminuendo non si può indugiare dovrai lasciare la nave come hai fatto in precedenza e subito a bassa voce sperando di dare alle proprie parole un tono definitivo Morrison disse mi dispiace io dalla nave non esco ma la Boranova apparentemente aveva preso una decisione temo che dovrai farlo Albert intervenne con voce garbata no Yuri ha ragione solo tu e la tua apparecchiatura potete darci le informazioni che ci occorrono sono sicuro che non ci sarà nessuna informazione la Boranova tese le mani col palmo rivolto all'insù può darsi però non deve rimanere una semplice supposizione scopriamolo ma Albert ti prometto che se farei questo tentativo per noi il tuo ruolo nell'impresa verrà riportato fedelmente quando giungerà il momento di rendere pubblica la notizia sarai noto ovunque come l'uomo che ha elaborato la giusta teoria del pensiero come il creatore dell'apparecchiatura in grado di sfruttare adeguatamente questa teoria come l'uomo che ha salvato la nave nel capillare e ha captato i pensieri di Shapirov avventurandosi coraggiosamente nel neurone dopo essersi avventurato coraggiosamente nel flusso sanguigno vorresti dire che se ha rifiuto la verità non sarà rivelata la Boranova sospirò mi costringi a recitare apertamente il ruolo del malvagio avrei preferito che ti fossi accontentato di quel che era implicito nelle mie parole eh sì non è necessario che diciamo la verità in fondo è l'unica arma con cui posso affrontarti non possiamo certo buttarti fuori con la forza perché non basta che tu sia là fuori devi anche percepire i pensieri del povero Shapirov quindi è indispensabile che tu sia disposto a collaborare se lo farai ti ricompenseremo ma solo se lo farai Morrison guardò le facce dei compagni di viaggio in cerca di aiuto la Boranova lo studiava attentamente Konef lo fissava con arroganza Deznef aveva l'aria imbarazzata di chi non vuole sbilanciarsi la Kalinin la sua unica speranza Morrison la guardò pensoso e disse qual è il tuo pensiero Sofia la Kalinin esitò poi rispose con voce ferma secondo me è sbagliato a minacciarti in questo modo un compito del genere dovrebbe essere svolto volontariamente non imposto con la coercizione Deznef che stava cantecchiando pianissimo disse il mio vecchio genitore diceva non c'è costruzione peggiore della nostra coscienza ed è questo che ci rende la vita maledettamente amara la mia coscienza non mi crea problemi in questo caso osservò Morrison dobbiamo mettere la proposta ai voti inutile rispose la Boranova sono io il comandante e in una situazione del genere l'unico voto spetta a me se uscirò e non sentirò nulla mi crederete la Boranova a noi sì in fin dei conti potresti facilmente inventare qualcosa che sembra importante per assicurarti la nostra gratitudine se rientrerai senza dati o con dati insignificanti penso che avrò meno difficoltà a crederti mentre se affermassi subito di avere percepito qualcosa di importantissimo qualche dubbio forse ci sarebbe Conniff disse difficilmente mi lascerò ingannare se rientrerà con qualcosa in apparenza importante sarò in grado di stabilire se è vero o no e adesso basta discussioni muoviamoci e Morrison col cuore impazzito e la gola contratta riuscì a dire d'accordo andrò ma solo per poco tempo Morrison si tolse da solo l'uniforme di cotone la prima volta erano passate davvero un paio d'ore soltanto gli era parsa un'offesa al pudore la seconda volta era diventata quasi un'operazione di routine mentre la Kalinin lo aiutava a indossare la tuta si rese conto di poter tirare dentro facilmente l'addome malgrado una buona colazione l'acqua in abbondanza e il pezzo di cioccolato aveva lo stomaco vuoto ed era contento così avvertì un lieve senso di nausea mentre la tuta fasciava sempre più il suo corpo e vomitare nella tuta sarebbe stato insopportabile appena prima che la chiudessero del tutto rifiutò un altro pezzetto di cioccolato reprimendo un brevido gli misero il computer in mano e la Boranova chiese ad alta voce riesci a usarlo? Morrison la udì senza eccessiva difficoltà sapeva che nulla avrebbe più sentita una volta all'esterno tenne in equilibrio su una mano il computer che in pratica era privo di peso e con l'altra mano batte i tasti in modo piuttosto sgraziato credo di farcela gridò poi con movimenti impacciati gli legarono il computer e i polsi con un robusto cordino di plastica probabilmente lo stesso materiale della tuta e dello scafo così non lo perderai spiegò la Boranova Morrison entrò nel comparto stagno si sentì avvolgere poi comprimere quando l'aria fu risucchiata poi si ritrovò all'esterno di nuovo fuori solo per poco tempo aveva detto agli altri ma a che serviva? come poteva imporre la propria volontà se quelli a bordo si fossero rifiutati di lasciarlo rientrare si pentiva già di essersi lasciato convincere e uscire cedendo a delle minacce ma non usò articolare il pensiero e non gli avrebbe giovato strinse il computer sotto il braccio sinistro in parte perché non si fidava completamente della cordicella di plastica in parte perché voleva proteggerlo il più possibile dagli elementi cellulari tastò la superficie della nave in cerca di un punto dove la carica elettrica della tuta aderisse a una carica opposta dello scafo ne trovò uno che gli consentiva di rivolgere le spalle alla nave il campo elettrico non lo attirava forte c'era parecchia accedevolezza dell'arresto Morrison aveva le dimensioni di un atomo e probabilmente era difficile concentrare la carica elettrica su una parte del suo corpo o no non erano microminiaturizzati anche gli elettroni la fonte di tale carica Morrison si rese conto della propria ignoranza riguardo alla teoria della miniaturizzazione e provò un'acuta irritazione non gli sembrava quasi di muoversi nella corrente intracellulare perché ogni cosa si muoveva insieme a lui si ritrovò comunque al centro di un panorama in perenne mutamento grazie alla tuta più sottile dello scafo e al faretto che seguiva i movimenti del casco casco dalla rotazione non proprio scorrevole poteva distinguere maggiori particolari c'erano le molecole d'acqua bitorsolute che si strofinavano a vicenda come palloni sfocati lo sfioravano lentamente in questa o in quella direzione per lo più ignorandolo di tanto in tanto una molecola gli si attaccava per un attimo quando la carica incontrava una carica opposta della tuta si attaccava e indugiando lasciava poi la presa sembrava quasi che quelle rare molecole lo desiderassero ma non riuscissero a trasformare il desiderio in realtà tra le molecole d'acqua c'erano molecole più grandi alcune grandi quanto la nave alcune molto più grandi Morrison le vedeva solo perché la luce riflettendosi creava dei luccichi degli effetti prismatici e mutevoli non le vedeva in base a quello che lui scorgeva di sfuggita se Morrison non riusciva a farlo era perché sapeva parecchie cose riguardo al contenuto della cellula o credeva di saperle non era escluso che stesse solo immaginando tutto pensò gli sembrava addirittura di scorgere lo scheletro della cellula le grandi strutture che rimanevano ferme mentre la corrente le lambiva e che conferivano alla cellula la sua forma più o meno fissa queste strutture scorrevano talmente in fretta che Morrison riusciva appena a notarle prima che scomparissero erano solo quegli elementi a dargli l'impressione del movimento rapido della corrente che trasportava la nave Morrison serpeggiando tra quelle strutture immobili tutte queste osservazioni non erano durate a lungo ma adesso era giunto il momento di rivolgere la propria attenzione al computer perché non avrebbe captato nulla Morrison ne era certo ma non poteva basarsi su quella convinzione malgrado fosse molto forte forse si sbagliava e doveva almeno fare un tentativo per gli altri e anche per se stesso impacciato cercò cercò di regolare il computer sulla massima sensibilità riuscendo a stento a premere i tasti in modo corretto e risollevato nel constatare che la batteria incorporata funzionava poi si concentrò per intercettare e captare le correnti di pensiero che fluivano attorno a lui il ricevitore entrò in azione le molecole d'acqua lo sfioravano impercettibilmente come sfioravano Morrison e ignorandole il computer presentò sullo schermo le onde scettiche più definite più nitide più accentuate e più dettagliate che Morrison avesse mai visto ma malgrado ciò Morrison non percepì nulla a parte un lieve brusio che non produceva né parole né immagini ma solo tristezza un attimo come sapeva che quel mormorio era triste doveva trattarsi di certo di un giudizio soggettivo o stava captando un'emozione Shapiroff in coma profondo col cervello parzialmente morto era triste sarebbe stato un fatto sorprendente la sua tristezza Morrison si guardò alle spalle e guardò la nave quel che stava captando doveva essere sufficiente e nient'altro che tristezza nulla a parte quel vago stato d'animo doveva segnalare che lo facessero rientrare e avrebbero acconsentito e se fosse rientrato e avesse riferito alla Boranova di non avere sentito nulla Konef non gli avrebbe detto fuori bondo che era rimasto fuori solo due minuti che non era stato un tentativo serio e che quindi doveva tornare fuori e si avesse atteso più a lungo in realtà Morrison poteva attendere ancora a quel livello di miniaturizzazione o quale che fosse la causa non avvertiva un calore particolare ma si avesse atteso ancora due minuti o cinque o addirittura un'ora Konef avrebbe detto ugualmente che non era abbastanza vide Konef che lo guardava cupo e minaccioso alle sue spalle la Kalinin si era spostata sul sedile di Morrison e fissava l'esterno apprensiva i loro sguardi si incontrarono e Sofia sembrò sul punto di rivolgergli un cenno ma la Boranova si chinò e era avanti e le spinse le spalle con decisione e la Kalinin tornò subito al proprio posto non poteva fare diversamente riflette Morrison doveva controllare le strutture di carica della nave e di Morrison un compito che non poteva abbandonare anche se stava in pena per lui per amor di completezza Morrison cercò di cogliere pure lo sguardo di Desnef ma l'angolo di rotazione del casco era limitato e non glielo consentì notò invece Konef che stava gesticolando con aria chiaramente interrogativa Morrison distolse lo sguardo seccato rifiutandogli qualsiasi informazione e si accorse che qualcosa in lontananza avanzava verso di lui a gran velocità non riuscì a distinguere i dettagli ma automaticamente sussultò mentre attendeva che la corrente trascinasse lui e la nave attorno all'ostacolo ora si staggiava simile a un'entità mostruosa e malefica e Morrison si rannicchiò al ridosso dello scafo la nave evitò l'oggetto di poco e mentre il mostro gli sfilava di fronte Morrison si sentì attirato nella sua direzione un pensiero gli guizzò nella mente la Kalinin aveva dato alla tuta una carica elettrica a caso e per la più sventurata delle coincidenze quell'oggetto possedeva una carica perfettamente opposta in circostanze normali non sarebbe successo nulla la nave e la struttura si erano incrociate a una velocità tale che nessuna forza di attrazione sarebbe bastata a staccare Morrison ma adesso Morrison era un oggetto minuscolo privo di massa e di inerzia e per un attimo Morrison si sentì stiracchiato come se la nave e la struttura si contendessero il suo possesso lo scafo sotto il suo sguardo sgomento farve vacillare un istante poi venne trascinato via dalla corrente Morrison era stato catturato dall'oggetto e la nave si allontanò così rapidamente che in un paio di secondi sparì in lontananza il suo unico e lieve contatto con la vita e la realtà la nave era scomparso per sempre per alcuni minuti la coscienza di Morrison subì una paralisi in quell'intervallo Morrison non sapeva dove fosse e cosa fosse successo avvertiva solo un senso di panico assoluto nella convinzione di trovarsi in punto di morte quando la vita proseguì Morrison quasi se ne rammaricò se in quegli ultimi attimi fosse morto tutto si sarebbe concluso adesso invece avrebbe dovuto aspettare ancora quanto sarebbe durata l'aria il calore l'umidità l'avrebbero soffocato inesorabili anche se forse più lentamente di prima il faretto si sarebbe spento prima di lui sarebbe morto nell'oscurità più profonda oltre che in completa solitudine pensò impazzito come farò ad accorgermi di essere morto se passerò dal buio totale al buio totale pensò alla preghiera di Aiasia Zeus se doveva affrontare la morte gli fosse almeno consentito di affrontarla alla luce del giorno e con una persona almeno che gli stringesse la mano aggiunse Morrison disperato che fare allora aspettare e basta cosa era andato storto tra parentesi non era ancora morto la paura era diminuita abbastanza da lasciare spazio a un barlume di curiosità e alla voglia di lottare e vivere era possibile staccarsi da quell'oggetto chissà perché gli sembrava ignobile morire come una mosca imprigionata nell'ambra e a ogni istante che passava la nave si allontanava sempre più è già troppo lontana per potermi recuperare qualunque cosa faccia riflette subito quel pensiero suscitò in lui una reazione frenetica e Morrison si dimenò con quanta forza aveva in corpo per liberarsi fu inutile e gli venne in mente che stava sprecando energia e stava facendo aumentare il calore all'interno della tuta fece scivolare le mani all'insù lungo la struttura confusa che lo bloccava ma le mani rimbalzarono cariche uguali che si respingevano provò ancora a destra a sinistra su giù da qualche parte c'era la carica opposta forse allora sarebbe riuscito ad aggrapparsi e a cercare di spaccare la struttura perché batteva i denti paura disperazione tutte e due la destra si bloccò attratta da una parte dell'oggetto Morrison strinse forte cercando di sfondare la carica e lacerare la struttura atomica stessa sembra che ci fosse una struttura atomica portante oltre la carica elettrica vera e propria per un attimo Morrison sentì una specie di resistenza elastica poi ad un tratto la struttura gli si sbriciolò nella destra fissò stupito la mano sforzandosi di capire cosa fosse successo non aveva avvertito alcuna sensazione di strappo di laceramento era come se una parte della struttura si fosse semplicemente dissolta provò ancora annaspando quella e un'altra parte svanì cosa stava accadendo un attimo la Boranova aveva detto che il campo miniaturizzante si estendeva per un brevissimo tratto oltre lo scafo quindi doveva estendersi anche oltre la sua tuta quando stringeva con tutta la forza parte dell'atomo che toccava si miniaturizzava e di conseguenza l'atomo perdeva la propria struttura normale e si staccava dagli atomi ai quali era precedentemente legato bastava toccare e premere abbastanza forte per ottenere la miniaturizzazione in questo modo ogni parte miniaturizzata diventava una particella con una massa molto minore di un elettrone schizzava via una velocità prossima a quella della luce attraversava la materia come se la materia non esistesse e spariva era quella la spiegazione eh sì doveva essere quella morrison non riusciva a trovarne un'altra che avesse senza e mentre pensava cominciò a spingere con violenza usando mani e piedi e premere contro la sostanza che lo impregionava e si liberò non era più incollato alla struttura era un corpo indipendente che si muoveva nel flusso intercellulare certo ormai la nave era irraggiungibile però almeno morrison stava seguendo la sua scia adesso che sciocchezza che assurdità a che serviva essere nella scia della nave considerate le sue dimensioni tra lui e la nave c'erano decine di chilometri centinaia forse un altro pensiero lo colpì e lo sconvolse per liberarsi aveva miniaturizzato degli atomi ma la miniaturizzazione richiedeva un'immissione di energia non molta a quel livello dato che la massa da rimuovere era minima però da dove proveniva l'energia doveva provenire dal campo miniaturizzante della tuta ogni atomo miniaturizzato dunque indeboliva il campo quanto l'aveva indebolito per liberarsi era per questo che non sentiva il calore la miniaturizzazione dell'esterno aveva assorbito parte del calore oltre all'energia del campo no impossibile che fosse così perché morrison non aveva sentito molto calore nemmeno prima di cominciare a liberarsi ma un altro pensiero lo colpì rendendo la sua situazione ancora più disperata se si era staccato dalla struttura consumando l'energia del proprio campo se il campo si era indebolito allora lui doveva essersi deminiaturizzato leggermente era quella la causa della deminiaturizzazione spontanea la branova gli aveva parlato della possibilità che si verificasse un fenomeno spontaneo del genere possibilità che aumentava più l'oggetto miniaturizzato era piccolo e adesso lui era piccolo finché era rimasto a bordo era stato protetto dal campo miniaturizzante complessivo della nave aveva fatto parte di un oggetto di dimensioni molecolari quando era attaccato all'acitoscheletro della cellula aveva fatto parte di un corpo ancora più grande ma adesso era solo separato unica parte di se stesso era un oggetto grande quanto un atomo le probabilità di una deminiaturizzazione spontanea erano molto maggiori solo che non sarebbe stata spontanea sarebbe stata causata dall'indebolimento del campo che veniva a contatto con gli oggetti normali dell'ambiente circostante e se si fosse deminiaturizzato come avrebbe fatto ad accorgersene sarebbe stato un processo esponenziale all'inizio si sarebbe deminiaturizzato lentamente ma espandendosi avrebbe toccato una parte sempre più estesa di sostanza esterna e si sarebbe espanso più in fretta sempre più in fretta e alla fine sarebbe esploso e sarebbe morto ma se stava deminiaturizzandosi che importanza aveva questione di pochi secondi al massimo e sarebbe arrivata la morte talmente rapida che non si sarebbe accorto di nulla un attimo prima vivo l'attimo dopo il nulla non poteva chiedere una morte migliore no perché voler sapere fino all'ultimo cosa sarebbe accaduto nel secondo successivo perché era vivo ed era un essere umano e la voglia di sapere era la particolarità che distingueva gli esseri umani vivi allora come fare ad accorgersene morrison fissò il fioco scintillio attorno a lui le molecole d'acqua che giravano e si spostavano in una specie di sequenza alla rallentatore e lo accompagnavano lungo la corrente se lui si fosse espanso le molecole gli avrebbero dato l'impressione di restringersi e viceversa morrison osservò stavano restringendosi stavano diventando più piccole era la morte imminente o la sua immaginazione un attimo non stavano invece aumentando di volume le molecole non stavano diventando più grandi non stavano gonfiandosi se si significava che lui stava rimpicciolendo avrebbe raggiunto le dimensioni di una particella subatomica di un subelettrone sarebbe schizzato nello spazio alla velocità della luce esplodendo tra la terra e la luna morendo nel vuoto senza riuscire a rendersi conto di trovarsi nel vuoto le molecole si stavano restringendo non espandendo ma ora sono chiuse gli occhi il respiro a fondo stava impazzendo o erano i sintomi iniziali di qualche lesione cerebrale è meglio morire allora meglio la morte totale che un cervello morto in un corpo vivo stavano pulsando le molecole d'acqua perché avrebbero dovuto pulsare pensa morrison pensa sei uno scienziato trova una spiegazione perché dovrebbero pulsare sapeva come mai il campo poteva indebolirsi dipendeva dalla sua tendenza a miniaturizzare l'esterno perché avrebbe dovuto rinforzarsi per rinforzarsi doveva assorbire energia sì ma da dove e le molecole circostanti avevano più energia termica di morrison perché avevano una temperatura più alta normalmente il calore si sarebbe propagato dall'esterno alla tuta e a un certo punto la tuta e morrison avrebbero raggiunto la temperatura del sangue e morrison incapace di liberarsi del calore accumulato sarebbe morto come era quasi morto durante la sua precedente avventura all'esterno della nave ma non c'era solo il livello termico del suo corpo bisognava considerare anche l'energia del campo miniaturizzante quando morrison veniva colpito a caso dalle molecole d'acqua l'energia assorbita non si trasformava necessariamente in calore bensì in energia di miniaturizzazione il campo dunque si intensificava e lui si riduceva quel fenomeno doveva essere universalmente valido quando un oggetto miniaturizzato era circondato da oggetti normali con una temperatura superiore l'energia poteva passare dall'ambiente all'oggetto miniaturizzato sia sotto forma di calore sia sotto forma di intensità di campo e probabilmente più l'oggetto era piccolo più era stato miniaturizzato più era il campo ad assorbire energia e non l'oggetto stesso probabilmente anche la nave pulsava si espandeva e si restringeva di continuo ma a un livello non abbastanza grande da risultare osservabile tuttavia ecco perché il moto browniano non era aumentato oltre certi limiti ecco perché l'impianto di condizionamento poteva svolgere la propria funzione con minor sforzo ma lui Morrison solo nella cellula era molto più piccolo possedeva meno massa e per lui l'energia assorbita si trasformava quasi tutta in miniaturizzazione e non in calore serrò i pugni impotente lasciò andare il computer infischiandosene senza dubbio gli altri soprattutto la Baranova e Konef erano al corrente del fenomeno gli avrebbero potuto spiegarglielo ancora una volta lo avevano mandato incontro al pericolo senza avvertirlo e adesso che era arrivato da solo alla soluzione a cosa gli serviva aprì gli occhi di colpo sì c'erano delle pulsazioni ora che sapeva cosa aspettarsi le vedeva le molecole d'acqua si espandevano e si contraevano seguendo un ritmo irregolare via via che cedevano energia al campo e poi la assorbivano Morrison osservò frastornato quella danza alterna e si ritrovò a mormorare mentalmente più grandi più piccole più grandi più piccole più grandi più piccole più di un tanto però non potevano ingrandirsi pensò l'espansione rispecchiava la contrazione di Morrison e l'energia disponibile per produrre la contrazione era limitata gli elementi cellulari avevano una temperatura limitata d'altro canto potevano assorbire da lui una notevole quantità di energia e quando ne avessero assorbita abbastanza l'energia rimasta si sarebbe esaurita sempre più in fretta e lui sarebbe esploso dunque quando le molecole d'acqua si espandevano e Morrison si riduceva lui era al sicuro non si sarebbe ridotto all'infinito quando le molecole si restringevano invece e le dimensioni di Morrison aumentavano lui era in pericolo se avessero se avessero continuato a restringersi fino a diventare troppo piccole per risultare visibili Morrison si sarebbe espanso sempre più andando incontro all'esplosione istantanea più grandi più piccole più piccole smettetelo di restringervi Morrison ripresi a respirare perché le molecole stavano di nuovo espandendosi e l'altalena continuò e ogni volta la domanda si sarebbe arrestato il restringimento sembrava che stessero giocando con lui ma in fondo non importava anche se lo avessero spinto un milione di volte sull'orlo della distruzione per poi ritirarlo indietro che importanza aveva prima o poi Morrison avrebbe esaurito l'aria e sarebbe morto lentamente asfissiato meglio una morte rapida sicuramente la Kalinin stava gridando era stata la prima ad accorgersi dell'accaduto e le parole le uscivano strozzate è scomparso è scomparso strillò la Boranova non poteva fare a meno di rivolgere la domanda ovvia chi? la Kalinin si girò gli occhi sbarrati chi è scomparso? come puoi fare una domanda del genere? Albert è scomparso la Boranova fissò perplessa il punto dove fino a un attimo prima si trovava Morrison che cosa è successo? Desnev forbottò Rocco non lo so di preciso abbiamo sfiorato qualcosa o Albert è attaccato all'esterno forse ha sbilanciato l'assetto io ho cercato di virare e allontanare la nave non so cosa fosse ma la nave non ha risposto ai comandi come avrebbe dovuto un organolo macromolecolare fisso ha fatto staccare Albert disse Konef alzando lo sguardo dopo essersi stretto la faccia tra le mani dobbiamo tornare indietro può darsi che abbia le informazioni che ci corrono la Boranova resasi conto della situazione sganciò rapida la cintura e si alzò informazioni disse la voce tesa è di questa perdita che ti preoccupi Yuri hai paura di perdere delle informazioni lo sai cosa accadrà adesso il campo miniaturizzante di Albert è isolato e lui ha solo le dimensioni di un atomo le sue probabilità di deminiaturizzarsi spontaneamente sono almeno 50 volte superiori alle nostre e col passare del tempo le probabilità non saranno più probabilità informazioni o no dobbiamo recuperarlo se si deminiaturizza ucciderà Shapirov e ucciderà anche noi Konef replicò perché discutere delle motivazioni tutti e due lo rivolgiamo a bordo le ragioni sono secondarie non avremmo dovuto mandarlo fuori disse la Kalinin lo sapevo che non dovevamo fare una cosa simile ormai l'abbiamo fatta disse Borber alla Boranova e dobbiamo arrangiarci e cercare di rimediare Arkady sì ci sto provando disse Dezenev non insegnare a singhiozzare a un ubriacone non voglio insegnarti niente vecchio sciocco è un ordine vira indietro indietro no ribatté Dezenev lascia che questo vecchio sciocco ti dica che è assurdo vuoi che inverta la ruta e affronti la corrente vuoi che provi a risalirla la Boranova disse se terrai ferma la nave la corrente ci porterà Albert è attaccato a qualcosa la corrente non lo porterà da noi spiegò Dezenev dobbiamo virare e raggiungere l'altro lato del dendrite e lasciare che sia la corrente di ritorno a portarci indietro la Boranova si portò le mani alla testa scusa se ti ho chiamato vecchio sciocco Arcadi ma se torneremo seguendo la controcorrente lo perderemo non abbiamo scelta non abbiamo energie sufficienti per cercare di risalire questa corrente il tono un po' stanco ma ragionevole Konef intervenne lascia che Arcadi faccia come crede Natalia non perderemo Albert come lo sai Yuri lo so perché lo sento o meglio lo percepisco o meglio percepisco i pensieri di Shapirov tramite lo strumento di Albert che si trova senza alcuno schermo isolante nella cellula dopo alcuni attimi di silenzio la Boranova stupita chiese ricevi qualcosa? certo in quella direzione rispose Konef indicando riesci a individuare la direzione come? di preciso non lo so lo sento e basta è in quella direzione la Boranova disse Arcadi fa come avevi proposto lo sto facendo indipendentemente dal tuo parere Natalia tu sarai il comandante ma io sono il navigatore con la morte che mi guarda in faccia lo so da perdere come direbbe mio padre se penso le da una corda sopra un abisso lascia perdere la moneta che ti cade dalla tasca sarebbe meglio se avessi un vero apparato di guida invece che questo sistema di manovra con tre motori scentrati la Boranova aveva smesso di ascoltare tese inutilmente lo sguardo nell'oscurità poi disse cos'è che senti Yuri? i pensieri di Shapirov cosa dicono? niente per il momento solo rumore angoscia la Kalinin mormorò come se stesse parlando tra sé credete che una parte della mente di Shapirov sappia che è in coma? credete che parte della sua mente si sente intrappolata e stia gridando per uscire intrappolata come Albert come noi? la Boranova fece brusca non siamo intrappolata non siamo intrappolati Sofia possiamo muoverci troveremo Albert usciremo da questo corpo capito Sofia? prese le spalle della Kalinin e strinse forte la Kalinin sussultò sì ho capito la Boranova si rivolse a Konef non riceve altro solo angoscia sì però forte Konef la fissò perplesso tu non senti nulla? niente di niente eppure molto forte più forte di tutto quello che ho sentito quando Albert era a bordo è stata una buona idea farlo uscire ma non distingui nessun pensiero parole forse sono troppo lontano forse Albert non ha regolato bene la sua macchina e tu non senti davvero niente la Boranova scossa la testa energicamente e lanciò una breve occhiata alla Kalinin che massaggiandosi una spalla disse sottovoce nemmeno io e Dezenef scontento aggiunse io non li ricevo mai questi misteriosi messaggi non hai ricevuto Hawking Albert ha detto che potrebbero esserci gruppi cerebrali diversi come nel caso del sangue e che lui e io potremmo avere lo stesso gruppo forse ha ragione disse Konef da che direzione proviene la sensazione? chiese la Boranova dalla questa volta Konef indicò un punto molto più vicino all'estremità anteriore della nave stai girando vero Arkady? ma certo e adesso sono abbastanza vicino alla fascia calma tra le due correnti intendo entrarci appena nella controcorrente così torneremo indietro ma non troppo velocemente bene disse la Boranova non dobbiamo perderlo Yuri puoi giudicare l'intensità? sta diventando più forte? sì Konef sembrava un po' sorpreso come se non avesse notato l'aumento di intensità finché la Boranova non gliene aveva parlato pensi che sia immaginazione? ma può darsi non è che ci siamo avvicinati veramente a lui stiamo solo girando pare quasi che sia lui ad avvicinarsi forse la corrente lo ha staccato dalla cosa che lo bloccava o si è liberato da solo in tal caso la corrente lo porterebbe da noi se stiamo invertendo la rotta e rimarremo essenzialmente nel medesimo punto forse Yuri ordinò la Boranova tu concentrati solo sulle sensazioni riferisci continuamente ad Arkady la direzione da cui provengono quindi guidalo costantemente verso Albert Arkady man mano che ti avvicini ad Albert dovrai deviare verso la prima corrente ed entrare nel flusso più vicino possibile alla posizione di Albert poi quando ci sposteremo assieme sarà facile accostarci a lui usando i motori facile per chi non deve controllare i motori borbottò Dezenev facile o difficile fallo disse la Boranova aggrottando le sopracciglia ma altrimenti no niente altrimenti fallo le labbra di Dezenev si mostrano ma non ne scaturì alcun suono e il silenzio scese sulla nave a parte la tacita marea di sensazioni che penetrava nella mente di Konev ma lasciava vuote le altre menti Konev rimase in piedi rivolto nella direzione da cui gli sembrava che giungessero i segnali una volta mormorò decisamente più forte poi parecchi secondi più tardi mi sembra di riuscire così a sentire delle parole forse se si avvicina abbastanza la sua espressione si fece ancora più contratta come se stesse sforzandosi di catturare le sensazioni e comprimerle nella mente eliminando il rumore e scomponendo il resto in parole il suo dito continuava a indicare rigido e infine Konev disse Arkady comincia a virare verso la fascia intermedia e preparati a immetterti nella prima corrente in fretta Albert non deve superarci con tutta la fretta che mi consentono i motori disse Desnef e abbassando la voce se potessi manovrare questa nave con la stessa magia con cui voi altri sentite delle voci dirigiti verso la membrana ordinò Konev ignorando il commento fu la Kalinin la prima a vedere la scintilla di luce eccolo gridò è il faretto della tuta non ho bisogno di vederlo disse Konev la Boranova il rumore che capto è come un'eruzione vulcanica in Kamchatka ancora rumore Yuri niente parole paura precisò Konev paura folle la Boranova osservò se mi rendessi conto non so come di essere intrappolata in un corpo in coma è esattamente quello che proverai ma come mai adesso se ne è accorto prima abbiamo distinto delle parole e anche immagini calme e serene ansimando per un po' per l'eccitazione della ricerca che inconsciamente lo aveva fatto stare col fiato sospeso Dezenev disse forse siamo stati noi con la nave gli abbiamo stimolato il cervello siamo troppo piccoli replicò Konev sprezzante non possiamo nemmeno stimolare questa cellula in modo apprezzabile ci avviciniamo ad Albert annunciò Dezenev Sofia riesce a captare la sua struttura elettrica chiese la Boranova debolmente Natalia beh usa tutti i mezzi a tua disposizione per creare una forza complementare che lo attiri saldamente sembra un po' più grande Natalia sta oscillando garantito disse la Boranova cupa in viso quando sarà fissato alla nave entrerà nel campo di miniaturizzazione generale e le sue dimensioni si stabilizzeranno presto Sofia si sentì un lieve tonfo mentre Morrison veniva attratto elettronicamente allo scafo morte non appena tramonta il sole scende l'oscurità non lasciarti cogliere di sorpresa Dezenev senior Morrison in seguito non riuscì a ricordare quel che era accaduto né appena prima del suo ritorno a bordo né immediatamente dopo per quanto si sforzasse non ricordava di aver visto la nave che gli andava incontro né il momento del recupero né quando gli avevano tolto la tuta di plastica spingendosi abbastanza indietro con la mente ricordava la disperazione e la solitudine provate mentre attendeva l'esplosione e la morte spingendosi in avanti ricordava il volto preoccupato della Kalinin china su di lui ma tra questi due estremi non c'era nulla non era già successo i due episodi collegati dalla presenza della Kalinin che si prendeva a cuore di lui erano separati da parecchie ore ma si fusero in uno solo con una voce rauca quasi incomprensibile Morrison disse in inglese siamo rivolti nella direzione giusta la Kalinin esitò poi lentamente in un inglese un po' accentato rispose si Albert ma quello è successo un po' di tempo fa quando eravamo nel capillare si è rientrato e poi si è riuscito una seconda volta adesso siamo in un neurone ricordi Morrison corrugò la fronte cos'era quella storia lentamente a frammenti la memoria gli ritornò chiuse gli occhi e cercò di riordinare le idee poi questa volta in russo chiese come avete fatto a trovarmi Konef rispose ho percepito molto forte le onde cerebrali di Shapirov attraverso il tuo strumento il mio computer è salvo ero ancora attaccato a te disse Konef avevi sentito dei pensieri veri e propri tu? pensieri veri e propri ma Morrison l'ho fissato confuso che pensieri di cosa stai parlando? Konef stava già spazientendosi ma serrò le labere disse ho capotato le onde del pensiero di Shapirov che arrivavano fino a me attraverso la cellula grazie alla tua apparecchiatura ma non c'erano né parole né immagini e cosa hai sentito allora? angoscia la Boranova disse e l'arresto di noi non ha sentito nulla comunque ci è parso che la sensazione descritta da Yuri fosse l'angoscia di una mente che sapeva di essere intrappolata in uno stato comatoso di essere prigioniera non hai sentito niente di più preciso? no Morrison si guardò e si rese conto di essere steso su due sedili con la testa appoggiata alle braccia della Kalinin e di avere addosso l'uniforme di cotone cercò faticosamente di drizzarsi acqua per favore beve avidamente poi disse non ricordo di avere sentito o percepito nulla nella mia situazione Konefl interruppe brusco che c'entra la tua situazione il tuo computer trasmetteva informazioni le ho percepite a una distanza considerevole com'è possibile che tu non abbia sentito nulla? avevo altre cose a cui pensare Yuri ero rimasto isolato ed ero sicuro di morire date le circostanze non ho prestato attenzione a nient'altro non posso crederci Albert non menti ormi non sto mentendo comandante Boranova disse Morrison chiamandola in modo molto formale esigo che mi si tratti con cortesia Yuri niente accuse ordinò la Boranova se hai delle domande falle Konefl riprese mettiamolo in questo modo allora ho percepito una quantità massiccia di sensazioni anche se ero lontano dal computer considerato il nostro livello di miniaturizzazione tu Albert eri proprio a contatto con lo strumento uno strumento regolato apposta per il tuo cervello i nostri cervelli apparterranno anche allo stesso gruppo però non sono identici e col tuo strumento puoi ottenere percezioni migliori delle mie com'è possibile che io abbia avuto tante percezioni mentre tu affermi di non avere sentito nulla Morrison replicò Caparbio secondo te avevo il tempo o la voglia di seguire le percezioni ero stato strappato via dalla nave ero isolato solo perso capisco però non è necessario uno sforzo particolare per percepire qualsiasi cosa avvenga le sensazioni ti penetrano nella mente io comunque non ho ricevuto nessuna sensazione avevo la mente occupata da due cose ero solo e sarei morto possibile che tu non capisca pensavo che mi sarei surriscaldato e che sarei morto come per poco non è successo la prima volta un dubbio improvviso assali Morrison che si rivolse alla Kalinin sono state due volte vero? sì Albert e poi mi sono reso conto che non mi stavo surriscaldando mi è sembrato invece di diventare più grande e più piccolo di oscillare invece del passaggio di energia termica c'era una specie di passaggio di energia miniaturizzante è possibile Natalia? Laboranova esitò poi rispose questo effetto lo si deduce logicamente dalle equazioni di campo della miniaturizzazione non è mai stato verificato direttamente ma a quanto pare la tua esperienza là fuori lo conferma sembrava che le dimensioni dell'ambiente esterno oscillassero che le molecole d'acqua attorno a me si espandessero e si restringessero ma era più logico che a oscillare fossi io e non tutto il resto osservazione esatta quel che ci hai appena riferito è prezioso dunque potremmo dire che la situazione drammatica in cui ti sei ritrovato non è stata del tutto negativa Koneff sbottò indignato Albert ci vieni a raccontare che eri perfettamente in grado di compiere osservazioni meticolose e irrazionali e continui a pretendere che ci crediamo quando affermi di non avere percepito nulla Morrison alza la voce non capisci monomaniaco che erano proprio queste osservazioni meticolose e irrazionali a riempirmi la mente lasciando fuori tutto il resto ero terrorizzato a ogni contrazione delle molecole mi aspettavo che la contrazione proseguisse all'infinito il che all'atto pratico avrebbe significato la mia espansione illimitata in parole povere sarebbe subentrata la deminaturizzazione spontanea e io sarei esploso morendo non mi interessava affatto percepire le onde scettiche in quel frangente anche se mi fossero entrate in testa data la mia situazione le avrei ignorate ecco come stanno le cose Konef contrasti ai lineamenti in un'espressione di disprezzo se avessi un incarico importante da svolgere e mi trovassi di fronte a un plotone d'esecuzione negli attimi prima degli spari mi concentrerei ugualmente sul mio incarico Desnef borbottò e come diceva mio padre tutti sono capaci di cacciare coraggiosamente un orso quando l'orso è assente Konef lo aggare di rabbioso ne ho abbastanza di tuo padre vecchio briacone Desnef disse ripetilo quando saremo tornati sani e salvi nella grotta e ti accorgerai che sta cacciando l'orso quando l'orso è presente non aggiungere una sola parola Yuri intervenne la Boranova intendi litigare con tutti Natalia intendo fare il mio lavoro Albert deve uscire di nuovo no fece Morrison atterrito mai fissando Konef in cagnesco Desnef commentò ho parlato un vero eroe sovietico lui deve fare il suo lavoro quindi Albert deve uscire di nuovo nella cellula la Boranova a noi Desnef ha ragione Yuri ti vanti che nemmeno un plotone d'esecuzione ti distoglierebbe dal tuo dovere esci tu allora per una volta visto che Albert è già uscito due volte Konef ribatté la sua macchina è adatta al suo cervello d'accordo convenne la Boranova ma hai detto che avete lo stesso gruppo cerebrale no? quello che ha percepito Albert anche tu l'hai percepito quando era disperso nel fluido intercellulare le onde scettiche le hai sentite mi pare ed eri lontano uscendo all'esterno e con la macchina nelle tue stesse mani raccoglieresti dei dati di persona che per noi avrebbero più valore in ogni caso non serve a nulla insistere sulla maggiore sensibilità di Albert se continui a non credere a quel che dice e tutti fissavano Konef adesso anche la Kalinin riuscì a lanciargli qualche sporadica occhiata attraverso le lunghe ciglia poi Morrison tossicchiò ecco temo di aver orinato nella tuta un po' non molto credo il terrore ha un prezzo lo so disse la Boronoba l'ho votata e ho pulito la tuta come ho potuto ma ci vuol ben altro per bloccare gli uri un residuo di urina sicuramente non influirà sull'attaccamento al dovere di un uomo come lui Konef disse questo vostro goffo sarcasmo è irritante comunque uscirò nella cellula pensate davvero che abbia paura volevo che fosse Albert a uscire soltanto perché lui è il più sensibile tuttavia dopo di lui vengo io come sensibilità di ricezione e se lui non vuole uscire ebbene uscirò io a patto che fece una pausa e Desna vi disse a patto che l'orso non sia presente eh iuri mio eroe Konef sbottò aspro no vecchio briacone a patto che sia fissato saldamente alla nave Albert ha perso il contatto perché era attaccato debolmente un lavoro malfatto da parte della persona incaricata io non voglio lavori malfatti fissandosi la punta delle dita la Kalinin disse Albert deve avere colpito un organulo in maniera tale da aderire perfettamente alla sua struttura elettrica le probabilità che potesse verificarsi una cosa del genere erano bassissime comunque cercherò di dare alla nave e alla tuta una struttura elettromagnetica insolita per ridurre il più possibile il fattore rischio Konef a noi così va bene disse alla Boranova rivolto a Morrison hai detto che non c'è assorbimento termico Morrison rispose no io ho notato solo l'oscillazione allora non mi spoglierò nemmeno la Boranova intervenne Yuri sia chiaro che non rimarrai fuori a lungo il rischio di una deminiaturizzazione continua ad aumentare capisco a noi Konef e con l'aiuto di Morrison infilò la tuta Morrison osservò Konef attraverso lo scafo trasparente due volte si era trovato in una situazione inversa lui all'esterno che guardava dentro e per un po' la seconda volta si era trovato nel nulla a guardare il nulla di fronte alla compostezza di Konef si sentì piuttosto mortificato Konef non si girò a guardare la nave reggeva il computer di Morrison seguendo le istruzioni frettolose che aveva ricevuto circa gli aspetti elementari dell'espansione e della messa a fuoco sembrava completamente intento il suo lavoro ed era davvero così freddo e coraggioso avrebbe continuato a concentrarsi se fosse stato strappato dalla nave come era successo a Morrison probabilmente e Morrison si vergognò di se stesso guardò gli altri membri dell'equipaggio Desnef si deve ai comandi doveva tenersi vicino alla membrana cellulare aveva suggerito il portarsi nella fascia calma tra le due correnti così quasi immobili probabilmente trascinati da un mulinello lento per la precisione non avrebbero rischiato l'incidente che aveva staccato Morrison dalla nave connev 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 si era dichiarato subito contrario era lungo la membrana che scorrevano le onde scettiche e lui voleva una posizione in prossimità delle onde Desnef aveva inoltre suggerito di capovolgere la nave l'alto e il basso non contavano lì nella cellula come nello spazio esterno capovolgendo la nave il comparto stagno si sarebbe trovato sulla fiancata lontana dalla membrana e connev avrebbe potuto tenersi a distanza dalle strutture del citoscheletro konev si era semplicemente arrabbiato aveva fatto notare che tale strutture potevano trovarsi ovunque e che in ogni caso non voleva che tra lui e la membrana ci fosse l'ostacolo dello scafo così adesso era là fuori nelle condizioni desiderate e Desnef controllando i comandi fischiettava piano fra sé la Boranova era china sul proprio strumento e ogni tanto alzava la testa e lanciava un'occhiata pensierosa a konev la Kalinin era agitata era l'unico termine adatto i suoi occhi si spostavano verso konev cento volte e cento volte cambiavano direzione d'un tratto la Boranova chiese Albert l'apparecchiatura è la tua credi che Yuri riesca ad adoperarla credi che stia ricevendo qualcosa ma ora sono abbozzò un sorriso gliel'ho regolata io Yuri non deve fare quasi niente e la messa a fuoco gliel'ho spiegata comunque so già che non sta ricevendo nulla Natalia com'è che lo sai? se percepisse qualcosa anch'io la sentirei di riflesso come lui mi ha sentito quando ero fuori nella corrente non sento nulla assolutamente nulla la Boranova parve sorpresa ma è possibile? se Yuri ha sentito qualcosa quando il computer era in mano tua perché non dovrebbe sentirla anche adesso che il computer lo ha lui? forse la situazione è cambiata pensa a tutta l'angoscia che konev sostiene di aver percepito seguendo il mio computer che trasmetteva a me i pensieri di Shapirov prima non abbiamo sentito certe cose lo so prima era qualcosa di quasi diliaco campi verdi equazioni matematiche forse è la parte ancora viva del cervello di Shapirov se è cosciente si è resa conto solo da poco dello stato comatoso magari solo nell'ultima ora perché dovrebbe essere successo nell'ultima ora? mi pare una coincidenza un po' strana il fatto che sia successo proprio adesso che siamo nel cervello forse entrando nel cervello lo abbiamo stimolato e il cervello ha constatato quale sia il suo stato o forse è una coincidenza lo strano delle coincidenze è che accadono e forse per l'angoscia provata nel rendersi conto della propria situazione Shapirov si è chiuso in un silenzio apatico la Boranova sembrava incerta non sono convinta pensi davvero che Yuri non stia ricevendo nulla? nulla di minimamente importante non ho dubbi forse dovrei richiamarlo a bordo e al tuo posto lo farei Natalia è fuori da quasi dieci minuti un periodo più che sufficiente se non sta ricevendo nulla ma se stesse ricevendo qualcosa? e allora si rifiuterà di entrare tu lo conosci Yuri la Boranova disse batti sullo scafo Albert sei il più vicino alla sua faccia Morrison lo fece e Konef guardò nella loro direzione la faccia era indistinta per via del casco di plastica ma l'espressione era inequivocabilmente accigliata la Boranova gli fece cenno di rientrare Desnave esitò poi a lui e Morrison disse alla Boranova ecco la prova che volevi Konef salì a bordo rosso in viso e quando gli sganciarono il casco respirò a fondo ah che sollievo cominciava a far caldo là fuori dato che ero attaccato alla nave le oscillazioni erano minori del previsto e l'assorbimento termico era percettibile aiutatemi a togliere questa armatura di plastica la Boranova chiese di colpo speranzosa è per questo che hai accettato di rientrare per il caldo non è stato sicuramente il motivo principale non hai sentito nulla Yuri e Konef rabbuiandosi rispose no niente di niente Morrison alza la testa un muscolo della guancia destra gli si contrasse leggermente ma Morrison non sorrise beh Natalia mia piccola comandante disse a Desnev con un'area di giovialità un po' spenta che si fa adesso qualche idea nessuna risposta sembrava che gli altri non si fossero accorti che aveva parlato Konef stava ancora asciugandosi il torace e il collo e il modo in cui guardava Morrison non aveva nulla di gioviale i suoi occhi scuri scintillavano minacciosi quando eri all'esterno c'era un flusso di trasmissioni notevole e se lo dici tu fece Gelido Morrison ma torno a ripeterti che non ricordo nulla forse la persona che ha in mano il computer è un elemento determinante non ci credo la scienza non è una questione di opinioni ma di prove perché non vediamo cosa succede quando esci tenendo il tuo strumento esattamente come ho fatto io ti fisseremo bene così non ti staccherai ancora e resterai fuori dieci minuti come me non un minuto di più no rispose Morrison abbiamo già provato e io ho sentito i pensieri di Shapirov anche se tu dici di non averli sentiti non hai sentito i suoi pensieri hai solo percepito uno stato d'animo non c'erano parole perché hai lasciato andare il computer l'hai ammesso tu stesso riprova adesso senza lasciarlo andare no non funzionerà eri spaventato perché ti eri staccato questa volta non succederà come non è successo a me non sarai spaventato sottovaluti la mia sensibilità alla paura Yuri disse Morrison stringendosi nelle spalle Konef parve disgustato ti sembra il momento di scorsare non scherzo mi spavento facilmente io non ho il tuo non so che coraggio eh d'accordo se vuoi una missione non ho coraggio lo ammetto Konef si rivolse alla baranaba Natalia sei tu il comandante intima ad Albert di tentare ancora non credo di potergli intimare nulla date le circostanze come ha detto Albert stesso a che servirebbe mettergli la tuta con la forza e spingerlo fuori se non è in grado di fare nulla sarebbe fatica sprecata comunque posso chiederglielo Albert risparmi il fiato disse stancamente Morrison ancora una volta non più di tre minuti esatti se non riceverai nulla non riceveremo nulla ne sono convinto allora solo tre minuti per dimostrare che hai ragione Morrison rispose a che scopo Natalia se non riceverò nulla Yuri dirà che ho manomesso apposta la regolazione del computer se non c'è fiducia tra noi non combineremo nulla in ogni caso cosa succederebbe per esempio se adottassi l'atteggiamento di Konef se anch'io considerassi una bugia ogni dissenso io dico di non avere sentito né alcun pensiero né alcuno stato d'animo di Shapirov quando ero solo nella corrente intracellulare Konef dice di avere sentito parecchio qualcun altro ha sentito? tu? Natalia? no non ho sentito nulla Sofia? Kalinin scosse la testa Arkady? in tono addolorato Deznerve rispose a quanto pare io non sono capace di sentire granché Morrison disse bene dunque Yuri è solo chi ci garantisce che abbia davvero sentito qualcosa non sarò scortese come lui non lo accuserò di mentire però può darsi che il suo desiderio folle di sentire qualcosa gli abbia fatto immaginare di averla sentita no? Konef era sbiancato per la collera ma la sua voce a parte un lieve tremito era abbastanza calma lascia perdere queste storie siamo in questo corpo da diverse ore e io sto chiedendo un'ultima osservazione un ultimo esperimento che possa giustificare quanto è stato fatto finora no rispose Morrison l'ultima volta è quella buona ho già sentito questa storia Albert intervenne la Boranova questa volta non ci saranno errori un ultimo esperimento Deznerve disse deve essere per forza l'ultimo le nostre riserve energetiche sono scese a un livello che non mi piace per trovarti abbiamo consumato parecchio Albert però ti abbiamo trovato e senza preoccuparci di quanto ci costava disse Yuri io ti ho trovato all'improvviso fece un sorrisetto feroce e non ti avrei trovato se non avessi captato quello che trasmetteva il tuo strumento sarebbe stato impossibile ecco la prova che quello che ho sentito non era frutto della mia immaginazione e dal momento che ti ho trovato ripagami le narici di Morrison fremettero mi avete cercato perché se fosse esploso sareste morti tutti in pochi minuti forse dovrei ricompensarti perché eri ansioso di salvare la tua via la nave la nave di un tratto oscillò violentemente e Konef che era in piedi barcollò e si aggrappò allo schienale del sedile cos'è stato? chiese ad alta voce la Boranova afferrandosi con una mano alla propria apparecchiatura la Kalinin si chinò sul computer l'ho appena intravisto ma con questa luce non si distingue bene forse era un ribosoma un ribosoma ribattì Morrison meravigliato e perché no sono sparsi in tutta la cellula sono gli organoli che producono le proteine e lo so che cosa sono fece Morrison indignato beh ci ha urtati o meglio avanzando l'abbiamo urtato noi che differenza c'è tanto? è stata solo una scossa browniana di enorme entità peggio disse Deznev indicando l'esterno inorridito non c'è passeggio di calore abbiamo delle oscillazioni di campo Morrison fissando disperato riconobbe il fenomeno che aveva visto quando era disperso nella cellula le molecole d'acqua si espandevano e si restringevano in maniera visibile bloccale bloccale urlò Konef sto tentando rispose a denti stretti la Boranova arcadi spegni gli ugelli e lasciami tutta l'energia disponibile spegni il condizionatore le luci tutto e si chinò sul debole bagliore del suo computer a batteria Morrison non vedeva nulla a parte il riflesso del computer della Boranova e di quello della Kalinin nell'oscurità totale di una cellula all'interno del cervello era impossibile vedere le molecole d'acqua che si gonfiavano e si sgonfiavano comunque sul fatto che quel fenomeno stesse verificandosi non c'erano dubbi Morrison sentiva le scosse alla bocca dello stomaco non erano le molecole oscillare in fin dei conti era il campo miniaturizzante che oscillava e gli oggetti che conteneva compreso Morrison ogni volta che la nave si espandeva e le molecole d'acqua sembravano restringersi il campo trasformava parte della sua energia in calore e Morrison sentiva sul proprio corpo l'ondata di caldo poi quando la Boranova immetteva energia nel campo obbligandolo a contrarsi il calore svaniva per un po' Morrison sentì che le oscillazioni rallentavano e si calmavano ma a un certo punto ricominciarono con violenza maggiore e Morrison capì che la Boranova non riusciva più a controllare il fenomeno che non era in grado di arrestare la deminiaturizzazione spontanea che stava sviluppandosi che tra dieci secondi lui sarebbe morto lui e tutti gli altri e il corpo in cui erano penetrati sarebbero esplosi dissolvendosi in una nuvola di vapore acqueo e anidride carbonica Morrison avvertì un senso di vertigine stava per svenire e vigliaccamente avrebbe così anticipato la morte di un secondo e il suo ultimo sentimento consapevole sarebbe stato di intensa vergogna i secondi passarono e Morrison non svenne si agitò un po' avrebbe dovuto essere morto ormai no? possibile che non ci sia una vita dopo la morte? pensò inevitabilmente ma accantano subito quella possibilità sentiva dei singhiozzi no erano ansiti aprì i giocchi non si era accorto di averli chiusi e si ritrovò a fissare la calina nel chiarore fioco dato che tutta l'energia disponibile era utilizzata per cercare di impedire alla nave di deminiaturizzarsi la vedeva solo nel riflesso del suo computer distinse la testa china i capelli scompiggiati il respiro che le usciva sibilando dalle labbra socchiuse si guardò attorno e improvvisamente riprese a sperare a pensare a vivere le oscillazioni sembravano meno violente stavano calmandosi scemando proprio in quei attimi poi cauta la calenine si fermò e si girò a guardarlo e contrasti i lineamenti in un sorriso sofferente è fatto mormorò Rauka la luce all'interno della nave si fece a poco a poco più vivida quasi esitante ed Eznev si abbandonò a un sospiro poderoso oh se non sono morto adesso spero di vivere ancora un pochino esordì come disse una volta mio padre la vita sarebbe insopportabile se la morte non fosse addirittura peggiore grazie Natasha sarai per sempre il mio comandante non sono stata io la faccia della baranova sembrava invecchiata tanto che Morrison non sarebbe rimasto sorpreso se avesse visto delle striature bianche nei suoi capelli non sono riuscita a immettere abbastanza energia nella nave sei stata tu a fare qualcosa Sofia la calenine aveva chiuso gli occhi il suo petto ansimava ancora si agitò leggermente quasi fosse restia a rispondere quasi volesse soltanto assaporare la vita per un po' poi rispose non lo so può darsi la baranova chiese cosa hai fatto? non potevo aspettare la morte passiva ho trasformato lo scafo in una copia elettromagnetica di una molecola di diglucosio sperando che la cellula si comportasse normalmente e interagisse con la molecola di ATP l'adenosintrifosfato in questo modo la nave ha preso un gruppo fosfato e dell'energia l'energia speravo avrebbe rinforzato il campo miniaturizzante poi ho neutralizzato la nave e il gruppo fosfato si è staccato di nuovo di glucosio altro acquisto di energia neutralizzazione così via di continuo la Kalinin si interruppe per riprendere fiato in continuazione muovevo le dita così in fretta che non sapevo se stessi premendo i tasti giusti o no ma devo aver premuto quelli giusti e la nave ha assorbito abbastanza energia da stabilizzare il campo la Boranova chiese com'è che ti è venuto in mente di farlo che io sappia nessuno ha mai suggerito che un sistema del genere nemmeno io lo sapevo disse la Kalinin ma questa mattina prima di salire a bordo mi sono domandata cosa avrei fatto o cosa avrebbero potuto fare gli altri se fosse iniziata una deminaturizzazione spontanea avremmo avuto bisogno di energia ma se la nave non fosse riuscita a fornirne abbastanza e ho pensato l'energia non potrebbe fornirla alla cellula stessa se sì non poteva essere che tramite l'ATP che ogni cellula non sapevo se avrebbe funzionato dovevo consumare energia per modificare di continuo la struttura elettrica della nave e sapevo che forse l'energia impiegata sarebbe stata superiore a quella assorbita dall'ATP o magari l'ATP non avrebbe influito sulla nave in modo tale da contrastare la deminaturizzazione è stato un totale azzardo sottovoce quasi parlasse tra sé Tez ne osservò come direbbe mio padre se non hai nulla da perdere rischia tranquillamente poi ravvivando si aggiunse grazie piccola Sofia la mia vita ti appartiene d'ora in poi è tua quando ne avrai bisogno anzi andrò oltre posso addirittura sposarti se ti va l'idea un'offerta cavallerisca Sofia accennava un sorriso ma non ti chiederò di sposarmi la tua vita in caso di bisogno sarà più che sufficiente intanto la Boranova si era ripresa del tutto e disse questo episodio comparirà in modo dettagliato nel rapporto finale la tua prontezza mentale e la tua rapidità di intervento hanno salvato la missione ma Orisono non se la sentiva di parlare inspiegabilmente era prossimo alle lacrime di gratitudine perché era vivo di ammirazione per la Kalinin riuscì solo a prendere la mano di Sofia e ad accostarla alle labbra baciandola poi schiaritosi la voce disse con estrema dolcezza grazie Sofia la Kalinin sembrava imbarazzata ma non ritrasse subito la mano poteva non funzionare non pensavo che avrebbe funzionato se non avesse funzionato fece Desnef saremmo morti e basta solo Konef finora non aveva aperto bocca e Morrison si girò a guardarlo sedeva come al solito rigido e con gli occhi rivolti di fronte a sé ritrovando di colpo la forza vocale e la rabbia Morrison sbottò beh Yuri cos'hai da dire Konef girò un attimo la testa nulla nulla Sofia ha salvato la spedizione Konef scrolla le spalle ha fatto il suo lavoro il suo lavoro ha fatto molto di più Morrison si piegò in avanti afferrò Konef per le spalle ha ideato la tecnica che ci ha salvato e così ti ha salvato la vita idiota se sei ancora vivo lo devi a lei potresti almeno ringraziarla farò come mi pare replicò Konef e si divincolò sottraendosi alla stretta dell'altro le mani di Morrison scivolarono attorno al collo di Konef e strinsero disperatamente miserabile barbaro egoista l'ami anche se il tuo è un amore contorto eppure non vuoi dirle una parola gentile nemmeno una parola gentile schifosa individuo Konef si liberò ancora e i due cominciarono a picchiarsi in modo goffo erano semi bloccati dai sedili da cui si erano parzialmente alzati e non riuscivano a compiere i movimenti giusti data all'assenza di gravità la Kalinin strillò non fargli male non mi farà male pensò Morrison battendosi con fuga era dall'età di 16 anni che non partecipava a uno scontro fisico del genere e non aveva fatto grandi progressi o riflette imbarazzato la voce della Baranova risuonò secca basta tutti e due e i due contendenti si fermarono la Baranova disse Albert non sei qui per insegnare agli altri le buone maniere e tu Yuri non è necessario che ti sforzi per essere un bifolco è una dote naturale la tua se non vuoi riconoscere che Sofia compiendo uno sforzo evidente la Kalinin disse non sto chiedendo grazie a nessuno grazie fece Konef rabbioso diciamo grazie tutti prima che iniziasse la deminiaturizzazione stavo cercando di convincere questo americano vigliacco a ringraziarci per averlo tratto in salvo non volevo un ringraziamento a parole questo non è un locale da ballo non dobbiamo inchinarci a fare le riverenze volevo che lui ci ringraziasse uscendo all'esterno e cercando di captare qualche pensiero di Shapirov ha rifiutato e proprio lui dovrebbe insegnarmi come quando dire grazie prima della deminiaturizzazione ho detto che non l'avrei fatto e adesso lo ripeto disse Morrison Dezeneff intervenne inutile insistere su questa storia abbiamo consumato le nostre riserve di energia come se fossero vodka o un matrimonio tra ricerche e deminiaturizzazioni ci resta pochissima energia sarà appena sufficiente per arrivare a deminiaturizzarci in condizioni controllate dobbiamo uscire Arkady Dezeneff proseguì l'ho detto solo perché per me adesso è venuto il momento di dirlo che strano la Boranova scostò dalla fronte i capelli scuri con un gesto un po' stanco riflette Morrison e notò che i capelli erano umidi di sudore che strano cosa Arkady non giochiamo il flusso cellulare sta rallentando un breve silenzio poi la Boranova chiese come lo sai Natasha sospirò Dezeneff se fossi seduta qui al mio posto sapresti che ci sono delle fibre che intersecano la cellula il citoscheletro precisò Morrison grazie Albert disse Dezeneff accompagnandosi con un ampio gesto della mano mio padre diceva è più importante conoscere la cosa che il nome comunque il come si chiama non arresta il flusso cellulare come non arresta la nave e io lo vedo scorrere con uno scintillio beh adesso lo scintillio scorre più lento immagino che le fibre non si muovano per cui deduco che stiamo rallentando e dato che non sto facendo nulla per far rallentare la nave suppongo che in realtà sia il flusso interacellulare che sta rallentando questa si chiama logica Albert quindi non è necessario che tu mi istruisca in questo settore sottovoce la Kalinin disse credo che abbiamo danneggiato la cellula sembrava che si sentisse in colpa Morrison interpretò così il suo tono e disse una cellula cerebrale in più o in meno per Shapirov la situazione non cambierà considerando le condizioni in cui si trova comunque non mi sorprenderebbe se la cellula fosse rimasta lesa in fin dei conti la nave per cercarmi si è lanciata in una corsa furiosa immagino e vi ringrazio ancora per quello che avete fatto e probabilmente vibrava in modo pauroso e deve avere trasmesso le vibrazioni a tutta la cellula Connef commentò accigliato assurdo abbiamo le dimensioni di una molecola di una piccola molecola credi che i nostri movimenti quali che siano possano danneggiare un'intera cellula? Morrison replicò è inutile stare a discutere Yuri è un fatto assodato la corrente cellulare sta fermandosi e questo non è normale ma innanzitutto si tratta solo dell'impressione di Arkady e lui non è un neurologo bisogna essere neurologi per avere gli occhi ribatte Desnev infervorandosi alzando un braccio come se intendesse colpire Connef Connef gli lanciò una breve occhiata ma per il resto ignorò il commento inoltre da questo livello di osservazione non sappiamo cosa sia normale in una cellula cerebrale viva può darsi che nel flusso ci siano fasi alterne di ristagno e che il fenomeno che vediamo sia solo temporaneo tutte scuse per non ammettere che la situazione è seria disse Morrison il fatto è che non possiamo più usare questa cellula e che non abbiamo energia sufficiente per andarcene a cercare un'altra Connef digrignò i denti deve esserci qualcosa che possiamo fare non possiamo rinunciare Morrison disse Natalia decidi ha senso esaminare ulteriormente questa cellula e data la situazione possiamo cercare un'altra cellula la Boranova alzò una mano e piegò la testa per riflettere un attimo gli altri si girarono a guardarla e Connef ne approfittò per afferrare il braccio di Albert e a tirarlo a sé la sua espressione era ostile mormorò perché pensi che io sia innamorato di lei e con la testa fece un cenno in direzione della Kalinin cosa ti dà il diritto di pensarlo dimmelo Morrison lo fissò con aria assente a quel punto la Boranova parlò ma non per rispondere alla domanda di Morrison chiese Arkady cosa stai facendo Dezenev chino sui comandi drizza la testa sto rimettendo a posto i collegamenti sto riallacciando le comunicazioni te l'ho detto io di farlo fece la Boranova me l'ha detto la necessità Connef intervenne ti rendi conto che sarà impossibile manovrare Dezenev grognì e ribatte ironico e tu ti rendi conto che forse non ci sarà più nessuna manovra da fuori di quale necessità parli Arkady domandò paziente alla Boranova Dezenev rispose secondo me non è soltanto questa cellula ad avere qualcosa che non va la temperatura attorno a noi sta scendendo lentamente Connef sogginò sprezzante in base ai tuoi rilevamenti no in base a quelli della nave in base agli infrarossi ambientali che riceviamo in base a quello non si può stabilire nulla disse Connef alle nostre dimensioni riceviamo pochissimi fotoni infrarossi il livello varia complessivamente Dezenev a noi così e agitò la mano su e giù freneticamente però può fluttuare su e giù come un'ambarca in pieno uragano e farlo a un livello medio sempre più basso e abbassò progressivamente la mano continuando a scuoterla la Boranova chiese perché dovrebbe scendere la temperatura ma ora sono sorrise torvo via Natalia secondo me lo sai perché Yuri lo sa senz'altro Arkady deve scoprirlo e per questo ha deciso di ripristinare le comunicazioni scese un silenzio inquieto interrutto solo dai brontolini e dalle imprecazioni soffocate di Dezenev impegnato a sistemare i collegamenti Morrison guardò l'ambiente esterno che poteva di nuovo vedere come al solito in modo poco soddisfacente ora che l'illuminazione della nave era ancora in funzione c'era il solito luccichio di molecole grandi e piccole che viaggiavano insieme a loro ora che Dezenev ne aveva parlato vide di tanto in tanto il riflesso di una linea che si estendeva trasversalmente di fronte a loro e poi passava velocissima sopra o sotto lo scafo e rimaneva indietro erano senza dubbio fibre sottilissime di collagene che mantenevano la forma irregolare del neurone e impedivano che si trasformasse in una bolla grosso modo sferica per l'effetto della sua stessa tensione superficiale se fosse stato bene attento le avrebbe notate prima Morrison si rese conto che Dezenev in qualità di pilota doveva tenere d'occhio tutto e che data la situazione senza precedenti in cui si era trovata la nave Dezenev non aveva potuto contare su nessuna guida nessun insegnamento nessuna esperienza che gli dicesse a cosa stare attento sicuramente dato il suo compito Dezenev era stato sottoposto a una tensione notevolissima che gli altri non avevano considerato appieno e anche Morrison aveva dato per scontato che Dezenev fosse il meno importante dei cinque membri dell'equipaggio non era giusto pensò Morrison Dezenev intanto si era drizzato aveva infilato un auricolare e annunciò dovrei riuscire a mettermi in contatto adesso mi sentite grotta grotta poi sorrise sì finora tutto bene mi spiace ma come vi ho detto se non avessimo smantellato le comunicazioni non avremmo potuto manovrare e lì da voi come procede cosa? ripetete più lentamente sì come pensavo si rivolse agli altri compagni l'accademico Piotr Leonovic Shapirov è morto 13 minuti fa tutte le funzioni vitali sono cessate e adesso dobbiamo lasciare il corpo uscita se uscire dai guai fosse facile come entrarci la vita sarebbe una dolce melodia Desnev Senior un silenzio cupo scese sulla nave Akaline nascose il volto tra le mani poi trascorse alcuni istanti ruppe il silenzio mormorando sei sicuro Arkady? Desnev trezzando gli occhi per frenare le lacrime rispose se sono sicuro mi chiedi quell'uomo era in bilico tra la vita e la morte da settimane il flusso cellulare sta rallentando la temperatura scende e quelli della grotta che lo controllavano con un'infinità di strumenti dicono che è morto più sicuri di così la Boranova sospirò povero Shapirov meritava una morte migliore Conoff disse ne avrebbe potuto resistere un'altra ora la Boranova si accigliò non è dipesa da lui la scelta Yuri Morrison era raggelato finora si era trattato di qualche globulo rosso circostante di un punticino specifico della regione intercellulare dell'interno di un neurone il suo era stato un ambiente di volta in volta limitato ora guardando attraverso le pareti trasparenti della nave gli parve di vedere per la prima volta gli innumerevoli strati sovrapposti di materia a loro livello attuale con la nave grande quanto una molecola di glucosio e il suo corpo non più grande di un atomo il cadavere di Shapirov era più grande del pianeta Terra era sepolto in un oggetto planetario di materia organica morta e quella pausa di cordoglio gli sembrò fuori luogo il lutto a suo tempo intanto con voce forse un po' troppo alta disse com'è che usciamo la Boranova lo guardò sorpresa spalancando gli occhi il dolore per la morte di Shapirov le aveva fatto accantonare momentaneamente il pensiero della partenza Morrison era certo la Boranova si schierrì la voce e compì uno sforzo visibile per assumere l'atteggiamento abituale di praticità ed efficienza dobbiamo deminaturizzarci un po' tanto per cominciare perché solo tanto per cominciare chiese Morrison perché non ci deminaturizziamo subito fino in fondo poi quasi a prevenire l'obiezione inevitabile danneggeremo il corpo di Shapirov ma è un corpo morto mentre noi siamo ancora vivi le nostre esigenze hanno la precedenza la Kalinin lo fissò con aria di rimprovero anche un corpo morto merita rispetto Albert soprattutto il corpo di un grande scienziato come l'accademico Piotr Shapirov d'accordo ma non si può arrivare al punto di mettere al repentaglio cinque vite l'impazienza di Morrison cresceva Shapirov era solo qualcuno che lui aveva conosciuto di fama e marginalmente per Morrison non era il semidio che gli altri dipingevano Daznev disse a parte la questione del rispetto noi siamo racchiusi nel cranio di Shapirov se ci espandissimo fino a riempire il cranio e poi cercassimo di sgretolarlo frantumando l'effetto del nostro campo miniaturizzante perderemo troppa energia e ci sarebbe una deminiaturizzazione esplosiva prima dobbiamo uscire dal cranio Albert ha ragione disse la Baranova iniziamo deminiaturizzerò la nave a livello cellulare Arcadi dia a quelli della grotta di determinare la nostra esatta posizione Yuri individua accuratamente quella posizione sulla cerebrografia Morrison fissò in lontananza la membrana della cellula un luccichio più intenso e costante visibile attraverso gli sporadici guizzi luminosi delle molecole intermedie il primo segno di deminiaturizzazione fu il fatto che le molecole calarono era l'unica parola con cui Morrison poteva descrivere il fenomeno sembrava che i piccoli rigonfiamenti curvi che riempivano lo spazio attorno allo scafo e che il cervello di Morrison ricostruiva dagli scintillii non potendo contare su una visione diretta si restringessero sembravano palloncini gonfi d'aria che venissero sgonfiati e l'ambiente circostante diventava progressivamente liscio e mentre il liquido attorno allo scafo acquistava un carattere uniforme le macromolecole in lontananza le proteine gli acidi nucleici le strutture cellulari ancora più grandi si restringevano a loro volta diventando più definite le scintille di luce le scintille di luce che riflettevano erano meno distanziate anche la membrana cellulare dava l'impressione di avvicinarsi e risultava più distinguibile si avvicinava sempre più dopo tutto la nave era in un minuscolo dendrite che sporgeva dal corpo cellulare quindi per raggiungere le dimensioni della cellula lo scafo avrebbe dovuto diventare molto più grande di quella piccola appendice era chiaro che la membrana sarebbe entrata in collisione con la nave e Morrison automaticamente strinse i denti e si preparò all'impatto non ci fu nessun impatto la membrana continuò ad avvicinarsi poi si aprì semplicemente e sparì era una struttura troppo sottile e troppo poco compatta per resistere al contatto con un campo miniaturizzante anche se stava deminiaturizzandosi entro certi limiti la nave era tuttora molto più piccola del mondo normale circostante le molecole della membrana entrando nel campo si restringevano perdevano contatto reciprocamente e l'integrità del tessuto svaniva Morrison continuò a osservare lo spettacolo affascinato l'esterno sembrava in preda al caos poi via via che gli oggetti si restringevano Morrison cominciò a riconoscere la giungla intercellulare di collagene che avevano incontrato prima di entrare nel neurone quella giungla a sua volta continuò a restringersi e a un certo punto i tronchi e i cavi di collagene si trasformarono in cordicelle la Boranova annunciò basta così dobbiamo riuscire a entrare in una piccola vena Dezenev sbuffò basta così in ogni caso l'energia che ci rimane non è molta la Boranova disse durerà finché non saremo usciti dal cranio sicuramente speriamo fece Dezenev comunque tu comandi solo la nave Natasha non le leggi della termodinamica la Boranova scossa la testa in segno di biasimo arcati chiedi alla grotta di determinare la nostra posizione e non farmi delle prediche Conoff disse non credo che sia tanto importante determinare la nostra posizione Natalia non può essere molto diversa da quella che era quando abbiamo lasciato il capillare tutte le nostre peregrinazioni da allora ci hanno semplicemente portato a un neurone vicino e da quello a un neurone adiacente la differenza di posizione anche su scala microscopica normale è difficilmente misurabile poi dopo parecchi minuti di attesa venne comunicata la posizione e Conoff disse visto avevo ragione a che serve la posizione Yuri chiese Morrison non sappiamo in che direzione siamo diretti e comunque possiamo andare solo in quella direzione ora che in funzione all'impianto di comunicazione non possiamo manovrare Conoff rispose beh dato che possiamo andare solo in una direzione prenderemo quella il padre di arcati avrà di sicuro una massima a questo proposito Desnev intervenne subito mio padre diceva quando puoi seguire solo una strada non è difficile decidere cosa fare visto fece Conoff e in qualsiasi direzione ci muoviamo troveremo una via di uscita procedi arcati la nave avanzò aprendosi un varco tra i fragili fili di collagene schizzando attraverso un neurone superando un assone sottilissimo si stentava a crederlo eppure poco tempo prima erano all'interno di un assone come quello e l'assone sembrava un'autostrada di cento chilometri Morrison osservò caustico e se avessimo dovuto lasciare il corpo con Shapirov ancora in vita cosa avremmo fatto cosa intendi dire voglio dire avremmo potuto fare diversamente avremmo dovuto determinare la posizione no? quindi avremmo dovuto ripristinare le comunicazioni no? e una volta ripristinate le comunicazioni saremmo potuti avanzare in un'unica direzione no? poi sarebbe stato necessario deminiaturizzarci per non dover percorrere l'equivalente di decine di migliaia di chilometri ma solo l'equivalente di pochi centimetri giusto? in sostanza per uscire avremmo dovuto aprire un varco tra i neuroni vivi di uno Shapiroff vivo come stiamo facendo adesso tra i neuroni morti di una persona morta vero? beh sì rispose la Boranova allora dove è finito il rispetto per un corpo vivo? in fin dei conti abbiamo esitato a violare l'integrità di un cadavere Albert devi capire che questa è un'operazione di emergenza con una nave inadatta non abbiamo scelta in ogni caso è un discorso diverso rispetto alla tua proposta di deminiaturizzarci completamente nel cranio spaccando il cranio e decapitando Shapiroff con questo sistema distruggeremo una decina di neuroni magari cento e anche se Shapiroff adesso fosse vivo i danni sarebbero molto relativi considerando le sue condizioni i neuroni muoiono in continuazione per tutta la vita come i globuli rossi non proprio replicò Arcigno Morrison i globuli rossi vengono continuamente rimpiazzati i neuroni mai Conniff intervenne voce alta quasi avesse fretta di interrompere le chiacchiere oziose degli altri Arcadi ferma ci serve un altro rilevamento della posizione ci fu un silenzio improvviso a bordo improvviso e prolungato come se qualsiasi parola potesse falsare i dati rilevati nella grotta o disturbare la concentrazione di chi effettuava l'operazione infine Desnef mormorò i dati a Conniff che disse conferma Arcadi assicurati che siano esatti Morrison sganciò la cintura era ancora praticamente privo di massa però avvertiva in modo netto un aumento di peso rispetto a quando si trovavano dentro la cellula si direzzò con cautela così da poter vedere la cerebrografia oltre la spalla di Conef c'erano due puntini rossi sullo schermo con una sottile linea rossa che li univa la mappa si restrense un po' e i due puntini si avvicinarono poi tornò a espandersi con un orientamento diverso le dita di Conef azionarono svelte i tasti del computer e la mappa si sdoppiò diventando illegibile Morrison comunque sapeva che Conef la osservava attraverso un congegno che rendeva l'immagine stereoscopica aggiungendo una terza dimensione Conef depose il visore e disse Natalia questa volta la sorte ci assiste indipendentemente dalla posizione e dalla direzione avremmo incontrato una venuzza presto tardi in questo caso la incontreremo presto non siamo molto lontani dalla vena e la colpiremo in modo tale da riuscire a entrare Morrison trasse mentalmente un sospiro di sollievo ma non poté fare meno di dire e cosa avresti fatto se la sorte ci avesse assegnato una vena molto lontana Conef rispose imperturbabile avrei detto ad Ark di smantellare le comunicazioni e di manovrare in direzione di una vena più vicina Dezenf si girò verso Morrison fece una smorfia di dissenso ed esclamò energia insufficiente avanti Arkady intervenne perentore alla Boranova e raggiunge la vena alcuni minuti dopo Dezenf disse la mappa di Yuri è giusta e su questo non avrei scommesso tanto volentieri è quella là davanti Morrison si ritrovò a fissare una parete curva che si perdeva nella foschia indistinta in alto e in basso e su cui si intravedeva un vago accenno di suddivisione cellulare se era una vena per ora non si discostava molto da un capillare Morrison inquieto si domandò se la nave fosse in grado di entrare in quel condotto la Boranova disse Sofia puoi dare allo scafo una struttura di carica che ci permetta di scivolare nella vena la Calini ne pareva dubbiosa e Morrison alzando la mano disse non credo Natalia forse le singole cellule non sono ancora completamente morte però la loro funzionalità interna ormai è senz'altro compromessa non credo che a questo punto la cellula possa assorbirci per pinocitosi o in qualsiasi altro modo che faccio allora chiese ad Esnef contrariato mi apre un varco certo rispose Konef spinge la parete della vena una parte si miniaturizzerà e si disintegrerà e potrai entrare non dovrai usare molto i tuoi motori wow fece ad Esnef parla di esperto la vena si miniaturizzerà e si disintegrerà a spese del nostro campo il che comporterà un consumo di energia un consumo più alto di quello necessario per sfondare la parete Arcadi non arrabbiarti disse la Baranova non è il momento usa i motori con moderazione e approfitta del primo indebolimento della parete provocato dalla miniaturizzazione per creare una breccia usando entrambe le tecniche consumerai meno energia che usandole separatamente speriamo ma non basta dire una cosa perché sia veri quando ero piccolo una volta mio padre mi disse figliolo la vehemenza non è garanzia di verità me lo disse la volta che gli giurai con grande ardore che non ero stato io a rompere la sua pipa mi chiese se avevo capito la massima e dato che nulla avevo capita me la spiego per bene poi botte da orbi certo Arcadi però adesso procedi Conoff spiegò non provocherai nessuna emorragia nel cervello non avrebbe importanza perché Shapiroff è morto ma combinazione il sangue adesso non scorre più praticamente non uscirà una sola goccia di sangue no esclamò Dezenev questo pone in un interrogativo interessante normalmente una volta entrati in una viena il flusso sanguigno ci porterebbe in una particolare direzione senza flusso sanguigno dovrò usare i motori ma in quale direzione dobbiamo andare dopo essere penetrati in questo punto disse calmo Conoff girerai a destra lo dice la mia cerebrografia ma se non c'è corriente che ci spinga a destra ed entriamo con un'angolazione a sinistra Arcadi entreremo angolati a destra la cerebrografia mi indica anche questo su muoviti va bene vai avanti Arcadi lo spronò la Boranova non ci resta che fare affidamento sulla cerebrografia di Yuri la nave avanzò e mentre la prua toccava la parete della vena Morrison avvertì la lieve vibrazione dei motori sotto sforzo poi la parete cedette e si ritirò in tutte le direzioni e la nave si ritrovò all'interno Dezenev arrestò subito i motori la nave rallentò rimbalzò sulla parete opposta con un contatto abbastanza breve da non provocare alcun danno visibile notò Morrison e si drizzò con l'asse principale orientato lungo l'enorme tunnel della vena l'ampiezza dello scafo era superiore alla metà della larghezza del vaso sanguigno beh siamo rivolti nella direzione giusta chiese Dezenev se è quella sbagliata non c'è niente da fare la vena è troppo stretta perché Albert possa uscire a girarci e non abbiamo energia sufficiente per miniaturizzarci e rendere possibile la manovra è la direzione giusta rispose Konef severo muoviti e presto te ne accorgerai il vaso sanguigno si ingrandirà avanzando speriamo e se si allarga che distanza dobbiamo percorrere prima di poter uscire dal corpo non sono ancora in grado di dirlo rispose Konef devo seguire la vena sulla cerebrografia mettermi in contatto con quelli della grotta e dare disposizioni perché inseriscano nella vena un ago ipodermico il più vicino possibile alla posizione che avremo quando usciremo dal cranio Dezenev disse mi è consentito a spiegare che non possiamo viaggiare in eterno tra miniaturizzazioni e deminiaturizzazioni virate di fortuna capillari sbagliati missioni di soccorso per recuperare Albert disperso abbiamo consumato una quantità di energia molto superiore al previsto avevamo un'ampia scorta che non pensavamo di utilizzare invece l'abbiamo impiegata quasi tutta vuol dire che abbiamo finito l'energia chiese la Varanova circa è un pezzo che lo dico mi pare non vi ho forse avvertito che il livello calava sempre più ma di quanto è sceso intendi dire che non c'è energia sufficiente per uscire dal cranio in condizioni normali malgrado tutto sarebbe sufficiente se fossimo in una vena viva potremmo contare sulla spinta della corrente sanguigna ma qui non c'è nessuna corrente Shapiroff è morto e il suo cuore non batte questo significa che dovrò sollocare di forza il flusso sanguigno coi motori accesi e il sangue raffreddandosi diventerà sempre più viscuoso e i motori saranno sottoposti a uno sforzo maggiore quindi consumeranno energia più in fretta Conoffo servò dobbiamo percorrere appena pochi centimetri Dezenoff sbottò furioso solo pochi centimetri nemmeno un palmo di mano eh sì eh considerando le nostre dimensioni sono chilometri Morrison disse dovremmo deminaturizzarci ancora dunque non possiamo Dezenoff stava quasi gridando non abbiamo abbastanza energia per farlo la deminaturizzazione incontrollata non richiede energia sprigione energia ma la deminaturizzazione controllata ascolta Albert se sali da una finestra arrivi a terra senza sforzo però se vuoi sopravvivere al salto e se vuoi essere calato lentamente con la corda lo sforzo richiesto è notevole capisci? Morrison borbottò capisco la Kalinin gli prese furtiva la mano e gliela strinse piano non fare caso a Dezenoff brontola e grida ma ci porterà a destinazione la Boranova disse Arkadi se la vehemenza non è garanzia di verità come ci hai appena spiegato non garantisce neppure una mente fresca e lucida e una soluzione semmai il contrario quindi perché non avanzi lungo la vena forse l'energia basterà e raggiungeremo l'ago Dezenoff si accidiò è quel che farò ma se vuoi che abbia la mente fresca devi lasciarmi scaricare un po' di calore la nave cominciò a muoversi e Morrison pensò ogni metro percorso è un metro in meno che ci separa dal lago ipotermico come pensiero di conforto lasciava un po' desiderare perché mancare lago di poco forse sarebbe stato fatale come mancarlo di parecchio eppure grazie a quel pensiero Morrison sentì che le sue pulsazioni si calmavano e osservando la parete che scivolava rapida alle loro spalle si rendeva conto che la loro non era una posizione passiva i globuli rossi e le piastrine sembravano molto più numerosi di quanto non fossero stati nelle arterie e nei capillari allora il sangue scorreva e attorno a loro c'erano solo gli oggetti relativamente poco numerosi che avanzavano a breve distanza insieme allo scafo adesso quei corpi erano per lo più immobili e la nave ne superava una quantità incredibile spingendoli a destra e a sinistra e facendoli ballonzolare nella sua scia di tanto in tanto incrociavano un globulo bianco grande e globulare e tranquillo adesso i globuli bianchi non reagivano affatto alla presenza di un corpo estraneo che sfrecciava nella vena una volta la nave ne centra uno in pieno e lasciò i resti scomposti dietro di sé Conoff disse stiamo andando nella direzione giusta adesso la vena è nettamente più larga era vero Morrison l'aveva notato senza però afferrarne il significato era troppo intenta a osservare di colpo provò un lieve impeto di speranza se avessero imboccato la direzione sbagliata sarebbe stato un disastro totale la vena restringendosi sarebbe scoppiata mandandoli alla deriva nella materia grigia e forse non avrebbero avuto energia sufficiente per cercare di raggiungere un'altra vena Conoff stava scrivendo qualcosa che Desnev gli stava ripetendo a noi chiedi conferma di questi dati Arcadi bene si diede da fare per un po' con la cerebrografia quindi disse ascoltate sanno in che vena siamo e inseriranno l'ago in un punto che ho segnato sulla cerebrografia lo raggiungeremo in mezz'ora o poco meno hai energia per mezz'ora Arcadi per poco meno di mezz'ora più probabile se il cuore battiesse si lo so ma non batte fece Conoff Natalia possa avere le registrazioni dei processi mentali di Shapirov che abbiamo captato invierò tutti i dati raccolti alla grotta la Boranova disse casomai non riuscissimo a uscire vero? appunto siamo entrati per raccogliere questo materiale e non c'è motivo di lasciarlo distruggere insieme a noi se dovesse andare storto qualcosa saggio atteggiamento Yuri sempre che disse Conoff la voce sfumata di collera lanciando una rapida occhiata turva a Morrison sempre che questi dati abbiano qualche valore poi si chinò verso Desnef e insieme cominciarono a trasmettere elettronicamente le informazioni raccolte da computer a computer da minuscolo a grande dall'interno di una vena al mondo esterno la Kalinin stringeva ancora la mano di Morrison forse per avere un po' di conforto oltre che per confortare lui riflette Morrison le chiese sottovoce Sofia che succede se esauriamo l'energia prima di arrivare al lago lei inarcò un attimo le sopracciglia dovremmo rimanere dove siamo passivi quelli della grotta cercheranno di raggiungerci non ci sarà una deminiaturizzazione esplosiva non appena finirà l'energia vero oh no la miniaturizzazione è uno stato metastabile te l'abbiamo spiegato ricordi resteremo come siamo per un periodo di tempo indeterminato infine non si sa quando questo moto casuale pseudo browniano di espansione e contrazione innescherà la deminiaturizzazione spontanea ma questo forse succederà solo dopo chissà anni e può darsi e per noi la situazione non migliorerebbe ovvio disse Morrison moriremmo di asfessia senza energia non potremmo riciclare l'aria ho detto che quelli della grotta cercheranno di raggiungerci i nostri computer funzioneranno ancora e dall'esterno potranno localizzarci penetrare nella vena e individuarci elettronicamente o addirittura visivamente come possono trovare una cellula tra 50 trilioni di cellule la Kalinin gli batte sulla mano sei pessimista Albert siamo una cellula facilmente riconoscibile e trasmettente preferisco trovare subito l'ago così non dovranno cercarci anch'io sto solo spiegando che esaurire l'energia e non trovare l'ago non rappresentano per noi la fine assoluta e se lo troviamo l'ago ci strarranno dalla vena e le fonti energetiche della grotta provvederanno alla nostra miniaturizzazione non possono farlo ora abbiamo ancora attorno una massa eccessiva di materia non miniaturizzata e sarebbe difficilissimo mettere a fuoco il campo deminiaturizzante con sufficiente precisione quando saremo fuori e visibili la situazione cambierà completamente fu allora che Dazenev disse abbiamo trasmesso tutto Yuri sì allora è mio dovere comunicarvi che abbiamo ancora energia sufficiente per 5 minuti di viaggio forse meno di 5 minuti sicuramente non un secondo di più Morrison strinse convulsamente la mano di Sofia e la giovane sussultò scusa Sofia Morrison le lasciò la mano e lei la massaggiò la Boranova disse dove siamo Yuri possiamo arrivare al lago direi di sì rallenta Arcadi risparmia la poca energia che hai no dai retta a me ribatte Dazenev alla velocità attuale attraversiamo il sangue senza troppa turbolenza grazie all'aerodinamicità e al materiale dello scafo rallentando la turbolenza e il consumo aumenterebbero Conoff disse però non dobbiamo superare l'obiettivo non lo supereremo quando mi dirai di spegnere i motori cominceremo a rallentare subito per la viscosità del sangue rallentando la turbolenza aumenterà così rallenteremo sempre più in fretta e nel giro di dieci secondi saremo fermi se avessimo masse inersi anormali il rallentamento sarebbe così brusco da incollarci tutti alla parete anteriore della nave allora fermati quando te lo dico Morrison si era alzato e stava guardando di nuovo oltre le spalle di Conef la cerebrografia giudicò doveva essere a un grado di espansione notevole forse al massimo la sottile linea rossa che segnava il percorso della nave in base al punto stimato adesso era spessa e stava avvicinandosi a un cerchiolino verde che probabilmente rappresentava la posizione del lago ma trattandosi del punto stimato avrebbe potuto esserci un lieve scarto Conef spostava continuamente lo sguardo dalla cerebrografia al panorama di fronte alla nave dovevamo scegliere un'arteria disse ad un tratto Morrison sono vuote dopo la morte non avremmo sprecato energia per vincere la viscosità e la turbolenza idea inutile osservò Conef questa nave non può spostarsi nell'aria avrebbe potuto proseguire invece si irrigidì e gridò ferma arcadi ferma Dezenef premette forte un pulsante col palmo della mano e Morrison si sentì oscillare leggermente in avanti mentre la nave rallentava e si arrestava quasi subito Conef indicò c'era un grande cerchio che brillava di una luce arancione usano un sistema fibre ottiche in modo che la punta brilli avevano detto che non l'avremmo mancato ma l'abbiamo mancato disse Morrison teso lo stiamo guardando ma non siamo là per entrare là dovremo fare manovra il che significa che Dezenef deve staccare di nuovo l'impianto di comunicazione inutile disse Dezenef con l'energia rimasta avremmo potuto proseguire forse per 45 secondi ma per ripartire da fermi non basta in questo momento siamo bloccati allora la voce di Morrison era quasi un gemito allora disse Conef c'è un altro tipo di movimento possibile quell'ago ipodermico ha degli esseri intelligenti all'altra estremità Arcadi digli di spingerlo molto lentamente il cerchio si allargò diventando leggermente ellittico Morrison disse non ci troverà Conef senza replicare si chinò verso Arcadi per parlare direttamente nel trasmettitore l'ellisse arancione per un attimo divenne ancora più ellittico ma dopo un urlo di Conef diventò quasi circolare l'ago era vicino adesso e puntato nella loro direzione poi all'improvviso ci fu un turbinio generale i lievi contorni dei globuli rossi e delle rare piastrine si riversarono verso il cerchio e l'oltre passarono anche la nave stava muovendosi Morrison si guardò attorno mentre il cerchio arancione li superava su tutti i lati e scivolava dietro la nave scomparendo Conef disse con aria atruce e soddisfatta ci hanno aspirati da questo momento possiamo starcene tranquillamente seduti penseranno a tutto loro Morrison si sforzò di scacciare qualsiasi pensiero di chiudere la mente o lo avrebbe riportato nel mondo normale alla realtà o sarebbe morto in una frazione di secondo e il resto dell'universo sarebbe andato avanti senza di lui come avrebbe fatto in ogni caso fra vent'anni o trenta o quaranta chiuse gli occhi e cercò di ignorare tutto compreso il battito del proprio cuore a un certo punto si sentì sfiorare la mano sinistra la Kalinin senza dubbio ritrasse la mano non bruscamente in segno di rifiuto ma lentamente quasi volesse dire non ora più tardi sentì che la Boranova diceva Arkady digli di evacuare il settore C di procedere esclusivamente con i telecomandi esterni se saltiamo è inutile fare altre vittime chissà se il settore C era stato davvero evacuato si chiese Morrison lui l'avrebbe abbandonato se io l'avessero ordinato o anche se non io l'avessero ordinato forse però c'era qualche pazzoide ansioso di trovarsi sul punto per assistere al ritorno della prima squadra che avesse esplorato un corpo vivo così avrebbero potuto raccontarlo ai nipoti immaginò Morrison e se quelle persone non avessero avuto nipoti si domandò se fossero morte troppo giovani per vederli se i loro figli avessero deciso di non avere figli e se si rendeva conto vagamente che stava immergendosi di proposito in una serie di assurdità e banalità era impossibile non pensare a nulla soprattutto per uno che aveva dedicato l'intera vita al pensiero però si poteva pensare a cose prive di qualsiasi importanza in fin dei conti c'erano tanti pensieri marginali e non fondamentali banali piuttosto che vitali insensati piuttosto che sensati forse si era addirittura addormentato ripensandoci in seguito non ebbe alcun dubbio non immaginava che fosse possibile avere un tale sangue freddo ma non era sangue freddo era stanchezza sollieva la tensione la sensazione che qualcun altro prendeva le decisioni che lui finalmente poteva rilassarsi del tutto e forse anche se Morrison non voleva ammetterlo aveva superato i suoi limiti e si era semplicemente appisolato sentì ancora un tocco leggero sulla mano sinistra e questa volta l'altra mano non si staccò dalla sua si agitò aprì gli occhi e notò qualcosa che aveva tutta l'aria di un'illuminazione normale è troppo normale gli feriva gli occhi batte le palpebre e gli occhi gli lacrimarono la Kalinin lo fissava dall'alto svegliati Albert Morrison si asciugò gli occhi cominciò a decifrare l'ambiente circostante e disse siamo tornati sì è andato tutto bene siamo sani e salvi e ti stiamo aspettando sei tu quello più vicino al portello Morrison si girò verso il portello aperto fece per alzarsi si drizzò di alcuni centimetri poi ripiombò seduto sono pesante lo so a noi la Kalinin mi sembra di essere un elefante alzati lentamente ti aiuto no no mi arrangio da solo Morrison la allontanò la sala era affollata adesso che la vista gli si era schierita Morrison vedeva tutte quelle persone tutte quelle facce che lo guardavano sorridendo attente e non voleva che quei cittadini sovietici vedessero che l'unico americano presente per alzarsi aveva bisogno dell'aiuto di una giovane sovietica ad agio un po' malfermo ma da solo si alzò mosse un passo di lato verso il portello e con estrema cautela scese una piccola rampa diverse braccia si tesero per aiutarlo ignorando le sue parole va tutto bene non ho bisogno di aiuto poi Morrison esclamò di colpo un attimo prima di appoggiare i piedi a terra si voltò e guardò oltre la Kalinin che veniva dietro di lui che cosa c'è Albert gli chiese Sofia volevo solo dare un'ultima occhiata alla nave perché ho intenzione di non rivederla mai più né da lontano né in film né in qualsiasi forma di riproduzione poi scese a terra seguito dai compagni di viaggio e notò con sollievo che anche gli altri venivano aiutati a smontare doveva esserci una festa improvvisa ma la Boranova si fece avanti scarmigliata in disordine diversissima dalla persona calma e ben curata che era di solito soprattutto dal momento che indossava la leggera uniforme di cotone che nascondeva con scarsissima efficacia le linee mature del suo corpo amici lavoratori disse sicuramente a tempo debito ci saranno cerimonie appropriate per celebrare questo nostro fantastico viaggio ma vi prego date le nostre condizioni adesso non possiamo unirci a voi dobbiamo riposare riprenderci dopo un'impresa ardua e vi preghiamo di capirci furono accompagnati via tra grida e mani che si agitavano frenetiche e solo Desnev ebbe abbastanza presenza di spirito da prendere un bicchiere che qualcuno gli offriva e che doveva contenere acqua o vodka Morrison non aveva dubbi circa il contenuto e l'ampio sorriso che apparve sul volto sudato di Desnev mentre sorseggiava la bevanda confermò che aveva ragione Morrison disse alla Kalinin quanto tempo siamo rimasti a bordo più di undici ore credo Morrison scosse la testa a me sono sembrati semmai undici anni lo so sorrise la Kalinin ma gli orologi non hanno immaginazione un aforisma di Desnev senior Sofia no un aforisma mio adesso vorrei andare in bagno disse Morrison e poi fare una doccia poi vorrei degli indumenti puliti una buona cena e la possibilità di gridare e urlare e poi fare una sana dormita in quest'ordine credo con la precedenza la visita in bagno avrei tutto disse alla Kalinin come noi altri infatti poterono soddisfare ogni bisogno e la cena sembrò assolutamente deliziosa a Morrison durante la permanenza a bordo l'attenzione gli aveva soffocato l'appetito ma certe cose si possono solo tenere a bada per un po' e una volta al sicuro comodo pulito e vestito decentemente Morrison si rese conto di essere affamato il piatto principale della cena era un enorme oca arrosto che Desnev tagliò dicendo siate parchi amici perché come diceva mio padre mangiare troppo uccide più in fretta che mangiare troppo poco dopodiché prese una porzione molto più abbondante di quelle servite agli altri l'unico estraneo presente era un uomo alto e biondissimo che venne presentato come il comandante militare della grotta cosa che si capiva subito dal momento che era in alto uniforme ed era coperto di decorazioni gli altri sembravano straordinariamente cortesi con lui e straordinariamente a disagio nel medesimo tempo durante il pasto Morrison sentì che la tensione ritornava il comandante lo guardò spesso serio ma non gli rivolse mai la parola data la presenza del militare Morrison non riuscì a fare la domanda che gli stava a cuore poi dopo l'uscita del comandante quando avrebbe potuto formularla si ritrovò ad un tratto troppo assonnato non sarebbe stato in grado di controbattere adeguatamente se ci fossero state delle complicazioni e quando finalmente riuscì a buttarsi sul letto il suo ultimo pensiero semicosciente fu che ci sarebbero state delle complicazioni la colazione fu annunciata tardi e Morrison scoprì che era per due solo la Boranova si unì a lui era un po' deluso perché avrebbe gradito moltissimo la presenza della Kalinin ma quando capì che non sarebbe venuta decise di non domandare come mai fosse assente c'erano altre domande che doveva fare la Boranova sembrava stanca come se non avesse dormito abbastanza ma aveva un'aria felice o forse penso Morrison felice era un termine esagerato soddisfatta piuttosto la Boranova esordì ho fatto una lunga chiacchierata con il comandante ieri sera e c'è stata una videochiamata con Mosca attentamente schermata il compagno Rascin in persona mi ha parlato ed era chiaramente compiaciuto non è un uomo espansivo ma mi ha detto che ieri ha seguito le fasi della spedizione che durante il periodo di tempo in cui non eravamo in contatto con l'esterno non è riuscito a mangiare né a fare nient'altro e ha continuato a passeggiare avanti e indietro questa forse è un'esagerazione ha detto anche di avere pianto di gioia nell'apprendere che eravamo tutti salvi che può darsi che questo sia vero gli uomini chiusi possono diventare emotivi quando c'è dell'argine mi sembra una buona notizia per te Natalia per l'intero progetto sai secondo il programma a grandi linee che stavamo seguendo non avremmo dovuto effettuare un viaggio in un corpo umano vivo per almeno cinque anni averlo fatto con una nave improvvisata ed essere usciti vivi è considerato un grande trionfo perfino i burocrati di Mosca hanno capito la nostra situazione di emergenza dubito che abbiamo davvero ottenuto quello che cercavamo intendi dire i pensieri di Shapirov quello era il sogno di Yuri ovvio tutto sommato è stato un bene che ci abbia convinti a inseguire quel sogno non avremmo mai tentato il viaggio altrimenti e il fallimento del sogno non fosca la nostra impresa se non fossimo riusciti a tornare vivi sicuramente avrebbero criticato il nostro folle tentativo invece siamo i primi ad essere entrati in un corpo umano vivo e a uscirne vivi un primato sovietico che resterà per sempre nella storia per anni non ci saranno imprese del genere in altre parti del mondo e il nostro governo se ne rende conto ed è soddisfattissimo ci siamo assicurati i fondi che ci occorrono per parecchio tempo immagino a patto che di tanto in tanto riusciamo a esibirci in qualche impresa spettacolare sorrise morrison morrison a noi sorridendo educatamente a sua volta poi tagliò l'omlet al prosciutto che aveva chiesto e disse sarebbe stato diplomatico sottolineare che un membro dell'equipaggio era americano si è fatto un minimo accenno al sottoscritto vi albert non giudicarci così male abbiamo messo in rilevo che ha rischiato la vita per girare manualmente la nave e la morte di shavirov non incolperanno noi spero e tutti sono d'accordo che è stato un fatto inevitabile si sa benissimo che shavirov è rimasto in vita per tanto tempo solo grazie a tecniche mediche avanzate dubito che si parlerà molto di questa morte nei documenti ufficiali in ogni caso l'incubo è finito disse morrison l'incubo via aspetta un mese o due e vedrai ti sembrerà un episodio eccitante e sarai contento di esserne stato protagonista ma ne dubito vedrai se vivrai abbastanza lungo da assistere ad altri viaggi del genere gongolando penserai ah ma io ho partecipato al primo e non ti stancherai mai di raccontare la storia ai tuoi nipotini ecco lo spunto penso a morrison e disse dunque secondo te vedrò i miei nipotini un giorno che ne sarà di me quando avremo terminato la colazione natalia lascerai la grotta e tornerai all'albergo no no natalia voglio una risposta più esauriente cosa succederà dopo ti avverto che se il progetto di miniaturizzazione diventerà una questione di dominio pubblico e ci sarà una parata nella piazza rossa io non intendo partecipare di parate non se ne parla nemmeno albert siamo ancora lontani dal divulgare la cosa anche se rispetto a ieri ci siamo avvicinati parecchio allora te lo dirò senza mezzi termini voglio tornare negli stati uniti subito il più presto possibile certamente immagino che ci saranno pressioni da parte del tuo governo voglio sperarlo fece ironico morrison non ti avrebbero accolto volentieri se prima non avessi avuto l'opportunità di aiutarci oh e la boranova lo fissò negli occhi severa secondo il loro punto di vista di spiarci ma adesso che hai fatto la tua parte e sicuramente in un modo o nell'altro quelli del tuo governo lo sanno chiederanno il tuo ritorno e voi dovete mandarmi a casa lo avete promesso mille volte manterremo la promessa e non pensare che vi abbia spiato ho visto solo quello che mi avete lasciato vedere lo so tuttavia quando tornerai nel tuo paese pensi che non ti interrogeranno in modo approfondito su quel che hai visto morrison si strinse nelle spalle una conseguenza che avete senz'altro accettato quando mi avete portato con voi vero e questo fatto non ci impedirà di rimandarti a casa tanto non potrai riferire ai tuoi nulla che non sappiano già ficcano il naso nei nostri affari con attenzione e abilità come i tuoi ficcano il naso nei nostri replicò maurison piuttosto indignato indubbiamente disse la boranova agitando distrattamente la mano naturalmente potrai parlargli del nostro successo ma noi in fondo non abbiamo nulla in contrario gli americani sono sempre convinti che la scienza e la tecnologia sovietica siano di seconda categoria sarà un piacere dargli una lezione una cosa però ah non è niente di importante ma è una bugia non devi dire che ti abbiamo portato qui con la forza parlando pubblicamente di questa storia se te lo chiederanno devi affermare di essere venuto qui volontariamente per verificare le tue teorie in condizioni sperimentali non disponibili in nessun'altra parte del mondo è una cosa del tutto verosimile perché non dovrebbero crederci il mio governo sa che non è andata così sì ma saranno proprio quelli del tuo governo a spingerti a dire questa bugia sono ansiosi quanto noi di evitare che si crei una crisi mondiale a parte il fatto che una crisi fra Stati Uniti e Unione Sovietica farebbe immediatamente schierare l'arresto del mondo contro ambe due in questi bei tempi nuovi gli Stati Uniti non vorranno ammettere di averti lasciato catturare proprio come noi non vorremmo ammettere di averlo fatto via Albert è una cosuccia Morrison sospirò se mi mandate a casa subito come avete promesso io starò zitto riguardo a questa cosuccia dell'arrapimento usi il condizionale dici sì la Boranova aveva un'espressione arcigna è chiaro che ti è difficile giudicarmi una persona d'onore perché? perché sono sovietica due generazioni di pace due generazioni di concordia eppure le vostre vecchie abitudini rimangono non c'è proprio speranza per l'umanità bei tempi nuovi o no il vostro sistema di governo continua a non piacerci chi vi dà il diritto di giudicarci nemmeno a noi piace il vostro ma lasciamo perdere se cominciamo a litigare rovineremo quello che dovrebbe essere un giorno felice per te e quello che è un giorno felice per me benissimo non litigheremo allora adesso salutiamoci Albert e un giorno ci incontreremo ancora in circostanze più normali ne sono certa la Boranova gli tese la mano e lui le ha prese poi proseguì ho chiesto a Sofia di accompagnarti all'albergo e di occuparti della tua partenza nulla in contrario vero? Morrison le strinse forte alla mano no Sofia mi piace la Boranova sorrisse chissà come l'avevo intuito era un giorno felice per la Boranova e la stanchezza non le impediva di gustarlo stanchezza quanti giorni di riposo quante notte di sonno quanto tempo a casa con Nicolai e Alexander sarebbe stato necessario per rimetterla in sesto ma adesso era sola e per un po' non avrebbe avuto nulla da fare meglio approfittarne si stese beata sul divano dello studio e si abbandonò a uno strano guazzabuglio di pensieri un encomio da mosca una promozione il tutto condito con scorci di giornate sulla spiaggia in Crimea col marito e il figlio le immagini divennero quasi reali mentre si addormentava e sognava di inseguire il piccolo Alexander che marciava deciso nelle acque fredde del Mar Nero incurante del rischio di annegare la Boranova aveva un tamburo e lo percuteva selvaggiamente per attirare l'attenzione che il piccolo le rifiutava ostinato la visione si scorciò e svanì e i colpi di tamburo si trasformarono in colpi alla porta si alzò intontita lasciando la camicetta si affrettò alla porta preoccupata la preoccupazione si tramutò in rabbia quando aprì e vide un conefi imbronciato col pugno a mezz'aria pronto a riprendere a bussare che c'è Yuri disse indignata è questo il tuo modo di annunciarti la gente si può contattare diversamente non ha risposto nessuno anche se sapevo che eri qui la Boranova lo invitò a entrare con un cenno brusco nella testa non era ansiosa di vederlo anche perché non era una vista piacevole gli chiese non hai dormito hai un aspetto terribile non ho ancora avuto tempo ho lavorato a cosa secondo te a cosa Natalia ho i dati raccolti ieri nel cervello la rabbia della Boranova cominciò a placarsi dopo tutto quello era stato il sogno di Konef il successo della sopravvivenza era dolce per tutti eccetto Konef solo lui sentiva il peso del fallimento siediti Yuri cerca di affrontare la realtà l'analisi del pensiero non ha funzionato e non poteva funzionare Shapiroff era in condizioni disastrose anche quando siamo entrati era in punto di morte Konef la guardò con espressione assente quasi non gli interessassero le sue parole dov'è Albert Morrison inutile perseguitarlo Yuri ha fatto il possibile ma il cervello di Shapiroff si stava spegnendo Tamiretta si stava spegnendo di nuovo l'espressione assente di che stai parlando Natalia dei dati raccolti dei dati con cui stai lottando lascia perdere il viaggio è stato un grande successo anche senza quelli Konef scosse la testa è un grande successo senza quelli non sai quel che dici dov'è Morrison è andato Yuri è finita sta tornando negli Stati Uniti come avevamo promesso Konef spalancò gli occhi ma è impossibile non può andare non deve andarsene senti un po' fece elaborano a calma di che stai parlando tu Konef si alzò ho esaminato i dati stupida ed è tutto chiaro dobbiamo trattenere Morrison ad ogni costo la barana va a russi come osi insultarmi Yuri spiegati subito o ti farò sospendere dal progetto cos'è questa tua nuova fissazione assurda per Albert Konef alzò le mani come se provasse un desiderio travolgente di colpire qualcosa senza avere nulla da colpire ansimo scusa scusa ritiro l'aggettivo ma devi capire durante tutta la nostra permanenza nel cervello mentre cercavamo di captare i pensieri di Shapirov Albert Morrison ci ha sempre mentito lui sapeva cosa stava accadendo doveva saperlo e ci ha guidati apposta nella direzione sbagliata dobbiamo prenderlo Natalia lui e la sua apparecchiatura non possiamo lasciarlo andare mai ritorno il guaio del trionfo è che puoi trovarti dall'altra parte Deznev Senior Morrison faceva il possibile per controllare i propri sentimenti provava un'esultanza naturale stava per andare a casa sarebbe stato libero al sicuro molto di più avrebbe ma non osava ancora pensare a quel punto culminante Yuri Konef era spaventosamente intelligente e già sospettoso i pensieri di Morrison se Konef si fosse concentrato su di essi avrebbero potuto tradirsi affiorando in qualche modo dalle sue espressioni facciali o stavano solo giocando con lui ecco il rovescio della medaglia intendevano distruggerlo nello spirito e piegarlo a loro volere sfruttandolo era un vecchio trucco alimentare le speranze e poi frantumarle molto peggio che non avere mai un solo barlume di speranza Natalia Baranova avrebbe fatto una cosa simile non aveva esitato a prelevarlo con la forza quando lui aveva rifiutato di seguirla non aveva esitato a minacciare di distruggere per sempre la sua reputazione per farlo salire a bordo fin dove sarebbe arrivata non si sarebbe arrestata di fronte a nulla ebbe un tuffo al cuore di sollievo nel vedere apparire Sofia Kalinin lei sicuramente non si sarebbe mai prestata a un inganno del genere se ne convince ancora di più quando lei gli sorrise non l'aveva mai vista con un'aria così felice gli strinse la mano e lo prese a bracetto andrei a casa adesso sono contenta per te gli disse e a Morrison non sembrò proprio che quelle parole il loro tono l'espressione di lei potessero far parte di un'abile bugia tuttavia disse cauto spero di andare a casa certo sei mai stato su un aliare per un attimo Morrison incespicò nella parola russa poi usò un'espressione inglese tradotta intendi dire un AES un avio a energia solare questo è un modello sovietico molto migliore ha dei motori leggeri non sempre ci si può fidare del sole ma perché un aliare allora stavano camminando svelti verso il corridoio che li avrebbe condotti fuori dalla grotta perché no saremo a Malenchi grande in un quarto d'ora e dal momento che non sei mai stato su un aliare sovietico ti piacerà sarà un altro modo per festeggiare il tuo ritorno l'altitudine mi rende un po' nervoso è sicuro assolutamente e poi non ho saputo resistere la nostra adesso è una situazione splendida e non so quanto durerà tutto quello che vogliamo è concesso per il momento ho detto vorremmo un aliare e loro hanno sorriso rispondendo oh certo dottoressa Kalinin lo troverete pronto ieri l'altro per un piatto di bors avrei dovuto compilare un modulo di comprovata necessità oggi sono un'eroina dell'unione sovietica non ufficialmente per ora siamo tutti eroi anche tu Albert spero di non dover arrestare per le cerimonie ufficiali disse Morrison ancora circospetto le cerimonie ufficiali si terranno solo nella grotta naturalmente e saranno molto semplici senza dubbio riceverai la tua pergamena magari te la consegnerà il nostro ambasciatore a Washington in una cerimonia riservata non è necessario sarei lusingato ma in fondo preferisco riceverla per posta avevano imboccato un corridoio che Morrison non aveva mai percorso poi avevano camminato abbastanza perché Morrison si chiedesse inquieto dove potessero essere diretti preoccupazione inutile pensò Morrison mentre sbucavano in un piccolo campo d'aviazione impossibile non riconoscere l'aliare aveva ali lunghe rivestite interamente di cellule fotovoltaiche nella parte superiore in pratica come gli AS americani i velivoli americani comunque si affidavano esclusivamente ai pannelli solari l'aliare doveva avere dei piccoli motori senza dubbio alimentati a benzina come apparato ausiliario la Kalinin era libera di presentarla come una versione perfezionata sovietica ma Morrison aveva il sospetto che le cellule fotovoltaiche sovietiche fossero meno efficienti di quelle americane accanto all'aliare c'era un meccanico e la Kalinin gli si avvicinò con un passo sicuro come funziona? è un sogno la Kalinin annui e sorrise ma quando il meccanico si allontanò mormorò a Morrison lo controllo anche io naturalmente a volte i sogni diventano incubi Morrison studiò l'aliare con un misto di interesse e di apprensione sembrava lo scheletro di un aereo con ogni parte più lunga e sottile del dovuto la cabina era minuscola una specie di bolla di sapone sotto l'enorme apertura alare e la lunga appendice posteriore di una fragile struttura scheletrica la Kalinin dovette quasi piegarsi su se stessa per salire Morrison la osservò mentre armeggiava con i comandi poi dopo un intervallo abbastanza lungo Sofia rullò lungo la pista girò l'aliare e tornò indietro alzò i rotori e li lasciò girare lenti quindi spense tutto e smontò funziona meraviglia la riserva di carburante è adeguata e c'è un sole scintillante cos'altro potremmo chiedere Morrison annuì e si guardò intorno potremmo chiedere un pilota dov'è il nostro uomo la Kalinin si origi di subito dov'è il nostro uomo bisogna appartenere a un sesso particolare per pilotare lo piloto io l'aliare tu sbottò Morrison di riflesso sì io perché no ho il brevetto di pilotaggio sai sali scusa balbetto Morrison io io volo di rado e pilotare qualcosa nell'aria per me è una cosa quasi mistica credevo che un pilota pilotasse e basta e che chi facesse qualcos'altro non potesse essere un pilota capisci quello che voglio dire non intendo nemmeno cercare di capire Albert sali Morrison obbedì seguendo le istruzioni di Sofia e facendo il possibile per non ferirsi la testa con qualche parte del velivolo si sedette e fissò inorridito il lato aperto alla sua destra non c'è un portello da chiudere e che scopo un portello chiuso rovinerebbe la splendida sensazione di volo aggancia la cintura e sarai perfettamente al sicuro ecco ti mostro come fare pronto la Kalinin sedeva accanto a lui sicura e soddisfatta dato lo spazio esiguo i loro corpi si toccavano e se non altro la cosa aveva un certo effetto calmante su Morrison rassegnato pronto non lo sarò mai non essere sciocco ti piacerà useremo i motori per alzarci si udì la nota acuta del motore e un battito ritmico mentre i rotori cominciavano a girare lentamente l'aliare si alzò e sempre lentamente virò si piegò di lato virando e Morrison si ritrovò a sporgere verso l'apertura tenendo paurosamente la cintura che lo tratteneva riuscì a stento a frenare l'impulso di abbracciare la Kalinin per cercare un po' di sicurezza che non aveva proprio nulla di erotico l'aliare si raddrizzò e la Kalinin disse ora ascolta mentre spegneva il motore e premeva un interruttore con la scritta cirillica solare lo scoppiettio cessò e i rotori persero velocità mentre l'elica anteriore cominciava a girare l'aliare si mosse lentamente e quasi silenziosamente in avanti ascolta che pace mormorò la Kalinin è come galleggiare nel nulla Morrison guardò giù inquieto non cadremo anche se una nuvola oscurasse il sole o un guasto ai circuiti mettesse fuori uso le cellule fotovoltaiche negli accumulatori abbiamo abbastanza energia da percorrere chilometri se necessario e atterrare senza problemi e se esaurissimo l'energia l'aliare è una specie di aliante e riuscirebbe ad atterrare tranquillamente scommetto che non sarei capace di farlo schiantare nemmeno se volessi l'unico vero pericolo è il vento forte che adesso non c'è Morrison deglutì e disse è un movimento dolce certo non andiamo molto più veloci di un'automobile e la sensazione è molto più piacevole l'adoro cerca di rilassarti e guarda il cielo l'aliare è la cosa più riposante che ci sia da quanto tempo voli a 24 anni ho preso il brevetto anche io anche lui quanti pomeriggi estivi abbiamo trascorso in cielo su un aliare come questo una volta avevamo un aliare da corsa ciascuno e abbiamo tracciato il nostro nodo d'amore nell'aria Sofia contrasta leggermente i lineamenti mentre lo diceva e Morrison intuì che doveva aver chiesto un aliare per il breve viaggio a Malenkygrad solo per rivivere momentaneamente dei ricordi sarà stato pericoloso osservò non proprio se sai quel che fai una volta abbiamo sorvolato bassi le colline ai piedi del caucaso e quello sì avrebbe potuto essere pericoloso un turbine di vento può farti schiantare contro il fianco di un'altura e non deve essere affatto divertente ma eravamo giovani e spensierati anche se forse per me sarebbe stato meglio precipitare si interruppe e per un attimo si rabbuiò ma subito un pensiero intimo sembrò illuminarla e sorrise la diffidenza di Morrison ritornò perché il pensiero di Conef la rendeva così felice quando a bordo della nave non lo voleva nemmeno guardare sembra che non ti dispiace a parlare di lui Sofia disse poi usò apposta la parola proibita di Yuri voglio dire anzi sembra che ti renda felice parlarne come mai e la Kalinin rispose a denti stretti non sono i ricordi sentimentali a rendermi felice te lo assicuro Albert la rabbia la frustrazione e il crepacuore possono incattivire una persona voglio la vendetta e sono abbastanza meschina beh abbastanza umana da assaporarla quando arriva vendetta non capisco è semplice Albert lui mi ha privato dell'amore e ha privato mia figlia di un padre quando io non potevo restituire il colpo non gli importava gli bastava il suo sogno di ottenere un tipo di miniaturizzazione pratico e conveniente per poter diventare in un batter d'occhio lo scienziato più famoso del mondo o della storia ma non c'è riuscito non abbiamo ottenuto le informazioni necessarie dal cervello di Shapirov lo sai ma tu non lo conosci non si arrende mai alle furie in corpo ho visto di sfuggita come ti guardava al termine del viaggio nel corpo di Shapirov conosco i suoi sguardi Albert gli leggo i pensieri anche dal movimento di una palpebra lui crede che tu abbia la soluzione di quel che c'era nel cervello di Shapirov non ce l'ho come potrei non importa che tu ce l'abbia o no lui è convinto di sì e vuole te e il tuo strumento e per questo si strugge come non ha mai fatto in vita sua sicuramente come non ha mai fatto per me o per sua figlia e io ti sto portando via da lui Albert con le mie mani ti sto portando via dalla grotta né ti vedrò partire per il tuo paese e lo vedrò soffrire in modo atroce per la sua ambizione frustrata Morrison la fissava meravigliato mentre l'aliare procedeva guidato dalla sua mano sicura non avrebbe mai immaginato che sul volto della Kalinin potesse comparire un'espressione di gioia così maligna e divorante la Boranova aveva ascoltato il racconto concitato di Konef e si sentiva trascinata dalla sua convinzione assoluta era già successo quando Konef aveva deciso che la mente morente di Shapirov potesse essere letta e che Morrison il neurofisico americano era la chiave per farlo allora si era lasciata trascinare e adesso cercò di opporsi sembra assurdo disse infine che importanza cosa sembra se è vero ribatte Konef ma è vero ne sono sicuro la Boranova mormorò ci vorrebbe Arca di qui per ricordarci che suo padre gli ha detto che la vehemenza non è garanzia di verità non è nemmeno garanzia del contrario se accetti quel che dico ti renderai conto che non possiamo lasciarlo andare adesso no di certo e forse mai la Boranova scossa la testa risoluta è troppo tardi non c'è niente da fare gli Stati Uniti lo rivolgono e il governo ha risposto affermativamente a questo punto il governo non può più tornare sui propri passi senza provocare una crisi mondiale considerando la posta in gioco Natalia dobbiamo sicuramente rischiare la crisi non scoppierà ci saranno chiacchiere messi in scene per un paio di mesi poi se avremo quel che vogliamo potremo anche lasciarlo andare se proprio necessario o potremmo organizzare un incidente la Boranova si alzò rabbiosa no quel che suggerisci è inammissibile questo è il ventonesimo secolo non il ventesimo Natalia qualunque secolo sia si tratta di stabilire se l'universo dovrà essere nostro o loro lo sai che non riuscirai a convincere Mosca che la posta in gioco è questa il governo ha quel che vuole un viaggio sicuro di andata e ritorno in un corpo umano per il momento non desiderano altro non hanno mai capito che volevamo leggere la mente di Shapirov non gliel'abbiamo mai spiegato è stato un errore via Yuri lo sai quanto tempo sarebbe occorso per convincerli che se Albert non fosse venuto spontaneamente avremmo dovuto rapirlo non avrebbero voluto rischiare una crisi nemmeno una crisi come quella attuale che è davvero di poco conto e tu vorresti chiedergli di affrontare una molto più grande non solo non ci riuscirai le incoraggerai anche a esaminare a fondo la questione dell'arrivo di Albert e non credo che possiamo permettercelo il governo non è compatto molti funzionari importanti sono convinti che siamo troppo svaniosi di cedere agli americani che paghiamo un prezzo troppo alto per le rare pacche che riceviamo sono in contatto con certe persone lo so da un pezzo il tuo è un gioco pericoloso Yuri uomini migliori di te sono rimasti invischiati in intrighi del genere e hanno fatto una brutta fine è un rischio che devo correre in un caso come questo posso rovesciare la posizione del governo ma per farlo ci occorre Albert Morrison una volta partito sarà tutto finito quando è che dovrebbe partire questa notte Sofia e io abbiamo deciso che la notte è meglio del giorno per evitare di dare nell'occhio e non provocare inutilmente chi è tendenzialmente contrario alla distensione con gli americani Konef lo conosco molto bene fino all'ultimo pensiero me lo sta portando via sedendogli vicino sulla nave osservando le sue mosse deve avere intuito la sua importanza e vuole sottrarmelo non aspetterà il buio lo farò partire subito si alzò e abbandonò la stanza di corsa Yuri chiamò la Boranova Yuri cosa hai intenzione di fare? fermarlo le giunse la risposta la Boranova lo seguì con lo sguardo pensuosa lei poteva fermarlo aveva l'autorità e i mezzi eppure e se Yuri avesse avuto ragione se la posta in gioco fosse stata davvero niente meno che l'universo doveva prendere subito una decisione ricominciò fermandolo avrebbe fatto qualcosa se fosse saltato fuori che Yuri aveva ragione la colpa di averlo fermato e di aver perso l'universo sarebbe ricaduta interamente su di lei se una volta fermato fosse il risultato che Yuri aveva torto l'azione della Boranova sarebbe stata dimenticata e non c'è nulla di drammatico in un errore non commesso se non avesse fatto nulla per fermarlo però tutto il peso della situazione sarebbe gravato sulle spalle di Conef se Conef avesse impedito il ritorno di Morrison negli Stati Uniti e il governo poi fosse stato costretto in modo umiliante a rilasciarlo la colpa sarebbe stata di Conef la Boranova non avrebbe perso nulla perché Conef era corso via senza rivelarle le sue intenzioni e lei non immaginava che avrebbe cercato di violare la volontà del governo sarebbe stata in regola d'altro canto se Conef avesse impedito il ritorno di Morrison e avesse avuto ragione e il governo avesse vinto la battaglia successiva lei avrebbe potuto dimenticare il merito di non avere fatto nulla per fermarlo avrebbe potuto dire che aveva agito col suo permesso dunque se lo fermava o la colpa era sua o non le accadeva nulla se arrestava passiva o il merito era suo o non le accadeva nulla così la Boranova non fece niente Morrison decise che la Kalinin aveva ragione col passare dei minuti il disagio di trovarsi a bordo dell'aliare diminuì e Morrison cominciò addirittura a provare un lieve piacere vedeva perfettamente il suolo attraverso la struttura a traliccio dello chassis del velivolo era una trentina di metri sotto di lui calcolò e scorreva uniforme all'indietro la Kalinin sediva ai comandi completamente assorta anche se a Morrison non sembrava che avesse molto da fare probabilmente era grazie all'abilità e all'osservazione paziente che riusciva a tenere in rotta l'aliare senza correzioni continue le chiese cosa succede se ti trovi ad affrontare un vento di prua senza staccare gli occhi dai comandi Sofia rispose beh dovrei usare il motore e consumare carburante con un vento teso non conviene usare un'aliare fortunatamente oggi le condizioni atmosferiche sono ideali Morrison cominciò a provare qualcosa di molto vicino a un senso di benessere per la prima volta da quando aveva lasciato gli Stati Uniti e no da un periodo di tempo molto più lungo cominciò a immaginarsi a casa era la prima volta che osava farlo e dopo essere arrivati all'albergo di Malenkigrad che cosa succede domandò all'aeroporto in auto poi ti imbarcherai su un aereo per l'america quando stanotte secondo il programma cercherò di affrettare le cose Morrison disse quasi allegramente ansiosa di sbarazzarti di me e con sua grande sorpresa la risposta aggiunse subito sì esattamente studiò il profilo della Kalinin l'espressione d'odio esagerato era sparita da un pezzo ma adesso si notava un'ansia che lo fecero a brevidire l'immagine di se stesso negli Stati Uniti cominciò a sbiadire qualcosa che non va Sofia le chiese no adesso no solo che prevedo che lui ci inseguirà abbiamo il lupo alle calcagne quindi devo spedirti via in fretta se possibile la città di Malenkigrad era sotto di loro anche se non si trattava di una vera città piccola di nome lo era anche di fatto e si sfarrangiava in tutte le direzioni nella campagna piatta era il dormitorio della gente che lavorava al progetto di miniaturizzazione e durante il giorno ora sembrava quasi deserta si vedeva un veicolo in movimento qui e là qualche pedone e naturalmente dei bambini che giocavano nelle strade polverose Morrison si rese conto di non sapere in che punto dell'enorme distesa di territorio dell'Unione Sovietica potessero essere Malenkigrad e la grotta non erano nella fascia dei boschi di Betulle né nella tundra l'inizio dell'estate era tiepido e il terreno sembrava semiarido forse lui si trovava nell'Asia centrale o nelle steppe vicino al lato europeo del Caspio chissà l'aleare stava scendendo più delicato di un ascensore Morrison stentava a credere che fosse possibile abbassarsi con tanta dolcezza poi le ruote toccarono il suolo e il velivolo si arrestò quasi subito erano sul retro dell'albergo un albergo che dall'alto era apparso a Morrison in tutte le sue modeste dimensioni la Kalinin smontò con un salto e fece un cenno a Morrison che scese giù più compostamente e l'aliare? domandò lui lei rispose con non curanza lo riporterò al campo della grotta al mio ritorno se il tempo non cambia su raggiungiamo l'ingresso ti accompagnerò in camera tua così riposerai un po' e penseremo alla prossima mossa la camera a quei soldati che mi sorvegliano vuoi dire? la Kalinin replicò impaziente non ci saranno soldati a sorvegliarti adesso non abbiamo paura che cerchi di sfuggire poi guardandosi rapidamente intorno soggiunse anche se per la verità preferirei che ci fossero i soldati Morrison si guardò attorno a sua volta un po' apprensivo e decise che preferiva fare a meno dei soldati se Konef fosse venuto a riprenderlo come temeva Sofia probabilmente sarebbe arrivato con una scorta di soldati poi Morrison non pensò ma è davvero il caso di temere una cosa simile Sofia ce l'ha a morte con Yuri lo crede capace di tutto il pensiero comunque non lo calmò Morrison non aveva visto l'albergo dall'esterno in pieno giorno non aveva potuto osservarlo con calma in nessun modo probabilmente riflette era usato solo dai funzionari in vista e dagli ospiti speciali come lui ammesso che potesse ambire a quel titolo e probabilmente malgrado le modeste dimensioni non era mai pieno le due notti che aveva trascorso lì erano state fin troppo tranquille non ricordava alcun rumore nei corridoi e la sala da pranzo era quasi deserta mentre pensava alla sala da pranzo si avvicinarono all'ingresso e lì su un lato seduta al sole e intenta a leggere un libro c'era una donna grassoccia coi capelli castano rossiccio portava degli occhialini bassi sul naso Morrison fu colpito da quell'arcaismo ormai era raro vedere degli occhiali dal momento che la correzione oculare era all'ordine del giorno e la vista normale era diventata veramente normale gli occhiali e l'aria assorta la facevano sembrare diversa e Morrison avrebbe anche potuto non riconoscerla forse non l'avrebbe riconosciuta se non avesse appena pensato alla sala da pranzo la donna era la cameriera a cui aveva chiesto aiuto tre sere prima senza ottenerlo valeri paleron disse austero buongiorno compagna paleron la sua voce era fredda la sua espressione ostile lei non parve curarsene alzò lo sguardo tolse gli occhiali disse compagno americano siete tornato sano e salvo complimenti per cosa ne parla tutta la città c'è stato un esperimento che ha avuto un grande successo la kalinin accigliata fece brusca non dovrebbe parlarne tutta la città non ci piacciono le lingue lunghe che lingue lunghe si infervorò la cameriera qui tutti lavorano alla grotta o hanno un parente là perché non dovremmo saperlo o non dovremmo parlarne e se lo sento che ci posso fare devo tapparmi le orecchie non posso portare un vassoio e mettermi le dita nelle orecchie si rivolse a Morrison ho sentito dire che siete stato molto bravo e avete ricevuto molte lodi Morrison si strinse nelle spalle e quest'uomo continuò la cameriera rivolgendosi a una kalinin imbronciata è sempre più impaziente voleva andarsene prima di poter partecipare alla grande impresa ha chiesto aiuto a me per andarsene a me a una cameriera io naturalmente ho riferito subito e lui non era contento anche adesso vedete come mi guarda male agitò il dito in direzione di Morrison ma pensate al favore che vi ho fatto se non vi avesse impedito di realizzare il vostro piano adesso non sareste il personaggio famoso che siete il beniamino di Malenkigrad e forse perfino di Mosca e la piccola zarina qui presente e scommetto che le piacete molto per questo la kalinin disse smettetela subito di essere sfacciato o vi denuncerò le autorità ne fate pure replicò la paleron mettendo le mani sui fianchi aggrottando le sopracciglia io faccio il mio lavoro sono una buona cittadina e non ho fatto niente di male cosa potete denunciare e c'è qui anche una macchina di lusso per voi non vedo macchine di lusso disse la kalinin non è nel parcheggio ma sull'altro lato dell'albergo cosa vi fa pensare che sia per me siete le uniche persone importanti venute in albergo per chi dovrebbe essere per il facchino per l'impiegato dell'atrio andiamo Albert disse la kalinin stiamo perdendo tempo oltrepassò la cameriera e forse di proposito le pestò un piede Morrison la seguimite odio quella donna mormorò la kalinin mentre salivano verso la camera di Morrison al primo piano pensi che tenga d'occhio questo posto per conto del comitato di coordinamento centrale ne chissà ma c'è qualcosa che non va in lei ha un'impudenza diabolica non sa stare al suo posto il suo posto dunque ci sono distinzioni di classe in unione sovietica non essere sarcastico Albert in teoria nemmeno negli Stati Uniti dovrebbero esserci ma ci sono sicuramente e ci sono anche qui la conosco la teoria ma non si può vivere di sola teoria se il padre di Arkady non l'ha detto avrebbe dovuto dirlo salirono una rampa di scale raggiunsero la camera occupata da Morrison all'inizio della settimana che evidentemente era ancora destinata a lui Morrison la osservò provando un lieve disgusto era una stanza priva di qualsiasi attrattiva anche se la luce del sole la faceva sembrare meno tetra di quel che Morrison ricordava e naturalmente la prospettiva di tornare a casa bastava attingere tutto di rosa la Kalinin sedette sulla migliore delle due poltrone accavallando le gambe e dondolando quella sopra Morrison sedette sul bordo del letto e osservò le gambe di Sofia pensoso non aveva mai avuto occasione di ammirare la propria calma sotto pressione e gli sembrava piuttosto insolito osservare qualcuno più nervoso di lui sembri preoccupata Sofia che c'è te l'ho detto quella paleron mi preoccupa non può sconvolgerti tanto che cosa c'è che non va non mi piace aspettare le giornate sono lunghe adesso passeranno nove ore prima che ci sia buio è sorprendente che sia solo una questione di ore le manovre diplomatiche avrebbero potuto continuare per mesi Morrison lo disse scherzoso ma il pensiero gli provocò un senso di freddo alla bocca dello stomaco non in un caso del genere ho già visto come vanno le cose Albert ci entrano gli svedesi l'aereo che sta arrivando non è americano l'atterraggio di un aereo americano in pieno territorio sovietico è qualcosa che il nostro governo preferisce ancora evitare gli svedesi invece beh loro fungono da intermediari tra due nazioni consenzienti per scongiurare possibili attriti negli Stati Uniti gli svedesi nella migliore delle ipotesi sono considerati tiepidi nei nostri confronti credo che la Gran Bretagna sarebbe stata no via tanto vale che tu dica Texas la Svezia sarà anche tiepida nei vostri confronti ma verso di noi ha un atteggiamento molto più freddo in ogni caso arrivano gli svedesi oggi e il loro principio è sempre questo se è necessario disinnescare una situazione è meglio farlo in fretta mi sembra che abbiano fatto molto in fretta sono io quello che dovrebbe avere più fretta dato che sono io il più ansioso di partire perché ti preoccupi per qualche ora te l'ho detto lui ci dà la caccia rispose la Kalinin pronunciando rabbiosa il pronome Yuri che cosa può fare se il vostro governo ha deciso di consegnarmi nel governo ci sono degli elementi che potrebbero facilmente essere contrari alla tua consegna e il nostro amico ne conosce alcuni Morrison si portò un dito alle labbra guardandosi attorno la Kalinin disse hai paura che ci siano delle microspie altro mito della letteratura spionistica americana oggi giorno è facilissimo individuare e neutralizzare le microspie io stessa ho un piccolo rivelatore di microspie e non ne ho mai scoperta una Morrison si strinse nelle spalle di quel che ti pare allora il nostro amico non è un estremista politico però può servirsi degli estremisti che occupano cariche di vertice ci sono estremisti anche in America immagino quelli che credono che la nostra politica verso l'Unione Sovietica sia troppo blanda Morrison a noi ne ho conosciuto qualcuno bene allora hai capito l'ambizione lo divora e se l'estremismo può favorire i suoi piani lui è disposto a diventare estremista non può certo organizzare un colpo di stato a Mosca e insediare i reazionari al potere entro questa sera per impedirmi di tornare a casa hai capito al contrario Albert se riuscissi in qualche modo a impedirti di partire e a provocare una crisi potrebbe persuadere qualche membro del governo a tenere duro e a rimandare il tuo ritorno a casa per parecchio tempo sa essere molto persuasivo il nostro amico quando è in preda alla sua mania sa smuovere perfino Natalia la Calini ne tacque e si morse un labbro poi alzò lo sguardo e disse non ha rinunciato a te e non lo farà ne sono sicura devo portarti via si alzò all'improvviso e percorse la stanza avanti e indietro con passetti svelti sembrava che stesse cercando di costringere l'universo a seguirla si fermò di fronte alla porta ascoltò poi la spolancò di colpo valeri paleron l'espressione sorpresa se ne stava all'esterno col pugno alzato come a se stesse per bussare cosa volete? chiese brusca la Calini io io non voglio nulla semmai dovete dirmelo voi sono venuto a chiedere se volete del tè non abbiamo chiesto del tè e non ha detto che l'avete chiesto sono venuta per cortesia allora per cortesia andatevene e non tornate la paleron arrossendo guardò i due e mormorò tra i denti forse ha interrotto uno scambio affettuoso via la Calini chiuse la porta la tese contando in silenzio fino a dieci quindi spalancò la porta non c'era nessuno chiuse a chiave andò all'estremità opposta della stanza e disse sottovoce probabilmente era là fuori da un po' ho sentito un fruscio di passi Morrison disse e se lo spionaggio ad alta tecnologia è superato suppongo che sia molto apprezzata la tecnica antiquata dell'origliare ma per chi? pensi che lavori per Iuri? mi pare improbabile che abbia tanto denaro da assumere delle spie o sbaglio e forse non occorre molto denaro una donna del genere potrebbe farlo anche per il piacere di farlo ci fu un attimo di silenzio poi Morrison disse c'è la possibilità che tu sia circondata da spie Sofia perché non vieni in America con me? cosa? sembrava che non avesse sentito potresti trovarti nei guai per avermi fatto imbarcare perché? ho dei documenti ufficiali per il tuo imbarco sto eseguendo degli ordini potresti rimetterci lo stesso se ci fosse bisogno di un capro espiatorio perché non sale solario con me e vieni in America Sofia? così semplice è? è mia figlia e la manderemo a prendere in seguito la manderemo a prendere? cosa hai in mente? Morrison arrossi leggermente non so di preciso possiamo essere amici certo avrai bisogno di amici in un paese nuovo ma è impossibile Albert apprezzo la tua gentilezza e la tua preoccupazione o compassione ma è impossibile sei troppo attaccato alla teoria sì in teoria la gente può muoversi ma ogni nazione ha delle eccezioni l'unione sovietica non permetterà a una scienziata di alto livello con esperienza in settori collegati alla miniaturizzazione di lasciare il paese pensaci e capirai che è normale se dovessi accompagnarti ci sarà immediatamente una protesta sovietica in cui si parlerà di un caso di rapimento e in ogni angolo del mondo chiederanno a gran voce di rimandarmi a casa per evitare una crisi e la Svezia interverrà per me con la stessa rapidità dimostrata nel tuo caso ma nel mio caso io sono stato rapito molti crederanno al mio rapimento o preferiranno crederlo e gli Stati Uniti mi manderanno a casa come l'unione sovietica adesso ti sta mandando a casa in questo modo abbiamo mascherato alla bella e meglio decine di crisi negli ultimi 60 anni e non è meglio che la guerra ma se tu dirai spesso e con decisione di voler arrestare negli Stati Uniti non rivedrò più mia figlia e inoltre la mia vita forse sarà in pericolo e poi io non voglio venire negli Stati Uniti Morrison sembrò sorpreso ma Kalinin disse stenti a crederci tu vuoi restare in unione sovietica certo che no il mio paese Morrison si interruppe appunto parla in continuazione dell'umanità dell'importanza di una visione globale ma se scaviamo in profondità ecco che salta fuori il tuo paese anch'io ho un paese una lingua una letteratura una cultura un sistema di vita non voglio rinunciare a tutto questo Morrison sospirò come vuoi Sofia ma non sopporto più di stare in questa stanza Albert inutile aspettare saliamo in auto e ti porterò fino all'aereo svedese probabilmente non ci sarà allora aspetteremo all'aeroporto piuttosto che qui e almeno saremo sicuri che non appena arriverà tu salirai a bordo voglio vederti partire senza intoppi Albert e poi voglio vedere la sua faccia Sofia uscì dalla stanza e scese i gradini svelta Morrison si affrettò a seguirla a dire il vero non gli dispiaceva affatto andarsene percorsero un lungo corridoio rivestito di boquette e varcarono una porta che dava direttamente sul lato dell'albergo parcheggiata accanto al muro c'era una grossa berlina nera scintillante Morrison un po' trafelato disse certo che ci forniscono proprio dei mezzi di trasporto di lusso sei capace di guidare quell'affare non la perfezione rispose la Kalinin sorridendo poi si bloccò di colpo e il sorriso sparì da dietro l'angolo dell'albergo era sbucato Konef anche lui si bloccò e per diversi secondi entrambi rimasero immobili quasi fossero due gorgoni pietrificatesi a vicenda con lo sguardo Morrison fu il primo a parlare disse un po' Rauco sei venuto a salutarmi Yuri in tal caso addio sto partendo erano frasi che suonavano false alle stesse orecchie di Morrison e il cuore gli batteva forte gli occhi di Konef si spostarono un attimo verso di lui poi si rivolsero nella direzione di prima Morrison disse vieni Sofia avrebbe potuto benissimo tacere quando finalmente parlò Sofia si rivolse a Konef e gli chiese Asper cosa vuoi? lo americano rispose Konef in un tono altrettanto duro lo sto portando via non farlo ci serve ci ha ingannato la voce di Konef stava calmandosi questo lo dici tu io ho i miei ordini devo accompagnarlo a un aereo e assicurarmi che salga a bordo non puoi averlo non sono io che devo averlo è la nazione sentiamo continua di che la santa madre Russia ha bisogno di lui e ti riderò in faccia non dirò una cosa simile l'unione sovietica ha bisogno di lui tu pensi solo a te stesso togliti dai piedi Konef si piazzò tra i due nella vettura no non capisci quanto importante che lui resti qui credimi il mio rapporto è già stato inviato a Mosca non ne dubito e posso immaginare chi lo riceverà ma il vecchio mangiafuoco non potrà fare nulla è uno spaccone lo sappiamo tutti non oserà dire una parola nel presidium e se lo farà Albert sarà in viaggio da un pezzo no non partirà Morrison disse mi preoccupo io di lui Sofia aprì la portiera dell'auto tremava leggermente Konef non era un uomo massiccio però sembrava robusto ed era chiaramente deciso a tutto Morrison non si riteneva un abile gladiatore in nessuna circostanza e nemmeno adesso la Kalinin alzò una mano verso Morrison resta dove sei Albert poi a Konef come intendi fermarmi hai una pistola Konef parve sorpreso no assolutamente portare armi è illegale davvero ma io ne ho una la Kalinin la estrasse dalla tasca della giacca era un oggetto minuscolo che le stava quasi nel pugno con una piccola canna che scintillava tra le dita Konef indietre giò spalancando gli occhi è uno sturditore certo peggio che una pistola vero pensavo che forse ti saresti intromesso quindi mi sono preparata anche quello è illegale allora denunciami e io dirò che dovevo eseguire gli ordini e respingere la tua intromissione criminosa probabilmente riceverò un encomio non so figo Konef avanzò di un passo lei arretrò di un passo non avvicinarti sono pronta a sparare e potrei farlo anche se arresti dove sei ricordati l'effetto di uno sturditore confonde il cervello me l'hai detto proprio tu una volta no perderai i sensi e ti sveglierai con un'amnesia parziale ci vorranno ore perché ti riprenda forse giorni ho sentito addirittura che certa gente non si riprende mai del tutto pensa se il tuo eccezionale cervello non dovesse riacquistare la sua acutezza Sofia senza muovere quasi le labbra lei disse perché usi il mio nome l'ultima volta che l'hai usata hai detto Sofia non ne parleremo più non ci guarderemo più adesso mi parli e mi guardi vattene e mantieni la tua promessa miserabile usò una parola russa che Morrison non capì Konef pallidissimo disse una terza volta Sofia ascoltami sei libera di pensare che finora abbia detto solo bugie però adesso ascoltami questo americano è una minaccia mortale per l'unione sovietica se ami il tuo paese sono stanca di amare cosa ho ottenuto dall'amore io cosa ho ottenuto formorò Konef tu ami te stesso fece amare la Kalinin no continuavi a dirlo ma non è vero se ho un po' di considerazione per me stesso ora è perché solo io posso salvare il nostro paese davvero ci credi davvero fece la Kalinin allibita sei pazzo niente affatto so quel che valgo non potevo permettere che qualcosa mi distraesse nemmeno che fossi tu a distrarmi per il nostro paese e per il mio lavoro ho dovuto rinunciare a te ho dovuto rinunciare alla mia bambina mi sono spaccato in due e ho gettato via la metà migliore di me la tua bambina è una missione di responsabilità Konef piegò la testa era l'unico modo per respingerti era l'unico modo per essere sicuro di lavorare senza intralci ti amo ti ho sempre amata ho sempre saputo che la bambina era mia e che non poteva essere di nessun altro ti interessa a tal punto Albert? lo storditore era sempre puntato senza il minimo tremito sei disposto a dire che è tua figlia che mi ami e credi che per questo ti consegni Albert per poi sentire negare tutto di nuovo non hai una grande stima della mia intelligenza Konef scosse la testa come posso convincerti? beh se ho gettato via tutto volutamente non posso pretendere di riaverlo vero? in tal caso consegnami l'americano per il bene della nostra nazione e poi gettami via posso spiegarti perché abbiamo bisogno di lui non credo alle tue spiegazioni la Kalinin lanciò un'occhiata in direzione di Morrison hai sentito questo uomo Albert non sai con quanta crudeltà abbia accantonato mia figlia e me e adesso pretende che creda che mi ha sempre amata e Morrison si ritrovò a dire questo è vero Sofia ti ama e ti ha sempre amata disperatamente la Kalinin raggelò un istante la sua sinistra rivolse un gesto a Morrison mentre gli occhi continuavano a fissare Konef come lo sai Albert ha mentito anche a te ma Konef gridò eccitato lo sa lo ammette non capisci l'ha sentito col suo computer se mi lasci spiegare capirai tutto ma Kalinin chiese è vero Albert confermi quello che ha detto Yuri e Morrison troppo tardi serrò la bocca ma i suoi occhi lo tradirono Konef disse che il mio amore non è mai venuto meno Sofia ho sofferto quanto te ma consegnami l'americano e le sofferenze saranno finite non mi sottrarrò più alle mie responsabilità per non avere intralci farò il mio lavoro e mi occuperò di te e della bambina costi quel che costi e che sia maledetto se non riuscirò a fare entrambe le cose ma Kalinin fissò Konef e gli occhi le si riempirono improvvisamente di lacrime voglio crederti mormorò allora credimi l'americano te l'ho detto quasi fosse una sonnambula avanzò verso Konef porgendogli lo sturditore Morrison orlò gli ordini all'aereo e si lanciò verso di loro ma mentre correva si scontrò con un altro corpo due braccia lo bloccarono e una voce all'orecchio gli disse calma compagno americano non aggredire due buoni cittadini sovietici era Valery Palleron che lo stringeva in una morsa inesorabile la Kalinin era vinghiata a Konef per uno scopo ben diverso e lo sturditore le pensolava ancora dalla destra la Palleron disse ma accademico dottoressa potremmo dare nell'occhio qui andiamo nella stanza dell'americano venite compagno americano e state buono o sarò costretto a farvi male Konef incontrando lo sguardo di Morrison fece un sorriso arcigno di trionfo aveva tutto la sua donna la sua bambina e il suo americano mentre il sogno di tornare in America di Morrison scoppiava come una bolla di sapone e si dissolveva capovolgimento nel vero trionfo comunque non ci sono perdenti Desnev Senior Morrison sedeva nella stanza d'albergo che per una quindicina di minuti si era illuso di non rivedere mai più era prossimo alla disperazione molto più vicino gli sembrava di quanto non fosse stato quando si era ritrovato solo e sperduto nel flusso cellulare del neurone che senso aveva continuava a pensarlo come se quella frase stesse riverberandosi in una camera a eco era un perdente era sempre stato un perdente per un giorno o poco più aveva pensato che Sofia Kalinin fosse attratta da lui il che naturalmente non era vero per lei non era stato altro che un'arma da usare contro Konef e quando Konef l'aveva chiamata le aveva fatto un cenno Sofia era tornata da Konef e non aveva più avuto bisogno delle sue armi né di Morrison né dello storditore Morrison li guardò intontito erano insieme in piedi nel riflesso solare che si riversava attraverso la finestra loro alla luce lui nell'ombra come era suo destino stavano bisbigliando talmente assorti che la Kalinin sembrava essersi dimenticata che impugnava ancora lo storditore per un attimo piegò le ginocchia quasi intendesse sbarazzarsi del peso dell'arma gettandola sul letto ma poi Konef disse qualcosa e Sofia tornò a pendere dalle sue labbra e a ignorare l'esistenza dello storditore Morrison esclamò Rauco il vostro governo non tollererà questo gesto avete l'ordine di liberarmi Konef alzò lo sguardo gli occhi gli si ravvivarono leggermente come se stesse persuadendosi con difficoltà a prestare attenzione al prigioniero in fondo non era che dovesse sorvegliare Morrison in senso fisico la cameriera Valerie Palleron lo stava già facendo con estrema efficienza era un metro da Morrison e i suoi occhi piuttosto divertiti come se le piacesse quel compito non lo lasciavano un solo istante Konef disse non preoccuparti del mio governo Albert cambierai idea prestissimo la Kalinin alzò la sinistra come se intendesse obiettare ma Konef gliela strinse stai tranquilla Sofia le informazioni di cui disponevo sono state inviate a Mosca cominceranno a riflettere si metteranno in contatto con me entro breve tempo sulla mia lunghezza d'onda personale e quando gli dirò che abbiamo catturato Morrison entreranno in azione sono sicuro che riusciranno a far ragionare il vecchio te lo prometto la Kalinin disse in tono preoccupato Albert Morrison fece stai per dirmi che ti dispiace di avermi cancellato dall'esistenza obbedendo all'uomo che apparentemente odiavi a Kalinin rossì non sei stato cancellato Albert sarai trattato bene lavorerai come avresti lavorato in America solo che qui sarai apprezzato sul serio grazie fece Morrison trovando nel proprio animo una piccola riserva di sarcasmo se sei felice per me che importanza ha come mi sento io la Paleron intervenne impaziente compagno americano parlate troppo perché non vi sedete sedetevi lo spinse su una poltroncina tanto vale che aspettiate tranquillo dato che non potete fare nient'altro poi si rivolse alla Kalinin che Konef cingeva con il braccio con fare protettivo ne voi piccola zarina avete ancora intenzione di mettere fuori combattimento questo vostro bell'amante dal momento che avete ancora in mano questo terribile storditore potrete abbracciarlo meglio con tutte e due le braccia libere la Paleron allungò la mano verso lo storditore e la Kalinin glielo consegnò senza una parola per la verità osservò la Paleron guardando incuriosita lo storditore sono contenta di averlo io nella frenesia del vostro amore ritrovato avreste potuto sparare in tutte le direzioni non sarebbe prudente lasciarvelo piccola mia tornò verso Morrison continuando a studiare lo storditore e a rigirarlo Morrison si agitò inquieto non puntatelo nella mia direzione potrebbe sparare la Paleron lo guardò altezzosa non sparerà se non voglio io compagno americano sa usarla sorrise in direzione di Konef e della Kalinin liberatasi dell'arma ora la Kalinin aveva circondato con le braccia e il collo di Konef e lo stava baciando con brevi e delicati tocchi delle labbra la Paleron disse girandosi verso di loro ma non rivolgendosi realmente a loro perché non stavano ascoltando sa come si usa così e così e prima Konef poi la Kalinin si accasciarono la Paleron disse a Morrison adesso aiutami idiota dobbiamo sbrigarci lo disse in inglese Morrison non riusciva a capire rimase semplicemente a fissarla la Paleron lo spinse per le spalle come se stesse cercando di svegliarlo da un sonno profondo forza prendigli i piedi Morrison obbedì come un automa Konef e la Kalinin vennero issati sul letto da cui la Paleron aveva tolto la coperta la Paleron stese i corpi nello spazio angusto dell'unico materasso poi perquisì la Kalinin con gesti rapidi ed esperti disse fissando un foglio piegato che stando ai caratteri fitti era senz'altro un documento scritto in governativo lo infilò nella tasca della giacca bianca e continuò a cercare vennero alla luce altri oggetti un paio di piccole chiavi per esempio svelta la donna si chinò su Konef staccando un dischetto metallico dalla superficie interna del suo risvolto la sua lunghezza d'onda personale disse e mise in tasca anche quello infine recuperò un oggetto nero rettangolare questo è tuo vero Morrison grugnì era il suo programma era tanto frastornato che non si era accorto che Konef glielo aveva preso lo strinse con frenesia la paleron girò Konef e la canina in di fianco in modo che si guardassero e si puntellassero a vicenda quindi sistemò il braccio di Konef a turno alla ragazza e li coprì con la coperta infilandola bene sotto i corpi per aumentare la stabilità non fissarmi così Morrison disse quando ebbe finito vieni lo prese per un braccio Morrison fece resistenza dove andiamo che cosa sta succedendo te lo dirò dopo niente chiacchiere adesso non c'è tempo da perdere nemmeno un minuto nemmeno un secondo il tono era controllato ma rabbioso e Morrison la seguì uscirono dalla stanza e la paleron scese le scale il più adagio possibile imitata da Morrison poi percorsero il corridoio rivestito di moquette e sbucarono all'esterno presso la berlina la paleron aprì la portiera anteriore destra con una delle chiavi trovate addosso alla kalinin e ordinò sali dove andiamo sali e in pratica lo spinse in macchina prese posto al volante e Morrison frenò l'impulso di chiederle se sapesse guidare finalmente la sua mente frastornata aveva capito che la paleron non era una semplice cameriera che avesse recitato la parte della cameriera comunque lo si capiva dal lieve odore di cipolla che le era rimasto addosso e che si mescolava in modo infelice con l'odore più pieno e piacevole dell'interno dell'auto la paleron avviò il motore guardò il parcheggio che era deserto a parte un gatto che se ne andava per i fatti suoi e attraversò uno spiazzo sabbioso raggiungendo il sentiero che portava alla strada vicina la berlina accelerò progressivamente e quando toccò i 95 chilometri orari stava percorrendo una strada a due corsie su cui di tanto in tanto si incrociava un'auto diretta nella direzione opposta morrison riuscì a pensare di nuovo in maniera normale si girò subito a guardare dall'unotto un'auto piuttosto lontana stava svoltando a un incrocio che avevano oltrepassato alcuni attimi prima apparentemente nessuno li stava seguendo poi morrison si voltò a guardare il profilo della paleron aria capace ma turva morrison si rese conto allora che oltre a non essere una vera cameriera molto probabilmente non era nemmeno una cittadina sovietica il suo inglese aveva un forte accento urbano che nessun europeo avrebbe potuto imparare a scuola o acquisire in modo tale da ingannare l'orecchio di morrison stavi aspettando fuori dall'albergo leggendo quel libro per vedere sofia e me al nostro arrivo esatto confermò la paleron sei un agente americano vero sempre più acuto dove stiamo andando all'aeroporto prestabilito dove l'aereo svedese ti preleverà questi dettagli me li ha dati la Kalinin e sai come arrivare là ma certo sono a Malenki grande da molto più tempo della tua Kalinin ma Timmy perché le hai detto che quel tale Konef era innamorato di lei aspettava solo di sentirlo dire da una terza persona voleva una conferma e tu gliel'hai data così hai passato il gioco in mano a Konef perché l'hai fatto innanzitutto era la verità rispose Morrison la verità la paleron confusa scosse la testa tu vivi fuori dal mondo garantito mi sorprende che nessuno ti abbia dato una botta in testa e ti abbia seppellito già da un pezzo solo per il tuo bene e poi come fai a sapere che è la verità lo so comunque mi dispiaceva per lei mi ha salvato la vita ieri ha salvato la vita tutti ieri se è per questo anche Konef mi ha salvato la vita vi siete salvati la vita l'un l'altro tutti quanti suppongo sì proprio ma è successo ieri oggi è un altro giorno e non avresti dovuto lasciarti influenzare da ieri la Kalinin non si sarebbe mai rimessa con lui se non avessi detto quella stupidaggine Konef avrebbe potuto sgolarsi e giurare e stragiurare che l'amava e tutte quelle altre idiozie e lei non gli avrebbe creduto non osava essere presa ancora in giro mai lo avrebbe abbattuto con lo storditore nel giro di un minuto e tu le hai detto sì certo bambina mia quel tizio ti ama e lei non chiedeva altro dammi retta Morrison non dovresti andare in giro non accompagnato Morrison si agitò a disagio come sai tutte queste cose ero tra i sedili di quest'auto pronta a venire con voi e a controllare che ti portasse a destinazione e poi tu sei uscito con la tua trovata idiota non potevo far altro che afferrarti per impedire che ti colpissero con lo storditore e riportarti in camera lontano da occhi indiscreti per cercare di prendere in qualche modo lo storditore grazie figurati e ho fatto in modo che sembrino una coppia di innamorati se dovesse entrare qualcuno chiede la scusa e se ne andrà in fretta e noi guadagneremo tempo quanto ci vorrà per chi riprendano i sensi non lo so dipende dalla precisione della mira e dalle condizioni mentali in cui erano e da chissà che altro ma quando si sveglieranno impiegheranno un po' di tempo per ricordare cosa è successo data la loro situazione io spero che per prima cosa si ricordino di essere innamorati così saranno impegnati per un po' poi quando si riprenderanno del tutto e si ricorderanno di te e dell'operazione in corso con Mosca sarà troppo tardi subiranno delle lesioni permanenti la paleron lanciò un'occhiata alla faccia serie di Morrison sei preoccupato per loro eh perché cosa rappresentano per te beh sono dei compagni di viaggio la paleron fece un verso poco elegante immagino che si ristabiliranno alla perfezione magari una smussatura agli angoli più suscettibili e critici gli farebbe bene potranno mettersi insieme e formeranno una bella famiglia e a te cosa accadrà faresti meglio a salire anche tu sull'aereo non essere stupido gli svedesi non mi prenderanno mai a bordo hanno l'ordine di imbarcare un tizio e controlleranno che sia tu la persona giusta avranno le tue impronte digitali o lo schema eritinico forniti dagli archivi della commissione della popolazione se prendessero la persona sbagliata o una persona in più ci sarebbe un nuovo incidente e gli svedesi sono troppo furbi per cascarci ma allora a te cosa succederà? beh per prima cosa dirò che ti sei impossessato dello storditore e hai steso quei due poi me l'hai puntato addosso e ti sei fatto portare all'aeroporto perché non conoscevi la posizione mi hai ordinato di fermarmi all'esterno mi hai colpita e hai buttato lo storditore in macchina domani mattina presto tornerò a Malenkigrad fingendo di cominciare a smaltire gli effetti di uno stordimento ma Konef e Lacalini ne smentiranno la tua versione non stavano guardando me quando sono stati colpiti e in ogni caso quasi nessuno ricorda il momento dello stordimento inoltre il governo sovietico sa che ha ordinato la tua partenza e se sarai partito Konef potrà dire quel che vuole ma non gli servirà a nulla il governo accetterà il fatto compiuto scommetto 100 rubli contro 100 copechi o meglio 100 dollari contro 100 copechi che preferiranno dimenticare tutta la faccenda e io tornerò a fare la cameriera ci saranno sicuramente dei sospetti su di te in tal caso vedremo disse la Paleron sarà quel che sarà sorrise debolmente continuarono a viaggiare lungo la strada e a un certo punto Morrison disse timidamente non dovremmo accelerare un po' nemmeno di un chilometro all'ora rispose decisa la Paleron siamo giusto al di sotto del limite di velocità e i sovietici controllano col radar ogni centimetro di questa strada non hanno senso dell'umorismo quando si tratta del limite di velocità e per arrivare all'aeroporto un quarto d'ora prima non intendo passare delle ore a dare spiegazioni in un posto di polizia era mezzogiorno passato e Morrison cominciava ad avvertire i deboli morsi premonitori della fame secondo te cosa ha detto Conef a Mosca sul mio conto la Paleron scosse la testa non lo so qualsiasi cosa fosse ha ricevuto una risposta sulla sua lunghezza d'onda personale il segnale è arrivato una ventina di minuti fa non hai sentito no non dureresti a lungo se facessi il mio mestiere naturalmente Conef non ha risposto quindi i contatti di Conef a Mosca cercheranno di scoprire il perché troveranno quei due e qualcuno ci darà la caccia per vedere se è possibile bloccarti come i carri del faraone non abbiamo un museo ad aprirci il Mar Rosso mormoro Morrison se arriviamo all'aeroporto avremo gli svedesi non ti cederanno a nessuno cosa posso fare contro i militari sovietici non saranno i militari sovietici sarà qualche funzionario legato a un gruppo scissionista estremista a cercare di ingannare gli svedesi ma abbiamo dei documenti ufficiali che ti affidano a loro e gli svedesi non abboccheranno basta arrivare per primi e secondo te non dovremmo andare più forte la Paleron scossa la testa con decisione mezz'ora più tardi la Paleron indicò e disse ecco siamo arrivati e siamo fortunati l'aereo svedese è già atterrato arrestò la berlina premette un pulsante e la portiera sul lato di Morrison si aprì vai da solo non voglio farmi vedere ma ascolta si chinò verso di lui mi chiamo Ashby quando sarai a Washington digli che se credono che per me sia ora di rientrare sono pronta capito capito Morrison smontò dall'auto battendo le palpebre nel chiarore del sole in lontananza un uomo in divisa non una divisa sovietica per quel che poteva vedere Morrison chi fece cenno di avanzare Morrison partì di corsa non c'erano limiti di velocità per chi correva a piedi e anche se alle spalle non vedeva inseguitori si aspettava quasi di vedere sbucare dal terreno qualcuno intenzionato a fermarlo si girò agitò la mano un'ultima volta in direzione dell'auto gli sembrò di cogliere un gesto di saluto e continuò a correre l'uomo che gli aveva rivolto un cenno avanzò prima camminando poi correndo e lo sorresse mentre lui per poco non ruzzolava in avanti Morrison adesso notò che indossava un uniforme della federazione europea potete dirmi il vostro nome per favore? chiese l'uomo in inglese il suo accento con enorme sollievo di Morrison era svidese Albert John Morrison rispose Morrison e insieme si incamminarono verso l'aereo insieme al gruppetto di persone incaricate di controllare l'identità del passeggero Morrison siedeva accanto al finestrino dell'aereo teso ed esausto fissando dall'alto la terra che scivolava a est un pranzo a base di aringhe e patate lesse aveva calmato lo stomaco ma per la mente il discorso era ben diverso il viaggio miniaturizzato nel flusso sanguigno e nel cervello avvenuto il giorno prima solo ieri aveva deformato i suoi processi mentali in maniera tale da fargli provare una continua apprensione il timore costante di una sciagura imminente un giorno sarebbe riuscito ad accettare ancora l'universo come un'entità amica sarebbe riuscito a muoversi nell'universo con la serena consapevolezza che nulla e nessuno gli era ostile o semplicemente non aveva avuto abbastanza tempo per riprendersi eh certo il buonsenso gli diceva che aveva ragione a non sentirsi ancora completamente al sicuro sotto l'aereo c'era ancora territorio sovietico l'alleato moscovita di konef chiunque fosse avrebbe fatto in tempo a inviare degli aerei all'inseguimento degli svedesi era un alleato abbastanza potente da farlo ebbe un tuffo al cuore quando vide proprio un aereo in lontananza poi un altro si girò verso la hostess che sedeva di fianco a lui dalla parte opposta del corridoio non fu necessario formulare la domanda evidentemente la hostess aveva decifrato esattamente la sua espressione ansiosa aerei della federazione spiegò come scorta abbiamo lasciato il territorio sovietico gli aerei hanno equipaggi svedesi poi quando sorvolarono la manica degli aerei americani si unirono alla scorta Morrison era al sicuro dai carri in ogni caso ma la mente non gli concedeva tregua missili qualcuno avrebbe addirittura commesso un atto di guerra cercò di calmarsi sicuramente nessuno in unione sovietica neppure il presidente avrebbe potuto compiere una mossa del genere senza una consultazione e una consultazione avrebbe richiesto come minimo delle ore o forse giorni era un'ipotesi da scartare eppure solo quando l'aereo atterrò nei soborghi di Washington Morrison riuscì a rendersi conto che era finita che era tornato sano e salvo nel suo paese era sabato mattina e Morrison stava rimettendosi in sesto aveva provveduto ai bisogni materiali aveva fatto colazione e si era lavato si era anche parzialmente vestito ora era steso sul letto le braccia dietro la testa fuori il tempo era nuvoloso e lui aveva lasciato a metà il livello di trasparenza della finestra perché voleva un po' di intimità dopo essere sbarcato dall'aereo ed essere stato condotto con la massima celerità nel suo nascondigio attuale per diverse ore era stato oggetto di tante attenzioni ufficiali che si era chiesto se negli Stati Uniti stesse davvero meglio che in Unione Sovietica i dottori finalmente avevano terminato i loro esami le domande iniziali erano state fatte e avevano ottenuto risposta anche durante la cena e infine Morrison aveva potuto dormire in una stanza che si trovava all'interno di qualcosa che assomigliava a una fortezza visti gli apparati di sicurezza di cui disponeva beh almeno non doveva affrontare la miniaturizzazione c'era sempre questo pensiero a consolarlo la spia luminosa della porta lampeggiò e Morrison alzò una mano cercando sulla tastiera il pulsante che avrebbe reso trasparente il riquadro visivo monodirezionale della porta riconobbe la faccia e premette un altro pulsante che consentiva alla porta di essere aperta all'esterno entrarono due uomini quello dalla faccia familiare apparsa nel riquadro visivo disse vi ricordate di me spero Morrison non accennò ad alzarsi dal letto era il centro attorno a cui tutto ruotava almeno per il momento e lui ne avrebbe approfittato si limitò ad alzare il braccio in un saluto distratto e disse siete la gente che voleva che andassi in unione sovietica rodano giusto francis rodano sì e questo è il professor robert g freyer lo conoscete immagino ma reso ne esito poi la cortesia lo indusse a sporgere i piedi dal letto e ad alzarsi salve professore so chi siete certo e vi ho visto spesso in olovisione sono felice di conoscervi personalmente freyer uno degli scienziati visibili che grazie alle fotografie e alle apparizioni olovisive era un personaggio noto in gran parte del mondo fece un sorriso forzato aveva una faccia rotonda occhio azzurro chiaro una grinza verticale che sembrava permanente tra le sopracciglia gota e rubiconde un corpo robusto di statura media e il vizio di guardarsi attorno il requieto disse voi immagino siete albert jonas morrison esatto il signor rodano garantirà per me prego sedetevi e scusate se continuo a rilassarmi sul letto ho circa un anno di relax da recuperare i due visitatori si accomodarono su un grande divano e si sporsero verso morrison rodano abbozzò un sorriso incerto non posso permettermi molto relax dottor morrison almeno per un po' a proposito abbiamo appena ricevuto un messaggio da l'ashby vi ricordate di lei? la cameriera che ha capovolto la situazione sì certo senza di lei conosciamo gli elementi essenziali dell'episodio morrison vuole che sappiate che i vostri due amici si sono ripresi e a quanto pare vanno ancora d'amore d'accordo e la ashby mi ha detto che era pronta ad andarsene se washington l'avesse ritenuto opportuno l'ho riferito alla notte scorsa si la tireremo fuori in un modo o nell'altro e adesso temo che dobbiamo importunarvi ancora morrison corrugò la fronte quanto durerà questa volta? non lo so dovete adattarvi professor fryer volete procedere? fryer rannui dottor morrison vi spiace se prendo appunti eh no permettetemi di riformulare la frase prenderò appunti morrison estrasse una piccola tastiera di computer un modello avanzato dalla sua valigetta rodano chiese pacato dove finiranno gli appunti professore? nel mio congegno di registrazione signor rodano che è dove professore? nel mio ufficio alla difesa poi leggermente irritato dallo sguardo fisso dell'altro fryer raggiunse nella cassaforte del mio ufficio alla difesa e sia la cassaforte che il congegno di registrazione sono protetti da codici sicuri soddisfatto? procedete professore fryer si rivolse a morrison è vero che siete stato miniaturizzato marrison voi personalmente si a livello più piccolo avevo le dimensioni di un atomo ed ero a bordo di uno scafo che aveva le dimensioni di una molecola di glucosio ho trascorso una dozzina di ore all'interno di un corpo umano vivo prima nel flusso sanguigno poi nel cervello ed è vero nessuna possibilità che si sia trattato di un'illusione o di un inganno vi prego professore se fossi stato ingannato e ipnotizzato adesso la mia testimonianza sarebbe priva di valore non possiamo andare avanti se non riconoscete il fatto che sono sano di mente e sono in grado di fornire un resoconto dei fatti che corrisponde ragionevolmente alla realtà fryer si arrò le labbra poi disse avete ragione dobbiamo partire da dei presupposti e io supporrò che siate sano di mente e affidabile ipotesi soggette a essere eventualmente riviste ovvio certo disse morrison in tal caso fryer si rivolse a rodano iniziamo con una grande e importante osservazione la miniaturizzazione è possibile e i sovietici ne sono in possesso e la usano e possono miniaturizzare persino degli esseri umani senza alcuna conseguenza dannosa apparente torno a rivolgersi a morrison presumibilmente i sovietici sostengono di miniaturizzare riducendo l'entità della costante di planck si naturale non esiste altro metodo concepibile per farlo vi hanno spiegato il procedimento mediante il quale ottengono tale risultato certo che no gli scienziati sovietici con cui sono stato in contatto considerate anche questo presupposto non sarebbero mai senti da rivelare informazioni che vogliono tenerci nascoste benissimo aggiungiamo anche questo presupposto ora raccontateci esattamente cosa vi è successo in unione sovietica non vogliamo un resoconto di carattere avventuroso ma solo le osservazioni professionali di un fisico Morrison cominciò a parlare in fondo non gli dispiaceva del tutto voleva esorcizzare quella storia e non voleva essere l'unico americano a sapere quello che sapeva era una responsabilità eccessiva raccontò tutto in maniera dettagliata e ci volero ore terminò solo quando stavano consumando un pasto servito in camera al dessert Fryer disse allora proverò a riassumere nel miglior modo possibile andando a memoria innanzitutto la miniaturizzazione non influisce sul flusso temporale né sulle interazioni dei quanti vale a dire le interazioni elettromagnetiche deboli e forti l'interazione gravitazionale viene influenzata invece e diminuisce proporzionalmente alla massa come è naturale giusto? Morrison a noi Fryer continuò la luce e la radiazione elettromagnetica in generale può entrare nel campo miniaturizzante e uscirne ma il suono no la materia normale viene debolmente respinta dal campo miniaturizzante ma sotto pressione la materia normale può essere fatta entrare nel campo e miniaturizzarsi a sua volta assorbendo energia dal campo Morrison a noi ancora più un oggetto è miniaturizzato minore è l'energia necessaria per miniaturizzarlo ulteriormente sapete se l'energia necessaria diminuisca proporzionalmente alla massa rimasta a qualche livello specifico di miniaturizzazione? sembrerebbe logico rispose Morrison ma non mi pare che qualcuno abbia accennato alla natura quantitativa di questo fenomeno proseguiamo allora più un oggetto è miniaturizzato più è probabile che si deminiaturizzi spontaneamente e questo si riferisce all'intera massa all'interno del campo piuttosto che agli elementi che la compongono voi come individuo separato eravate più soggetto alla deminiaturizzazione spontanea che come parte della nave giusto? a quanto ho capito io e i vostri compagni sovietici hanno ammesso che è impossibile massimizzare e rendere le cose più massicce di quelle che sono in natura vi ripeto a quanto ho capito io sì rendetevi conto professore che posso solo ripetere quanto mi è stato detto può darsi che mi abbiano forviato apposta o può darsi che si siano sbagliati loro stessi non possedendo dati sufficienti sì sì capisco avete motivo di credere che vi stessero forviando deliberatamente no mi sono sembrati sinceri beh forse ora la cosa più interessante a mio avviso è che il moto browniano era in equilibrio con l'oscillazione della miniaturizzazione e che aumentando il livello di miniaturizzazione l'equilibrio si spostava sempre più dal moto browniano normale tendendo all'oscillazione questa è una mia osservazione diretta professore e non si basa soltanto su quel che mi hanno detto e questo spostamento di equilibrio è legato in qualche modo al grado di miniaturizzazione spontanea e questo è quel che penso io non posso affermare che sia un dato di fatto sorseggiò pensoso il caffè e disse il guaio è che sono tutte cose superficiali ci illustrano il comportamento del campo di miniaturizzazione ma non ci dicono come venga prodotto il campo e diminuendo il valore della costante di Planck lasciano inalterata la velocità della luce vero sì ma come ho sottolineato questo significa che mantenere il campo miniaturizzante è molto dispendioso dal punto di vista energetico se riuscissero a collegare la costante di Planck alla velocità della luce aumentando quest'ultima nel ridurre la prima ma non ci sono ancora riusciti così dicono la soluzione era nella mente di Shapirov si suppone ma non siete stati in grado di trovarla esatto friar meditò per qualche minuto poi scossa la testa esamineremo tutto quello che avete detto e ne dedurremo il più possibile ma temo che non ci ricaveremo nulla perché no chiesa il movimento degli arti e della testa il suono della voce il modo di eseguire gli ordini e via dicendo ma come funzioni una linea positronica o cosa sia una valvola molecolare non saprebbe nemmeno dell'esistenza di queste due cose e non lo saprebbero gli scienziati che dovessero basarsi sulle sue osservazioni per lavorare i sovietici dispongono di una tecnica per produrre il campo e noi non sappiamo nulla di questa tecnica e quello che Morrison è in grado di dirci non ci aiuta potrebbero avere pubblicato del materiale che ha portato a tale risultato senza sapere che c'era qualcosa di cruciale e quel che è successo verso la metà del ventesimo secolo quando gli studi iniziali sulla fissione nucleare vennero resi pubblici prima che si capisse che sarebbero dovuti rimanere segreti i sovietici non hanno commesso questo errore con la miniaturizzazione comunque e noi non siamo riusciti a raccogliere informazioni in merito né attraverso lo spionaggio né attraverso la fortunata defezione di qualche loro elemento chiave passato dalla nostra parte consulterò i miei colleghi del ministero ma nel complesso dottor Morrison temo che la vostra avventura in unione sovietica per quanto coraggiosa e lodevole a parte la vostra conferma che la miniaturizzazione esiste sia stata inutile mi spiace signor Rodano ma è come se non fosse successo nulla l'espressione di Morrison non cambiò mentre Freyar esponeva la sua conclusione si versò ancora un po' di caffè aggiunse un po' di latte e beve senza fretta poi disse vi sbagliate di grosso sapete Freyar Freyar alzò lo sguardo state cercando di dire che sapete qualcosa a proposito della realizzazione del campo avevate detto che quello che sto per dire Freyar non ha niente a che vedere con la miniaturizzazione riguarda invece il mio lavoro i sovietici mi hanno portato a Malenkigrad e alla grotta perché usassi il mio programma per leggere la mente di Shapirov non è stato possibile il che forse non deve stupirci dato che Shapirov era in coma e prossimo alla morte d'altro canto Shapirov che aveva una mente molto acuta dopo aver letto alcuni dei miei studi aveva definito il mio programma un ritrasmettitore infatti si è rivelato proprio questo un ritrasmettitore la faccia di Freyar assunse un'espressione perplessa e disgustata cosa significa? invece di captare i pensieri di Shapirov il mio computer programmato all'interno di un neurone di Shapirov ha agito da ripetitore passando i pensieri da un membro dell'equipaggio all'altro l'espressione di Freyar divenne indignata intendete dire che era un congegno telepatico? esattamente la prima volta che è successo ho provato un forte sentimento d'amore e di desiderio sessuale per una donna che era a bordo della nave miniaturizzata con me naturalmente ho creduto che si trattasse di un sentimento mio dato che era una donna molto attraente tuttavia consciamente non provavo nulla del genere solo dopo parecchi altri episodi simili mi sono reso conto che stavo ricevendo i pensieri di un uomo che era a bordo della nave lui e la donna si erano separati però la passione tra loro era ancora viva Freyar sorrise tollerante a bordo della nave eravate in condizioni tali da interpretare correttamente quei pensieri ne siete sicuro? dopo tutto la tensione per voi era notevole avete ricevuto pensieri di questo tipo anche dalla donna? no tra me e l'uomo c'era stato uno scambio involontario di pensieri in numerose occasioni quando ho pensato a mia moglie e alle mie figlie lui ha pensato a una donna con due bambini quando ero disperso nel flusso sanguigno è stato lui a captare il mio senso di panico pensava di avere captato la sofferenza di Shapirov tramite la mia macchina che era rimasta in mano mia mentre andavo alla deriva ma quelle erano emozioni mie non di Shapirov non c'è stato scambio di pensieri tra me e le due donne a bordo però c'è stato tra loro quando hanno cercato di cogliere i pensieri di Shapirov hanno captato parole sensazioni che l'uomo e io non abbiamo captato erano parole sensazioni che le donne si scambiavano a vicenda naturalmente una differenza sessuale fece Fryer scettico non proprio il pilota della nave un altro uomo non ha ricevuto nulla né dalle donne né dagli altri uomini anche se una volta apparentemente ha percepito un pensiero non so da chi provenisse a mio avviso come esistono dei gruppi sanguigni esistono anche dei gruppi cerebrali probabilmente non molti e tra individui dello stesso gruppo la comunicazione telepatica è più facile Rodano intervenne sottovoce anche se è tutto come dite dottor Morrison qual è la conclusione Morrison disse lasciate che vi spieghi ho lavorato lunghi anni per identificare le zone e le strutture del pensiero astratto nel cervello umano senza ottenere risultati clamorosi di tanto in tanto coglievo un'immagine ma non le ho mai interpretate correttamente pensavo che provenissero dal cervello dell'animale che stavo studiando ma adesso ho il sospetto di averle ricevute quando ero abbastanza vicino a qualche essere umano in preda a un forte stato emotivo o a intensa concentrazione non l'ho mai notato colpa mia comunque essendo stato ferito dall'indifferenza generale e dall'incredulità e dallo scherno dei miei colleghi non ho mai reso pubblico il particolare della ricezione di immagini ma ho modificato il mio programma nel tentativo di intensificarla anche alcune di queste modifiche non sono mai state divulgate così sono entrato nel flusso sanguigno di Shapirov con un congegno che poteva fungere senz'altro da ripetitore telepatico e adesso che finalmente la mia testa ottusa si è resa conto di quel che ho in mano so cosa fare per perfezionare il programma ne sono sicuro Friar disse vediamo se ho capito Morrison state dicendo che in seguito al vostro viaggio nel corpo di Shapirov adesso siete certo di poter modificare il vostro congegno in modo tale da trasformare la telepatia in una realtà pratica pratica entro certi limiti e sì sarebbe una cosa eccezionale se foste in grado di dimostrarla il tono di Friar era ancora scettico forse più eccezionale di quel che credete disse Morrison con una certa asprezza sapete naturalmente che i telescopi sia quelli ottici sia quelli radiotelescopici possono essere costruiti in parti separate su un'ampia area e una volta coordinati da un computer possono svolgere la funzione di un unico grande telescopio un telescopio che sarebbe impossibile costruire singolarmente date le dimensioni sì ma questo che c'entra è un'analogia sono convinto di poter dimostrare qualcosa del genere a proposito del cervello se unissimo sei uomini telepaticamente i sei cervelli si comporterebbero come un unico grande cervello e avrebbero un'intelligenza e una capacità di approfondimento sovrumana pensate ai progressi possibili nella scienza nella tecnologia e in altri campi creeremmo un super uomo mentale evitando la noia dell'evoluzione fisica e i pericoli dell'ingegneria genetica interessante è vero osservò Fryer evidentemente affascinato ma per nulla convinto c'è un problema però disse Morrison io ho eseguito tutti i miei esperimenti su degli animali tramite dei cavi che andavano dal computer al cervello mi rendo conto che era un metodo tutt'altro che preciso per quanto possiamo perfezionarlo così avremo solo un sistema telepatico primitivo bisogna penetrare in un cervello e piazzare un computer miniaturizzato e adeguatamente programmato in un neurone dove potrà fungere da ripetitore il processo telepatico verrà intensificato enormemente è il poveretto che sottoporrete a questo trattamento disse Fryer alla fine esploderà quando si diminiaturizzerà il congegno un cervello animale molto inferiore al cervello umano spiegò Morrison perché il cervello animale ha meno neuroni disposti in modo meno complesso un singolo neurone del cervello di un coniglio comunque non dovrebbe essere molto inferiore a un neurone umano si potrebbe usare un robot come ripetitore Rodano disse dei cervelli americani lavorando collegati in gruppo potrebbero allora scoprire il segreto della miniaturizzazione e forse battere addirittura i sovietici riuscendo a unire la costante di Planck alla velocità della luce sì disse Morrison entusiasta e uno scienziato sovietico Yuri Konev che era il compagno di viaggio con cui ho avuto lo scambio di pensieri l'ha capito come l'ho capito io è per questo che ha cercato di trattenere me e il mio programma in spregio agli ordini del suo governo senza me il programma non credo che riuscirà a ottenere i miei risultati se non tra parecchio tempo forse parecchi anni non è il suo campo specifico continuate disse Rodano questo storio comincia a piacermi Morrison disse la situazione è questa ora come ora abbiamo una specie di telepatia rudimentale anche senza miniaturizzazione può darsi che ci aiuti a restare in testa rispetto ai sovietici ma può darsi di no senza miniaturizzazione senza l'installazione di un computer adeguatamente programmato in un neurone animale come ripetitore non abbiamo la certezza di ottenere nulla i sovietici d'altro canto dispongono di una forma rudimentale di miniaturizzazione continuando i loro studi può darsi che trovino il modo di collegare la teoria dei quanti alla teoria della relatività ottenendo un tipo di miniaturizzazione ad alto rendimento però potrebbe passare parecchio tempo prima che ci riescano quindi se noi abbiamo la telepatia ma non la miniaturizzazione e se loro hanno la miniaturizzazione ma non la telepatia può darsi che a lungo andare vinciamo noi o che vincano loro la nazione che vincerà disporrà in un certo senso di una velocità illimitata e l'universo sarà suo la nazione perdente avvizzerà o almeno le sue istituzioni avvizzeranno sarebbe bello per noi vincere la gara ma può darsi che a vincere siano loro e questa lotta per il primato potrebbe interrompere un lungo periodo di pace precaria e scatenare un conflitto catastrofico d'altro canto se noi i sovietici saremo disposti a lavorare insieme e a usare la telepatia ad alto rendimento consentita da un ritrasmettitore miniaturizzato all'interno di un neurone potremo ottenere insieme e in brevissimo tempo una cosa equivalente all'antigravità alla velocità infinita l'universo apparterà allora agli stati uniti e all'unione sovietica anzi a tutto il globo alla terra all'umanità perché no signori nessuno perderebbe tutti ci guadagnerebbero Freyar e Rodano lo fissarono meravigliati Freyar infine diglutì e disse senza dubbio ho un'ottima prospettiva se avete davvero la telepatia avete tempo per ascoltare la mia spiegazione tutto il tempo che volete rispose Freyar Morrison impiegò alcune ore per spiegare in modo dettagliato le sue teorie poi si rilassò sul letto e disse è quasi ora di cena ora so che voi e anche altri vorrete interrogarmi e vorrete che mi metta al lavoro per dimostrare la fattibilità della telepatia e so che questo mi terrà impegnato per beh per il resto della mia vita magari adesso però mi occorre una cosa cioè chiese Rodano un po' di tempo libero come inizio è stata un'esperienza dura datemi 24 ore da adesso fino a domani alla stessa ora lasciatemi leggere mangiare pensare e riposare solo un giorno se non vi dispiace poi sarò a vostra disposizione richiesta ragionevole disse Rodano alzandosi farò in modo di esaudirla e credo di poterlo fare le 24 ore sono vostre godetevele il più possibile anch'io credo che in seguito non avrete molto tempo da dedicare a voi stesso e da questo momento per un bel pezzo rassegnatevi a essere la personalità più sorvegliata d'America senza escludere il presidente bene disse Morrison adesso ordinerò la cena Rodano e Fryer avevano finito di cenare era stato un pasto insolitamente silenzioso in una stanza isolata e sorvegliata Rodano disse dottor Fryer pensate che Morrison abbia ragione a proposito di questa storia della telepatia Fryer sospirò e disse cauto dovrò consultare alcuni miei colleghi più informati di me sul cervello ma sento che ha ragione è molto convincente adesso vorrei farvi una domanda sì pensate che Morrison abbia ragione circa la necessità di cooperazione tra Stati Uniti e Unione Sovietica ci fu una lunga pausa infine Rodano rispose sì credo che abbia ragione anche su questo certo ci saranno grida e proteste da tutte le direzioni ma non possiamo rischiare che i sovietici arrivino primi al traguardo lo capiranno tutti dovranno capirlo ma i sovietici lo capiranno anche loro dovranno anche loro non possono rischiare che arriviamo a premi noi e poi il resto del mondo indubbiamente subodorirà qualcosa e vorrà partecipare direttamente e intervenire in modo che non inizi una nuova guerra fredda forse ci vorrà qualche anno ma alla fine collaboreremo Rodano scosse la testa e soggiunse ma sapete che cos'è che mi sembra davvero strano professore in questa storia non c'è nulla che non sia strano direi certo però quello che mi sembra più strano è questo ho conosciuto Morrison domenica scorsa nel pomeriggio per spingerlo ad andare in unione sovietica poi sono rimasto di stucco mi è sembrato un uomo senza fegato una nullità un tipo noioso passivo nemmeno tanto intelligente se non in senso accademico non mi è sembrato che si potesse fare affidamento su di lui perché tanto uno così non avrebbe combinato nulla lo stavo semplicemente mandando incontro alla morte è questo che ho pensato e il giorno dopo l'ho detto a un mio collega e accidenti lo penso ancora è una nullità ed è un miracolo che si è sopravvissuto e questo solo grazie ad altri eppure 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 è tornato con una scoperta scientifica incredibile e ha avviato un processo per cui gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica saranno costretti a cooperare e come se non bastasse si è trasformato nello scienziato più importante e anche più famoso non appena renderemo pubblici questi fatti del mondo forse di tutti i tempi in questo senso ha distrutto il sistema politico del mondo e ne ha costruito uno nuovo o almeno ha avviato il processo costruttivo di un nuovo sistema e ha fatto tutto questo tra il pomeriggio della scorsa domenica e il pomeriggio di oggi sabato lo ha fatto in sei giorni non so perché ma è un pensiero che spaventa Friar si appoggiò allo schienale della sedia e rise è più spaventoso di quel che pensate intende riposare il settimo giorno